mister verloc assentandosi nella mattinata affidava nominalmente la bottega al cognato se lo poteva permettere essendoci a qualsiasi ora così poco da fare niente da fare praticamente prima di sera e le sue faccende note al pubblico mister verloc si interessava ben poco e per di più il cognato era affidato alle cure di sua moglie la bottega era piccola e piccola la casa una di quelle piccole case di mattoni come ne esistevano in gran numero prima che l'era della ricostruzione albeggiasse su londra la bottega era una specie di scatola lunga quanto larga con una vetrina a piccoli riquadri la porta non si apriva mai in tutto il giorno restava semi aperta la sera con aria discreta e sospettosa nella vetrina faceva una bella mostra di sé fotografia di ballerine più o meno svestite involuqui dal contenuto indefinibile come le specialità farmaceutiche col prezzo due sciolini e sei pens segnato sopra in grosse cifre nere qualche numero di vecchie pubblicazioni umoristiche francesi appese a uno spago come se stessero lì ad asciugarsi un vaso di porcellana azzurro cupo un cofanetto di legno nero bottigliette di incostro copiativo e timbri da bollo qualche libro col titolo di sapore leggermente pornografico alcune copie d'oscuri giornali d'aspetto antiquato stampati male dal nome eccitante la fiaccola il gong e così via le due fiammelle di gas che illuminavano l'interno della vetrina erano sempre alquanto smorzate sia per amore dell'economia sia per un riguardo ai clienti alcuni dei quali erano uomini giovanissimi che rimanevano un pezzo a gironzare su e giù davanti alla bottega prima di scivolarvi dentro con mossa rapida e subitanea altri d'età più matura avevano in genere l'aria di gente squattrinata appartenevano a quest'ultima categoria certi tipico il bavero del cappotto rialzato fino agli orecchi e i pantaloni roba andante e consumta dall'uso schizzati di fango neppure le gambe infilate nei suddetti pantaloni avevano l'aria di valere molto di più con le mani sprofondate nelle tasche quegli individui entravano di striscio e di sbieco prima una spalla e poi l'altra quasi per paura di dare il via al capannello fissato nel muro al di sopra della porta per mezzo di una molla a spirale metallica quel campanello non si lasciava facilmente a girare era fesso senza rimedio immancabilmente ogni sera bastava la minima provocazione per chi cominciasse a strepitare con imprudenza maligna alle spalle del cliente strepitava e quel segnale attraverso la porta vetri sempre polverosa che si apriva dietro il banco di legno verniciato mister verlo che si precipitava in bottega dall'attivo salotto aveva per natura gli occhi assonnoliti e il suo aspetto era quello di uno che sia stato tutto il giorno a voltolarsi completamente vestito sopra un letto disfatto al suo posto un altro avrebbe sentito quanto poco doveva giovar di una simile maniera di presentarsi nel commercio al minuto molto dipende dall'apparenza amabile e attraente del venditore mister verlo d'altra parte sapeva quel che faceva e mai dubbio di qualsiasi genere sull'estetica della propria persona era venuto a turbargli il sonno con una sfrontatezza quasi impassibile e sicura di sé che pareva tener lontana la minaccia di qualche tremendo pericolo cominciava con l'offrire al cliente di sopra il banco un oggetto che nella maniera più evidente e scandalosa non valeva il prezzo richiesto una scatoletta di cartone per esempio che aveva tutta l'aria ad essere vuota oppure una di quelle esili buste gialle accuratamente chiuse o un volume poco pulito dalla copertina di carta comune e il titolo promettente di quando in quando accadeva anche di vedere a qualche amateur una ballerina sbiadita ingiallita quasi fosse stata viva e giovane era talvolta la signora verlo che si presentava all'appello della sua campana fessa quindi verlo che era una giovane donna dal seno colmo nel corpetto attillato larga di fianchi coi capelli in ordine perfetto aveva lo stesso sguardo fermo del marito e conservava sempre quella sua aria di impenetrabile indifferenza dietro la barriera del banco allora il cliente di relativamente tenera età rimaneva ad un tratto sconcertato vedendo che era una donna quella con cui avrebbe dovuto trattare l'acquisto con rabbia in cuore chiedeva allora timidamente una boccetta di inchiostro copiativo una di quelle più piccole a sei pence prezzo che veniva senz'altro triplicato nella bottega di verlo che poi appena uscito di bottega la lasciava cadere di nascosto nel rigagnolo della strada i visitatori serali i uomini dal bavero rialzato e l'attesa floscia del cappello abbassata facevano alla signora verlo con cenno familiare col capo borbottando una parola di saluto sollevavano il divisorio all'estremità del banco allo scopo di passare nel salotto attiguo che dava accesso a un andito e a una ripida rampa di scale la porta della bottega era infatti l'unico ingresso alla casa dove mister verlo che faceva i suoi affari trafficando in articoli misteriosi si dedicava alla sua vocazione di protettore della società e coltivava le virtù domestiche queste ultime erano assai accentuate in lui animale essenzialmente domestico nessuna delle sue esigenze spirituali mentali o fisiche era di natura tale da tenerlo a lungo lontano dal proprio tetto in casa sua egli trovava il benessere del corpo e la pace della coscienza insieme alle premure coniugali della signora verloc e alla riguardosa deferenza della madre della signora verloc la madre di winnie era un donnone che soffriva d'asma aveva la faccia larga e abbronzata e portava una parrucca nera sotto una cuffia bianca le sue gambe gonfie la condannavano all'inerzia si riteneva di origine francese ciò che non era impossibile dopo parecchi anni di vita matrimoniale con un fornitore autorizzato di generi alimentari della qualità più andante aveva provveduto a se stessa per il periodo della vedovanza subaffittando camere immobiliate per signori soli nei pressi della vux hall bridge road in una piazza che aveva un tempo una certa aria aristocratica ed era ancora compresa nella circoscrizione di beigravia in particolare topografico era stato assai vantaggioso per l'annunzio pubblicitario delle sue stanze già nonostante gli ospiti della degna vedova non erano precisamente persone del gran mondo chiunque fossero winnie la sua figliuola si prestava volentieri a servirli in lei pure apparivano evidenti le tracce di quell'origine francese a cui la vedova teneva tanto specie nel modo artistico ed estremamente accurato di pettinare i capelli neri e lucidi winnie poi aveva altre attrattive la giovinezza le forme piene e bentornite la carnagione chiara e quel suo riservo impenetrabile che riusciva provocante del resto giungeva mai al punto di impedirle di conversare con gli ospiti conversazioni animatissime da parte loro e condotte da parte sua con sempre uguale amabilità è da credere che mister verloc non fosse insensibile a quel genere di fascino ospite intermittente mister verloc andava e veniva senza motivi molto chiari per lo più arrivava a londra dal continente come l'influenza soltanto il suo arrivo non era preannunziato dalla stampa le sue visite erano caratterizzate da rigolose abitudini faceva la prima colazione a letto e rimaneva lì a voltolarsi fino alle 12 tutti i giorni e qualche volta anche di più con aria di pacifico godimento ma una volta fuori di casa pareva che non trovasse più la via del ritorno al suo focolare provvisorio nella piazza di beigravia usciva tardi e rincasava presto la mattina presto cioè verso le tre o le quattro svegliandosi poi circa le dieci rivolgeva a winnie che entrava in camera col vassoio della colazione qualche complimento scherzoso e stantio con la voce rauca e stanca dell'uomo che è stato a discutere con vehemenza per ore ed ore di seguito gli occhi prominenti dalle palpebre gonfie si giravano verso di lei con amoroso languore si tirava le coperte fino al mento e i baffi lisci e neri gli ricoprivano le grosse labbra capaci di stillare le più zuccherine facezie secondo la madre di winnie mister verlo che era un signore molto distinto l'esperienza della vita acquistata dalla brava donna in ogni sorta di affari le permetteva da quando si era messa a riposo di vagheggiare un certo ideale di signorilità e precisamente quello rappresentato dai frequentatori del separè nei locali pubblici mister verlo che si avvicinava a quell'ideale lo raggiungeva addirittura naturalmente mamma prenderemo i tuoi mobili aveva osservato winnie avrebbero lasciato la casa e il subaffitto sembrava che non rispondesse alle nuove esigenze troppo fastidio per mister verlo che e d'altra parte quella casa non era adatta per l'altro suo lavoro in che cosa consistesse quel lavoro non lo diceva tuttavia una volta fidanzato con winnie cominciò a prendersi il disturbo di alzarsi prima di mezzogiorno scendere nel sottosuolo e rendersi simpatico alla futura suocera intrattenendosi lì nel salotto da pranzo dove l'invalida era costretta a passare nell'immobilità tutta la sua giornata accarezzava il gatto attizzava il fuoco e lì si faceva servire la seconda colazione abbandonava poi non senza evidente riluttanza quell'intimità leggermente soffocante ma non di meno restava fuori sino a tarda notte né c'era pericolo che offrisse a winnie di condurla a teatro come un signore distinto si sarebbe creduto in dovere di fare non era mai libero la sera lavoro di carattere politico disse a winnie una volta e lei avrebbe dovuto mostrarsi così l'aveva monita molto gentile verso i suoi amici politici col suo sguardo rigido e impenetrabile winnie gli aveva risposto che sarebbe stato obbedito senza dubbio quanto egli le avesse rivelato circa le proprie occupazioni la madre di lei non riuscì mai a scoprire andò ad abitare con gli sposi insieme ai mobili l'aspetto meschino della bottega la sorprese alquanto nel cambiamento dalla piazza di gravia una straducola del quartiere di so non giovò certamente alle sue gambe le quali divennero di proporzioni enormi si sentì d'altra parte completamente liberata da ogni preoccupazione materiale il carattere placido e ponderato del genero le ispirava un senso di assoluta tranquillità l'avvenire della figliuola era ormai assicurato indubbiamente e perfino riguardo al figlio stevi pareva che non dovesse esservi più ragione di stare in ansia era un peso terribile povero stevi queste verità lei non era riuscita a nasconderle nemmeno a se stessa ma per un riguardo all'affetto di winnie verso quel fratellino delicato e per la naturale inclinazione di mister verloc alla cortesia e alla generosità la madre intuiva che il povero ragazzo poteva considerarsi in salvo dalle asprezze della vita nel profondo del cuore forse non si rattristava poi tanto del fatto che i verloc non avessero bambini già che questa circostanza lasciava il genero perfettamente indifferente e quanto a winnie esso trovava nel fratello un oggetto d'affezione quasi materna forse era proprio quello che ci voleva per il povero stevi certo non era facile sistemarsi quel ragazzo delicato di salute poteva dirsi anche grazioso di una grazia fragile se non fosse stato per il labbro inferiore che gli ciondolava floscio sul mento grazie al nostro eccellente sistema di istruzione obbligatoria aveva imparato a leggere e a scrivere nonostante l'aspetto poco simpatico del labbro inferiore come galoppino invece non ottenne grandi successi dimenticava i messaggi che gli venivano affidati facilmente deviava dal sentiero dritto del dovere per il muto richiamo di cani e gatti vagabondi che gli si divertiva a seguire attraverso vicoli angusti fino all'interno di squalli di cortili oppure si fermava a contemplare a bocca aperta le commedie della strada a tutto danno degli interessi del suo principale ovvero i drammi dei cavalli caduti drammi equipato se la violenza gli strappavano talvolta strigli acuti in mezzo alla folla che si seccava moltissimo ad essere disturbata da quelle voci di sgomento proprio mentre si godeva placida il caratteristico spettacolo nazionale quando poi un poliziotto severo si faceva avanti come per proteggerlo e lo tracinava via spesso appariva chiaro che il povero stevi aveva dimenticato l'indirizzo almeno per un certo tempo una domanda in tono brusco provocava in lui una balbuzia improvvisa e seguitava a tartagliare fino alla soffocazione se davanti a una cosa qualunque provava perplessità o meraviglia cominciava a storcere gli occhi con una smorfia orribile non aveva mai però accessi di follia e questo perlomeno era incoraggiante anche davanti ai naturali scatti di collera di suo padre e gli aveva sempre potuto nei giorni dell'infanzia correre a rifugiarsi dietro le corte gonnelle della sua sorella winnie d'altra parte veniva fatto di sospettare si nascondesse in lui un fondo di insensata malvagità quando ebbe compiuto i 14 anni un amico del padre defunto rappresentante per una ditta estera di latte condensato gli aveva aperto una strada prendendolo con sé come ragazzo d'ufficio ma un nebbioso pomeriggio in cui il principale era assente lo sorpresero mentre accendeva fuochi d'artificio per le scale con gesto rapido passava il fiammifero dall'uno all'altro facendo esplodere una fila di razzi furiosi di girando le indiavolate di mortaretti rimbombanti la faccenda poteva volgere al disastro un tremendo panico si sparse in tutto il pensamento con gli occhi stravolti la gola strozzata i commessi fuggirono precipizio per i corridoi pieni di fumo cappelli a cilindro e vecchi uomini d'affari ruzzolavano per le scale indipendentemente gli uni dagli altri quanto a stevi pareva non ricavare nessuna personale soddisfazione da ciò che aveva fatto quali motivi lo avessero spinto a quel colpo di testa non fu facile scoprire solo più tardi winnie poté strappare al fratello una confessione confusa e nebulosa altri due ragazzi d'ufficio che lavoravano nello stesso casamento avevano a quanto pare citato la sua sensibilità con racconti di ingiustizia e di prepotenze tanto l'avevano commosso impietogito da spingerlo a quel punto di frenesia l'amico di suo padre naturalmente lo licenzò su due piedi come un individuo capace di mandarlo in rovina dopo questa clamorosa prova d'altruismo stevi fu relegato quale aiutante sguattero nella cucina sotterranea della casa di belgravia dove provvedeva anche a lustrare le scarpe dei signori pensionanti certo un tal genere di lavoro non gli apriva nessuna carriera i signori gli lasciavano cadere in mano uno scellino di quando in quando e fra tutti il più generoso era sempre mister verloc ma non bastava l'intera somma di quei regali a costituire un guadagno e nemmeno una prospettiva di guadagno quando dunque winnie annunziò il fidanziamento con mister verloc la madre non poteva fare a meno di domandarsi con un sospiro e un'occhiata pietosa in direzione del sottosuolo che ne sarebbe stato ora del povero stefano apparve chiaro però che mister verloc era pronto a prenderlo con sé insieme alla suocera e al mobilio ciò che costituiva l'intera proprietà della famiglia mister verloc era pronto ad accogliere fra le braccia sul suo petto largo e liberale tutto ciò che gli veniva incontro i mobili furono distribuiti meglio che si poteva fare fra le varie stanze ma la suocera venne confinata nelle due camere di dietro al primo piano in una delle due dormiva quel meschinello di stevi proprio in quel tempo una lieve sottile peluria quasi una nebbiolina d'oro aveva cominciato a velargli la linea dura della stretta macella inferiore sempre docile con amore cieco aiutava la sorella nelle faccende di casa mister verloc riteneva che non gli avrebbe fatto altro che bene occuparsi in qualche modo il tempo libero lo impiegava a disegnare circoli e circoli su un pezzo di carta con una matita e un compasso e si applicava con grande attenzione tutto curvo i gomiti distesi sulla tavola di cucina mentre la sorella winnie attraverso la porta aperta del salotto attivo alla bottega zettandogli un'occhiata di tanto in tanto lo vigilava materna capitolo secondo tali erano la casa la famiglia e gli affari che mister verloc si lasciò dietro le spalle alle ore dieci e mezzo di quella mattina dirigendosi verso ovest era eccezionalmente presto per lui tutta la sua persona esalava quasi una dolce freschezza di rugiada indossava quasi sbottonato il sopravvito di panno turchino luci delle scarpe e perfino le guance appena rase parevano verniciate di fresco persino gli occhi dalle palpebre pesanti rinfrescati da una nottata di placido sonne chiare lanciavano sguardi di una certa vivacità attraverso i cancelli del parco quegli sguardi seguirono uomini e donne che cavalcavano nel galoppatoio coppie al ritmo di un piccolo trotto altre che venivano avanti tranquillamente al passo gruppi di tre o quattro lenti con aria oziosa o solitaria cavalieri d'aspetto chiuso e selvatico con amazzoni solitarie seguite rispettose a distanza dal palafreniere con la coccarda sul cappello e la giacca aderente stretta alla vita da una cintura di cuoio le carrozze avanzavano solenni coupé a due cavalli per lo più e di tanto in tanto una vittoria dentro la quale si intravedevano la pelle di qualche bestia selvatica e un viso femminile e un cappello che emergevano di sopra al mantici abbassato glorificava tutto il quadro con la sua fissità abbagliante un caratteristico sole londinese un sole contro il quale nulla avreste potuto dire se non che sembrava iniettato di sangue sospeso a non altissima quota su hyde park corner vigilava con occhio attento e benevolo persino inselciato sotto i piedi di mister verloc pareva dipinto ad oro vecchio in quella luce diffusa dove non gettava filo d'ombra né albero né pietra né bestia né uomo attraverso questa città senza ombra entro questa atmosfera impolverata d'oro vecchio mister verloc procede sempre diretto verso ovest riflessi rossorame tremolavano sui tetti delle case agli angoli dei muri lungo i pannelli delle carrozze fino alle coperte dei cavalli e sul cappotto di mister verloc dove lungo l'ampia schiena producevano un malinconico effetto di ruggine egli però non era minimamente conscio ad essere arrugginito mentre accoglieva con uno sguardo d'approvazione le testimonianze dell'opulenza e del lusso cittadino che gli apparivano di là dai cancelli del parco tutta quella gente aveva bisogno d'essere protetta da che la protezione è cosa di prima necessità al lusso e all'opulenza i loro cavalli e le carrozze le case i servitori tutto chiedeva protezione protezione esigevano le risorse della loro ricchezza nel cuore della città e nel cuore della campagna l'intero ordine sociale favorevole al loro igienico dolce e far niente doveva essere protetto contro la futile malevolenza dei soggetti all'antigenica legge della fatica era necessario e mi serverlo che volentieri si sarebbe stropicciato le mani con soddisfazione se non fosse stato avverso per natura ad ogni sforzo superfluo la legge del minimo sforzo che gli applicava a se stesso non era particolarmente igienica gli si adattava però alla perfezione in certo modo egli era devoto con una specie di fanatismo inerte o forse piuttosto di fanatica inerzia nato da povera gente industriosa destinato a una vita di duro lavoro materiale aveva invece abbracciato l'indolenza per un impulso profondo quanto inesplicabile imperioso come l'impulso che spinge l'uomo a scegliere fra mille donne una in particolare era troppo indolente anche per riuscire un semplice demagogo un difensore dei lavoratori un capo popolo avrebbe dovuto darsi troppo da fare le sue esigenze lo portavano verso una più perfetta forma di benessere a meno che gli fosse la vittima di un pessimismo filosofico riguardo all'efficienza di qualsiasi sforzo umano del resto una tal forma di pigrizia richiede implica una certa dose di intelligenza non era privo di intelligenza mister verroc e all'idea di un ordine sociale minacciato e gli avrebbe forse strizzato l'occhio a se stesso se in quel segno di scetticismo non fosse stata inclusa una piccola parte di fatica i suoi occhi grossi e prominenti non si adattavano bene a quel movimento appartenevano piuttosto a quella categoria che si chiudono al pisolino con gesto solenne ed effetto imponente corpulento e poco espressivo stile porcino mister verlo che seguì la sua via senza strofinarsi le mani per la soddisfazione o ammiccare scettico ai propri pensieri i suoi passi risuonavano pesanti sul selciato le scarpe scintillavano tutto l'insieme in lui faceva pensare al piccolo borghese benestante che se ne va in giro per affari propri avrebbe potuto essere qualunque cosa dal corniciaio al mangano un datore di lavoro in proporzioni modeste spirava però intorno alla sua persona una certaria indefinibile che nessun piccolo borghese potrebbe acquistare nella pratica di un mestiere manuale per quanto disonestamente esercitato l'aria propria dell'uomo che vive sui vizi e le follie o sulle più vili paure del genere umano quell'aria di nichilismo morale comune ai proprietari delle bische infernali e delle case di tolleranza ai poliziotti privati al personale dell'agenzia informazioni ai contrabandieri d'alcol e stavo per dire agli inventori di specialità mediche e a coloro che commerzano in cinture elettriche per rinvigorire i deboli circa questi ultimi non posso affermare nulla di sicuro non avendo approfondito fino a tal punto le mie indagini per quanto ne so l'espressione di costoro potrebbe essere addirittura diabolica non mi sorprenderebbe devo subito aggiungere però che l'espressione di mister verloc di diabolico non aveva proprio nulla prima di aggiungere a nikes bridge svoltò a sinistra abbandonando l'arteria principale della città affollata e rumorosa col suo traffico di veicoli gli omnibus traballanti e i furgoni al trotto pesante per scivolare in mezzo al rapido e quasi silenzioso vai e vieni delle carrozzelle sotto il cappello che gli portava leggermente inclinato all'indietro si vedevano i capelli impomatati e rilisciati con cura scrupolosa giacché doveva recarsi niente meno che all'ambasciata tutto ad un pezzo come una roccia una roccia di minerale assai tenero però procedette ora lungo una strada che avrebbe potuto definirsi con appropriato attributo privata nella sua estensione nella sua ampiezza solitaria essa aveva la maestà del paesaggio inorganico della cosa che non nasce e non muore solo richiamo alla mortalità il calesse di un dottore chiuso e immobile vicino al marciapiede in angusta solitudine i battenti delle porte ben lucidati zettavano bagliori fin dove l'occhio poteva arrivare i vetri delle finestre lavati di fresco splendevano di una lucentezza opaca e misteriosa tutto era tranquillo ma in distanza e cheggio il frastuono della carretta del latte un garzone di macellaio guidando con la sprezzante disinvoltura ad una origa alle olimpiadi girò la cantonata come un fulmine alto sedendo sul cocchio dalle ruote rosse un gatto dall'aria furtiva sbucando di sotto il marciapiede balzò fra le gambe di mister verloc un attimo e di nuovo si inabissò in un'altra fogna invece un massiccio agente di polizia creature evidentemente strane ad ogni emozione quasi fosse egli pure una parte del paesaggio inorganico emergendo si sarebbe detto da un lampione non degnò il passante nemmeno d'un'occhiata questi svoltando di nuovo a sinistra continuò il proprio cammino lungo una strada stretta fiancheggiata da una parete gialla sulla quale per qualche ragione incomprensibile era scritto a lettere nere numero 1 chisam square eppure chisam square si trovava almeno a 50 metri di lì e mister verloc troppo cosmopolita per lasciarsi ingannare dai misteri topografici di londra tenne duro senza dar segno di sorpresa o di indignazione finalmente con la perseveranza propria dell'uomo d'affari riuscì a raggiungere la piazza e attraversandola in diagonale il numero 10 questo numero apparteneva a un portone imponente che si apriva in una maestosa facciata senza macchia fra due case una delle quali portava come ovvio il numero 9 l'altra il 37 se non che il fatto che quest'ultima facesse parte di port hill street una via ben conosciuta in quei palazzi era reso noto al pubblico per mezzo di un'iscrizione che correva sopra le finestre del pian terreno in nome di tutti quegli altri funzionari cui incombe il dovere di rintracciare le case vaganti di londra perché poi nessuno si preoccupi di porgere formale richieste all'autorità basterebbe un brevetto del parlamento affinché costringano tali edifici a ritornare al posto che loro spetta è questo uno dei misteri dell'amministrazione municipale mister verlo che non stette all'ambiccarsi il cervello perciò la sua missione nella vita essendo quella di proteggere il meccanismo sociale non certo di perfezionarlo e neppure di criticarlo era talmente presto che il portiere dell'ambasciata sbucò in fretta e furia dal suo stanzino ancora battagliando con la manica sinistra della livrea nonostante il panciotto rosso e i calzoni al ginocchio aveva un aspetto eccitato e confuso mister verloch rendendosi conto di quell'assalto di fianco lo fece indietreggiare mostrandogli appena una busta con lo stemma dell'ambasciata e passò oltre tirò fuori lo stesso talismano anche davanti al valletto che gli aprì la porta e cortui subito si fece da parte per lasciarlo entrare nel vestibolo una fiamma chiara ardeva nell'alto caminetto un uomo anziano le voltava le spalle in piedi in abito da società con una catena intorno al collo e scorreva intanto con l'occhio un giornale che teneva aperto con tutte e due le mani davanti al viso calmo e severo non si mosse ma un altro lacchè in pantaloni scuri e giacca a coda di rondine urlata da un sottile cordoncino giallo si avvicinò al visitatore ascoltò il suo nome mormorato a bassa voce non fece parola e con un brusco voltafaccia si allontanò verso la porta senza girarsi indietro nemmeno una volta mister verloch lasciandosi in tal modo guidare lungo un corridoio a sinistra della gabbia di scale vasta e coperta di tappeti improvvisamente si vide far cenno ad entrare in una stanzetta angusta i cui mobili consistevano in un massiccio scrittoio e qualche sedia il domestico giunse all'uscio e mister verloch rimase solo non sedette lanciava intorno rapide occhiate tenendo stretti in una mano cappello e bastone e passandosi le dita tozze dell'altra sui capelli lisci e lustri una seconda porta s'aprì senza rumore e mister verloch irrigidendo lo sguardo in quella direzione scorse da prima nient'altro che un abito nero un cranio pelato e due cascanti basette grigio oscure ai due lati di un paio di mani rugose la persona che entrava teneva un fascio di carte davanti agli occhi si avvicinò alla tavola passettini manierati continuando a sfogliare l'incartamento il consigliere segreto furt cancelliere dell'ambasciata era alquanto miope questo funzionario d'alto merito posando le carte sulla tavola svelò un viso color pasta cruda di una bruttezza malinconica incorniciato da un pelame grigio scuro fine folto e lungo e sbarrato con forza da due sopraccigli grossi e spessi come cespugli collocò sul naso schiacciato a informe un paio di lenti cerchiate di nero e solo in quel momento parve colpito dalla presenza di mister verloc sotto gli enormi sopraccigli gli occhetti acquosi ammiccarono in modo patetico attraverso il cristallo delle lenti non fece nemmeno un cenno di saluto altrettanto mister verloc il quale certo era conscio del suo posto ma un mutamento appena percettibile nel profilo delle spalle e della schiena poteva suggerire l'idea che la sua spina dorsale si fosse leggermente incurvata sotto l'ampia superficie del soprabito con un effetto generale d'umile deferenza ho qui alcuni dei suoi referti disse il burocrate con voce inaspettatamente molle e stanca mentre premeva con forza sulle carte la punta dell'indice una pausa e mister verloc che aveva riconosciuto benissimo la propria scrittura attese in silenzio quasi trattenendo il fiato non siamo molto soddisfatti dell'atteggiamento della polizia in questo paese proseguì l'altro e dal suo aspetto traspariva una grande stanchezza mentale le spalle di mister verloc pur restando immobili in realtà dettero l'impressione di una leggera scrollata poi per la prima volta dal momento in cui aveva lasciato casa sua quella mattina le labbra gli si schiusero ogni paese ha la propria polizia disse in tono filosofico ma poiché il funzionario d'ambasciata continuava a fissarlo strizzando gli occhi si sentì in dovere da aggiungere mi permetta di farle osservare che io non ho mezzo da agire sulla polizia di questo paese lo scopo a cui si mira proseguì l'uomo delle carte è che accada qualcosa di preciso tale da stimolare la loro vigilanza questo rientra nella sua sfera d'azione non è vero mister verloc non apri bocca rispose soltanto con un sospiro che certo gli sfuggì involontariamente già che anzi aveva fatto subito il possibile per dare alla sua faccia un'espressione allegra il funzionario ammiccò in modo ambiguo quasi gli desse fastidio alla luce scialba della stanza poi in tono vago ripete la vigilanza della polizia e la severità dei magistrati l'abituale clemenza della procedura giudiziaria in questo paese e la totale assenza di misure repressive sono uno scandalo per tutta l'europa ciò che si desidera ora in un primo tempo è che si accentui l'inquietudine il fermento che già indubbiamente esiste indubbiamente indubbiamente proruppe mister verloc con voce di basso grave ossequiosa di carattere oratorio assolutamente diversa dal tono con cui aveva parlato poco prima tanto che il suo interlocutore ne rimase profondamente sorpreso esiste in misura pericolosa dai miei rapporti riguardo agli ultimi 12 mesi ciò risulta chiaro abbastanza i suoi rapporti riguardo agli ultimi 12 mesi pregiadire consigliere di stato wurmt con quel suo tono cortese compassato io li ho letti quello che non sono riuscito a capire è perché lei li abbia scritti silenzio glaciale per qualche minuto mister verloc pareva si fosse inghiottito la lingua l'altro fissava immobile le carte sulla tavola finalmente con colpetto leggero delle dita le spinse da un lato che lo stato di cose da lei esposto in questi resoconti si consideri effettivamente esistente è la condizione essenziale del suo impiego ma ciò che ora si esige da parte sua non è di scrivere bensì di fare in modo che si realizzi un avvenimento preciso e significativo starei per dire allarmante non ho bisogno di farle osservare come tutti i miei sforzi abbiano mirato a codesto fine dichiarò mister verloc modulando con arte persuasiva il suo tono semplice e dimesso ma la sensazione d'essere scrutato e spiato da quegli occhietti ammiccanti dietro il nebbioso scintillio degli occhiali dall'altra parte della tavola lo sconcertava tagliò corto con un gesto di devozione assoluta l'oscuro membro dell'ambasciata l'esecutore di un compito tanto arduo quanto utile alla società parve a un tratto colpito da un pensiero di nuovo genere lei è molto pingue disse tale osservazione di natura psicologica dir vero e proferita con timida esitazione da parte di un uomo d'ufficio cui penna e calamaio erano più familiari che non le esigenze della vita attiva punse verlocos sul vivo come la cruda espressione di un giudizio personale fece un passo indietro ed esclamò con velato risentimento voleva dire scusi il cancelliere d'ambasciata al quale era stato dato formale in carico di condurre l'intervista cominciava probabilmente a dubitare che il compito non fosse superiore alle sue forze sarebbe preferibile se non sbaglio dichiarò che lei si incontrasse con mister vladimir anzi ritengo decisamente che lei lo debba vedere abbia la cortesia ad aspettare in questa stanza soggiunse e se ne andò coi suoi passetti manierati appena uscito il funzionario mister verloc si passò la mano sui capelli piccole gocce di sudore gli imperlavano la fronte si lasciò sfuggire un soffio dalle labbra imbronciate come se vi avesse accostato una cucchiaiata di minestra calda ciò nonostante quando il domestico in livrea scura apparve silenzioso alla porta egli non sarà mosso di un centimetro dal posto occupato durante l'intervista era rimasto lì irrigidito quasi si sentisse circondato da trabocchetti percorse un andito illuminato da un unico becco a gas che ardeva solitario poi su per una scala a chioccio raggiunse al primo piano in una galleria a vetri d'aspetto gaio il valletto spalancò un uscio e si tirò da parte mister verloc avvertì un tappeto spesso e soffice sotto i piedi era una stanza spaziosa con tre finestre un giovanotto dalle guance piene ben rasate seduto in un'ampia poltrona davanti a una vasta scrivania di mogano disse in francese al cancelliere d'ambasciata che se ne stava andando con le carte sotto il braccio avete ragione monceri è ben grasso quell'animale ma vladimir primo segretario si era fatto nei salotti la fama d'uomo piacevole e spiritoso era si può dire il beniamino dei circoli mondani il suo spirito consisteva nello scovare bizzarri rapporti fra le idee più disparate quando prendeva l'air in quella direzione si sedeva sulla punta della sedia alzava la mano sinistra come per esibire fra il pollice l'indice le prove delle sue ridicole affermazioni e intanto il viso rotondo completamente sbarbato assumeva un'espressione di comica perplessità in questo momento però non c'era nulla di comico di perplesso nello sguardo che rivolgeva a mister verloc comodamente sprofondato nell'ampia poltrona i gomiti allargati uno di qua uno di là sui braccioli una gamba appoggiata di traverso sopra un ginocchio robusto aveva con la sua faccia rosia e liscia tutta l'aria di un bambolone eccezionalmente florido che non si lascia prendere in giro da nessuno lei capisce il francese non è vero disse con voce cupa mister verloc rispose di sì la sua vasta mole tutta ad un pezzo ebbe un movimento di inclinazione in avanti stava lì in piedi sul tappeto in mezzo alla stanza stringendo forte in una mano cappello e bastone mentre l'altra gli penzolava lungo il fianco inanimata qualche parola timida gli orgogliò nella strozza qualcosa intorno al servizio militare da lui prestato nell'artiglieria francese immediatamente con crudele non curanza mister vladimir mutò linguaggio e si mise a parlare in inglese idiomatico senza ombra d'accento forestiero lo credo bene e come no vediamo dunque quanto poteva guantare lei per essersi procurato il modello dell'otturatore perfezionato quello degli ultimi cannoni da campagna cinque anni d'arresti in fortezza rispose di colpa mister verloc ma senza alcun segno d'emozione se l'è cavata mica male l'altro commentò comunque l'aveva meritata per essersi lasciato prendere in castagna e quali motivi la spinsero a dedicarsi a cose di questo genere mi dica si udì la voce velata e dimessa di mister verloc accennare alla sua gioventù a una fatale infatuazione per un'indegna ah serce la femme si degnò di interrompere mister vladimir rallegrandosi ma senza affabilità c'era anzi nel suo interessamento una sfumatura di ferocia da quanto tempo è impiegato qui all'ambasciata interrogò sempre dal tempo del fu barone stott vartenheim in poi rispose mister verloc con accento d'umiltà facendo un bocchino triste in segno di cordoglio alla memoria del defunto diplomatico mister vladimir osservò attentamente quel gioco di fisionomia sempre dall'ora in poi bene e che cosa da dirci di speciale chiese con mossa astuta a quanto sorpreso della domanda mister verloc rispose che gli non sapeva di aver nulla di speciale da dire era venuto perché chiamato da una lettera sollecito affondò una mano in tasca del soprabito ma davanti agli occhi di mister vladimir che sorvegliavano ogni sua mossa cinici e beffardi decise di lasciare la lettera dov'era beh invece l'altro a che scopo tende lei mettendosi in una condizione delle peggiori come questa non ha nemmeno il fisico adatto alla professione che si è scelto lei è un membro del proletariato famelico e via un disperato anarchico socialista già quale dei due anarchico precisò mister verloc con tono sordo buffonate proseguì mister vladimir senza però alzare la voce persino il vecchio vurmt non sa capacitarsene lei non la darebbe a bere nemmeno a un idiota tra parentesi è vero che quelli lì sono tutti un po tocchi ma in ogni modo lei mi sembra un tipo semplicemente impossibile sicché è diventato uno dei nostri il giorno che le venne in mente di portarsi via i modelli del cannone francese vero e intanto si lasciò a calappiare chissà che seccatura per il nostro governo insomma non ho l'impressione che sia molto in gamba rauco dalla rabbia mister verlo che cercò di scolparsi come già ho avuto occasione di farle osservare una fatale infatuazione per un indegna mister vladimir alzò la mano larga bianca paffuta ah sì è quella sciagurata passione della sua giovinezza la bella si impadronì del denaro e vendete poi l'amico alla polizia non è così il lugubre mutamento di fisionomia e per un istante rilassarsi di tutta la persona fu sufficiente conferma da parte di mister verlo che tale era la dolorosa verità mister vladimir si afferrò la caviglia appoggiata sul ginocchio il calzino era di seta purchino scuro come vede non dette prova di molta abilità nemmeno allora forse lei è troppo sensibile con un mormorio sommesso e gorgogliante mister verlo che cercò di far capire che gli ormai non era più giovane per un difetto di questo genere l'età è una medicina che non vale insiste mister vladimir con familiarità maligna ma no mi sbaglio lei è troppo grasso per questo nessun uomo di una certa sensibilità può avere una figura come la sua glielo dico io di che cosa si tratta secondo me lei è uno scansa fatiche quanti anni sono che vive con lo stipendio di questa ambasciata un momento di imbronciata esitazione poi undici fura risposta mi furono affidate parecchie missioni a londra quando sua eccellenza il barone scott vartenheim era ancora ambasciatore a parigi poi per disposizione di sua eccellenza venne a stabilirmi in questa città sono inglese io inglese davvero è suddito britannico per nascita naturale rispose mister verloc facendo il nesci mio padre però era francese e quindi non mi interessano altre spiegazioni interruppe l'interlocutore lei avrebbe potuto essere legalmente un maresciallo di francia e un membro del parlamento inglese lo credo bene in questo caso almeno sarebbe stato di una qualche utilità per la nostra ambasciata tale volo di fantasia richiamò qualcosa come un pallido sorriso sulle labbra di mister verloc l'altro conservò la sua imperturbabile gravità ma lei come ho detto e ripeto è uno scansa fatiche non sa valersi delle occasioni che le si offrono al tempo del barone scott vartenheim avevamo un mucchio di gente senza spina dorsale che circolava per questi corridoi è stato per colpa loro che individui della sua specie si sono formati un falso concetto sulla natura di una società per il servizio segreto a me spetta appunto correzzare l'errore mostrandole semplicemente ciò che il servizio segreto non è ecco non è un'istituzione di carattere filantropico l'ho fatta chiamare proprio per dirle questo osservò un'espressione forzata di sgomento sul viso di mister verloc e sorrise sarcastico vedo che ci intendiamo a meraviglia comincio a credere che non le manchi l'intelligenza necessaria per il mestiere ma ora ci occorre dell'attività è questo che vogliamo attività ripetendo l'ultima parola mister vladimir poggiò l'indice bianco e affusolato sull'orlo della scrivania ogni trassa di raucedine scomparve dalla voce di mister verloc la sua grossa nuca di sopra al bavero di velluto del cappotto divenne color cremisi le labbra gli tremarono un poco prima di spalancarsi se vuole essere tanto cortese da dare un'occhiata al mio rapporto tuonò con la sua voce di basso potente sonora oratoria vedrà come tre mesi fa appena in occasione del viaggio a parisi del granduca romualdo io avessi fornito avvertimenti che furono telegraficamente trasmessi da londra alla polizia francese e piano piano interruppe mister vladimir con una smorfia arcigna la polizia francese non seppe che farsene dei suoi avvertimenti e non rugisca in quel modo che diavolo intende fare allora con umiltà non priva di una sfumatura d'orgoglio mister verloc si scusò d'essersi lasciato andare quel suo timbro di voce che per anni l'aveva reso famoso nei comizi all'aperto o nelle sale d'operai in ambienti vasti aveva certo contribuito disse a procurargli la reputazione d'ottimo compagno assolutamente leale faceva parte quel timbro stesso nella sua capacità di rendersi utile gli aveva facilitato l'arte di ispirare fiducia nelle sue idee i capi hanno mandato sempre me a parlare nei momenti critici dichiarò con evidente soddisfazione e aggiunse che non c'era tumulto al di sopra del quale egli non fosse capace di farsi sentire immantinente voleva darne la prova mi permetta disse piegò la testa e sempre ad occhi bassi rapido e invadente attraversò la sala e si avvicinò a una delle vetrate nel fondo quasi cedendo a un impulso incontrollabile l'aprì un poco mister vladimir balzando su esterrefatto dalle profondità della poltrona guardò al di sopra della sua spalla giù oltre il cortile dell'ambasciata a discreta distanza dal portone aperto poteva vedere la schiena ampia di un vigile che osservava ozioso la sgarzante carrozzina di un bimbo ricco condotto in pompa magna attraverso la piazza e guardia esclamò mister verlo con tanto poco sforzo quanto gliene sarebbe occorso per bisbigliare appena mister vladimir scoppiò in una risata vedendo il vigile roteare intorno a se stesso come se l'avessero improvvisamente caricato l'altro richiuso ad agio la finestra e ritornò nel centro della stanza con una voce di questo genere disse rimettendosi a parlare in sordina col tono di una conversazione modesta è naturale che la gente si fidi di me e poi io so bene quel che devo dire mister vladimir mentre si accomodava il nodo della cravatta lo guardò nello specchio al di sopra del caminetto immagino che lei conosca a mena dito il gergo social rivoluzionario disse con aria il quanto sprezzante voxet ma lei non ha studiato latino vero no grugni mister verlo che non se l'immagini neppure io appartengo alle masse chi sono quelli che conoscono il latino sono qualche centinaio di imbecilli incapaci di badare a se stessi per una trentina di secondi o poco più mister vladimir studiò nello specchio il profilo carnoso e la vasta mole dell'uomo in piedi dietro di lui col vantaggio di poter vedere nello stesso tempo la propria faccia rasata di fresco rogia intorno alla gola con labbra finie sensitive quasi formata apposta per preferire quei delicati motti di spirito che l'avevano reso tanto caro ai salotti dell'alta società poi si voltò e mosse verso il centro della stanza così risoluto nei suoi propositi che persino le punte della cravatta farfalla anacronismo originale in lui parvero rizzarsi come il pelo d'un gatto in muta espressione di minaccia un movimento così brusco e violento che mister verlo che lanciandogli un'occhiata di traverso rabbrividì nell'intimo ah lei si permette anche di fare lo sfacciato presa dire mister vladimir con un'intonazione terribilmente gutturale che non aveva più nulla d'inglese non solo ma nemmeno d'europeo tale da sbalordire persino mister verlo con tutta la sua esperienza dei bassi fondi cosmopoliti se lo permette ebbene le parlerò senza complimenti non sappiamo che farsene della sua voce fatti ci vogliono fatti allarmanti e vada al diavolo le ultime parole gliele soffiò proprio sul viso con una specie di reticenza feroce non creda di intimidirmi con le sue maniere perbore si difese mister verlo con una voce spenta guardando il tappeto a questa mossa il suo interlocutore sorrise canzonatorio al di sopra della cravatta farfalla che arricciava le ali e attaccò a conversare in francese lei si gabella per un agent provocateur il compito specifico dell'agente provocatore è quello di provocare ora per quanto posso giudicare io da questo suo rapporto lei non ha fatto proprio nulla per guadagnarsi il suo dipendio negli ultimi tre anni nulla esclamò mister verlo che senza muover membro senza neppure alzare gli occhi ma con una nota sincera nella voce eppure parecchie volte sono riuscito a prevenire ciò che avrebbe potuto c'è un proverbio in questo paese secondo il quale va meglio prevenire il male che curarlo interruppe mister vladiville lasciandoci cadere di nuovo sulla poltrona in linea generale è stupido non si finirebbe mai di prevenire è caratteristico però detestano tutto ciò che è definitivo in questa nazione cerchi di non essere troppo inglese lei in questa particolare circostanza cerchi di non essere assurdo non c'è nulla da prevenire il male esiste già la cura la cura ci vuole da un istante si girò verso la scrivania e sfogliando alcune fra le carte che vi giacevano sopra riprese a parlare su un tono diverso un tono commerciale senza nemmeno guardare il suo interlocutore lei naturalmente saprà della conferenza internazionale che si è riunita a milano tornando alla sua raucedina mister verlo cadicherò che la lettura dei giornali rientrava nelle sue abitudini quotidiane a una seconda domanda rispose che come ovvio egli capiva ciò che leggeva allora mister vladimir rivolgendo un pallido sorriso ai documenti che intanto continuava ad esaminare uno dietro l'altro mormorò fino a quando non si imbatte nel latino suppongo o nel cinese aggiunse mister verlo che facendo il nesci certe fusioni nei suoi amici rivoluzionari sono scritte in tale sciarabia che parola per parola può dirsi incomprensibile quanto il cinese con gesto sdegnoso lasciò ricadere sulla tavola un foglio grigio di quell'algebra stampata e significano tutti questi manifestini intestati a p col martello la penna e la fiaccola intrecciati insieme che significa questo a p mister verlo che si avvicinò all'imponente scrivania l'avvenire del proletariato è un'associazione piegò stando in piedi grave e pesante a fianco della poltrona non anarchica in linea di principio ma aperta a tutte le forme dell'idea rivoluzionaria ne fa parte anche lei sono uno dei vice presidenti buttò fuori mister verlo col respiro grosso il primo segretario dell'ambasciata alzò il capo e lo guardò dovrebbe vergognarsi di se stesso allora disse scandendo le sillabe dunque la vostra associazione non è capace d'altro che di stampare queste pagliacciate profetiche in caratteri illegibili su carta sporca vero ma perché non agite in qualche modo ebbene senta la faccenda è nelle mie mani ormai e io le dico chiaro e tondo che il suo stipendio se lo deve guadagnare non son più i tempi del vecchio scott vartenheim niente lavoro niente guadagno mister verloch avvertì uno strano senso di languore nelle gambe ben piantate indietreggiò da un passo e si soffiò rumorosamente il naso era in realtà sorpreso e allarmato lo splendore color rosso ruggine del sole di londra che dalle nebbie di londra emergeva trionfante spandeva nel gabinetto privato del primo segretario una gaiezza fulgida e indifferente nel silenzio mister verloch udì lo spaurito ronzio d'una mosca contro il vetro d'una finestra la prima mosca dell'anno per lui messaggera della buona stagione degna di fede più che una o cento rondini l'inutile che ha soso affannarsi del minuscolo organismo tutto energia pungeva in modo spiacevole quel voluminoso essere umano minazzato nella sua indolenza mister vladimir approfittò della pausa per formulare nella propria mente una serie di giudizi malevoli circa la faccia e la figura di mister verloch non se lo sarebbe aspettato davvero così volgare e di grossa pasta così sfacciatamente povero di spirito assomigliava in modo impressionante al piombaio che viene a presentarti il conto il primo segretario d'ambasciata c'era formato attraverso occasionali escursioni nel campo dell'umorismo americano un'idea particolare di questa categoria d'operai meccanici personificazione dell'infingardaggine e dell'incompetenza sostenute dalla frode era questo dunque il famoso fidatissimo agente segreto talmente segreto che il suo nome non veniva mai designato altrimenti che col simbolo a nella corrispondenza ufficiale semi ufficiale intima del defunto barone stott vartenheim il celebre asente a i cui avvertimenti avevano il potere di mutare programmi e date relativi ai viaggi reali imperiali e granducali e talvolta quello di farli andare a monte addirittura quel tipo lì nel suo cervello mister vladimir si lasciò andare a un enorme accesso di larità sarcastica in parte per la propria sorpresa che gli stesso qualificò ingenua ma più che altro alle spese dell'universalmente compianto barone stott vartenheim sua eccellenza io l'abbia in gloria e l'augusto favore del suo imperiale signore padrone aveva imposto come ambasciatore nonostante la riluttanza da alcuni ministri degli affari esteri aveva goduto in vita la fama di pessimista credulone che si allarma a ogni strillo di civetta aveva il chiodo fisso della rivoluzione sociale sua eccellenza e gli si figurava ad essere un diplomatico che una provvidenza speciale ha scelto apposta per farlo assistere alla fine della diplomazia non lungi dalla fine del mondo in un'orrida conflagrazione democratica i suoi dispacci profetici e catastrofici erano stati per diversi anni il divertimento del foreign office si narrava che gli avesse esclamato sul letto di morte assistito da suo imperiale signore ed amico misera europa destinata a perire per l'insania morale dei tuoi figli quanto a lui era destinato ad essere la vittima del primo ciarlatano marivuolo che si facesse avanti pensò mister vladimir con un sorriso vago in direzione di mister verloc lei dovrebbe venerare la memoria del barone stott vartenheim esclamò improvvisamente la fisionomia avvilita di mister verloc espresse un tetro stanco senso di noia mi permetta ad osservare disse che io sono venuto qui perché chiamato da una lettera perentoria prima d'oggi c'ero stato due volte sole in undici anni e certamente mai prima delle undici di mattina non è prudente farmi venire in questo modo si corre il rischio di essere veduti e questo non sarebbe davvero uno scherzo per me mister vladimir fece un'alzata di spalle e l'altro riscaldandoci continuò distruggerebbe la mia possibilità di rendermi utile quello è affar suo mormorò mister vladimir con vellutata brutalità quando lei cesserà di esserci utile noi cesseremo di pagarla proprio così all'istante punto e basta lei da quel momento grottando la fronte non sapendo trovare lì per lì un'espressione idiomatica abbastanza forte ma di colpo si rischiarò con un ghigno che mise bellamente in mostra i suoi denti bianchi lei verrà liquidato senz'altro esplose feroce per la seconda volta mister ferlock si trovò a dover reagire con tutta la sua forza di volontà contro la sensazione di languore che gli serpeggiava lungo le gambe la stessa sensazione che ispirò un tempo a qualche povero diavolo quella frase semplice mi è venuto il latte alle ginocchia consapevole di ciò che provava mister berlock rialzò coraggiosamente la testa l'altro sostenne con serenità impassibile il peso di quello sguardo scrutatore quel che ci occorre è un tonico da somministrare alla conferenza di milano disse con fare leggero si ha l'impressione che le deliberazioni che si stanno prendendo laggiù circa la campagna internazionale per la soppressione del diritto politico non mettano a capo nulla l'inghilterra nicchia è un paese assurdo questo col suo rispetto sentimentale per la libertà dell'individuo è insopportabile il pensiero che tutti quei cari amici di cui lei parlava poco fa non abbiano altro da fare che venirse ne qui a in questo modo almeno posso averli tutti sott'occhio interruppe mister berlock aspro risponderebbe molto più al nostro scopo se avessimo in catene sotto chiave bisogna mettere l'inghilterra in linea con le altre nazioni la borghesia imbecilla di questo paese si sta rendendo complice del basso popolo il quale non ha altro ideale che buttarla fuori di casa e farla morire di fame in una fossa eppure i borghesi politicamente al potere avessero almeno la capacità di servirsene per salvaguardare se stessi suppongo che sia d'accordo nel giudicare stupide senz'altro le classi medie mister berlock approvò con un suono rauco senz'altro non hanno immaginazione la loro vanità idiota li rende ciechi quello di cui hanno bisogno ora è di prendersi uno spavento bello e buono questo è proprio il momento psicologico adatto per far agire i suoi cari amici ed io l'ho fatta venire apposta per esporre il mio piano mister bladimir espose il suo piano dall'alto con disdegnosa condiscendenza dando prova al tempo stesso di tale tanta ignoranza circa gli scopi le idee e metodi reali del mondo rivoluzionario da riempire di profonda costernazione mister ferlock il quale non apriva bocca confondeva cause ed effetti con un'incomprensione inammissibile i propagandisti più scelti con gli impulsivi lanciabombe ammetteva a priori che dovesse esservi un'organizzazione precisa laddove secondo la natura delle cose questa non poteva esistere parlava del partito social rivoluzionario ora come se si trattasse di un esercito perfettamente disciplinato dove la parola dei capi è legge suprema ora invece come della più sciammanata associazione di disperati masnadieri che si siano mai trovati fra le gole dei monti solo una volta mister verlock schiuse le labbra per protestare ma il sollevarsi di una mano bianca grande ventornita gliele fece richiudere immediatamente dopo poco si sentì fin troppo sballordito per provarcisi di nuovo rimase lì in ascolto con la calma della disperazione che rassomigliava all'immobilità di un'attenzione profonda una serie di attentati proseguì mister vladimir senza scomporsi eseguiti proprio qui in inghilterra non solo preparati qui ciò non servirebbe non gli darebbero importanza i suoi amici possono propagare l'incendio per metà del continente senza influenzare l'opinione pubblica di questo paese in favore di misure repressive universali gli inglesi non vogliono vedere più in là del loro naso mister verlock si schiarì la gola ma sentì che il cuore non gli reggeva e stete zitto non importa che questi attentati siano specificatamente sanguinari continuò mister vladimir col tono del conferenziere che enuncia una proposizione scientifica purché riescano abbastanza impressionanti efficaci fate in modo che vengano diretti contro gli edifici per esempio qual è il feticcio del momento che tutta la borghesia venera lo sa lei mister verlock interrogato aprì le mani e si strinse leggermente nelle spalle lei è troppo pigro per pensare così mister vladimir commentò quel gesto faccia attenzione a ciò che dico il feticcio del nostro tempo non è la monarchia non è la religione si possono quindi lasciare in pace le chiese e il palazzo reale capisce cosa intendo dire mister verlock questi cerca uno sfogo al disprezzo e allo scoraggiamento che lo soffocavano in una mossa scherzosa perfettamente ma che ne pensa lei delle ambasciate una serie d'attentati alle varie ambasciate cominciò ma non fu capace di sostenere lo sguardo vigilante fermo e gelido del primo segretario sa fare anche lo spiritoso a quel che vedo osserva quest'ultimo non curante molto bene può servirle ad avvivare la sua eloquenza nei congressi socialisti questa stanza però non è luogo adatto sarebbe infinitamente più prudente da parte sua seguire con impegno ciò che le sto dicendo e già che lei è stato chiamato qui per fornirci dei dati concreti non delle favole per l'attanti farebbe meglio attrarre il maggior profitto possibile dalle spiegazioni che io mi prendo la pena di darle il feticio sacrosanto del nostro tempo è la scienza perché non spinge qualcuno dei suoi amici a muovere in massa contro questa divinità dalla testa di legno che ne dice non fa parte anch'essa di quelle istituzioni che vanno spazzate via prima che la p possa farsi avanti mister verlo che non fece motto aveva paura a schiudere le labbra paura di lasciarsi sfuggire un grugnito questo è ciò che lei dovrebbe tentare un attentato contro una testa incoronata o magari un presidente è in certo modo abbastanza sensazionale ma non più comune come un tempo rientro ormai nella concezione generale dell'esistenza di tutti i capi di stato è diventata quasi una convenzione specialmente da quando tanti presidenti sono stati assassinati vediamo ora che effetto farebbe un atto di violenza contro mettiamo una chiesa tremendo assai a prima vista non lo metto in dubbio eppure non così efficace come una mente ordinaria potrebbe supporre per quanto profondamente anarchico e rivoluzionario un atto simile troverebbe dei cervelli balzani abbastanza per dargli il carattere di manifestazione religiosa ciò che risulterebbe a scapito di quello speciale significato allarmistico che noi desideriamo mettere in evidenza tentare un assassino in un ristorante o in un teatro vorrebbe pensare ugualmente che ci siano di mezzo passioni apolitiche la esasperazione ad un affamato per esempio o un impulso di rivendicazione sociale è roba vieta ormai non insegna nulla di nuovo come lezione oggettiva in materia di anarchia rivoluzionaria non c'è giornale che non abbia i suoi luoghi comuni belle pronti per offrire ampia spiegazione di questi fenomeni e dirò ora qual è la filosofia della bomba a mano dal mio punto di vista quel punto di vista secondo il quale lei pretende di aver servito la nostra causa negli ultimi 11 anni non dirò cose al di sopra della la sua capacità di comprensione la sensibilità della classe che lei sta attaccando è facile a intiepidirsi essi sono convinti che la proprietà è cosa indistruttibile non si può contare per lungo tempo sulle loro emozioni sia di pietà sia di timore una bomba a mano oggi per influenzare l'opinione pubblica deve andare al di là dei soliti propositi di vendetta e di terrorismo deve rappresentare un atto di distruzione puro e semplice questo è soltanto questo in modo da evitare anche il minimo sospetto di qualsiasi altra intenzione voi anarchici dovreste manifestare chiaro e netto che siete assolutamente determinati a dare un colpo di spugna a tutta quanta la struttura sociale ma come fare perché quest'idea spaventevolmente assurda penetri nei cervelli della classe media cosicché non vi siano più equivoci di sorta ecco il problema risposta dirigete i vostri colpi contro qualcosa che sia al di fuori delle comuni passioni del genere umano c'è l'arte è vero una bomba alla national gallery solleverebbe un certo scalpore non abbastanza serio però l'arte non è mai stata il loro fetizzo sarebbe come fracassare qualche finestra sul dietro di una casa se volete che il proprietario non dorma più i suoi sonni tranquilli cercate almeno di sfondargli il tetto ci sarebbe qualcuno che strilla anche in quel caso ma chi artisti critici d'arte simili tutta gente senza voce in capitolo il loro parere non interessa nessuno ci puoi sapere la scienza ogni imbecille con qualche saldo di rendita ci crede non sa nemmeno perché eppure crede alla sua importanza è il feticcio sacro santo tutti i professori che il diavolo si riporti sono radicali nell'anima metteteli a conoscenza del fatto che anche il loro grande idolo è destinato ad andarsene per lasciare la via libera all'avvenire del proletariato e vedrete se gli urli e i lamenti di tutti questi intellettuali idioti non daranno una buona spinta in avanti ai lavori della conferenza di milano scriveranno nei giornali la loro indignazione sarà di sopra ad ogni aspettativa non essendovi interessi materiali apertamente in gioco ed allarmerà tutti gli egoismi della classe su cui vogliamo far presa i borghesi credono che per qualche ragione misteriosa la scienza sia la base della loro prosperità materiale ne sono assolutamente convinti e noi offriremo loro una prova assurda e feroce che li commuoverà più che la mutilazione di un'intera strada o teatro dove scorra il sangue dei loro simili davanti a fatti di questo genere possono sempre dire oh non è altro che odio di classe ma che cosa potranno dire davanti a un atto di ferocia distruttrice talmente assurda da riuscire incomprensibile inesplicabile inconcepibile quasi insomma una follia la follia per se stessa è già una cosa terrificante tanto più che non è possibile placarla né con le minacce né con la persuasione neppure con la corruzione e poi io sono un uomo civilizzato non mi sognerai mai di offrirle i miei consigli per organizzare un semplice macello anche se ne attendessi i risultati migliori ma da un macello non ci sarebbe da aspettarsi in ogni modo il risultato che desideriamo l'assassinio l'abbiamo sempre con noi è quasi un'istituzione questa deve essere una dimostrazione contro il sapere la scienza non tutte le scienze d'altronde servirebbero al nostro scopo ci deve essere in questo attentato tutta l'irritante irragionevolezza della bestemmia gratuita da che le bombe sono il vostro mezzo d'espressione la parola più bella la direbbe colui che riuscisse a gettarne una nella matematica pura purtroppo non si può dunque ho cercato di educarla esponendole alla più alta filosofia relativa alle sue possibilità di rendersi utile le ho suggerito qualche idea che potrà giovarle l'applicazione pratica dei miei insegnamenti riguarda soprattutto lei ma dal momento che mi sono preso l'impegno di questo colloquio ho pensato bene di dovermi interessare in qualche modo anche all'aspetto pratico della questione che ne direbbe se ti orientassimo verso l'astronomia già da alcuni minuti l'immobilità di mister verloc accanto alla poltrona rassomigliava a uno stato di collasso letargico specie di passiva insensibilità rotta da un leggero convulso sussultare come si osserva talvolta nei cani presi da incubi mentre se ne stanno accovacciati davanti al fuoco fu infatti con una specie di inquieto ringhio canino che gli ripete l'ultima parola l'astronomia non sarà ancora riavuto dallo stato di sbalordimento in cui l'aveva ridotto lo sforzo di tenere dietro al rapido incisivo linguaggio di mister vladimir questo aveva oltrepassato il suo potere d'assimilazione irritandolo rabbia complicata di incredulità ma ad un tratto gli balenò davanti in sospetto che tutto ciò non fosse che uno scherzo preparato ad arte mister vladimir metteva in mostra i denti bianchi in un sorriso che scavava fossette nel suo viso pieno e rotondo inclinato con aria compiaciuta sulla cravatta farfalla dalle ali arricciate il beniamino delle intellettuali di mondo aveva assunto lo stesso atteggiamento che prendeva nei salotti ad accompagnare il lancio dei suoi delicati motti di spirito seduto quasi sull'orlo della poltrona la mano bianca sollevata in aria pareva stringere dolcemente fra il pollice e l'indice il fiore sottile della sua ispirazione non potrebbe esserci nulla di meglio un attentato di questo genere riunisce in sé il maggior rispetto possibile verso l'umanità con la più allarmante manifestazione di diozia feroce sfido l'ingenuità dei giornalisti a persuadere il loro pubblico che l'uno o l'altro membro del proletariato potrà avere qualche giusto rancore personale contro l'astronomia persino la fame non sarà facile tirarla in ballo in un caso simile le pare e poi ci sono altri vantaggi l'intero mondo civile ha sentito parlare di greenwich ma sanno qualcosa anche illustra scarpe dei sottosuoli della sharing cross station la m'intende la fisionomia di mister vladimir così nota nell'alta società per la sua raffinatezza umoristica brillava di cinica autocompiacenza tanto che avrebbe sorpreso non poco le donne intelligenti a cui il suo spirito sapeva procurare ore di godimento squisito sicuro proseguì con un risolino sprezzante se il primo meridiano salta in aria dovrà certo suscitare alte grida desecrazione una faccenda complicata borbottò fra i denti mister verloc sentendo che quella era l'unica osservazione che poteva permettersi in che consiste la difficoltà non ha sotto mano l'intera banda lei il fior fiore del suo partito quel vecchio terrorista di junta è qui a londra quasi tutti i giorni lo vedo che se la passeggia nei pressi di piccadilli con la sua mantellina verde e michaelis quest'apostolo scarcerato non verrà mica raccontarmi che lei non sa dove si trovi del resto se lei non lo sa glielo dirò io proseguì minaccioso se lei crede di essere l'unico iscritto nei ruoli del servizio segreto si sbaglia di grosso insinuazione perfettamente gratuita provocò un livissimo mutamento nella posizione dei piedi di mister verloc e il gruppo di losanna nessuno eccettuato non sono forse arrivati a stormo tutti qui al primo accenno della conferenza di milano è un paese ben curioso questo mosso da una specie distinto mister verloc disse costerà caro non sento da questo orecchio replicò mister vladimir con un accento inglese straordinariamente genuino lei continuerà a prendere la sua paga mese per mese e non un soldo di più finché non accade qualche cosa se poi non accade nulla al più presto può dire addio anche a quella qual è il suo mestiere in faccia al mondo di che vive lei secondo la gente ho una bottega rispose mister verloc una bottega che genere di bottega cartoneria giornali mia moglie sua che cosa interruppe mister vladimir ricadendo nella gutturale tonalità centro asiatica mia moglie la voce rauca di mister verloc si innalzò ad un'ottava sono sposato io che diavolo di storia mi racconta esclamò l'altro sinceramente stupito sposato lei un anarchico dichiarato per giunta che razza di frottola è questa via spero che si tratti soltanto di un modo di dire gli anarchici non si sposano tutti lo sanno non possono sarebbe apostasia mia moglie non è anarchica pronto l'ho mister verloc seccato d'altronde la cosa non la riguarda certo che mi riguarda scattò mister vladimir ora comincio a credere sul serio che lei non sia l'uomo che ci occorre per il compito che le abbiamo assegnato nel suo stesso ambiente lei deve aver perduto ogni prestigio sposandosi non poteva proprio farne a meno è questo forse l'amore virtuoso di cui mi parlava da un amore all'altro di questo genere lei sta annullando del tutto la sua utilità mister verlocco gonfiò le gote e si lasciò sfuggire un violento soffio d'aria nient'altro si era armato di pazienza ma ormai non gli restava molto da sopportare improvviso il primo segretario cominciò a parlare secco freddo definitivo può andare ora disse si tratta di provocare uno scoppio di dinamite e da un mese di tempo le sedute della conferenza sono sospese e prima che si riuniscano di nuovo qualcosa deve essere accaduto qui altrimenti si consideri congedato una volta di più mutò tonalità diventando frivolo ed elastico mediti sulla mia filosofia mister mister verloc disse con una specie di beffarda con discendenza mentre agitava la mano in direzione della porta si orienti verso il primo meridiano lei non conosce così bene la borghesia come la conosco io la sensibilità di quella gente è dissecata il primo meridiano niente di meglio e niente di più facile direi era in piedi le labbra fine e sensitive contratte in una smorfia di divertita ironia occhieggiava nello specchio al di sopra del caminetto mister verloc che lento e pesante batteva in ritirata cappello e bastone in una mano la porta si chiuse subito apparve nel corridoio il valletto in calzoni corti guidò mister verloc per una via diversa e lo fece uscire da un usciolino e si apriva in un angolo del cortile il portiere in piedi presso il cancello grande lo ignorò completamente e mister verloc ripercorse in senso inverso lo stesso itinerario della mattina come in un sogno un sogno rabbioso tanto era distaccato dal mondo materiale che sebbene il suo mortale involucro non si affrettasse eccessivamente lungo le strade l'altra parte di lui quella alla quale sarebbe stato ben duro imperdonabile debolezza ricusare l'immortalità si trovò all'uscio di bottega in un attimo quasi trasportata da ovest ad est sulle ali di un vento potente passò direttamente dietro il banco e si lasciò cadere su una sedia di legno nessuno comparve a turbare la sua solitudine stevi affogato in un grembiulone di saia verde stava spazzando e spolverando le scale intento all'opera e coscienzioso quasi si trattasse piuttosto di un gioco missis verlo che era in cucina avvertita dallo strepito del campanello fesso si era semplicemente accostata alla porta a vetri del salotto e tirando un poco la tenda da parte aveva spiato nell'oscurità della bottega vedendo il marito che se ne stava lì seduto voluminoso buio in viso col cappello troppo indietro sulla fronte immediatamente era tornata ai suoi fornelli un'ora dopo poco più tolse il grembiule di saia verde al fratello e lo ammonì di lavarsi le mani e la faccia con quel tono imperioso che aveva usato a questo proposito per ben 15 anni da quando cioè aveva cessato di lavargli il viso e le mani e la stessa smise in un attimo di preparare i piatti per ispezionare con un'occhiata quelle guance e quelle dita che stevi avvicinandosi alla tavola di cucina sottoponeva la sua approvazione con un sorriso sicuro di sé sotto di cui si cerava un perpetuo residuo d'ansietà un tempo sanzione estremamente valida di questi riti erano le sfuriate paterne ma la flemma di mister verlo che nell'ambito delle pareti domestiche aveva reso ogni accenno di collera inconcepibile anche per i nervi scossi del povero stevi bastava sapere che il padron di casa avrebbe provato immensa pena e scandalizzata meraviglia davanti a ogni minima mancanza di pulizia alle ore dei pasti dopo la morte di suo padre winnie aveva trovato una consolazione notevole nel fatto che lei non avrebbe avuto da tremare mai più per il povero stevi non sopportava di vederlo battere era una cosa che le faceva perdere la testa e da bambina aveva spesso affrontato con occhi fiammeggianti in difesa del fratello l'irascibile fornitore dei generi alimentari eppure ora nell'apparenza di mrs verloc nulla c'era che potesse farla supporre capace di appassionate manifestazioni esteriori finì di preparare il pranzo e di apparecchiare la tavola del salotto ai piedi delle scale chiamò forte mamma poi aprendo lucio a vetri che dava in bottega disse tranquilla adolfo mister verloc era sempre lì nella stessa identica posizione si sarebbe detto che non avesse mosso membro per un'ora e mezzo si alzò con gesto faticoso e venne a tavola col sopravvito addosso il cappello in capo senza far parola il silenzio per se stesso non avrebbe avuto nulla di insolito ed impressionante in quell'ambiente domestico nascosto nell'ombra della strada sordida dove il sole di rado faceva capolino dietro la bottega oscura con le sue merci di dubbia categoria quel giorno però il mutismo di mr verloc rivelava chiaramente tale densità di pensieri che le due donne ne rimasero colpite rimanevano taciturne anch'esse senza mai distogliere l'occhio vigilante dal povero stevi per paura che non esplodesse da un momento all'altro in uno dei suoi improvvisi eccessi di loquacità ma il ragazzo seduto in faccia a mr verloc dall'altra parte della tavola se ne stava tutto buono e quieto fissando nel vuoto uno sguardo astratto lo sforzo necessario per evitare da parte sua qualunque minima cosa potesse riuscire spiacevole al padron di casa metteva le due donne in uno stato non indifferente di continua tensione quel ragazzo così alludevano a lui parlandone fra di loro con tenerezza era stato una sorgente di ansietà di quella particolare ansietà pressa poco dal giorno in cui era nato nella tendenza del defunto fornitore di generi alimentari a trattarlo in modo brutale si nascondeva l'umiliazione che lo torturava al pensiero di avere per figlio un ragazzo troppo diverso dagli altri sofferenza assolutamente genuina come uomo e come padre essendo egli dotato ad acuta sensibilità più tardi si dovette fare il possibile per trattenere stevi dal combinarne qualcuna delle sue a danno dei signori soli del subaffitto tente bizzarra anch'essi sempre pronti ad offendersi c'era poi la preoccupazione senza fine di dover sempre far fronte al suo destino visioni di ospizi per poveri invalidi che aprivano le porte al suo figlio erano state l'incubo della vecchia signora immobilizzata in una stanza del sottosuolo nella vecchia casa di belgravia se tu non avessi trovato un marito così buono mia cara ripeteva spesso alla figliuola non so che cosa ne sarebbe stato di quel povero ragazzo mister verloc concedeva stevi tanta attenzione quanta ne può concedere al gatto prediletto di sua moglie un uomo che non sia particolarmente innamorato degli animali attenzione benevole e superficiale esattamente della stessa qualità le due donne riconoscevano davanti a se stesse che logicamente non ci si poteva aspettare molto di più era abbastanza del resto per procurare a mister verloc la rispettosa gratitudine della vecchia signora nei primi tempi resa scettica dalle penose esperienze d'una vita senza amici accadeva di chiedere spesso con inquietudine cara non ci credi che tuo marito cominci ad essere stanco di vedere stevi per la casa quindi rispondeva scuotendo leggermente la testa una volta tuttavia replicò accigliata e quasi insolente prima dovrà stancarsi di me seguì un lungo silenzio la madre coi piedi inchiodati sullo sgabello pareva si sforzasse di afferrare il senso riposto di quelle parole la cui profondità femminile la stordiva addirittura in realtà lei non aveva mai potuto capire perché winnie avesse sposato mister verloc certo aveva dato prova di molto buon senso e tutto poi era riuscito per il meglio ma la ragazza naturalmente avrebbe potuto sperare di incontrarsi con un uomo di età più adeguata alla sua c'era stato prima un giovane molto serio figlio unico di un macellaio della strada accanto che aiutava suo padre in bottega con lui winnie era uscita più volte a passeggio senza nascondere che ci provava gusto dipendeva dal padre è vero ma il mestiere era buono le prospettive eccellenti spesso di sera aveva condotto la ragazza a teatro ed ecco proprio quando la mamma cominciava a temere che si parlasse di fidanzamento come avrebbe potuto vivere lei sola in quella grande casa con stevie sulle braccia proprio allora da un momento all'altro l'idillo era svanito winnie andava attorno col viso lungo e lo sguardo spento quando la provvidenza aveva mandato mister verloc ad occupare la camera davanti del primo piano e del giovane macellaio non si era parlato più era stata la provvidenza senza dubbio ogni idealizzazione immiserisce la vita abbellire una cosa significa togliere il suo carattere complesso cioè distruggerla lascia quel compito ai moralisti ragazzo mio la storia è fatta dagli uomini ma non nel loro cervello le idee che nascono nell'io cosciente hanno una parte di minima importanza nel cammino degli eventi la storia è dominata e determinata dalla produzione e dai mezzi di produzione cioè dalla forza delle condizioni economiche il socialismo è conseguenza diretta del capitalismo e le leggi capitalistiche per la tutela della proprietà sono le vere responsabili dell'anarchia nessuno può dire quale forma potrà prendere in avvenire il sistema sociale dunque a che scopo perdersi in profezie fantastiche potranno tutt'al più interpretare il pensiero del profeta ma non possono avere valore oggettivo è un passatempo da lasciare ai moralisti ragazzo mio michaelis l'apostolo scarcerato stava parlando con una voce asmatica sempre uguale a se stessa quasi oppressa soffocata dallo strato di grasso che gli avvolgeva il petto era appena uscito da una prigione altamente igienica arrotondato come una botte con un torace enorme e le gote gonfie di un pallone semitrasparente da che per ben 11 anni i servi di una società oltreggiata s'era infatti un dovere di rimpinzarlo coi cibi più ingrassanti in una cella umida e senza luce d'allora in poi gli era riuscito di fare in modo che il suo peso non calasse più di un oncia si raccontava che una vecchia dama molto facoltosa l'avesse mandato in cura per il corso di tre stagioni a marienbad dove era stato sul punto di condividere la curiosità del pubblico con una testa incoronata in tale occasione però la polizia gli aveva dato ordine di levarsi di torno entro 12 ore così avevano continuato a martirizzarlo vietandogli ogni accesso alle acque termali ormai però era rassegnato appoggiando alla spalliera ad una sedia il gomito dalle articolazioni invisibili come la curva del braccio di un fantoccio si chinò leggermente in avanti sulle cosce corte ed enormi per sputare nella griglia eh sì ho avuto il tempo io di riflettere un poco alle cose aggiunse senza enfasi la società me ne ha concesso tanto per meditare dall'altro lato del focolaio nella poltrona imbottita di crine dove generalmente aveva il privilegio di sedere la madre di winnie carla junt sogghignava truce con una vaga smorfia nera della bocca sdentata il sedicente terrorista era vecchio e calvo con un misero ciuffetto di barba caprina bianca come la neve che gli pendeva flaccida dal mento nei suoi occhi spenti sopravviveva solo una particolare espressione di subdola malevolenza quando sollevò e spinse avanti a fatica quasi brancolando una mano pelle e ossa deformata da gonfiori artritici suggerì l'immagine dell'assassino moribondo il quale raduna tutte le energie che ancora gli rimangono per l'ultima pugnalata si appoggiava curvando la schiena sul bastone massiccio che gli tremava nell'altra mano io ho sempre sognato vociò con vehemenza selvaggia una banda di individui risolutamente determinati a metter da parte ogni scrupolo nella scelta dei mezzi forti abbastanza per accettare a testa alta il nome di distruttori liberi anche dall'ombra di quel pessimismo rassegnato che corrode il mondo nessuna pietà per nessuno sulla terra se stesse inclusi e la morte assoldata una volta per tutte al servizio dell'umanità ecco che cosa mi sarebbe piaciuto vedere la sua testa calva oscillava comunicando una vibrazione comica al bianco ciuffetto di barba caprina l'enunciazione delle sue idee sarebbe riuscita totalmente incomprensibile o quasi a un estraneo la sua passione rocorata dal tempo simile nella saspirazione impotente all'eccitamento della sensualità senile era mal servita da una gola arida e dalle gengive senza denti dove pareva si invischiasse di continuo la punta della lingua mister verlo seduto sull'angolo del sofà all'estremo posto della stanza emise due cordiali grugniti di consenso il vecchio terrorista dirava lento la testa sul collo magro ora da una parte ora dall'altra non mi è mai riuscito ad averne fra le mani più di tre alla volta di uomini simili questo ti basti per il tuo putrido pessimismo ringhiò in direzione di michaelis il quale esasperato aprì le gambe imbottite come grossi cuscini e spinse bruscamente i piedi sotto la sedia un pessimista lui assurdo e offensivo gridò era talmente lontano lui dal pessimismo che già vedeva realizzarsi in modo logico inevitabile la fine ad ogni proprietà privata per il semplice sviluppo dei difetti ad essa inerenti i proprietari non avranno solo da tenere testa al proletariato che prenda coscienza di sé dovranno anche combattere fra di loro battersi e dibattersi è la condizione fatale dell'uomo che possiede fatale e quanto a lui non faceva affidamento su stimoli emotivi per serbare alta la sua fede non declamazioni furori visioni di sventolanti bandiere rosso sangue o di simbolici lividi soli di vendetta albeggianti all'orizzonte di una società condannata a perire non lui non lui la gelida ragione così si vantava era alla base del suo ottimismo ottimismo sicuro interruppe un istante lanzare faticoso poi dopo qualche sforzo per riprendere il respiro aggiunse non credete che se non fossi stato l'ottimista che sono mi sarebbe riuscito facilmente in 15 anni di trovare un mezzo per tagliarmi la gola e la peggiore ipotesi c'erano le pareti della mia cella per spaccarmi il cranio il respiro corto toglieva alla sua voce tutto il fuoco e l'animazione le grosse guance pallide gli pendevano giù come borse piene senza un moto senza un fremito ma negli occhi celesti stretti quasi a spiare c'era lo stesso sguardo di fiduciosa perspicacia un po folle nella sua fissità che doveva aver brillato nella cella quelle notti che l'indomabile ottimista trascorreva seduto a meditare davanti a lui carly hunt stava in piedi un lembo della vecchia mantella verde sbiadito gettato alla brava di traverso sulla spalla seduto di fronte al caminetto il compagno ossipo ex studente medico il principale autore dei volantini della pi allungava verso il fuoco le gambe robuste esponendo le suole delle scarpe al calore della griglia un cespuglietto di riccioli gialli gli sormontava la faccia rossa lentigginosa dal naso piatto e le labbra prominenti formata su un rozzo modello di tipo negroide sopra gli zigomi alti e occhiamandola sbirciavano languidi portava una camicia di flanella grigia le due punte della crevatta sciolta di setanera gli penzolavano sul petto della giacca di saia la testa appoggiata allo schienale della sedia la gola ampiamente scoperta portava alle labbra un lungo bocchino di legno con la sigaretta e soffiava sbuffi di fumo alti fino al soffitto michaelis perseguiva la sua idea l'idea sbocciata nella solitudine del carcere il pensiero concesso come un dono alla sua cattività e sempre crescente come una fede che si rivela attraverso visioni parlava a se stesso indifferente all'ostilità o alla simpatia degli ascoltatori indifferente anzi alla loro presenza per l'abitudine che aveva preso di pensare ad alta voce e sicuro di sé fra le quattro pareti imbiancate della cella nel silenzio sepolcrale di quella grande ciacamole di mattoni in riva un fiume orrida e sinistra come una colossale camera mortuaria per i naufraghi della società non era abile nella discussione e questo non perché un qualsiasi complesso d'argomenti potesse scuotere la sua fede ma solo perché il semplice fatto di udire un'altra voce lo sconcertava in modo penoso confondendogli immediatamente i pensieri quei pensieri che per tanti anni nel deserto mentale più nudo che sabbiose distese prive d'acqua mai voce di creatura vivente aveva combattuto commentato o approvato nessuno ora lo interrompeva ed egli ripeté la professione della propria fede che lo signoreggiava irresistibile senza riserve come un decreto di garanzia sovrana la rivelazione dei segreti del destino attraverso l'aspetto materiale della vita le condizioni economiche del mondo considerate come responsabili del passato e plasmatrici dell'avvenire all'origine di tutta la storia e di tutte le idee guida allo sviluppo mentale del genere umano e all'impulso genuino delle sue passioni uno stridente scoppio di risa del compagno sipon troncò la tirata con un colpo netto e mortale riconduzendo la lingua dell'apostolo a un balbettio improvviso mentre i suoi occhi dolcemente esaltati si volgevano intorno in una smarrita inquietudine lentamente li chiuse un minuto quasi a radunare di nuovo i pensieri sbaragliati dal nemico seguì un lungo silenzio nel salottino dietro la bottega di mister verloc con i due vecchi a gas sulla tavola e la griglia del focolare arroventato si soffocava il padrone di casa alzandosi dal sofà pesantemente e con una certa riluttanza aprì per far entrare un po' d'aria alla porta di cucina mettendo in mostra l'innocente stevi che seduto a un tavolo di legno grezzo tutto buono e tranquillo disegnava circoli circoli e circoli un abbagliante turbinio di circoli i quali nella molteplice mescolanza delle curve ripetuta all'infinito nella monotonia delle forme e nella confusione di linee intersecantesi faceva pensare a un ritorno del caos cosmico oppure al simbolismo di un'arte pazza che attinge l'inconcepibile l'artista non si voltò neppure un momento assorto come era nell'opera sua con tutta l'anima le spalle gli sussultavano e il collo esile immerso in una cavità profonda alla base del cranio pareva sul punto di spezzarsi in due con un grugnito di sorprese di disapprovazione mister verloc ritornò al suo divano alexander ossipon sorsa in piedi alto nell'abito logro di saia turchina sotto il soffitto basso sgranchi le membre rigidite dalla lunga immobilità avviandoci a caso verso la cucina se erano due gradini da scendere per gettare un'occhiata di sopra la spalla di stevi poi ritornò in salotto pronunciando in tono d'oracolo ottimo molto caratteristico assolutamente tipico ottimo che cosa mugolò incuriosito mister verloc che di nuovo aveva preso posto sull'angolo del sofà l'altro spiegò il significato della propria frase con aria non curante e con un'ombra di condiscendenza scuotendo leggermente la testa in direzione della stanza attigua tipico di una tal forma di degenerazione quei disegni voglio dire vorresti dire che quel ragazzo è un degenerato borbotò mister verloc non è così il compagno alessandro ossipon il soprannome il dottore ex studente di medicina senza nemmeno il passaggio al secondo anno poi conferenziere vaganti tra le associazioni operaie il suo tema prediletto era l'igiene secondo il socialismo autore di uno studio quasi medico per il popolo sotto forma di un puscolo da pochi soldi i vizi corrosivi delle classi medie immediatamente sequestrato dalla polizia delegato speciale del più o meno misterioso comitato rosso insieme a carliunt e amica elis per l'opera di propaganda letteraria lanciò ora all'incognito familiare di almeno due ambasciate una di quelle dense scoraggianti insostenibili occhiate di sufficienza e soltanto i familiari del sapere possono permettersi di rivolgere alla meschinità dei comuni mortali codesto è appunto il termine scientifico che gli spetta ottimo tipo inoltre in ogni suo particolare di quella determinata specie di degenerazione basta guardare i lobi delle orecchie se la girombroso mister verlo largamente disteso sul sofà con aria annoiata continuava a guardare ad occhi bassi la fila di bottoni del suo panciotto solo le gote gli si tinsero di un lieve rossore da un po di tempo in qua anche l'espressione più banale derivata dal vocabolo scienza un termine inoffensivo per se stesso tanti sono i significati che gli si possono attribuire aveva il bizzarro potere di rievocargli nella mente una visione dal significato preciso e decisamente offensivo mister vladimir in carne e ossa come fosse lì presente di una chiarezza quasi soprannaturale un tale fenomeno che ben a ragione poteva classificare tra le meraviglie della scienza produceva in mister verlo uno stato emotivo di terrore ed irritazione il quale provava il bisogno di esprimersi in un getto violento di improperi non disse nulla però fu invece carliunt a parlare implacabile fino all'ultimo respiro l'ombroso è un somaro il compagno sipon ricevette il colpo del bestemmiatore con un altezzoso sorriso sperduto nel vuoto l'altro con gli occhi smorti e spenti che più ancora incupivano le ombre dense del viso sotto la larga fronte ossuta borbottò ad ogni parola stringendosi fra le labbra la punta della lingua quasi la stesse masticando con rabbia avete mai conosciuto voi altri un simile imbecille il criminale secondo lui è il galeotto semplice no ma che ne pensa poi di quelli che l'hanno rinchiuso anzi di quelli che l'hanno costretto a farsi rinchiudere esattamente così costretto e poi che cos'è il delitto che può saperne lui un imbecille che si è fatto strada in un mondo di idioti satolli a forza di analizzare orecchie e denti a una quantità di poveri diavoli senza fortuna sono forse gli orecchie o i denti che imprimono il marchio d'infamia davvero o non piuttosto le reggi questo grazioso strumento di tortura inventato dagli uomini ben nutriti per proteggersi contro la fame applicazione rovente sulla pelliccia del popolo no sembra di sentire da questa stanza l'odore di bruciaticcio e lo sfrigolio di quella pelle grossolana epitermide della povera gente ecco come si distinguono i criminali perché i vostri l'ombroso si scrivono attorno tutta questa stupida roba nell'impedo di passione stringeva fra le gambe il pomo della mazza mentre il busto rappeggiato nelle larghe ali della mantellina serveva uno storico atteggiamento di sfida pareva fiutasse nell'atmosfera viziata la crudeltà sociale pareva tendere l'orecchio al suono atroci c'era in quell'atteggiamento una straordinaria forza di suggestione il quasi moribondo veterano della dinamite era stato a suo tempo un grande attore sul palco dei comizi nelle assemblee segrete nelle interviste private mai in tutta la sua vita il famoso terrorista aveva alzato personalmente un dito neppure il dito mignolo contro l'edificio sociale non era un uomo d'azione non era nemmeno uno di quegli oratori d'eloquenza torrenziale che trascinano le masse nell'impedo sonoro e schiumante d'un violento entusiasmo con più sottile proposito egli si assumeva il compito di evocare con velenosa insolenza i sinistri impulsi che covano fra l'invidia cieca e l'esasperata vanità delle persone ignoranti fra le sofferenze dei poveri e dei miseri fra le nobili e fiduciose illusioni di coloro che si ribellano per un sentimento di pietà e di giusta indignazione l'ombra di quel talento perverso aderiva ancora alla sua persona come l'odore di una droga mortale in una vecchia fiala di veleno ormai vuota ed inutile pronta per essere gettata via nel mucchio dei rifiuti dove vanno a finire le cose che hanno fatto il loro tempo michaelis l'apostolo scarcerato sorrisse vagamente con le labbra strette la sua faccia pastosa di luna piena parve chinarsi sotto il peso di una malinconica approvazione era stato ingarare anche lui mormolò con voce sommessa anche la sua pelle era stata udita sfrigolare sotto il ferro rovente ma il compagno sipon soprannominato il dottore aveva avuto ormai tempo di rimettersi dal colpo voi non capite cominciò a dire con disdegno ma tagliò corto intimidito dalla tenebra fredda di due occhi cavernosi che si giravano lentamente verso di lui con uno sguardo cieco quasi guidati solo dal suono della voce piantò senz'altro la discussione con una leggera scrollata di spalle stevi abituato ad andare e venire senza che nessuno si culasse di lui sarà alzato dalla tavola portandosi dietro i suoi disegni per salire in camera sua raggiunse l'uscio del salotto in tempo per ricevere in pieno getto l'immaginosa eloquenza da parte di car yunt il foglio coperto di circoli gli scivolò dalle dita il ragazzo rimase lì a fissare il vecchio terrorista quasi avesse messo di improvviso radici in quel punto per la forza di un orrore morboso ed un'acuta paura del dolore fisico stevi sapeva benissimo che il ferro rovente applicato sulla pelle fa molto male sì un male del diavolo gli occhi spauriti gli brillarono d'indignazione rimase lì a bocca aperta con labbro cascante michaelis fissando il fuoco senza batter ciglio aveva riconquistato il senso di isolamento necessario alla continuità del suo pensiero l'ottimismo ricominciò a fluirgli dalle labbra e gli vedeva il capitalismo condannato fin dalla culla nato col veleno nel sangue il veleno della concorrenza inerente al suo sistema vedeva i grandi capitalisti che divorono i piccoli concentrando così nelle grandi masse il potere e mezzi di produzione perfezionando il processo industriale e nella mania dell'auto a crescimento preparando invece organizzandola rendendola via via più ricca e pronta per essere attuata la legittima eredità del proletariato sofferente michaelis pronunciò la grande parola pazientare e il suo sguardo celeste chiaro si alzò verso il soffitto basso del salotto di mister verloc con un'espressione di fiducia serafica nel vanno della porta stevi placato pareva immerso in catalessi la faccia del compagno sipon si contraste per l'irritazione così dunque è inutile qualunque cosa si faccia questa o quest'altra tutto inutile non ho detto codesto protestò michaelis in tono gentile la sua visione della verità era diventata così intensa che il suono di una voce estranea non riuscì questa volta a metterlo in rotta continuava a tener gli occhi fissi laggiù ai carboni ardenti preparare l'avvenire è pur necessario ed egli ammetteva volentieri che il grande cambiamento avrebbe potuto realizzarsi attraverso lo scoppio di una rivoluzione sosteneva però che la propaganda rivoluzionaria è un'opera delicata per individui d'alta coscienza è l'educazione dei padroni del mondo e deve essere perciò tanta e scrupolosa come l'educazione dei re bisogna esporre le idee a poco a poco con cautela con timidezza quasi da che noi stessi ignoriamo l'effetto che ogni prestabilito mutamento economico può produrre sulla felicità la morale l'intelletto e la storia del genere umano poiché la storia non la fanno le idee ma gli strumenti di produzione e mutando le condizioni economiche tutto muta l'arte la filosofia l'amore la virtù la verità persino i carboni nella griglia spezzandosi con uno scrocio leggero si assestarono più in basso e michaelis il visionario eremita venuto dal deserto del penitenziario si levò in piedi di scatto rotondo come un pallone confiato spalancando le braccia corte e grosse come in un patetico tentativo di accogliere e stringere al petto l'universo da se stesso rigenerato ansimò col respiro ardente l'avvenire è sicuro come è sicuro il passato schiavitù feudalesimo individualismo collettivismo questa è la dichiarazione di una legge non una vuota profezia con una smorfia altezzosa delle labbra prominenti il compagno sipo rese più accentuato il carattere negroide della propria fisionomia sciocchezze disse senza scaldarsi troppo non esistono leggi né certezze la propaganda didattica vada a farsi impiccare poco importa ciò che il popolo sa anche se il suo sapere è esatto e accurato l'unica cosa che importa per noi è lo stato emotivo delle masse niente azione senza emozione una pausa poi aggiunse con modesta fermezza vi sto parlando da un punto di vista scientifico scientifico come che cosa hai detto verlo nulla muochiò mister verlo dal suo divano dove provocato dal suono della borrita parola aveva semplicemente borbottato un accidenti sciodì poi il barbuglio del vecchio terrorista sdentato sapete che nomi vorrei dare alla natura delle condizioni economiche attuali vorrei chiamarla cannibalistica ecco com'è quella gente sazia la sua voracità con la carne palpitante e col sangue caldo del popolo nient'altro con un percettibile gorgoglio stevi inghiottì la terrificante dichiarazione e subito quasi si fosse trattato di veleno fulminante si accosciò a sedere sui gradini di cucina michaelis non dette segno d'aver udito i suoi labbri parevano realmente incollati l'uno con l'altro le guance pesanti non ebbero un fremito rivolse intorno lo sguardo inquieto in cerca del suo cappello duro e rotondo e se lo pose quindi sulla testa non meno rotonda rotonda e obesa la sua persona parve galleggiare in basso tra le sedie sotto il gomito suto di cardiunt il vecchio terrorista sollevando una mano tremolante simile ad un artiglio con la solitaria di braveria diede una particolare inclinazione al sombrero di feltro scuro che gli ombreggiava le cavità e le rughe profonde della faccia devastata cominciò a muoversi lentamente picchiando sul pavimento a ogni passo con la punta del bastone farlo uscire di casa fu piuttosto un'impresa perché di continuo si fermava come per pensare ma non dava segno di volersi rimettere in moto finché michaelis non lo spingeva avanti per forza l'apostolo gentile gli serrava il braccio con premura fraterna dietro di loro il robusto sipon sbadigliava vagamente un berretto turchino con la visiera di vero cuoio patentato posto ben all'indietro sul suo giallo cespuglio di capelli gli conferiva l'aspetto di un marinaio norvegese disgustato del mondo dopo un'orzo a chiassosa mister verloc accompagnò i suoi ospiti fino alla porta di strada a capo scoperto il soprabito pesante sbottonato sino in fondo gli occhi sempre fissi al suolo rinchiuse l'uscio dietro le loro spalle con impeto a malapena frenato girò la chiave tirò il paletto non era soddisfatto dei suoi amici al lume della filosofia di mister vladimir sulle bombe a mano questi individui apparivano di una fatuità disperante nella politica rivoluzionaria mister verloc aveva fatto sempre la parte dell'osservatore ed ora non poteva sia in casa propria sia in più numerosi ritrovi prender tutto un tratto l'iniziativa dell'azione ci voleva prudenza mosso dalla giusta indignazione dell'uomo che ha passato da un pezzo alla quarantina minacciato in ciò che gli sta più a cuore la propria tranquillità sicurezza che a se stesso sarcastico che cosa si sarebbe potuto aspettare di meglio da una triade di quella fatta quel carriunt quel michaelis e quello sipon soprattutto fermandosi un momento con l'intenzione di girare la chiavetta del gas che ardeva al centro della bottega mister verloc sprofondò nell'abisso delle riflessioni morali con un discernimento dovuto ad affinità di carattere pronunciò il proprio verdetto sugli amici una banda di fanulloni quel carriunt coccolato da una vecchia cisposa una donna che anni prima lui aveva soffiato ad un amico e dopo aveva tentato più e più volte di buttare a mare bella fortuna per giunt che lei avesse avuto la costanza di ritornare a galla volta per volta altrimenti chi le avrebbe aiutato ora a scendere dall'omnibus davanti ai cancelli del green park dove quello spettro trascinava la sua passeggiatina igienica ogni mattina di buon tempo quando l'indomita vecchia strega ringhiosa morirà lo spettro ammazzasette dovrà necessariamente svanire anche lui e questa sarà la fine dell'uomo di fuoco carriunt il senso morale di mister verloc si sentiva offeso anche dall'ottimismo di michaelis certo non indipendente dalla sua ricca dama vecchia anche lei la quale ultimamente aveva avuto l'idea di mandarlo in campagna in un villino di sua proprietà l'ex prigioniero poteva dunque prendersi il lusso di bighellonare per giornate intere lungo ombrosi sentieri in delizioso ozio umanitario quanto a ossipon quel pezzente poteva considerarsi al sicuro da ogni necessità finché c'erano al mondo ragazze stupide con un libretto alla cassa di risparmio e mister verloc il cui temperamento era identico a quello dei soci riuscì a spremere nel proprio cervello il succo di sottilissime distinzioni da quelle che non erano se non insignificanti differenze fra lui e loro nel farlo se ne compiaceva assai perché lui era forte l'istinto della rispettabilità convenzionale superato soltanto dalla ripugnanza per ogni sorta di lavoro ufficialmente riconosciuto altro difetto naturale che gli condivideva con la maggioranza dei rivoluzionali riformatori di un convenuto ordine sociale è evidente infatti che costoro non si ribellano contro i vantaggi e le garanzie che quell'ordine ci offre bensì contro il prezzo che le garanzie e i vantaggi ci costano prezzo da pagarsi in moneta di morale comune autodisciplina e fatica materiale i rivoluzionari sono in maggioranza i più acerbi nemici della disciplina e della fatica esistono poi nature al cui senso di giustizia un tal prezzo appare come un fantasma mostruoso di proporzioni enormi odioso primente intollerabile tormento umiliazione estorsione quelli sono i fanatici il resto dei ribelli sociali si deve completamente alla vanità madre di tutte le illusioni nobili e ignobili sono i colleghi dei poeti riformatori ciarlatani profeti incendiari per un intero minuto mister verlo che rimase smarrito nell'abisso della meditazione delle considerazioni astratte tuttavia non giunse a toccarne il fondo probabilmente non ne aveva la possibilità e in ogni modo gliene mancava il tempo con una stretta dolorosa lo tirò su dal pozzo la reminiscenza improvvisa di mister vladimir un altro dei suoi soci un altro di quelli che gli poteva giudicare senza errori in virtù di sottili affinità morali era per il suo un individuo pericoloso e un vago senso di invidia si insinuò allora nei suoi pensieri potevano ben permettersi di biglionare quei compari che nulla sapevano di mister vladimir e a cui non mancavano donne sulle quali appoggiarsi con tutto il proprio peso mentre lui aveva una donna da mantenere a questo punto per semplici associazioni di idee mister verlo che si trovò faccia a faccia con la necessità di andare a letto prima o poi come tutte le sere perché dunque non andarci ora all'istante sospirò necessità normalmente gradevole per un uomo della sua età e del suo temperamento non lo era per lui quella sera temeva il demonio dell'insonnia già intuiva d'esserne la vittima precelta alzò un braccio e girò sopra la sua testa la chiavetta del gas ancora acceso una striscia di luce brillante attraverso la porta del salotto penetrò nella bottega dietro il banco quanto bastava per permettere a mister verlo di verificare con un'occhiata il numero di monete d'argento contenute nel cassetto un numero esiguo osservò e per la prima volta da quando aveva aperto bottega mi venne in mente di calcolarne il valore dal lato commerciale il calcolo non fu davvero soddisfacente certo per ragioni commerciali si era dato al commercio nello scegliere proprio quel genere di negozio era stato guidato da un'innata tendenza agli affari clandestini dove il denaro si raccoglie a manciate senza darsi troppo da fare tanto più che con quello non doveva uscire dalla propria sfera la sfera vigilata dalla polizia al contrario gli conferiva in essa chiaro diritto di cittadinanza e per le sue relazioni inconfessabili che lo rendevano intimo della polizia e ancora tranquillo nei riguardi di questa se era in tale situazione un vantaggio notevole ma per se stesso come mezzo per tirare avanti non sarebbe stato certo sufficiente tirò fuori dal cassetto la ciotola del denaro e volgendosi per uscire di bottega si accorse che stevi era ancora il pian terreno che diavolo sta facendo si domandò mister verloc che significa questa ridicola novità gettò un'occhiata sospettosa al cognato ma non volle chiedere gli spiegazioni i suoi rapporti con stevi si limitavano ad un occasionale mugolio le mie scarpe la mattina dopo colazione e anche questa era piuttosto la vaga espressione di un desiderio che non una richiesta un ordine esplicito non senza una certa sorpresa mister verloc si rese conto che in realtà non sapeva che cosa dire a stevi senza far rumore rimase in mezzo al salotto e gettò un'occhiata in cucina non aveva ancora un'idea di ciò che sarebbe accaduto se non si decideva a rompere il silenzio e la cosa gli appariva assai curiosa balenandogli a un tratto nella mente il pensiero che toccava a lui di provvedere anche per quel ragazzo mai prima d'ora si era fermato un momento a considerare quest'aspetto dell'esistenza di stevi proprio così non sapeva come parlargli a quel fanciullone rimase lì a guardarlo gesticolare e mormorare su e giù per la cucina come un animale in gabbia sovraeccitato si aggirava intorno alla cucina mister verloc azzardò appena un non faresti meglio ad andartene a letto ora ma senza risultato scuotendosi dunque da quella contemplazione che lo aveva ridotto di sasso davanti al comico gesticolare del cognato attraversò il salotto di passo stanco portando con sé la ciotola del denaro mentre saliva le scale si rese conto che la causa di quella generale stanchezza risiedeva unicamente nel cervello non riuscendo a darle una spiegazione se ne allarmò sperava bene di non avere alcun motivo per cadere ammalato si fermò nel pianerotto rubuio per esaminare le proprie sensazioni queste però divennero confuse da un russale leggero e continuo che si diffondeva nell'oscurità proveniva dalla stanza della suocera un'altra persona da mantenere e gli pensò e con questa riflessione si dirasse in camera propria missis verloc si era addormentata con una lampada d'olio accesa sul comodino non c'era illuminazione al primo piano la luce proiettata in basso dal paralume ricadeva bagliante sul guanciale bianco dove la donna affondava la testa immobile con gli occhi chiusi e i capelli accomodati in tante piccole trezze per la notte il suono del suo nome ripetuto con insistenza all'orecchio la svegliò ed ella vide il marito in piedi chino su di lei winnie winnie da prima non si mosse nemmeno rimase calmissima gli occhi fissi alla ciotola del denaro fra le mani di mister verloc quando però intese che il fratello se ne stava giù a sgambettare in largo in lungo si ritrovò d'un gesto subitaneo seduta sul margine del letto le gambe pelzoloni i piedi nudi quasi uscendo a tastoni dal fondo d'un sacco ovvero sia una camicia disadorna con le maniche lunghe strettamente abbottonata al collo ai polsi brancolarono sul tappeto in cerca delle pantofole mentre intanto guardava dritto in faccia il marito io non so come prenderlo spiegò mister verloc stizzosamente ma non voglio che rimanga giù da solo col lume lei non apri bocca scivolò rapida attraverso la camera e la porta si chiuse dietro la sua figura bianca mister verloc posò la ciotola sul comodino e cominciò l'operazione di svestirsi buttando il sopravvito su una sedia distante dal letto giacca e panciotto caddero da sé si mise a passeggiare su e giù in calzini e la sua forma corpulenta con le mani nervose che si accanivano intorno al colletto passò e ripassò davanti al lungo specchio orizzontale che adornava lo sportello dell'armadio di sua moglie poi fatte scivolare le bretelle giù dalle spalle tirò su con violenza la stuoia della finestra e appoggiò la fronte al vetro gelido fragile lastra che si innalzava fra lui e laggiù l'immenso cumulo di mattoni pietre ardesie il freddo umido fangoso nero in ospitale mondo di cose indifferenti per se stesse all'uomo anzi ostili mister verlo avvertiva l'ostilità latente ovunque fuori delle pareti domestiche con tale forza che rasentava la vera angoscia fisica non esiste mestiere che tradisca un uomo in pieno come quello dell'agente segreto di polizia è come se il cavallo vi cadesse morto d'improvviso mentre siete in sella nel mezzo ad una pianura disabitata senza un filo d'acqua tale paragone gli venne in mente perché a suo tempo al reggimento egli era salito in croppa a parecchi cavalli e ora provava appunto la sensazione dell'incipiente caduta prospettiva nera come il vetro della finestra contro cui appoggiava la fronte quando ecco senza previso la faccia di mister vladimir rosata di fresco e sarcastica vi apparve in tutta la gloria luminosa della bella carnagione quasi un rosio sicillo impresso sull'oscurità fatale questa brillante visione mutilata era così lugubremente corporea che mister verlo che si staccò d'un balzo dalla finestra lasciando ricadere la stuoia con grande strepito sconvolto e incapace di parlare terrorizzato dal dubbio che la visione potesse rinnovarsi rimase lì come uno spiantato a guardare la moglie che rientrava nella stanza e si coricava tranquilla e positiva quel suo modo di fare gli dette l'impressione di essere disperatamente solo al mondo mrs verlo che si mostrò sorpresa nel vederlo ancora in piedi non mi sento molto bene pronto no mister verlo che passandosi la mano sulla fronte madida capogiro sì insomma non sto bene per niente con tutta la flemma di una moglie pratica del suo mestiere winnie espresse un parere incoraggiante circa la causa del male e consigliò i soliti rimedi ma il marito fermo nel mezzo della stanza quasi avesse messo radici scosse il capo con aria malinconica prenderai freddo stando così osservò lei mister verlo facendosi forza finì di svestirsi e si coricò giù nella via stretta e quieta un ritmo di passi si avvicinò alla casa poi svanì in distanza ritmo costante e moderato come se il passante si fosse messo in cammino per tutta l'eternità avanzando da un lampione all'altro in una notte senza fine distinto si udiva nella camera il ticchettio del vecchio orologio a pendolo delle scale winnie supina con gli occhi fissi al soffitto guadagno scarso oggi rilevò mister verlo nella stessa posizione si schiarì la gola come per fare un resoconto importante ma poi si limitò a interrogare hai spento il gas in cucina lo spento rispose la moglie in tono coscienzioso poi dopo una pausa che durò tre oscillazioni di pendolo aggiunse in un mormorio quel povero ragazzo è in uno stato di grande eccitazione stasera mister verlo non dette alcuna importanza all'eccitazione di stevi si sentiva però terribilmente sveglio lo inorridiva il pensiero di trovarsi faccia faccia col buio col silenzio che imperano appena spento il lume per vincere questo orrore volle dire qualcosa e osservò che stevi non aveva dato retta al suo consiglio ad andare a coricarsi missis verlo cadendo nella trappola cominciò un lungo discorso per dimostrare che in questo caso non si trattava assolutamente di sfacciataggine ma soltanto di eccitazione non c'era in tutta londra un giovanotto della sua età più docile e volenteroso di stevi affermò perfezionato e compiacente e anche capace di rendersi utile finché nessuno veniva a sconvolgere quella sua povera testolina voltandosi poi verso il marito era rimasto disteso sulla schiena la donna si sollevò sul gomito e si piegò verso di lui ansiosa di sapere se egli considerasse stevi un membro utile della famiglia quell'ardore di pietà quel senso di protezione morbosamente esaltato fin dall'infanzia per la miseria del bambino che le veniva accanto le tingeva di un rossore quasi cupo le gote giallastre dando un nuovo splendore ai suoi grandi occhi sotto l'ombra scura delle palpebre pareva l'ingiovanita pareva non più missis verloch ma la winnie d'un tempo anzi molto più animata di quanto la winnie della casa di belgravia non si fosse mai permessa di apparire ai signori suoi ospiti le preoccupazioni di mister verloch gli impedivano di interessarsi seriamente a ciò che la moglie stava dicendo era come se la voce di lei risuonasse dall'altro lato d'una spessa parete ma quel suo nuovo aspetto lo richiamò a se stesso ammirò la donna e questo sentimento agitato da una forza che rassomigliava all'emozione non fece che accrescere la tortura della sua mente angosciata quando la voce di lei si spense lui si mosse con un senso di disagio e disse è già qualche giorno che non mi sento bene forse intendeva con questa frase di dare la stura a una confessione completa ma lei appoggiò di nuovo la testa sul cuscino nello sguardo fisso in alto proseguì quel ragazzo sente troppo i discorsi che fa la gente in questa casa se avessi saputo che dovevano venire da te stasera avrai trovato il modo di farlo andare a letto quando sono salita io ho trovato fuori di sé per qualcosa che ha ascoltato passando a proposito di persone che mangiano la carne del popolo e ne bevono il sangue vorrei proprio sapere a che servono codeste chiacchiere c'era nel suo accento una nota di indignazione e quasi di scherno questa volta la risposta di mister verloc non si fece aspettare domangalo a cardiunt grugnì selvaggiamente mister verloc in modo reciso definì cardiunt un vecchio disgustoso manifestò apertamente la sua simpatia per michaelis quanto al robusto sipo la cui presenza le infondeva sempre un certo turbamento che la sapeva nascondere dietro una freddezza marmorea nemmeno ne fece cenno continuando invece a parlare del fratello che per tanti anni era stato oggetto dei suoi timori e delle sue premure non è fatto per ascoltare quel genere di cose disse lui crede a tutto non sa distinguere e poi lo vedi in che stato di esaltazione si riduce mister verloc non fece commenti mi guardava bieco come se non mi riconoscesse quando sono andato giù il cuore mi batteva come un martello non può fare a meno lui di sovraeccitarsi in quel modo ho svegliato la mamma e l'ho pregata di star su e fargli compagnia finché non lo vede dormire non è colpa sua povero ragazzo quando lo lasciano in pace non da noia a nessuno mister verloc non fece commenti vorrei che non fosse andato mai a scuola ricominciò la moglie in tono brusco porta sempre via i giornali dalla vetrina e sta lì a leggerseli senza batter ciglio con un viso di fuoco non riusciamo a venderne nemmeno una dozzina in un mese rimangono solo a ingombrare la vetrina e intanto mister osibon ci porta tutte le settimane una catasta di quegli opuscoli dell'api da vendere a 10 centesimi l'uno io però non darei 10 centesimi per tutto il pacco è roba ridicola a leggersi ecco che cos'è perciò non si riesce a venderli l'altro giorno stevie si è impadronito di uno di quelli dove si racconta la storia di un ufficiale tedesco che a mezzo ha strappato un orecchio a una recluta e nessuno gli ha torto un capello per questo fatto che brutto non ho potuto compicciar nulla con stevie tutto quel pomeriggio certo la storia era più che abbastanza per far ribollire il sangue a chiunque a che scopo però stampare simili orrori qui grazie a dio non siamo schiavi come in germania e i loro affari non ci riguardano vero mister verroc non fece parola ho dovuto togliergli di mano il colpello della carne a quel ragazzo continuò missi sverlo con la voce che tradiva ora l'avvicinarsi del sonno urlava singhiozzava batteva i piedi non può sopportare l'idea di una crudeltà qualsiasi se in quel momento si fosse trovato davanti l'ufficiale tedesco l'avrebbe scannato come un maiale ha ragione dopo tutto certa gente non merita compassione tacque e durante una lunga pausa l'espressione del suo sguardo immobile si velò e divenne sempre più contemplativa hai bisogno di nulla caro domandò con una voce smorzata distante posso spegnere ora la lumbre convinzione che per lui quella notte non ci sarebbe stato un minuto di sonno lo teneva lì muto desolatamente inerte nel terrore delle tenebre fece un grande sforzo e si spegni pure rispose finalmente in tono cupo una trentina di tavoli oppressa poco coperti per lo più da tovaglie rosse con disegni bianchi erano stati accomodati in quattro file ad angolo retto lungo lo zoccolo di legno scuro della grande sala sotterranea candelabri di bronzo con numerose lampade sferiche pendevano dal soffitto basso leggermente a volta lungo le quattro pareti senza finestra correva un affresco assai guasto e sbiadito raffigurante scene di cazza e festine all'aperto in costume medievale valletti in giubba verde brandivano il trinciante e sollevavano in alto spumezzanti boccali di birra a meno che io non mi sbagli di grosso tu sei l'uomo che dovrebbe conoscere a fondo questa maledetta faccenda diceva il robusto sipon chinandosi tutto in avanti puntando sulla tavola i gomiti divaricati i piedi completamente ripiegati all'indietro sotto la seggiola guardava in faccia il suo interlocutore con impazienza selvaggia un pianoforte a simicoda verticale fiancheggiato da due palme in vaso cominciò ad un tratto a eseguire per conto proprio un motivo di waltzer con aggressivo virtuosismo strepitava ad assordire quando tacque lo metto meschino con le lenti che sedeva di fronte a ossipon dietro un enorme boccale colmo di birra pronunciò senza scomporsi parole che suonavano come una formula generica in linea di principio quello che uno di noi può sapere o non sapere riguardo a dati fenomeni non costituisce argomento d'inchiesta da parte di terzi eh no certamente assentì il compagno sipon con tono in sordina tranquillo in linea di principio stringendosi fra le mani il grosso viso florido non distoglieva un attimo lo sguardo dal lometto meschino con gli occhiali il quale beve intanto freddamente un sorso di birra e rimise a posto il boccale sulla tavola gli orecchi grandi e i piatti gli si staccavano largamente dal cranio fragile abbastanza si sarebbe detto perché ossipon potesse prendersi il gusto di schiacciarlo fra il pollice e l'indice la cupola della fronte pareva appoggiare sull'ordo degli occhiali la sua carnagione era viscida amaratizza le guance piatte appena macchiate dalla miseria di due magre fedine scure e la pietosa inferiorità di tutto il suo fisico era resa ridicola dalla suprema sicurezza di sé che si manifestava nel portamento di quell'individuo parlava breve e aveva una maniera particolarmente significativa di restare in silenzio ossipon riprese la parola bofonchiando attraverso le mani congiunte sei stato fuori a lungo oggi no a letto la mattina fu la risposta perché ah niente fece ossipon continuando a guardarlo serio e insistente fremendo nell'intimo per il desiderio di scoprire qualcosa ma evidentemente intimidito dall'opprimente aria di indifferenza dell'ometto meschino ogni volta che gli accadeva di parlare con questo compagno occasioni rare d'altronde il forte ossipon soffriva sempre di una sensazione di pochezza morale e anche fisica azzardò tuttavia un'altra domanda e fino a qui sei venuto a piedi no omnibus rispose l'altro abbastanza pronto abitava lontano a islington in una casuppola ad una vecchia strada sporca seminata di cartacce e fili di paglia dove purché nelle ore di scuola una banda di ragazzi di ogni specie correva altercava schiamazzava con un frastuono stridulo senza allegria la affittava da due zitelle una camera appartata e ammobiliata notevole per il fatto di possedere un armadio gigantesco le sue padrone erano sarte di categoria assai modesta con la clientela formata in prevalenza da ragazze di servizio gli teneva chiuso l'armadio con un lucchetto pesante ma per il resto poteva dirsi un pensionante modello che non dava nessuna noia e praticamente non aveva mai bisogno di nulla aveva due stranezze sole ci teneva ad essere presente quando gli facevano la camera e ogni volta che usciva chiudeva l'uscio a doppio giro e la chiave se la portava via con sé ad ossipo un parve di vedere quegli occhiali rotondi cercati di nero che venivano avanti lungo le vie ferroni sull'imperiale di un omnibus immaginava il loro bagliore presuntuoso proiettarsi qua e là sui muri delle case o di sopra le teste dell'incosciente fiume di folla scivolare sul selciato delle strade l'ombra di un risolino sardonico alterò la posizione delle grosse labbra di ossipo all'idea dei muri che tremano della folla che tenta di salvarsi in fuga precipitosa alla vista di quegli occhiali se avessero saputo quale panico avrebbe suscitato qui dentro da molto domandò in un bisbiglio un'ora e più rispose l'altro con indifferenza e beve un sorso di birra nera tutti i suoi gesti il modo di afferrare il boccale nato di bere rimettere il bicchiere a posto e incrociare le braccia avevano una fermezza un'esattezza sicura di sé in virtù della quale grande muscoloso sipon tutto proteso con gli occhi sbarrati le labbra in fuori pareva il ritratto dell'indecisione un'ora e scramò dunque è probabile che tu sia già al corrente delle notizie che mi sono giunti all'orecchio proprio ora per strada sì o no lo metto scrollò la testa in segno recisamente negativo ma poiché non dava a vedere la minima curiosità ossipon si arrischiò ad aggiungere che so che avevo udito l'avevo udito proprio lì alla soglia di quel locale un ragazzo che vendeva i giornali gliel'aveva strillato proprio sotto il muso e lui non essendo preparato a nulla di simile era rimasto impressionato e sconvolto al punto di sentirsi la gola asciutta perciò si era precipitato dentro non avrei mai creduto di trovarti qui soggiunse sempre continuando a bisbigliare i comiti puntati sulla tavola ci vengo qualche volta disse l'altro conservando inalterato quel suo contegno gelido e provocante straordinario che tu solo fra tutti non abbia sentito dir nulla le palpebre del gigantesco ossipon sbattevano nervose sugli occhi scintillanti tu solo fra tutti ripete a titolo d'esperimento l'evidente controllo che quel giovane oltone grande e grosso doveva esercitare su se stesso era una prova dell'incredibile inesplicabile timidezza che li invadeva di fronte all'ometto meschino imperturbabile questi ancora una volta gli empì il boccale beve lo rimise giù con mosse secche e sicure e fu tutto per un poco ossipon rimase in attesa di qualcosa una parola un segno ma senza risultato si sforzò allora di assumere anche lui una specie di maschera dell'indifferenza con voce ancora più sorda e spenta interrogò dimmi quella tua roba che sei pronto a darla a chiunque te la chiede come regola assoluta non ne rifiuto a nessuno finché ne posseggo anche un pizzico solo rispose l'ometto senza esitare in linea di principio ossipon commentò in linea di principio e lo ritieni ragionevole le larghe lenti rotonde che conferivano alla faccia giallastra quella sua espressione ferma e arrogante squadrano ossipon come due occhiaia insonni senza palpebre da cui scaturiva una fiamma fredda pienamente ragionevole sempre in qualsiasi circostanza che cosa me lo può impedire perché non dovrai perché dovrai pensarci due volte ossipon ansimò ma per così dire con discrezione intendi affermare che saresti pronto a darne anche a un detective se venissero a domandarti la tua merce l'altro ebbe un pallido sorriso lascia che vengano a far la prova disse e poi vedrai mi conoscono è vero ma anch'io li conosco uno per uno non hanno molta voglia di di intorno proprio loro le labbra livide e sottili si rinchiusero seccamente ossipon cominciò a discutere potrebbero mandare qualcun altro però tenderti una trappola ti pare arraffarti quella roba con qualche trucco e poi metterti nel sacco con le prove in mano quali prove commercio di esplosivi senza autorizzazione vuoi dire la domanda non era che uno scarso sprezzante tant'è vero che l'espressione del viso scarno e malaticcio rimase immutata e la frase fu buttata là con la solitaria neglizente non credo che nessuno di loro sia troppo ansioso da arrestarmi se non sbaglio non ce n'è uno che accetterebbe l'incarico nemmeno i migliori nessuno perché si informò il compagno perché sanno benissimo che io ci tengo a non separarmi dalla mia merce fino all'ultimo pizzico ho sempre qui con me se sfiorò appena il petto della giacca in una solida fiaschetta di vetro aggiunse giù me l'avevano detto rorò sipon con un'ombra di stupore nella voce ma non sapevo che quella gente lo sa interrupe romuncolo in tono asciutto appoggiandosi contro la spalliera rigida della sedia la quale superava l'altezza del suo cranio fragile non mi agguanteranno mai nessuno dei loro sbirri troverebbe il gioco piacevole per avere a che fare con un uomo come me si vuole nudo e crudo eroismo e senza gloria di nuovo le sue labbra si serrarono con un piccolo schiocco baldanzoso o si frenò a fatica un gesto di impazienza o altrimenti una temeralità incosciente oppure è semplice ignoranza replicò basterebbe appioppare l'incarico a qualcuno che non sa nulla della roba che ti porti in saccoccia e del fatto che tu puoi fare andare il briciole te stesso e tutto il resto nel raggio di 50 metri non ho mai affermato che non abbiano il potere di eliminarmi ammise l'altro quello che non potrà mai verificarsi è un arresto non sarebbe nemmeno facile come sembra ossicon si permise di contraddire ma mi pare che non sia il caso di sentirsi così al sicuro che può impedire a una mezza dozzina di quelli là di prenderti alle spalle in mezzo alla strada se ti intiodano le braccia ai fianchi non puoi far nulla ti pare perché no il resto è raro che io mi trovi per le strade dopo l'imbrunire ribattelo metto impassibile e mai in piena notte cammino sempre con le dita alla mano destra strette intorno a una peretta di caucciù che ho nella tasca dei pantaloni basta premerla per ottenere una detonazione nella fiaschetta che porto al petto è lo stesso principio dell'otturatore pneumatico delle macchine fotografiche c'è un tubo che sale su con mossa rapida si aprì e richiuse la giacca permettendo a sipon di intravedere un attimo il tubo di gomma elastica simile a un verme bruno e sottile che sbucava dalla cella della sottoveste e andava a tuffarsi nella tasca interna del petto i suoi abiti di un'indefinibile tinta scura erano frusti pieni di frittelle polverosi nelle pieghe con gli occhielli sfilacciati il detonatore è meccanico in parte e in parte chimico spiegò con condiscendenza istantaneo naturalmente mormorò sipon non senza un brivido leggero veramente no confessò l'altro con riluttanza tale che la sua bocca parve contrarsi per il dolore 20 secondi buoni devo ondecorrere dal momento in cui premo la peretta fino a quando si produce l'esplosione si bilò sipon senza più nascondere l'orrore che provava 20 secondi tremendo e tu pretendi di poter affrontare un rischio simile io diventerai pazzo questo non ha importanza senza dubbio è il punto debole del sistema il quale del resto è solo per mio uso e consumo il guaio è che quella maniera di esplodere rappresenta sempre il punto debole per noi ora sto tentando di inventare un detonatore che si adegui a tutte le condizioni dell'azione non solo ma anche alle varianti imprevedibili un meccanismo variabile e tuttavia di una precisione perfetta un detonatore realmente intelligente 20 secondi continuava a borbottare un sipon accidenti e dopo il cranio fragile si girò appena di lato e lo scintillio delle lenti parve misurare in lungo e in largo la sala per i bevitori nel sottosuolo del rinomato ristorante silenus in questa sala nessuno potrebbe farla franca fu il verdetto che seguì la perizia neppure quella coppia laggiù che s'avvia ora per le scale ai piedi delle scale il pianoforte attaccò una mazzurca fragorosa con tanta sfacciata veemenza da far pensare che uno spettro invisibile sedesse lì senza pudore a far bella mostra della propria bravura i tasti s'alzavano e s'abbassavano mossi da una forza misteriosa poi tornò la calma e ossipon immaginò per un istante quel locale pieno di luci ridotto a nient'altro che uno spaventoso buco nero bruttante orribili vapori ingorgato di lugubri detriti macerie in frontumi e cadaveri mutilati rovina e morte gli apparvero davanti in una visione così netta e concreta che gli rabbrivedì di nuovo l'altro osservava con un'aria di calma sufficienza in ultima analisi solo il carattere decide della salvezza di un uomo pochi individui ci sono al mondo che abbiano un carattere saldo e squadrato come il mio mi domando semplicemente come fai ossipon grugni forza della personalità rispose l'altro senza alzare la voce pronunciata da una bocca appartenente a un organismo così evidentemente miserabile la formula faceva effetto tanto che il robusto ossipon si morse il labbro inferiore forza della personalità ripete con una calma ostentata ho in mano uno strumento di morte ma la cosa tu mi capisci non basterebbe per se stessa a proteggermi ciò che conta è come quella gente crede nella mia volontà di farne uso questa è la loro impressione ma è assoluta perciò io sono effettivamente uno strumento di morte anche fra loro però ci sono individui di carattere sussurrò sipon come un uccello del malaugurio può darsi in ogni modo è una questione di proporzione tant'è vero che io per esempio non sono impressionato da loro il loro carattere si basa sulla moralità convenzionale si appoggia all'ordine sociale il mio invece è libero da ogni puntello artificioso ogni sorta di convenzioni li vincola ed essi fanno assegnamento sulla vita la quale a questo riguardo non è che un fatto storico accercato da restrizioni e considerazioni di ogni genere un fatto organico complesso facile ad essere attaccato in ogni punto mentre io faccio assegnamento sulla morte che nulla può limitare e nulla attaccare la mia superiorità è evidente questo è un modo trascendentale di porre il problema obiettò sipo senza perdere di vista lo scintillio delle lenti rotonde non molto tempo fa ho sentito fare da carl juntz pressapoco le stesse affermazioni carl juntz borbottò l'altro fra i denti con sommo disprezzo il delegato del comitato rosso internazionale l'ombra di un commediante ecco cosa è stato tutta la sua vita fra voi ci sono tre delegati vero altri due preferisco non definirli se ne fai parte anche tu ma ciò che mi dicevi ora non significa nulla voi siete i degni delegati per la propaganda rivoluzionaria ma il guaio non è solo che siete incapaci di indipendenza di pensiero come un qualsiasi rispettabile droghiere o giornalista della loro razza il guaio è che non avete un brizzolo di carattere ossipon non poter primere uno scatto di indignazione ma insomma che vuoi da noi esclamò con voce soffocata e che cosa sei tu di fronte a te stesso un detonatore perfetto fu la risposta senza incertezze perché mai quella faccia vedi non sei nemmeno capace di sopportare che si accenne a qualcosa di conclusivo non sto facendo nessuna faccia boffonchiò rabbiosamente ossipo che cominciava a seccarsi voi rivoluzionari l'altro continuò arrogante disinvolto siete gli schiavi delle convenzioni le quali hanno paura di voi e siete schiavi proprio come lo è la polizia che esiste per difendere queste convenzioni è chiaro che lo siete perché ci tenete tanto a rivoluzionarle esse governano i vostri pensieri non c'è dubbio in proposito e anche le vostre azioni di modo che né col pensiero né con l'azione potete mai arrivare a concludere qualcosa da quel momento con quella calma che rendeva il suo silenzio così chiuso e definitivo riprese però quasi immediatamente non siete per nulla superiori alle forze organizzate contro di voi la polizia per esempio altro giorno mi sono imbattuto improvvisamente nell'ispettore capo kit all'angolo di tottenham court road mi guardò fisso io invece non lo guardai un'occhiata di passaggio era anche troppo perché avrei dovuto concedergli di più lui chissà quante cose pensava ai superiori alla sua reputazione al suo stipendio ai tribunali ai giornali un centinaio di cose mentre io pensavo al mio detonatore perfetto e nulla di più la sua persona non mi interessava minimamente era insignificante per me come non mi viene in mente nulla che sia tanto insignificante da poter rezzere al paragone se non forse carla jundt simile con simile il terrorista e il poliziotto merce della stessa qualità rivoluzione legalità pedine nere e pedine bianche ma il gioco è lo stesso forme di indolenza identiche nel fondo l'ispettore gioca la sua piccola partita e voi propagandisti altrettanto ma io no e io non gioco io lavoro 14 ore al giorno e qualche volta mi riduco alla fame i miei esperimenti esigono forti spese di quando in quando e in quel caso devo rimanere a digiuno un giorno due guardi la mia birra è vero ne ho già bevuto due bicchieri e ora ne ordinerò un terzo è una piccola festa oggi per me e la sto celebrando da solo a solo con me stesso perché no ho il coraggio io di lavorare da solo proprio solo solo in modo assoluto per anni e anni ho lavorato così il viso di ossipon sarà fatto paonazzo al detonatore perfetto eh ghignò sommesso precisamente replicò l'altro è un'ottima definizione non potresti trovare nessuna immagine così aderente per definire la natura della vostra attività con tutti i suoi comitati e delegazioni ma è vero propagandista sono io meglio non discutere su quest'argomento disse ossipon con l'aria di levarsi al di sopra delle considerazioni personali d'altronde ho paura che mi toccherà guastarti la festa insomma stamane al greenish park è saltato in aria un uomo come lo sai è dalle due che urlano ai 4 20 questa notizia per la strada ho comprato il giornale sono entrato qui poi ho veduto te a questo tavolo guarda l'ho in tasca tiro fuori il giornale era un foglio rosa di formato grande pareva colorito dal tepore delle proprie convinzioni rose e convinzioni ottimistiche lo scorse rapidamente ah ecco qui bomba in greenwich park non ci sono molti particolari per ora alle 11 e mezzo mattinata nebbiose effetti dell'esplosione risentiti fino a romery road e park blaze buca enorme nel terreno sotto un albero piena di radici strappate e di rami rotti all'intorno i frammenti di un corpo umano ridotto a brandelli e tutto il resto sono le solite chiacchiere giornalistiche certo non può essere che un perfido tentativo di far saltare in aria l'osservatorio dicono è quasi incredibile per qualche minuto ancora rimase a guardare il giornale in silenzio poi lo passò al compagno e questi dopo avere scorso distrettamente i titoli lo depose sul tavolo senza commenti il primo a riprendere la parola fu sipon ancora in tono risentito i resti di un corpo umano uno solo nota bene ergo si è fatto saltare in aria da se quest'affare ti guasta la vacanza vero te l'aspettavi un colpo simile per me non ne avevo il più lontano sospetto nemmeno l'ombra del sospetto che si stesse tramando un colpo simile da fare scoppiare qui in questo paese nelle circostanze attuali è un delitto puro e semplice l'ometto sollevò le sottili sopracciglia nere con spassionato disprezzo un delitto che significa che cos'è il delitto qual è il significato di codesta asserzione come posso esprimermi insomma bisogna ben servirci delle parole d'uso corrente esclamò sipon con impazienza il significato della mia asserzione è che quest'affare può danneggiare la nostra posizione in modo molto sensibile nel nostro paese non è abbastanza per qualificarlo un diritto sono convinto che hai dovuto cedere un po della tua merce ultimamente guardava in faccia il compagno senza batter palpebra l'altro impassibile abbassò e rialzò lentamente il capo ah è vero dunque esplose il redattore dei volantini della p intensificando il suo bisbiglio proprio e sul serio sei pronto ad offrirne così senza distinzioni purché ti venga richiesta al primo pazzo che ti capiti fra i piedi proprio così l'ordine sociale che noi condanniamo non è stato costruito con la carta e l'inchiostro ed io ritengo pensatene quel che volete che non sarà mai una combinazione di carta e inchiostro a farlo finire sicuro sono pronto a cederne a piene mani di questa roba chiunque venga a chiedermela uomo donna o pazzo che sia so benissimo che cosa ne pensate voi altri ma io non mi faccio suggerire la parte dal comitato rosso potrei vedervi tutti cacciati dall'inghilterra o arrestati o decapitati magari per quella faccenda senza alzare un dito tutto quello che ci accade in quanto individui non ha la più piccola importanza parlava non curante senza calore insensibile avreste detto e lo sipon turbato non poco nell'intimo cercò di imitare quell'aria distaccata se la polizia di qui sapesse il fatto suo ti crivellerebbe a forza di revolverate o magari cercherebbe di prenderti alle spalle e di picchiarti a morte di pieno giorno col solito stile spassionato e sicuro di sé l'ometto mostrò di aver già preso in considerazione questo punto di vista certamente asserì senza ombra di eccitazione per far questo però dovrebbero prima di tutto venire a contrasto con le proprie istituzioni ti pare e ciò richiede un coraggio eccezionale un coraggio di qualità non comune ossipon ammico è esattamente ciò che ti accadrebbe immagino se tu trasferissi il tuo laboratorio negli stati uniti laggiù non fanno tanti complimenti con le loro istituzioni non è probabile che io vada a farne l'esperimento d'altra parte la tua osservazione non è sbagliata ammise l'altro hanno più carattere laggiù ed è un carattere essenzialmente anarchico terreno fertile per noi l'america ottimo terreno la grande repubblica ha radicato in sé stessa lo spirito di distruzione lo spirito collettivo è fuori legge eccellente possono anche possono anche sbarazzarsi di noi ma sei troppo trascendentale per me disse ossipon con fare annoiato ma sempre con un certo riguardo non trascendentale logico l'altro protestò ci sono varie specie di logica questa è la ragione illuminata l'america è come deve essere questo paese invece è il più pericoloso con la sua concezione idealistica della legalità il temperamento sociale del nostro popolo è avviluppato di pregiudizie di scrupoli ciò che risulta fatale al nostro lavoro voi altri ne parlate sempre come del solo rifugio che ci rimane tanto peggio è la nostra capua che ce ne facciamo di un rifugio di chiacchiera di stampa e di complotti e non si conclude nulla molto conveniente direi per gente come carl jult scrollò leggermente le spalle poi aggiunse con la solita audacia disinvolta annientare la superstizione e l'adorazione della legalità questo dovrebbe essere il nostro scopo nulla mi piacerebbe tanto come vedere l'ispettore hit e i suoi simili che si mettono a fare strage di noi in pieno giorno con l'approvazione del pubblico ciò vorrebbe dire aver vinto metà della battaglia la disintegrazione della vecchia morale che prende piede nel suo stesso tempio è questo lo scopo a cui dovete mirare ma voi altri rivoluzionari non l'intenderete mai voi pianificate l'avvenire e vi perdete in fantasticherie a proposito di sistemi economici derivati dall'attuale mentre invece ciò che è necessario è il colpo di spugna e il salto decisivo verso una nuova concezione della vita allora l'avvenire ci penserà da sé a pianificarsi purché abbiate preparato lo spazio perché si possa realizzare ragion per cui io sarei pronto a metter su cumuli di quella mia merce ad ogni cantonata se ne avessi in quantità sufficiente ma già che non ne ho faccio del mio meglio per ottenere un detonatore perfetto del quale ci si possa realmente fidare ossipo che era stato nel frattempo a nuotare mentalmente sott'acqua fra gli abissi s'aggrappò alla penultima parola come alla tavola di salvezza i tuoi debitori sicuro non mi stupirebbe se fossero stati i tuoi detonatori a dare il colpo di spugna per quel luogo del parco un'ombra di dispetto abbuiò il viso squallido e risoluto che lo fronteggiava la mia difficoltà disse consiste appunto nel dover fare l'esperimento sulle varietà ottenute provarlo è necessario si intende inoltre ossipo un interruppe chi sarà stato quell'individuo ti assicuro che noi altri a londra non ne avevamo idea non potresti descrivermi la persona alla quale hai smerciato quella roba l'altro puntò le sue lenti su di lui come un paio di riflettori descriverlo ripete scandendo le parole certo ormai non ho nulla proprio nulla da obiettare che lo descrivo con una parola sola verloc per la curiosità ossipon sarà sollevato di qualche centimetro sulla sedia ma ricalde giù di colpo come se avesse ricevuto uno schiaffo in pieno viso verloc impossibile senza mai perdere il controllo di sé lo metto accennò leggermente con la testa sì lui in questo caso non potrei dire che ho ceduto la mia merce al primo imbecille che mi è capitato fra i piedi era un pezzo grosso del gruppo per quanto ne so altro che esclamò ossipo grossissimo no non esattamente era piuttosto il centro dei nostri rapporti segreti e in generale i compagni che capitavano a londra si ritrovavano in casa sua piuttosto utile che importante un uomo senza idee anni fa aveva l'abitudine di parlare spesso alle adunanze in franza se non sbaglio non un gran parlatore del resto era molto stimato da gente come la torre moser tutta la vecchia baracca il solo talento di cui ha dato veramente prova era una speciale abilità di eludere in un modo nell'altro la vigilanza della polizia qui per esempio pare che non si siano mai occupati seriamente di lui tanto più che era regolarmente ammogliato quella bottega deve averla messa su col denaro di lei pareva anche che gli rendesse discretamente così puntacque di scatto e mormorò a se stesso mi domando che ne sarà di quella donna ora rimase meditabondo l'altro attese con ostentata indifferenza era un uomo di origine oscura noto soltanto col soprannome di professore il suo diritto al titolo consisteva nel fatto ad essere stato un tempo assistente di chimica in un istituto tecnico essendoci messo in urto coi superiori per qualche torto ricevuto aveva poi ottenuto un posto in una fabbrica di sostanze coloranti anche lì però era stato trattato con vergognosa ingiustizia i suoi sforzi le privazioni gli anni di duro lavoro per elevarsi nella scala sociale e avevano riempito l'animo di una tale esaltata convinzione dei propri meriti da rendere estremamente difficile alla società il trattarlo con giustizia concetto alquanto indefinibile precisamente solo secondo il grado di pazienza dell'individuo aveva del genio il professore ma gli mancava una grande virtù sociale la rassegnazione intellettualmente una nullità abbandonando d'improvviso l'interiore contemplazione di verloc così duramente colpito dalla sventura nella persona e negli affari ossipon pronunciò ad alta voce il giudizio una personalità delle più ordinarie fai male a non stare maggiormente a contatto coi compagni professore aggiunse in tono di povero ti ha detto nulla almeno ti ha lasciato intravedere in qualche modo le sue intenzioni non lo vedevo da un mese e sembra impossibile che se ne sia andato così mi disse che ci sarebbe stata una dimostrazione contro qualche edificio disse il professore era necessario informarsi per la preparazione del proiettile gli feci notare che avevo appena la quantità sufficiente perché ne risultasse una distruzione completa ma lui insistì con molta serietà perché io facessi del mio meglio e siccome voleva qualcosa che si potesse portare a mano apertamente gli propose un vecchio bidone da vernice della capacità di quattro litri e mezzo che per caso possedevo ancora l'idea gli piacque dapprima vi dette un po da fare perché dovetti toglierne il fondo e poi saldarlo di nuovo quando fu pronto per l'uso il bidoncino includeva un vaso di vetro massiccio largo di bocca a chiugio l'armetica fasciato di creta umida torno torno contenente 16 once di polvere verde xz il detonatore era collegato col tappo a vite del vaso un sistema ingegnoso combinazione di tempo e di energia glielo spiegai consisteva in un tubo sottile di latta con dentro un malattenzione di ossipon divagava come sarà successo che cosa ne pensi tu interruppe chi lo sa forse ha avvitato forte il tappo che serviva di collegamento e poi ha dimenticato il tempo era regolato per 20 minuti d'altra parte regolato il contatto secondo il tempo un urto violento può aver prodotto un'esplosione immediata insomma o ha fatto le cose troppo a bruciapelo o semplicemente ha lasciato cadere l'oggetto il contatto era regolato benissimo questo mi consta in ogni modo il sistema funziona alla perfezione si penserebbe piuttosto che un pazzo comune preso dalla furia corresse il rischio di dimenticare completamente di regolarlo era quello che più mi preoccupava il dubbio che potesse andare a finire in quel modo si vede che ci sono svariate categorie di pazzi contro cui dobbiamo guardarci non crederai mica che un detonatore sia addirittura a prova di pazzia fece un cenno al cameriere ossipon stava lì rigido con uno sguardo astratto che rivelava il travaglio mentale appena il cameriere se ne fu andato col denaro parve ridestarsi con un'aria tutt'altro che soddisfatta è veramente spiacevole per me disse carl e ha letto da una settimana con la bronchite c'è anche la probabilità che non si rimetta più in piedi michaelis sta facendo il gran signore in campagna non so precisamente dove un editore di moda che ha offerto 500 sterline per un libro sarà un fiasco mostruoso come sai ha perso l'abitudine di ragionare secondo un esso logico da quando è stato in prigione il professore in piedi si abbottonava il sopravvito guardandosi intorno con perfetta indifferenza che fai ora interrogò ossipon in tono stanco annoiato temeva il biasimo del comitato rosso centrale un organismo il quale non aveva neppure una sede permanente e della cui composizione egli non era esattamente informato se quest'affare si fosse risolto con la cessazione del modesto sussidio stanziato per la pubblicazione degli opuscoli della p allora sì che avrebbe dovuto rimpiangere la inesplicabile follia di verloc una cosa è la solidarietà con ogni forma d'azione anche la più estremista e un'altra è la temeralietà prontolò con una specie di pensierosa asprezza non riesco a capire che gli sia accaduto a quel uomo è sotto un mistero sia come sia però se ne è andato prendila come vuoi ma date le circostanze la sola linea di condotta possibile per il gruppo rivoluzionario militante è di smentire senz'altro ogni rapporto con questo vostro maledetto scherzo come faremo a rendere la smentita abbastanza convincente ecco la cosa che più mi preoccupa l'omuncolo dritto sulle sue gambette tutto abbottonato da cima a fondo e pronto per uscire arrivava sì e no all'altezza di ossipo un seduto di punto in bianco puntò gli occhiali contro di lui regolandoli al livello del suo viso potete rivolgere formale richiesta alla polizia per un certificato di buona condotta loro sanno con precisione dove ognuno di voi ha passato l'ultima notte forse se glielo chiedete acconsentiranno a pubblicare una specie di riconoscimento ufficiale devono essere senza dubbio al corrente del fatto che con questo pasticcio noi non abbiamo nulla a che vedere mugolò sipon amaro quello che diranno però è un altro paio di maniche rimase meditabondo quasi ignorando la figura mingerlina ridicola col viso di civetta che gli stava al fianco bisogna che ometta subito le mani su michaelis e ottenga di farlo parlare a una delle nostre adunanze parlare col cuore come sa lui il pubblico ha una specie di rispetto sentimentale per quell'individuo tutti conoscono il suo nome e io sono in buoni rapporti con qualche redattore di grandi quotidiani naturalmente non dirà altro che un guazzabuglio di assurdità però ha una certa maniera di discorrere che si fa accettare in ogni modo come la melassa insinuò il professore a bassa voce mantenendo la sua espressione impassibile ossipon perplesso seguito a comunicare le proprie riflessioni con un bisbiglio appena udibile secondo la maniera dell'uomo che medita in completa solitudine quel maledetto idiota lasciarmi sulle spalle una stupida faccenda di questo genere e nemmeno posso sapere se restava lì seduto stringendo le labbra l'idea di correre direttamente alla bottega di verloc per raccogliere notizie non era molto attraente sospettava che quella bottega potesse essersi già trasformata in una trappola della polizia si sentiranno in dovere pensava di mettere subito qualcuno in gattabuia e ne provò qualcosa di simile a una virtuosa indignazione perché vedeva in pericolo e non per colpa propria anche quel suo rivoluzionario tenore di vita eppure se non si decideva a dirigersi da quella parte correva un altro rischio di restare nell'ignoranza riguardo a qualcosa che gli sarebbe stato materialmente necessario conoscere poi riflette che l'uomo del parco non poteva essere già stato identificato se come affermavano i giornali l'avevano trovato in pezzi in quel caso che ragione avrebbe avuto la polizia di sorvegliare la bottega di verloc più strettamente di qualsiasi altro locale conosciuto come ritrovo di personalità anarchiche difatti c'erano altrettanti motivi per sorvegliare ad esempio le porte del silenus ne avrebbe incontrati un subisso a far ronda su e giù da qualunque parte si dirigesse tuttavia mi domando che sia preferibile fare in questo momento mormorò chiedendo consiglio a se stesso una vocetta stridula all'altezza del suo gomito disse con placida ironia va a cucirti alle sottane di quella donna per tutto quello che vale con questa frase il professore si allontanò dal tavolo ossipo che un tal saggio di penetrazione psicologica aveva colto alla sprovvista ebbe uno scatto inutile poi ritornò immobile con uno sguardo sgomento quasi lo avessero inchiodato al sedile il pianoforte solitario senza neppure uno sgabello che si occupasse di lui vibrò qualche accordo coraggioso e attaccando una selezione d'arie nazionali riuscì finalmente a cacciarlo fuori del locale al suono di blue bell of scotland udì le note staccate dolenti gradatamente smorzarsi dietro le sue spalle mentre senza fretta saliva le scale attraversava l'ingresso usciva nella via di faccia alla porta principale una macabra fila di giornalai all'arco del marciapiede offrivano i loro fogli sguazzando nel rigagnolo della strada era una scialba umida giornata del principio di primavera il cielo sporco il fango gli abiti meschini e impiallaccherati dai giornalai armonizzavano perfettamente con quell'inondazione di cartaccia molle imbrattata d'inchiostro di stampa gli affissi schizzati di sudicio adornavano come una tapezzeria la cantorata la distribuzione dei giornali del pomeriggio era intensa eppure in confronto col rapido ritmo costante del traffico stradale si aveva l'impressione che quei venditori stessero lì a far nulla e che nessuno si curasse di loro in tutta fretta ossipon lanciò un'occhiata a destra e a sinistra prima di attraversare la via mischiandosi alla corrente ma il professore era già scomparso capitolo 5 il professore aveva girato a sinistra e camminava ora col capo rigidamente retto in mezzo a una folla di cui quasi ogni individuo dominava dall'alto la sua statura rachitica inutile fingere con se stesso di non essere rimasto deluso ma questo non era che un sentimento la sua mente stoica non poteva lasciarsi turbare dall'uno o dall'altro in successo la prossima volta o la susseguente il colpo a grande effetto sarebbe partito qualcosa di veramente allarmistico uno scoppio capace di realizzare la prima incrinatura nella maestosa facciata del grande edificio delle concezioni legali asilo e riparo dell'atrocia ingiustizia della società di umile origine di aspetto meschino al punto da risentirlo come un ostacolo sulla via delle sue considerevoli qualità naturali la fantasia dell'omuncolo era stata precocemente infiammata udendo raccontare storie di personaggi i quali dall'abisso della povertà si erano elevati ad un alto grado d'autorità e piaggiatezza la purezza estrema quasi ascetica del suo spirito combinata a una sorprendente ignoranza della realtà della vita gli aveva situato davanti un obiettivo di potenza e di prestigio da tindersi non per mezzo delle arti o del fascino personale dell'astuzia o del danaro ma col puro e semplice peso dei propri meriti sotto questo punto di vista egli si considerava destinato a un successo indiscutibile suo padre un delicato tenebroso entusiasta era stato il predicatore girovago esaltante di qualche oscura ma rigida setta cristiana un uomo animato da suprema fede nei privilegi della propria santità nel figlio individualista per temperamento non appena la scienza universitaria era venuta a sovrapporsi in modo completo e assoluto alla credenza religiosa delle conventicole l'atteggiamento morale paterno si era volto in una pulitana frenesia d'ambizione la carezzava dentro di sé come un ideale di santità laica gli ostacoli incontrati sul suo cammino gli avevano poi aperto gli occhi sulla vera natura del secolo permeata di moralità artificiale corrotta e blasfema avvento ad ogni rivoluzione anche la più giustificabile è sempre preparato da impulsi personali in veste di dogmi universali indignazione del professore aveva trovato in sé stessa la ragione suprema che lo assolveva dal peccato di volgersi alla distruzione come mezzo per realizzare le proprie ambizioni distruggere la fede pubblica nella legalità ecco la formula non ancora perfezionata del suo fanatismo pedante conservava tuttavia nel subcosciente l'esatta matematica convinzione che la struttura di un ordine sociale costituito non può praticamente sfasciarsi se non attraverso qualche forma di violenza collettiva o individuale la sua missione era di moralità questo rimaneva stabilito nella sua mente come postulato irrefutabile esercitandola con un atteggiamento spietato di sfida e gli rivestiva di fronte a se stesso le apparenze del potere del prestigio personale ciò era innegabile per l'amaro bisogno di vendetta che covava in lui serviva a placare la sua inquietudine forse a modo loro i rivoluzionali più bollenti altro non fanno che tormentarsi per trovare pace in comune con tutto il resto dell'umanità la pace delle vanità adulate degli appetiti soddisfatti forse anche della coscienza serena perduto nella folla miserabile oggetto sottomisura egli meditava fiducioso sulla potenza raggiunta mentre proseguiva il suo cammino con una mano sprofondata nella tasca sinistra dei pantaloni le dita leggermente contratte intorno alla peretta di gomma elastica garanzia suprema della sua libertà dopo poco però risentì l'impressione sgradevole della via affollata di veicoli mentre sul marciapiede uomini e donne facevano ressa si trovava in una strada lunga diritta popolata appena da una piccola frazione dell'immensa moltitudine mentre dunque intorno a lui e oltre e più oltre fino ai limiti dell'estremo orizzonte invisibili dietro accumuli di pietre e mattoni sentì il peso della massa umana potente nel suo numero sterminato pullolavano fitti come cavallette industriosi come formiche indifferenti come una forza della natura percorrendo la propria pista c'è chi metodici assorti refrattari al sentimento alla logica forse anche al terrore questa era la forma di dubbio che gli temeva di più refrattari al terrore quando all'estero trovandosi a passeggiare per le vie di una città gli accadeva talvolta di uscire di se stesso spesso provava simili momenti di spaventevole e pur sana diffidenza nei riguardi dell'umanità chi verrà se nulla riesce a smuoverli momenti simili sono ben noti a tutti gli uomini la cui ambizione di fronte al genere umano mira a una diretta presa di possesso gli artisti politicanti pensatori riformatori i santi stato emotivo di per sé spreggevole contro il quale la solitudine fortifica un carattere superiore con estrema esultanza il professore pensò al rifugio della sua camera con l'armadio chiuso a lucchetto sperduta nella zona selvatica delle case dei poveri romitaggio del perfetto anarchico allo scopo di raggiungere più presto la fermata dell'autobus uscì con una brusca svolta dalla strada affollata per entrare in un vicolo pavimentato a grandi lastre di pietra stretto e buio da un lato bassi fabbricati di mattoni dalle finestre polverose simili al mio pesguardo agonizzante dell'ammalato incurabile uscì vuoti in attesa ad essere gettati nell'immondizia dall'altro ancora qualche barlume di vita di fronte all'unico lampione a gas sbadigliava la caverna di un rivenditore di mobili dove sperduta nella caligine di una specie di angusto sentiero serpeggiante attraverso una foresta di armadi e un folto sottobosco di gambe di tavole quasi un laghetto d'argento luccicava un'alta specchiera un letticciolo infelice senza tetto fiancheggiato da due seggiole scompagnate giaceva all'aperto davanti alla bottega l'unico essere umano che in quel momento si servisse del vicolo oltre al professore era un uomo eretto e gagliardo che veniva avanti in direzione opposta improvvisamente il suo passo elastico si rigidì salve disse e si fermò leggermente di fianco come se stesse in guardia già il professore si era arrestato con un rapido mezzo giro che portò le sue spalle molto vicine all'altro muro sfiorava con la mano destra la spalliera del letticciuolo esiliato mentre la sinistra rimaneva ostinatamente immersa nella tasca dei pantaloni la rotondità delle lenti dalla montatura massizza accentuava l'espressione di civetta che era propria di quel suo viso scraziato e imperturbabile pareva un incontro in un corridoio appartato di un grande edificio pieno di vita l'uomo gagliardo indossava un sopravito scuro abbottonato da cima a fondo e portava l'ombrello sotto braccio il cappello inclinato all'indietro gli lasciava scoperta buona parte della fronte che in quella semi oscurità appariva bianchissima e l'ombra nera delle occhiaie le iridi brillavano pungenti i baffi cascanti colore del grano maturo incorniciavano con le lunghe punte il blocco quadro del mento ben rasato non cercavo lei disse secco secco il professore non si spostò di un centimetro il frastuono dell'immensa città giungeva fino a loro smorzato ridotto a un sommesso in articolato morborio rispettore capo hit del dipartimento penale speciale cambiò tono la fretta di rientrare domandò con semplicità scherzosa l'omuncolo malatizzo alto rappresentante morale della distruzione esultò in silenzio del proprio prestigio personale che gli permetteva di tenere a vada quel personaggio incaricato della difesa di una società minacciata più fortunato di caligola il quale si augurava che il senato romano avesse una testa sola per maggior soddisfazione della sua volutà crudele e gli vedeva riunita in quel uomo tutte le forze contro cui aveva lanciato la propria sfida la legge la proprietà l'oppressione l'ingiustizia con un colpo d'occhio abbracciava tutti i suoi nemici e li squadrava a testa alta in una suprema soddisfazione della vanità essi di fronte a lui si raggruppavano perplessi come di fronte a un essere prodigioso e terribile assaporò nell'intimo l'avventura di quell'incontro che veniva così ad affermare la sua superiorità sul numero incalcolabile degli esseri umani era infatti un incontro d'avventura l'ispettore capo hit aveva avuto quel giorno un sovraccarico di lavoro tutt'altro che piacevole dall'istante in cui era stato recapitato al suo ufficio il primo telegramma da greenwich pochi minuti prima delle 11 la mattina in primo luogo era già abbastanza noioso il fatto che l'attentato fosse sopravvenuto proprio allora cioè nemmeno una settimana dopo che egli stesso aveva assicurato un altro funzionario come ci si potesse considerare tranquilli nei riguardi di qualsiasi manifestazione dell'attività anarchica mai come allora si era sentito sicuro nel fare una simile dichiarazione l'aveva pronunciata anzi con infinito compiacimento perché era chiaro che l'altro funzionario desiderava vivamente di udire quelle parole proprio quelle e gli aveva affermato che nulla del genere avrebbe potuto complottarsi senza che il suo dipartimento ne venisse informato entro le 24 ore e questo l'aveva detto perché consapevole di essere lui il grande esperto del servizio speciale anzi era andato tanto oltre da proferire parole che un po di vera saggezza avrebbe creduto meglio trattenere non ne aveva molta della saggezza l'ispettore capo kit o perlomeno non di quella vera non di quella che non ammette certezze di sorta in questo mondo di contraddizioni e che gli avrebbe impedito di ritrovarsi in una posizione così sgradita ora il caso avrebbe probabilmente allarmato i superiori e addio speranza di promozione fin qui la sua carriera era stata molto veloce non ce n'è uno signore sul quale non si possa mettere le mani a qualunque ora del giorno e della notte siamo informati di quello che ciascuno di loro fa minuto per minuto aveva asserito e l'alto funzionario si era degnato di sorridere era esattamente la frase che ci si doveva attendere da parte di un pubblico ufficiale della reputazione dell'ispettore capo kit tanto che faceva piacere molto piacere udirla l'alto funzionario non poteva che fidarsi di un giudizio consono dell'idea ottimistica che gli sarà fatto delle attuali circostanze anche egli era saggio solo nel senso ufficiale della parola altrimenti avrebbe riflettuto meglio su un argomento non teorico bensì provato dall'esperienza e cioè che nel fitto tessuto di relazioni correnti fra il cospiratore e la polizia intervengono talvolta inattese soluzioni di continuità improvvisi squarci nel tempo e nello spazio un dato anarchico può essere sorvegliato passo per passo minuto per minuto ma sempre giunge il momento in cui in un modo o nell'altro per poche ore lo si perde di vista e il contatto si sospende intervallo sufficiente perché nel frattempo si verifichi qualcosa di più o meno deplorevole generalmente un'esplosione ma l'altro funzionario rapito in estasi dall'idea ottimista che egli sarà creato intorno alle cose attuali aveva sorriso e il ricordo di quel sorriso riusciva particolarmente fastidioso all'ispettore capo Hitt primo fra gli esperti nella procedura anarchica non era questa la sola circostanza il cui ricordo annuvolasse l'abituale serenità dell'eminente specialista un'altra ce n'era che datava appena da quella mattina ripensare al momento in cui chiamato d'urgenza nel gabinetto privato del vice commissario egli non era stato capace di nascondere la propria sorpresa lo umiliava in modo speciale uomo di discreti successi il suo istinto gli aveva insegnato come regola generale che la reputazione si fonda sulla maniera da agire non meno che sui risultati ottenuti ora sentiva che il suo contegno di fronte al telegramma non era stato tale da produrre una bella impressione aveva spalancato gli occhi e gridato impossibile attirandosi così l'irrefutabile replica del vice commissario il quale si era espresso semplicemente puntando con gran forza un dito sul telegramma e dopo averlo letto ad alta voce zettandolo sullo scrittoio un bel danno anche inoltre l'ispettore capo hit si rendeva conto di non aver accomodato le proprie faccende quando si era preso la libertà di esprimere una convinzione personale c'è una cosa di cui posso assicurarla immediatamente nessuno facente parte della banda che ci interessa può avere a che fare con questa storia forte della sua integrità di buon detective capiva però che un riservo impenetrabile e vigilante in questa contingenza avrebbe servito molto di più alla sua reputazione doveva d'altra parte ammettere con se stesso che questa non è facile da conservare quando ci si mettano di mezzo persone estranee all'ambiente le strane sono una peste per la polizia come per qualunque altra professione il vicecommissario aveva espresso il suo parere con un tono tanto aspro da far legare i denti alla prima colazione poi l'ispettore capo hit non era più riuscito a inghiottire un boccone partito all'istante per iniziare le indagini sul posto aveva dovuto digerirsi una discreta quantità di nebbia fredda e malsana nel parco di Greenwich si era poi recato all'ospedale finalmente conclusa questa parte dell'investigazione egli aveva ormai perduto l'appetito non abituato come i dottori ad esaminare da vicino i rimasugli del corpo umano era rimasto disgustato dallo spettacolo che si era offerto ai suoi occhi quando qualcuno aveva sollevato da una tavola un telo impermeabile in una certa sala dell'ospedale un altro telo impermeabile era stato disteso sulla tavola come una tovaglia con le cocche ripiegate su una specie di mucchietto un mucchietto di brandelli bruciacchiati e sanguinolenti che rendevano quasi irriconoscibile ciò che avrebbe potuto essere il materiale crudo delle vivande destinate a un banchetto di cannibali bisognava avere un bel sangue freddo per non indietreggiare a quella vista e l'ispettore capo Heath efficiente funzionario del dipartimento speciale rimase salvo al suo posto ma per qualche minuto non ebbe la forza di venire avanti un vicino locale in uniforme gettò un'occhiata di traverso alla tavola e disse con goffa semplicità c'è tutto non ne manca un briciolo che sfacchinata era stato lui il primo a venire sul luogo dopo l'esplosione non si stancava di ripetere il suo racconto aveva visto qualcosa come un denso lampeggiare nella nebbia in quel momento si trovava alla porta del padiglione in King William Street e parlava col custode lo scoppio gli aveva rimescolato il sangue correndo fra gli alberi si era precipitato verso l'osservatorio con quanta forza avevo nelle gambe ripeté due volte l'ispettore capo Heath si era chinato sulla tavola con un gesto schizzinoso e pieno di raccaprizzo lasciando che il vigile si guidasse a discorrere il portiere dell'ospedale e un altro uomo avevano aperto completamente il telo e si erano ritirati da parte gli occhi dell'ispettore frugarono alla ricerca di orribili particolari in quell'ammasso di cose confuse che pareva fossero state raccolte tra lo scannatoio e la bottega del senza iolo vi siete servito ad una pala osservò notando qualche spruzzo di ghiaia minutissima dei sottili frammenti scuri di scorza d'albero e alcune schegge di legno sottili come aghi per forza rispose il vigile duro ho mandato un custode a cercarne una e quando lui ha sentito che era spavo nella terra ha appoggiato la fronte contro un albero e si è sentito male come un cane chino sulla tavola con ogni cautela l'ispettore aveva cercato di vincere la sensazione sgradevole che gli saliva alla gola la furia violenta della distruzione che aveva fatto di quel corpo un mucchio di frammenti indefinibili lo feriva nel vivo per un senso di crudeltà spietata sebbene la ragione gli facesse intendere che l'effetto doveva essere stato rapido come un baleno quell'individuo, chiunque fosse era stato certo colpito da morte istantanea e tuttavia sembrava impossibile che un corpo umano potesse aver raggiunto un tale stato di disintegrazione senza passare attraverso lo strazio di un'inconcepibile agonia non era un fisiologo l'ispettore capo Kitt e tantomeno un metafisico per una forza d'umana simpatia che è una delle forme del timore la sua immaginazione si innalzò al di sopra della volgare concezione del tempo morte istantanea egli ricordò tutto ciò che aveva letto nelle pubblicazioni popolari a proposito dei lunghi terrorizzanti sogni sognati nell'attimo del risveglio il passato tutto intero rivissuto con intensità spaventevole dall'uomo che sta per annegare nel momento che la sua testa condannata riesce per l'ultima volta ad emergere dal flusso che lo trascina ossessionato dagli inesplicabili misteri dell'esistenza cosciente l'ispettore capo Kitt giunse fino all'orrenda nozione che intere epoche di sofferenza atroce e di tortura mentale possono essere contenute fra uno e un altro battito di ciglia nello stesso tempo egli continuava a scrutare il suo oggetto sulla tavola con fisionomia calma appena animata da quella certa attenzione ansiosa propria del cliente povero il quale vuole esaminare da vicino i cosiddetti sottoprodotti della macelleria in vista di un pranzo domenicale a buon mercato e intanto le sue ben allenate facoltà d'ottimo investigatore che non disdegna alcun mezzo di informazione seguivano la loquacità del vigile il quale continuava a parlare a vanvera molto soddisfatto di sé un tipo coi capelli biondi notò in tono placido e fece una pausa la vecchia che ha parlato col sergente diceva di aver visto un tipo coi capelli biondi che usciva dalla Mad Hill Station altra pausa anche questo doveva essere biondo aveva visto due individui quella donna che venivano dalla stazione quando il diretto era già ripartito prosegui senza fretta non avrebbe saputo dire però se fossero insieme non ha osservato nulla di preciso a proposito di quello più grosso ma l'altro era un giovincello biondo e smilzo dice lei e portava in mano un bidone di vernice si chietò conoscete questa donna brontolò l'ispettore con gli occhi fissi alla tavola mentre nella mente gli vagava il dubbio che la persona su cui si conduceva l'inchiesta fosse destinata a rimanere per sempre sconosciuta sì è la governante di un oste che ha chiuso la bottega da un pezzo e qualche volta frequenta la cappella di Park Brace la risposta fu preferita con solennità e di nuovo il vigile tacque lanciando un'altra occhiata di straforo alla tavola poi di botto insomma eccolo qui c'è tutto quello che ho potuto vedere di lui biondo smilzo eh sì piuttosto smilzo guardi quel piede le gambe sono state la prima cosa che ho raccattato prima l'una e poi l'altra era talmente sparso in qua e in là che non si sapeva di dove cominciare tacque e il tremolio appena percettibile di un innocente sorriso di vanità gli sfiorò il viso rotondo dall'espressione infantile ha inciampato dichiarò con sicurezza io stesso mentre accorrevo sul luogo ho fatto un inciampone e ho battuto anche la testa ti sono delle radiche che sporgono dappertutto in quel posto lui ha inciampato contro una di queste è caduto e quella cosa che portava in mano è andata a finirgli proprio sotto il petto se non sbaglio l'eco delle parole persona sconosciuta continuava a risuonare nella mente dell'ispettore causandogli cruccio e fastidio per curiosità proprio curiosità professionale gli sarebbe piaciuto seguire le tracce di quell'incidente risalendo fino alle origini misteriose e davanti al pubblico avrebbe voluto rivendicare l'efficienza del servizio speciale mostrandosi capace di identificare quell'uomo era un servo leale l'ispettore capo Kit purtroppo l'impresa appariva chimerica il primo termine del problema risultava illegibile ogni indizio veniva a mancare fuorché quello di un'atroce crudeltà superando la ripugnanza fisica stese una mano ma senza convinzione per puro scrupolo di coscienza e raccolse un brandello di stoffa era una stretta striscia di velluto da cui pendeva un ritaglio triangolare un po' più largo di panno turchino se l'accostò agli occhi di nuovo il vigile disse la sua bavero di velluto curioso è che la vecchia se ne fosse accorta cappotto blu scuro con un bavero di velluto ci ha detto parlava del ragazzo sicuro non c'è errore eccolo qui al completo bavero di velluto è tutto sono certo di non averne lasciato fuori nemmeno un pezzettino della grandezza di un francobollo a questo punto le ben addestrate facoltà dell'ispettore cessarono di tenere dietro alla voce del vigile si accostò a una finestra per vederci meglio il suo viso rivolto verso la luce esprimeva un interesse intenso e vibrante mentre esaminava da vicino il triangolo di tessuto sottile con uno scatto subitaneo lo staccò e solo dopo esserselo ficcato in tasca si girò indietro e andò a gettare sulla tavola il brandello di velluto senza esaminare più oltre coprite pure intimò secco alle persone che assistevano e accompagnato dal saluto del vigile si allontanò in fretta con la sua preda un treno che faceva punto al fatto suo veloce come un turbine lo ricondusse in città solo nello scompartimento di terza classe trova modo di raccogliersi e meditare quello straccetto bruciacchiato aveva un valore inestimabile ed egli non poté fare a meno di stupirsi ripensando al modo casuale con cui era caduto nelle mani il fato si sarebbe detto gliel'aveva cacciato a forza tra le dita come il bandolo della matassa e come accade all'uomo medio da cui suprema ambizione è di dominare gli eventi cominciò a diffidare di un successo troppo accidentale e gratuito appunto perché pareva che qualcuno gliel'avesse imposto il valore pratico del successo dipende non poco dalla nostra maniera di considerarlo ma il fato non considera nulla non ha discernimento all'ispettore ora non pareva più eminentemente desiderabile da ogni punto di vista l'identificazione di quel disgraziato che la mattina aveva distrutto se stesso con così orribile compiutezza d'altronde non si sentiva sicuro di quello che ne avrebbe pensato il dipartimento il dipartimento è di fronte ai suoi impiegati una complessa personalità con idee e persino ubbie tutte proprie si appoggia sulla devozione leale dei suoi servi e la lealtà devota dei più fidati fra questi è in relazione con un certo affettuoso disprezzo che rende loro per così dire il gioco più leggero per benigno provvedimento della natura nessun uomo è un eroe agli occhi del proprio domestico altrimenti gli eroi dovrebbero spazzolare da sé i propri abiti sullo stesso piano nessun ufficio appare realmente saggio a quelli che lo servono nell'intimità l'ufficio per sé stesso non può arrivare a conoscere tante cose quante l'uno o l'altro dei propri subalterni organismo spassionato c'è sempre nel suo sapere qualche lacuna se conoscesse troppe cose ciò risulterebbe a danno della sua efficienza l'ispettore capo Heath scese dal treno tutto assorto in pensieri completamente puri di slealtà ma non del tutto liberi da quella gelosa diffidenza che così spesso sboccia sul terreno della devozione perfetta sia verso le donne sia verso le istituzioni in questo stato d'animo con lo stomaco materialmente vuoto ma ancora pieno di nausea per ciò che aveva visto venne dunque ad imbattersi nel professore basterebbero condizioni simili per predisporre all'irascibilità qualunque persona sana e normale perciò l'incontro doveva riuscire estremamente sgradito all'ispettore capo Heath non aveva pensato al professore non aveva per nulla fissato il pensiero sull'uno o l'altro anarchico in particolare l'avvenimento conquistato in quella sfera i suoi primi gradi e non è da stupire che le fosse rimasto in un certo modo affezionato anche dopo essere stato promosso ad un altro dipartimento il furto almeno non è pura e semplice assurdità è una forma di industria umana perversa sia pure ma tuttavia un'industria esercitata in un modo industrioso è un lavoro ed uno lo intraprende per lo stesso motivo che spinge alla loro fatica i fabbricanti di ceramiche i minatori di carbone gli agricoltori gli arrotini un mestiere che dagli altri mestieri differisce praticamente soltanto per la diversa natura dei rischi a cui si espone non anchilosi o avvelenamento saturnino non esalazioni soffocanti o polvere nei polmoni bensì il rischio che secondo la sua speciale fraseologia si può brevemente definire un anno di cattabuia l'ispettore capo hit non era certamente insensibile al grave significato delle differenze morali altrettanto però poteva dirsi dei ladri che erano caduti nelle sue grinfie essi si sottomettevano con una certa rassegnazione alle sanzioni severe stabilite da quella moralità ufficiale di cui l'ispettore era il custode e l'amico appartenevano alla sua stessa sfera e se avevano deviato ciò dipendeva soltanto da imperfetta educazione così almeno gli piaceva credere dunque tenendo conto di tale differenza l'ispettore poteva arrivare a capire la mentalità dello scassinatore poiché in realtà la mentalità e gli istinti dello scassinatore appartengono alla stessa specie di quelli del funzionario di polizia ambe due riconoscono le stesse convenzioni e conoscono per pratica di mestiere i metodi le abitudini la tecnica l'uno dell'altro si intuiscono a vicenda e ciò reca vantaggio a tutte e due introducendo nelle loro relazioni un che di piacevole e cordiale prodotti di una medesima macchina l'uno classificato fra le cose utili l'altro fra le nocive presuppongono la stessa macchina in funzione diversa è vero ma con serietà identica nella sua essenza la mentalità dell'ispettore capo kit era refrattaria a ogni idea di rivolta ma nemmeno i suoi ladri erano dei ribelli il suo vigore fisico il tratto inflessibile e gelido il coraggio e l'onestà gli avevano assicurato molto rispetto e una certa tendenza all'adulazione nell'ambiente dei suoi primi successi si era sentito riverito e ammirato ora immobilizzato a sei passi da quell'anarchico che chiamavano il professore gli veniva fatto di inviare un pensiero pieno di rimpianto al mondo dei ladri mondo sano senza ideali morbosi popolato di gente che lavora secondo metodi tradizionali che rispetta le autorità costituite ed è libera da ogni zerme d'odio o di disperazione dopo aver pagato questo tributo agli elementi normali che compongono la società difatti al suo istinto l'idea di furto appariva tanto normale quanto l'idea di proprietà l'ispettore l'ispettore capo hit provò un vivo senso di irritazione contro se stesso per il fatto di essersi fermato di aver parlato e soprattutto perché gli era venuto in mente di prendere quella strada allo scopo di accorciare le distanze fra la stazione e l'ufficio di polizia di nuovo dunque parlò col suo bocione grosso e autoritario che se faceva tanto di moderarsi acquistava un timbro ancor più minaccioso ho detto che non ho bisogno di lei ripeté l'anarchico non si mosse d'un'unghia una risata interna beffarda gli scoprì non solo i denti ma anche le gengive e lo scosse da capo a piedi senza fargli emettere il minimo suono l'ispettore capo hit si sentì trascinato ad aggiungere contro quanto gli suggeriva il buonsenso non ancora quando avrà bisogno di lei saprò dove trovarla parole perfettamente appropriate entro i limiti della tradizione convenienti al carattere di un funzionale di polizia che si rivolge a una pecora del proprio grezze ma questo grezze non riceve certi avvertimenti in modo conforme alla tradizione e alla convenienza gli ritiene un'offesa la meschina la chitica figura che gli stava di fronte finalmente parlò in tal caso non dubito che i giornali pubblicheranno per lei un bel elogio funebre lei sa benissimo ciò che merita suppongo che possa immaginare fino ad ora il genere di frasi che si stamperanno in suo onore potrebbe esporsi però a un rischio assai spiacevole quello di essere seppellito in mia compagnia per quanto suppongo che i suoi amici faranno ogni sforzo per sceverare i nostri due corpi pezzo a pezzo il meglio possibile con tutto il suo salutare disprezzo per la mentalità a cui si ispiravano simili discorsi l'atrocità delle allusioni non lasciò indifferente l'ispettore capo Heath informato con tutta esattezza e fornito com'era di penetrazione psicologica non poteva respingerle senz'altro come parole prive di significato all'oscurità del vicolo angusto aggiungeva una nota ancora più sinistra quella fragile piccola forma umana nera addossata al muro che parlava con una vocetta esile strafottente per la vitalità vigorosa e tenace dell'ispettore l'inferiorità fisica di quell'essere che chiunque avrebbe giudicato non creato per vivere appariva essa stessa di cattivo augurio se avesse avuto lui la disgrazia ad essere un oggetto così miserabile pensava ben poco si sarebbe curato di morire prima o poi ma su lui l'esistenza aveva talmente presa che a questo pensiero una nuova ondata di nausea gli coprì la fronte con un leggero sudore freddo il mormorio della vita quotidiana il rumore sordo delle ruote delle due strade invisibili a destra e a sinistra gli giungeva l'orecchio lungo la curva di quel vicolo sporco con un prezioso accento di intimità familiare pieno di dolci attrattive un accento umano ma l'ispettore capo hit che era pure un uomo non poteva lasciar passare impunite e simili parole quello che lei dice è buono per far paura ai bambini sentenziò ci rivedremo in ogni modo molto ben detto senza ironia con una quasi austera serenità indubbiamente fu la risposta ma non esiste momento migliore del presente mi creda per un uomo di convinzioni sincere questa è proprio una bella occasione per immolare se stesso può darsi che non ci capiti più di trovarne un'altra così umana qui attorno non c'è nemmeno un gatto e queste vecchie case già condannate formerebbero un bel cumulo di mattoni costì dove lei non le sarà facile un'altra volta ottenermi a un prezzo tanto basso rispetto alla vita umana e alla proprietà rispetto alle cose appunto che lei è pagato per proteggere ignora con chi sta parlando disse l'ispettore risoluto se mettessi le mani su di lei in questo momento darei prova di non avere un cervello migliore del suo metodo da giocatore stia tranquillo che la partita la vinceremo noi alla fine un giorno o l'altro può essere necessario far credere al popolo che alcuni di voi debbano essere freddati all'istante come cani arrabbiati allora giocheremo la nostra partita quanto alla vostra e Dio mi fulmini se riesco a capire in che consiste sono convinto che non lo sapete nemmeno voi non ne ricaverete mai niente questo è certo per il momento siete voi che ne ricavate qualcosa finora almeno e senza troppa fatica per di più non parlo del salario ma lei per esempio non si è creato un nome per il semplice fatto di non riuscire a intendere i nostri scopi ebbene quali sono i vostri scopi domandò l'ispettore con brevità sdegnosa come l'uomo che ha fretta e si accorse che sta perdendo il suo tempo il perfetto anarchico rispose con un sorriso che non aprì spiraglio fra le sue labbra sottili e scolorite e il celebre hit ne provò un senso di superiorità che lo induce ad alzare un dito in segno di ammonimento ceda ceda qualunque sia il suo gioco disse in tono esortativo ma non con la cortesia con cui si sarebbe degnato di dare un buon consiglio a un qualche ladro di gran fama si accorgerà che siamo troppi per lei il sorriso stereotipato sulle labbra del professore vacillò leggermente come se lo spirito beffardo dentro di lui si sentisse meno sicuro l'ispettore proseguì lei non mi crede eppure basta che si guardi intorno dunque ci siamo noi e in ogni modo voi non lo sapete fare il vostro gioco finisce sempre con un fiasco davvero se i ladri non conoscessero il proprio mestiere meglio di voi morirebbero di fame allusione all'invincibile moltitudine ammassata dietro le spalle di quell'individuo risvegliò una cupa indignazione nel petto del professore cessò il suo sorriso enigmatico l'ulciastro la forza di resistenza del numero l'inattaccabile solidità delle grandi moltitudini era l'incubo che lo ossessionava nel suo tenebroso deserto per un poco le sue labbra tremarono prima che gli russisse di protestare con la voce strozzata faccio il mio mestiere meglio di quanto lei non faccia il suo è ciò che vedremo ora interruppe l'ispettore precipitoso e questa volta il professore rise forte riprese la sua via sempre ridendo ma la risata durò poco colui che dallo stretto passaggio emerse nel trambusto delle grandi strade era un miserabile omuncolo dal viso amaro camminava con l'andatura sfibrata del vagabondo che va e va indifferente alla pioggia e al sole con occhio bieco insensibile agli aspetti del cielo e della terra dall'altra parte l'ispettore capo hit dopo essere rimasto qualche istante a guardarlo si rimise in marzo col deliberato fervore dell'uomo che sfida le inclemenze della stagione conosce di avere su questa terra una missione autorizzata e il sostegno morale dei suoi simili gli abitanti dell'immensa città la popolazione dell'intero paese e perfino i milioni di creature umane che formicolano e si affanno sulla faccia del nostro pianeta erano con lui compresi i ladri veri e propri e i mendicanti sicuro nel suo attuale mestiere anche i ladri indubbiamente gli erano a fianco la certezza che alla sua attività in generale non sarebbe venuto a mancare mai l'universale appoggio lo rincuorava ora ad affrontare il problema del momento il problema immediato che gli si presentava davanti era questo manovrare il vice commissario suo superiore diretto è l'eterno problema dei subalterni fidanti e leali il fatto d'esserci implicata l'anarchia lo rendeva un po' più complesso ma sostanzialmente lo stesso per dire la verità l'ispettore capo Kitt non faceva gran caso all'anarchia non riusciva a darle importanza eccessiva anzi non si era mai potuto condurre a prenderla in seria considerazione e attribuiva piuttosto il carattere di condotta disordinata disordinata senza la scusa umana dell'ubriachezza la quale se non altro implica sentimenti buoni e una simpatica inclinazione verso la vita gioconda come criminali gli anarchici non appartengono nemmeno a una categoria distinta non sono per niente una categoria e ripensando al professore Hitt borbottò fra i denti senza peraltro allentare l'elasticità del passo lunatico agguantar ladri era completamente un altro mestiere non mancava di quella serietà propria ad ogni forma di onesto sport dove seguendo regole perfettamente comprensibili è sempre il migliore che vince ma non esiste regola nel gioco con gli anarchici e ciò ripugnava al gusto dell'ispettore nient'altro che pazzia e un tal genere di pazzia che eccita intimamente il pubblico dannezza coloro che occupano i posti più alti colpisce anche le relazioni internazionali una maschera severa sprezzante spietata rivestì rigidamente la faccia dell'ispettore capo mentre proseguiva il suo cammino passò in rapida rivista mentale tutti gli anarchici del suo branco non uno che possedesse neanche per metà il fegato di questo o quel ladro che egli aveva conosciuto neanche per metà neppure un decimo al quartier generale l'ispettore capo fu ammesso immediatamente nel gabinetto del vice commissario lo trovò con la penna in mano chino su una grande tavola disseminata di carte quasi stesse lì in adorazione davanti a un enorme calamaio doppio di bronzo e di cristallo tubi acustici simili a serpenti legati per la testa allo schienale della poltrona di legno del vice commissario con le bocche spalancate parevano pronti ad addentargli i gomiti restando in quell'atteggiamento alzò soltanto gli occhi le cui palpebre apparivano più scure che il resto del viso e molto grinzose i rapporti erano arrivati ciascun anarchico era stato preso in considerazione così egli informò l'ispettore poi subito riabbassò gli occhi firmò in fretta due fogli e solo allora depose la penna e si sedette comodamente appoggiandosi alla spalliera e volgendo uno sguardo scrutatore verso il suo celebre subordinato ispettore capo hit lo sostegne assai bene deferente ma impenetrabile direi quasi cominciò il vice commissario che lei avesse ragione quando mi assicurava stamani che gli anarchici di londra non hanno a che vedere con questa faccenda apprezzo veramente l'ottima sorveglianza di cui i suoi uomini hanno dato prova nei loro riguardi d'altra parte in faccia al pubblico ciò equivale a peggio che a una confessione d'ignoranza parlava a suo agio senza fretta con una certa cautela pareva che il suo pensiero posasse in equilibrio stabile su ciascuna parola prima di passare alla seguente quasi che le parole fossero state le pietre di un guado per il suo intelletto che si apriva lentamente la strada attraverso le acque dell'errore a meno che lei non ci porti da Greenwich qualcosa di interessante aggiunse subito l'ispettore prese a riferire le proprie indagini chiaro e semplice come un affare d'ordinaria amministrazione il suo superiore girando un poco la poltrona e incrociando le gambe magre si piegò di fianco appoggiandosi sul gomito e facendosi ombra agli occhi con una mano in quel modo di ascoltare c'era una certa grazia angolosa e malinconica riflessi quasi d'argento intensamente e brunito giocavano ai due lati della sua testa nera debano quando alla fine con mossa lenta la inclinò per poco l'ispettore tacque pareva che rimuginasse nel cervello tutto ciò che aveva detto fino a quel momento ma in realtà stava meditando se fosse o no consigliabile aggiungere ancora qualcosa il vicecommissario tronconetto quell'esitazione lei crede che gli uomini fossero due interrogò sempre parandosi gli occhi con una mano per l'ispettore la cosa era più che probabile a sua parere i due uomini si erano separati l'uno dall'altro a meno di cento metri dalle mura dell'osservatorio spiegò anche come secondo lui l'altro individuo potesse essere uscito dal parco alla svelta senza venire osservato aveva in proprio favore la nebbia sebbene non molto densa si sarebbe detto che avesse scortato l'altro fino a quel punto preciso e poi ce l'avesse lasciato perché eseguisse il colpo da solo calcolando il tempo dall'istante in cui la vecchia aveva visto uscire i due sconosciuti dalla Meshill Station a quando era stata udita l'esplosione l'ispettore pensava che uno di loro poteva trovarsi già alla Greenwich Park Station pronto a saltare sul primo treno nel momento in cui il compagno faceva saltare in aria se stesso e si riduceva in briciole proprio in briciole mormorò il vice commissario di sotto l'ombra della sua mano a visiera con pochi tratti vigorosi l'ispettore descrisse l'aspetto di quei rimasugli umani la giuria del coroner avrà da divertirsi soggiunse Amaro il vice commissario si coprì gli occhi e noi non avremo nulla da dir loro commentò in tono fiacco alzo al capo e stette un poco ad osservare l'accentuata disinvoltura dell'ispettore per natura egli non era facilmente accessibile alle illusioni sapeva bene che un dipartimento è alla merce dei subalterni i quali hanno una maniera tutta propria di concepire la lealtà la sua carriera aveva avuto inizio in una colonia tropicale gli piaceva lavorare laggiù lavoro di polizia naturalmente gran successo aveva avuto nello scovare e mandare in rovina certe nefande società segrete sorte fra gli indigeni si era preso poi una lunga licenza e in modo piuttosto precipitoso una moglie buon partito dal punto di vista mondano la moglie però si era formata una pessima idea del clima coloniale attraverso i discorsi di terzi d'altra parte ella aveva relazioni influenti sì era stato un ottimo affare eppure il lavoro che doveva eseguire ora non era di suo gusto si sentiva legato a troppi dipendenti e a padroni la presenza immediata di quello strano fenomeno emotivo che a nome opinione l'opprimeva moralmente l'ossessionava anzi per il suo carattere irrazionale il fatto di esagerarne a se stesso il potere in bene e in male ma specialmente in male dipendeva senza dubbio dalla sua ignoranza e l'aspro levantino della primavera inglese tanto caro a sua moglie aveva la virtù di aumentare in lui la diffidenza generale verso le intenzioni umane e verso la validità delle loro organizzazioni il lavoro d'ufficio così banale lo spaventava specialmente nei giorni che il suo fegato assai delicato si risentiva di più si levò in piedi allungandosi in tutta la sua statura e con un passo pesante che dava nell'occhio in un uomo così snello attraversò la stanza e si accostò alla finestra i vetri gocciolavano di pioggia e di sotto la breve strada nella quale egli lanciò un'occhiata giaceva umida e deserta come spazzata da un'ondata violenta giornata particolarmente irritante prima con quella nebbia aspra che la avvolceva e ora sommersa da una pioggia fredda oscillanti e fumose le fiamme dei lampioni a gas parevano sul punto di dissolversi nell'atmosfera impregnata d'acqua e le orgogliose pretese del genere umano così oppresse dall'indegno meschino trattamento del tempo prendevano l'aspetto di colossali disperate vanità veritevoli soltanto di disprezzo di stupore e compassione orribile mormorava a se stesso il viso appoggiato contro il vetro ne avremo per dieci giorni ora di questa storia anzi per una quindicina smisce affatto di pensare per un poco tre secondi circa durò quell'assoluto silenzio del suo cervello poi disse in tono superficiale hai fatto qualche indagine sul terreno per rintracciare i passi del secondo individuo in un senso o nell'altro egli non aveva alcun dubbio quanto all'avvenuta esecuzione di tutto ciò che poteva considerarsi necessario sapeva come l'ispettore capo kit conoscesse a fondo il mestiere della caccia all'uomo e dopo tutto questi non erano che passi abituali qualsiasi principiante li avrebbe compiuti come un provvedimento ordinario un breve interrogatorio condotto fra i bigliettai e i guardiani delle due piccole stazioni ferroviarie avrebbe permesso di raccogliere notizie accessorie circa l'aspetto dei due uomini ispezionando i biglietti ritirati si sarebbe visto subito da dove provenivano quella mattina non si poteva tralasciare di farlo era elementare in risposta l'ispettore assicurò che sarà pensato a tutto non appena la vecchia era venuta fuori con la sua deposizione fece il nome di una stazioncina è il luogo di provenienza disse e continuò il guardiano che ha raccolto i biglietti a medshill ricorda fra quelli che gli sono passati davanti due tipi corrispondenti alla descrizione due rispettabili operai di alta categoria li ha giudicati all'apparenza due pittori di insegne o decoratori quello grosso era sceso da uno scompartimento di terza classe in coda e teneva in mano ben visibile un bidone di latta sulla piattaforma l'aveva consegnato il giovanotto biondo che lo seguiva ogni cosa torna a pennello con ciò che la vecchia di greenwich ha riferito al sergente di polizia il vice commissario col viso ancora rivolto alla finestra espressa i propri dubbi riguardo al fatto che i due uomini avessero avuto realmente a che vedere con l'attentato tutta quella costruzione teorica si basava unicamente sulle notizie fornite da una vecchia serva la quale aveva corso il rischio d'essere buttata in terra da un uomo frettoloso niente di sostanzialmente autorevole in verità forché sul piano dell'ispirazione subitanea ben poco attendibile per se stessa diciamo francamente è possibile che fosse davvero ispirata insinuò con ironia grave voltando le spalle alla stanza come se le colossali forme della metropoli seminascoste dalla tenebra notturna lo avvincessero in estatica contemplazione non girò intorno lo sguardo nemmeno quando gli giunse all'orecchio la parola provvidenziale borbottata dal suo primo dipendente il cui nome compariva talvolta sui giornali familiare al grande pubblico come quello che designava uno fra i suoi più zelanti e laboriosi protettori l'ispettore capo hit alzò leggermente la voce striscioline e pezzetti di latta sono stati per me ben riconoscibili disse mi sembra una prova alquanto incoraggiante e quei tali provenivano dalla piccola stazione di campagna che lei ha detto riflette il vice commissario ad alta voce quasi interrogando se stesso pronunciò il nome del paese che a quanto gli era stato riferito si trovava su due fra i tre biglietti consegnati a Mads Hill dai viaggiatori scesi a quell'ora la terza persona era un merciaio ambulante di Gravesend ben noto ai guardiani della stazione l'ispettore fornì questo particolare in tono conclusivo non senza una sfumatura di malumore come un servitore leale cosciente della propria fedeltà e di quanto valgano i suoi leali servizi senza perciò riuscire a distogliere il vice commissario dalla contemplazione delle tenebre di fuori vaste come il mare due anarchici stranieri che vengono da quel piccolo paese disse quasi parlando al vetro della finestra è inconcepibile direi sì signore ma sarebbe ancora più inconcepibile se il famoso Michaelis non abitasse in un villino dei dintorni al suono di quel nome che pioveva così inatteso nel bel mezzo del fastidioso affare il vice commissario si liberò bruscamente dalla vaga reminiscenza della partita di Guist che si giocava ogni giorno al suo club era fra le sue occupazioni abitudinarie la più confortante consistendo soprattutto in una esibizione piena di successo della propria abilità senza l'aiuto di nessun dipendente giocava sempre al suo club dalle 5 alle 7 prima di tornare a casa per la cena dimenticando in quelle due ore tutto ciò che la sua vita aveva di disgustoso come se avesse preso una droga benefica capace di calmare le sofferenze morali del suo inguaribile malcontento sedevano allo stesso tavolo un umorista malinconico direttore di una rivista celebre un avvocato vecchiotto silenzioso con due occhiolini sprizzanti malizie e un colonnello anziano ricco di marziale alterigia e povero di spirito con mani abbronzate e nervose erano conoscenti del club e nulla di più non gli capitava mai di incontrarsi con loro fuorché al tavolo da gioco ma tutti e quattro pareva che si avvicinassero alla partita come compagni di sventura che vengono a procurarsi una vera e propria droga contro i malanni dell'esistenza ogni giorno allorché il sole declinava di là dagli innumerevoli tetti della metropoli una dolce e gradevole impazienza simile all'impulso di un'amicizia salda e profonda gli si accendeva dentro e rischiarava le sue fatiche professionali ma in quel momento la sensazione gradevole si staccò da lui con qualcosa di simile a una violenta scossa fisica immediatamente rimpiazzata da un interesse di nuovo genere per il suo mestiere di protezione sociale una specie impropria di interesse che meglio si sarebbe potuta definire un'improvvisa vicile diffidenza nei riguardi dell'arma che egli teneva fra le mani capitolo sesto la protettrice di Michaelis l'apostolo in libertà provvisoria delle speranze dell'umanità bisognosa era una delle conoscenze più influenti e distinte della moglie del vice commissario che ella chiamava Annie e trattava ancora come una fanciulla sventata e totalmente inesperta ma la dama aveva anche acconsentito ad accettarlo tra i suoi amici e non si può dire certo che ciò si fosse verificato con tutte le amicizie influenti di sua moglie sposata giovane splendidamente in una qualche epoca remota del passato la protettrice di Michaelis aveva avuto per un certo periodo di tempo agio di osservare da vicino il mondo dei grandi affari così come alcuni dei grandi personaggi era lei stessa una gran signora ormai vecchia come numero d'anni possedeva quel tipo di temperamento eccezionale che sfida il tempo con sprezzo irriguardoso quasi si trattasse di una convenzione un po' volgare cui solo la massa dell'umanità inferiore si inchina ed erano state molte altre convenzioni più facili da accantonare che non erano riuscite a me ad ottenere il suo riconoscimento anche a motivo del suo temperamento capriccioso o perché l'annoiavano o perché venivano a trovarsi sulla strada delle sue intolleranze e delle sue simpatie l'ammirazione era un sentimento che era sconosciuto e questo era uno dei segreti rimproveri che gli rivolgeva il suo nobilissimo marito prima di tutto perché più o meno sciupata dalla mediocrità altrui o forse perché rappresentava in qualche modo una missione di inferiorità e ambedue le cose erano francamente inconcepibili per la sua natura e certo le veniva facile esprimere le proprie opinioni con coraggiosa franchezza al momento che giudicava unicamente dalla posizione di vantaggio della sua posizione sociale nelle sue azioni era altrettanto libera e così dinanzi a un tipo di tatto che nasceva da un sentimento di autentica umanità ad una pregevole vitalità fisica e ad una superiorità serena e cordiale tre generazioni si erano inchinate con ammirazione senza riserve mentre la generazione che verosimilmente l'avrebbe vista per ultima la giudicava a sua volta donna meravigliosa e intanto intelligente e dotata di un tipo particolare di semplicità altera curiosa in cuor suo ma non come molte donne semplicemente di pettegolezzi da salotto e la rallegrava la sua vecchiaia forte del potere che le dava il suo considerevole quasi storico prestigio sociale attraendo nella sua cerchia tutto quanto si innalzava dentro e fuori la legge al di sopra del livello mediocre dell'umanità per posizione talento audacia fortuna o sfortuna altezze reali artisti uomini di scienza giovani burocrati e ciarlatani di ogni età e condizione quest'ultimi fatui e privi di sostanza pronti a schizzare come tappi di sughero dalle bottiglie buoni ad indicare la direzione delle correnti di superficie tutti erano stati ben accolti nella sua casa ascoltati studiati compresi e valutati per la gioia di lei per usare le sue parole lei amava osservare come stava cambiando il mondo e poiché aveva una mente eminentemente pratica il suo giudizio sugli uomini e sulle cose sebbene basato su pregiudizi specialissimi di rado era completamente sbagliato e quasi mai mal diretto il suo salotto era forse l'unico posto nel vasto mondo dove un vice commissario di polizia poteva incontrare un condannato in libertà provvisoria in un'occasione che non fosse professionale o d'ufficio chi avesse portato Michaelis là una sera il vice commissario non riusciva a ricordarlo aveva l'impressione che fosse stato un certo membro del parlamento di illustre famiglie e simpatie poco convenzionali versaglio costante di pubblicazioni satiriche le celebrità e anche semplicemente i personaggi del giorno si accompagnavano liberamente l'un l'altro a quel tempio di rispettabile curiosità dell'anziana signora non si poteva mai indovinare in chi ci si sarebbe imbattuti accolti in un'atmosfera quasi intima tra tendaggi di sete pallide azzurrine paraventi dalle cornici dorate che formavano dei confortevoli rifugi per gruppi di divani e poltrone e in quel gran salotto percorso da brusii di voci e dove gruppi di persone sostavano sedute o in piedi sotto la luce che proveniva da sei grandi finestre Michaelis era stato oggetto di un'improvvisa inversione di tendenza del sentimento popolare di quello stesso sentimento che anni prima aveva applaudito alla ferocia della sua condanna a vita inflittagli per complicità in un tentativo abbastanza folle di salvare alcuni prigionieri da un convoglio della polizia il piano il piano dei cospiratori era stato di abbattere i cavalli a fucilate e sopraffare la scorta sfortunatamente anche uno degli agenti di polizia era rimasto ucciso lasciava moglie e tre bambini piccoli la morte di quell'uomo suscitò in ogni direzione di quel regno per la cui difesa gloria e benessere quegli agenti morivano ogni giorno nel compimento del proprio dovere un'ondata di indignazione e di pietà implacabile e rabbiosa per la vittima tre dei capi vennero impiccati Michaelis giovane slanciato a quei tempi fabbro di mestiere e grande frequentatore di scuole serali non sapeva nemmeno che qualcuno fosse rimasto ucciso il suo ruolo infatti assieme ad alcuni altri era stato di forzare la porta sul retro del convoglio speciale al momento dell'arresto aveva un mazzo di chiavi in tasca un pesante scalpello e un corto grimaldello in mano né più né meno di un ladro ma nessun ladro avrebbe ricevuto una condanna pesante come venne inflitta a lui la morte della gente lo aveva addolorato nel profondo del cuore così come il fallimento del progetto non nascose nessuno di quei due sentimenti ai suoi compatrioti giurati e quel tipo di pentimento apparve colpevole e impressionò il tribunale gremito il giudice nel condannarlo fece dei commenti toccanti sulla malvagità incallita del giovane prigioniero tutto questo contribuì alla pubblicità fuori di luogo che si creò attorno alla sua condanna quanto al chiasso della sua liberazione gli fu creato attorno su base altrettanto ingiustificate la gente che voleva sfruttare l'aspetto sentimentale della sua prigionia o per loro scopi o per scopi non del tutto comprensibili lui li lasciò fare in perfetta innocenza di cuore e semplicità di mente niente di ciò che gli accadeva personalmente sembrava avere alcuna importanza assomigliava a uno di quei santi uomini la cui personalità si annulla totalmente nella contemplazione della propria fede le sue idee non sembravano presentarsi come convinzioni logiche erano inaccessibili alla ragione formavano con tutte le loro contraddizioni e oscurità un credo invincibile e umanitario che più che predicare egli professava con una calma ostinata un sorriso piacevolmente rassicurante sulle labbra e gli occhi innocenti azzurri rivolti abitualmente verso il basso poiché la vista dei volti altrui turbava la sua ispirazione formatasi in solitudine fu in quell'atteggiamento caratteristico patetico nell'obesità incurabile e grottesca che avrebbe dovuto trascinarsi fino alla fine dei suoi giorni come uno schiavo delle galere la sua palla di ferro che il vice commissario di polizia vide l'apostolo amnistiato in una poltrona privilegiata dietro al separè del salotto sedeva tranquillo a uno dei capi del divano della sua protettrice parlando con un tono di voce mansueto non più consapevole di quanto possa esserlo un bimbo molto piccolo ed il bimbo aveva un po' anche il fascino il fascino accattivante della fiducia fiducioso nei confronti del futuro le cui strade misteriose gli erano state svelate entro le quattro mura di un famoso penitenziario non aveva motivo di guardare alcuno con sospetto seppure non riusciva a dare alla sua dama nobile e curiosa un'idea ben precisa sulla direzione che il mondo stava prendendo tuttavia era riuscito senza sforzo a impressionarla con la sua fede priva di amarezza e con la qualità genuina del suo ottimismo una certa semplicità di pensiero è comune alle anime serene ad ambedue gli estremi della scala sociale la nobile dama era a suo modo semplice le credenze e i punti di vista di lui non avevano nulla in sé che la colpissero e la sorprendessero dal momento che ella li giudicava dal piedistallo di una posizione di privilegio e veramente era una donna che poteva facilmente simpatizzare con un uomo di quel tipo non era personalmente una capitalista sfruttatrice era per così dire al di sopra del gioco delle condizioni economiche ed era capace di grande pietà per le forme più comuni delle sofferenze umane proprio perché nei confronti di queste ultime ella era completamente estranea al punto da doverne trasferire il concetto in termini di sofferenza mentale prima di essere in grado di afferrare la nozione della loro crudeltà il vice commissario ricordava molto bene la conversazione tra quei due aveva ascoltato in silenzio in un certo modo era stato qualcosa di altrettanto eccitante e commovente nella sua futilità scontata quanto può esserlo un tentativo di comunicazione tra abitanti di lontani pianeti ma questa incarnazione grottesca di passione umanitaria non poteva in certo qual modo non colpire l'immaginazione infine Michaelis si era levato in piedi e afferrando la mano tesa della nobile dama l'aveva stretta e trattenuta per un attimo nella sua gran palma a cuscinetto con un'amicizia priva di qualsiasi imbarazzo volgendo poi a quell'angolo intimo del salotto le spalle larghe e robuste che sembravano dilatarsi al di sotto della giacca di tweed troppo corta guardandosi intorno sereno e benevolo si era diretto con un'andatura dondolante verso la porta dall'altra parte della sala facendosi strada tra i gruppi degli altri visitatori il mormorio della conversazione tendeva a spegnersi al suo passaggio sorridendo innocentemente a una ragazza alta e vistosa i cui occhi si erano incontrati per caso con i suoi se ne era uscito inconsapevole degli sguardi che lo seguivano attraverso la sala la prima apparizione di Michaelis nel gran mondo era stata un successo un successo di apprezzamento che non un solo bisbiglio di derisione era intervenuto a guastare le conversazioni interrotte furono riprese nel tono consueto grave o leggero che fosse soltanto un tipo ben piantato dalle brazze ai gambe lunghe e l'aria energica che parlava con due signore vicino alla finestra osservò a voce alta facendo sfoggio di una sorprendente profondità di sentimento centoventi chili direi e neanche un metro e sessanta poveraccio è terribile è terribile la padrona di casa fissando con sguardo assente il vice commissario che era rimasto solo accanto a lei dalla parte intima del separè aveva l'aria di riordinare le impressioni della sua mente dietro l'immobilità del suo non più giovane bel volto uomini dai vaffi grigi e un atteggiamento aperto ed energico si avvicinarono con un sorriso vago alle sue labbra facendo cerchio attorno a quell'angolo insieme a loro erano due signore mature con un'aria matronale di cortese determinazione un individuo ben rasato con le guance piuttosto magre e cadenti e al collo un monocolo con la montatura d'oro appeso a un largo nastro nero con un effetto da vecchio dandy un silenzio rispettoso e tuttavia denso di riserve regnò per un momento e subito dopo la grandama esclamò non con risentimento ma con un tono molto vicino a quello di un'indignata protesta e costui è ufficialmente considerato un rivoluzionario che assurdità guardò con durezza il vice commissario il quale si affrettò a mormorare in tono di scusa non tra i più pericolosi probabilmente non pericoloso davvero direi proprio di no è semplicemente un uomo di fede al temperamento di un santo dichiarò la grandama in tono deciso e lo hanno tenuto in carcere per vent'anni vengono i brividi a tanta stupidità e ora che lo hanno liberato tutti quelli che gli appartenevano o sono altrove o sono morti i suoi genitori sono morti la ragazza che doveva sposare è morta mentre lui era in carcere ha perso la capacità manuale per qualsiasi mestiere mi ha detto lui tutte queste cose con la più dolce delle rassegnazioni comunque mi ha detto ha avuto tanto tempo per pensare tutto solo a tante cose una bella consolazione se i rivoluzionari sono fatti di questa stoffa molti di noi possono inginocchiarglisi davanti continuò con un tono di voce scherzoso mentre attorno a lei i sorrisi della società banale induriti su quei volti mondani si volgevano con convenzionale ossequio povera creatura chiaramente non è più in grado di badare a se stessa qualcuno dovrà un po' occuparsi di lui bisognerebbe raccomandargli di fare qualche tipo di cura si udì la voce marziale dell'individuo dall'aria energica che dava da lontano i suoi consigli in buona fede aveva un'ottima forma per la sua età e persino il tessuto della coda della lunga retteningot che indossava riusciva a dare un'impressione di sana elasticità quasi si trattasse di una materia viva l'uomo è praticamente un invalido aggiunse con sincera partecipazione altre voci come liete che l'argomento fosse stato affrontato si unirono al coro delle espressioni di compassione frettolosa davvero impressionante mostruoso uno spettacolo doloroso l'uomo magro con il monocolo attaccato al nastro nero pronunciò affettatamente la parola grottesco la cui puntualità fu apprezzata da quanti gli stavano intorno si guardavano sorridendo il vice commissario non aveva espresso alcuna opinione né lo fece in seguito la sua posizione infatti gli rendeva impossibile divulgare alcuna opinione personale su un carcerato amnistiato ma onestamente condivideva l'opinione dell'amica e protettrice di sua moglie che Michaelis fosse un filantropo sentimentale un po' matto ma nel complesso incapace di far male a una mosca di proposito ed ecco che quando quel nome venne fuori all'improvviso in quella irritante storia di bombe egli si rese conto del pericolo per l'apostolo in libertà provvisoria e la mente gli corse subito all'infatuazione ormai nota dell'anziana dama la sua cortesia alquanto arbitraria non avrebbe tollerato alcuna interferenza nella libertà di Michaelis si trattava di un'infatuazione profonda calma e convinta non solo lei lo aveva giudicato un essere inoffensivo ma lo aveva anche proclamato e per una sorta di confusione della sua mente assolutista ciò equivaleva ad una dimostrazione incontrovertibile era come se l'aspetto mostruoso di quel uomo con i suoi occhi candidi di bambino e il sorriso angelico e grassoccio l'avessero completamente affascinata ella era quasi arrivata al punto di credere ciecamente le di lui teorie sul futuro dal momento che non erano in contrasto con i suoi pregiudizi detestava il nuovo elemento di plutocrazia nella società e l'industrializzazione come sistema di sviluppo umano le appariva particolarmente repellente nei suoi aspetti meccanicistici e vuoti di sentimento le speranze filantropiche del moderato Michaelis non tendevano verso la distruzione totale ma semplicemente alla completa rovina economica del sistema né ella riusciva a vedere dove fosse il male morale di tutto ciò avrebbe voluto dire liberarsi di tutta la folla di parvenù che ella detestava e per i quali aveva una particolare diffidenza non perché si fossero arrivati in qualsiasi luogo ella lo negava ma a causa della loro ottucità profonda verso il mondo ottucità che era la prima causa della rigidità delle loro intuizioni e dell'aridità dei loro cuori eliminando il capitale tutti costoro sarebbero scomparsi ma la rovina universale sempre che universale fosse come appariva a Michaelis avrebbe lasciato i valori sociali intatti la scomparsa dell'ultima moneta non avrebbe avuto alcuna influenza sull'alta società non immaginava per esempio come avrebbe potuto influire sulla sua posizione aveva illustrato queste sue scoperte al vicecommissario con il sereno coraggio di una donna di età che era riuscita ad evitare la peste dell'indifferenza il vicecommissario si faceva a un punto di accogliere ogni cosa del genere in un silenzio che per motivi diplomatici e personali cercava di non rendere offensivo era affezionato all'anziana discepola di Michaelis un sentimento complesso che in parte dipendeva dal prestigio di lei dalla sua personalità ma soprattutto da un istinto di lusingata gratitudine egli sentiva di essere davvero gradito in quella casa ella era la gentilezza in persona ed era anche dotata di pratica sagzezza come tutte le donne ricche di esperienza aveva reso la sua vita coniugale molto più facile di quanto sarebbe stata senza il suo riconoscimento totale e generoso dei suoi diritti come marito di Annie la sua influenza su sua moglie una donna divorata da ogni tipo di piccoli egoismi piccole invidie piccole gelosie era eccezionale purtroppo sia la sua gentilezza che la sua saggezza erano di carattere irrazionale distintamente femminile e difficile da gestire lei rimaneva profondamente donna pur attraverso lo scorrere degli anni e non come diventano alcune vecchi maschi infidi e pestiferi ingonnelle e a lei pensava come a una donna l'incarnazione vera e propria della femminilità rappresentante di una categoria dalle cui fila è reclutata la tenera inzenua e fiera guardia del corpo di tutti i tipi di uomini che parlano sotto l'influenza di un'emozione verofansa che sia dei predicatori dei veggenti dei profeti o dei riformatori ripensando alla distinta e buona amica di sua moglie e pensando in un certo modo anche a se stesso il vice commissario si allarmò di fronte al possibile destino del prigioniero Michaelis qualora fosse stato arrestato con il sospetto di essere in qualche modo sia pure un lontano complice in questo attentato l'uomo avrebbe potuto difficilmente evitare di essere rimandato se non altro a completare la sua condanna e questo lo avrebbe ucciso non ne sarebbe uscito vivo certamente il vice commissario fu indotto a una riflessione estremamente disdicente per la sua posizione ufficiale senza peraltro che la si potesse ascrivere al merito della sua umanità se acchiappano quell'uomo un'altra volta pensò lei non me lo perdonerà mai la franchezza di un tale pensiero espresso segretamente ma in termini ben chiari non poteva sfuggire alla sua ironica autocritica nessun uomo dedito a un lavoro che non ama riesce a salvare molte illusioni su se stesso il disgusto la mancanza di fascino si estendono dall'occupazione alla personalità del soggetto è solo quando le attività che ci vengono assegnate sembrano per fortunata coincidenza obbedire alla vera sostanza del nostro temperamento che riusciamo ad assaporare il conforto di un autoinganno completo il vicecommissario non amava il suo lavoro in patria il lavoro di polizia che lo aveva visto impegnato in una lontana parte del globo aveva il carattere confortante di un tipo di combattimento irregolare o almeno il rischio e l'eccitazione di uno sport all'aria aperta le sue capacità effettive che erano soprattutto di tipo amministrativo si combinavano con una disposizione di carattere avventurosa incatenato a una scrivania tra una folla di 4 milioni di uomini si considerava la vittima di un ironico destino lo stesso destino senza alcun dubbio che aveva fatto sì che si sposasse con una donna eccezionalmente sensibile in fatto di clima coloniale per non parlare degli altri suoi limiti in quanto a gusti e delicatezza di natura sebbene dunque il commissario considerasse la sua paura con una certa ironia tuttavia non riusciva ad escludere quel pensiero sconveniente dalla mente l'istinto di autoconservazione era molto forte in lui che anzi ripetimentalmente a se stesso con enfasi profana e con più puntuale decisione dannazione se quell'infernale hit riesce nel suo intento quel poveretto finirà i suoi giorni in prigione soffocato nel suo stesso grasso e lei non me lo perdonerà mai e intanto la sua figura allungata e scura con il candido collare sotto i lampi argenti e i dei capelli rasati alla nuca rimaneva immobile il silenzio era durato così a lungo che l'ispettore capo hit azzardò a schierirsi la gola il rumore produsse l'effetto desiderato l'abile e zelante funzionario venne di nuovo interrogato dal suo superiore che intanto rimaneva immobile e di spalle lei mette in relazione Michaelis con questa faccenda l'ispettore capo hit fu cauto ma molto deciso direi signore disse che abbiamo sufficienti elementi per intervenire comunque non c'è motivo che un uomo come quello giri libero avrete bisogno di qualche prova definitiva l'osservazione fu appena mormorata l'ispettore capo hit alzò le sopracciglia verso quella schiena magra e scura che continuava con ostinazione a ergersi davanti al suo zelo e alla sua intelligenza non sarà difficile raccogliere prove sufficienti contro di lui disse con lo debole desiderio di compiacere potete contare su di me per questo signore aggiunse senza che ce ne fosse veramente bisogno e tuttavia profondamente convinto gli sembrava infatti ottima cosa avere in mano quell'uomo da gettare in pasto al pubblico casomai questi volesse ruggire con particolare indignazione per quel caso ancora era impossibile prevedere se la folla avrebbe ruggito o meno ciò sarebbe dipeso in ultima analisi dalla stampa ma in ogni caso l'ispettore capo hit per mestiere abituato a riempire le carceri uomo istintivamente fedele alla legalità riteneva logicamente che l'incarcerazione fosse il destino giusto per ogni nemico dichiarato della legge e forte di questa convinzione commise un errore di tatto lasciandosi andare una breve risatina presuntuosa ripete ancora una volta contate su di me per questo signore questo fu troppo per la calma forzata sotto la quale il vice commissario da oltre 18 mesi nascondeva la sua irritazione nei confronti del sistema e dei dipendenti del suo ufficio simile a un bullone quadrato messo a forza dentro un foro circolare aveva vissuto come un'offesa quotidiana quella rotondità levigata dal tempo entro la quale un uomo dalle forme meno angolose si sarebbe adattato dopo uno scatto o due con voluttuosa acquiescenza quello che gli dava più fastidio era soprattutto la necessità di doversi fidare ciecamente di altri per tanta parte del suo lavoro alla risatina dell'ispettore Hitt egli ruotò velocemente sui tacchi come sbalzato a seguito di una scossa elettrica lontano dal vetro della finestra sul volto del suo dipendente scorse non solo il compiacimento dell'occasione celato sotto i baffi ma quel che restava di quegli occhi rotondi di uno sguardo vicile ed esperto che di sicuro si era a lungo inchiodato sulle di lui spalle ed ecco che per un secondo colse quel lampo prima che il carattere intento di quello sguardo avesse il tempo di cambiare in una innocente apparenza di sorpresa il vice commissario di polizia possedeva effettivamente delle qualità all'altezza delle sue mansioni ed ecco che all'improvviso gli sorsero dei sospetti veramente sarebbe corretto dire che non ci voleva molto a risvegliare i suoi sospetti sui metodi della polizia a meno che non accadesse che la polizia fosse un corpo semimilitare organizzato da lui stesso se talvolta questi sospetti rimanevano assopiti era per semplice stanchezza e comunque solo in superficie e il suo apprezzamento dello zelo e dell'abilità dell'ispettore capo kit già di per sé abbastanza moderato escludeva ogni nozione di fiducia morale ha qualcosa in mente esclamò mentalmente e subito sentì montare un'ondata d'ira attraversò la stanza precipitosamente a grandi passi e si sedette con una certa violenza eccomi qua incollato a un mucchio abominevole di documenti rifletteva con un risentimento un po' irragionevole considerato da tutti quello che regge le fila di ogni cosa e invece non riesco a gestire che quello che altri mi mettono in mano e nient'altro e loro possono annodare l'altro capo del bandolo dove meglio credono alzò la testa e volse verso il suo sottoposto un volto lungo e magro con i lineamenti marcati di un energico Don Quixote insomma qual è l'asso che avete nella manica l'altro lo fissò e continuò a fissarlo senza batter ciglio mantenendo gli occhi tondi nell'immobilità più perfetta così come era solito fissare i vari esponenti delle categorie criminali quando dopo essere stati opportunamente preavvertiti si ostinavano a reiterare le loro affermazioni in tono di offesa innocenza o falsa semplicità occupa l'assegnazione ma al di là di quella fissità gelida e professionale c'era anche della sorpresa l'ispettore capo Hit uomo chiave del dipartimento infatti non era abituato ad essere trattato con quel tono tra il disprezzo e l'impazienza cominciò tentando di guadagnare tempo come chi è preso alla sprovvista di fronte a un'esperienza nuova e inaspettata che cos'ho contro Michaelis dite il vicecommissario guardò quella testa tonda come una palla di cannone le punte dei baffi da marinaio norvegese spioventi fin sotto la linea della mandibola robusta contemplò l'intera fisionomia pienotta e pallida il cui carattere deciso era sciupato dal troppo grasso destrute rughe di espressione che irraggiavano dagli angoli superiori degli occhi e da quell'esame deliberato del suo efficiente e fidato funzionario derivò una convinzione così improvvisa che lo sconvolse come un'ispirazione ho buone ragioni di pensare che quando siete entrato in questa stanza disse in tono misurato non era Michaelis che avevate in mente non principalmente lui forse non pensavate affatto a lui avete ragione di pensare signore mormorò rispettore capo hit mostrando uno stupore che fino a un certo punto sembrava abbastanza sincero aveva scoperto in questa faccenda un lato delicato che lo disorientava e che imponeva a lui che ne era consapevole una certa dose di falsità quella falsità che sotto il nome di abilità prudenza o discrezione viene fuori in una fase o nell'altra della maggior parte delle cose umane egli si sentiva in quel momento come potrebbe sentirsi un'acrobata se improvvisamente nel bel mezzo dello spettacolo il direttore del teatro fosse uscito dal suo ufficio menageriale e avesse incominciato a scuotere la fune l'indignazione il senso di morale e insicurezza causati da un simile tradimento insieme alla paura immediata di rompersi il collo sarebbero bastati per così dire a metterlo fuori di sé e ci sarebbe stata anche la preoccupazione per uno scandalo nei confronti della sua arte dal momento che un uomo deve identificarsi con qualcosa di più tangibile della propria personalità e mettere il proprio orgoglio in qualcosa o nella sua posizione sociale o nella qualità del lavoro che è obbligato a fare o semplicemente nella superiorità dell'ozio che può essere abbastanza fortunato da godere sì ho le mie buone ragioni per pensare questo non voglio dire che non abbiate pensato affatto amica elis ma state dando a un dato particolare una priorità che non mi sembra completamente obiettiva ispettore ispettore hit se veramente è questo il percorso che porta alla soluzione perché non lo avete seguito subito o personalmente o mandando uno dei vostri uomini al villaggio dove egli vive credete signore che io sia venuto meno al mio dovere chiese l'ispettore capo in un tono che cercò di rendere innocentemente interrogativo costretto inaspettatamente a concentrare tutte le facoltà nel tentativo di conservare il proprio equilibrio si era attaccato a quel punto esponendosi così a un rimprovero il vice commissario infatti vagamente scuro in volto osservò che quella era un'osservazione molto inopportuna da fare ma dal momento che l'avete fatta continuò con freddezza vi dirò che non era questo che intendevo dire si fermò con uno sguardo diretto agli occhi infossati che equivaleva a dire e voi lo sapete bene il capo del cosiddetto ufficio crimini speciali impedito dal suo grado dall'andare in giro e mettersi personalmente alla ricerca dei segreti custoditi in animi colpevoli tendeva ad esercitare i suoi considerevoli doni ricercando verità incriminanti nei propri dipendenti questo particolare istinto difficilmente si sarebbe potuto chiamare una debolezza era naturale egli era un detective nato era stato ciò a guidare sia pure incoscientemente la scelta della sua carriera e se mai nella vita questo dono era avvenuto meno ciò era forse accaduto nell'eccezionale circostanza del suo matrimonio e anche questo rientrava nell'ordine naturale delle cose e l'uomo si nutriva dal momento che non poteva avventurarsi nel mondo di fuori del materiale umano che gli veniva posto dinnanzi nell'isolamento del suo ufficio non possiamo mai smettere di essere noi stessi il gomito appoggiato alla scrivania le magre gambe accavallate la guancia appoggiata sul palmo della mano scarna il vice commissario responsabile del dipartimento crimini speciali andava sempre più impadronendosi del caso con interesse crescente il suo capo ispettore se non un nemico assolutamente degno della sua penetrazione introspettiva era in ogni caso il più degno di quanti aveva di fronte la mancanza di fiducia nelle reputazioni troppo consolidate era strettamente in carattere con l'abilità investigativa del vice commissario ricordava lui stesso un certo capo indigeno vecchio grasso e ricco nella lontana colonia uomo di cui tradizionalmente i vari governatori coloniali erano soliti fidarsi e utilizzare come amico sicuro e come sostenitore dell'ordine e della legalità instaurata dai bianchi in realtà una volta giudicato senza illusioni si scoprì che costui era soprattutto un grande amico di se stesso e nessun altro non precisamente un traditore ma certo un uomo sulla cui fedeltà c'erano da fare molte e pericolose riserve e ciò a causa del riguardo che considerava prioritario per il proprio utile la propria comodità e sicurezza e c'era nell'individuo anche una certa innocenza in quella sua duplicità ingenua ma non era meno pericoloso per questo ed ecco che il vice commissario fece una scoperta anche il vecchio capo indigeno era fisicamente un uomo imponente a parte la differenza di colore naturalmente e l'aspetto dell'ispettore capo Heath richiamava proprio quell'uomo alla memoria del suo superiore non erano esattamente gli occhi o le labbra era strano ma non era Alfred Wallace nel suo famoso libro sull'arcipelago malese che racconta come tra gli abitanti delle isole Aru egli avesse scoperto in un vecchio selvaggio nudo con la pelle fuliginosa una somiglianza tutta particolare ad un caro amico in patria per la prima volta da quando aveva assunto il suo incarico il vice commissario si sentì in procinto di compiere un vero lavoro in cambio del suo stipendio e questa era una sensazione piacevole lo rivolterò come un vecchio guanto pensò il vice commissario mentre lo sguardo sostava pensoso sull'ispettore capo Heath non che non ci avessi pensato anch'io riprese non c'è dubbio che voi conosciate il vostro mestiere nessun dubbio e questo è precisamente il motivo per cui si fermò all'improvviso cambiando tono che cosa di preciso vi ha messo sulle tracce di Michaelis a parte il fatto che i due uomini sospetti e voi siete certo che fossero due avevano come ultima tappa una stazione a tre miglia dal villaggio dove Michaelis vive ora questo basterebbe di per sé ad andare avanti signore con quell'individuo disse l'ispettore Heath di nuovo impassibile il leggero cenno di approvazione del vice commissario contribuì molto a calmare lo stupore risentito del celebre funzionario perché l'ispettore capo Heath era un uomo cortese un marito eccellente e un padre devoto e la fiducia pubblica e dipartimentale di cui godeva agendo in modo positivo su una natura di per sé conciliante lo aveva disposto a sentimenti di amicizia nei confronti dei vari vice commissari che gli aveva visto passare proprio per quella stanza ce n'erano stati tre nella sua epoca il primo dall'aria marziale brusco di modi rubizzo in volto con sopracciglia bianche e un temperamento esplosivo si manovrava con un filo di seta se ne andò per raggiunti limiti di età il secondo un perfetto gentleman che conosceva a perfezione il suo ruolo e quello di quanti vi erano accanto al momento di dare le dimissioni per assumere un più importante incarico fuori d'Inghilterra ottenne di essere decorato per i servizi resi in realtà dall'ispettore Heath lavorare con lui era stato un motivo di orgoglio e di piacere il terzo un'acqua cheeta alquanto misterioso fin dall'inizio era alla fine di 18 mesi ancora abbastanza misterioso per il dipartimento tutto sommato l'ispettore capo Heath lo considerava abbastanza innocuo dall'apparenza strana ma innocuo in quel momento stava parlando e l'ispettore capo Heath ascoltava con apparente deferenza che non significava nulla essendo il suo un dovere d'ufficio e internamente con benevola tolleranza Michaelis si è presentato prima di lasciare Londra per la campagna sì signore l'ha fatto e che cosa starà facendo là continuò il vice commissario che del resto era perfettamente informato sull'argomento incastrato dolorosamente in una vecchia poltrona di legno davanti a un tavolo di querza corroso dalle tarme in una stanza del primo piano di una villetta di quattro camere con il tetto di tegole coperte di muschio Michaelis scriveva giorno e notte con una calligrafia obliqua e tremolante quell'autobiografia di un prisioniero che avrebbe dovuto rappresentare un libro della rivelazione sulla storia dell'umanità la condizione di uno spazio ristretto l'isolamento e la solitudine in una villetta di quattro stanze giovavano alla sua ispirazione era come essere in prigione se non per il fatto che non si veniva disturbati con l'odioso pretesto di prendere aria secondo le abitudini tiranniche della sua casa precedente il penitenziario non avrebbe potuto dire se il sole ancora splendesse sulla terra o no il sudore della fatica letteraria gli colava dalla fronte un entusiasmo felice lo spingeva ad andare avanti era finalmente la liberazione della sua vita intima voleva dire lasciare andare l'animo suo nel mondo immenso e lo zelo della sua vanità innocente risvegliata all'inizio dall'offerta di 500 sterline di un editore assumeva l'aspetto di qualcosa di sacro e voluto dal destino sarebbe certo quanto mai desiderabile essere informati esattamente insiste il vice commissario con una certa ipocrisia ispettore capo hit avvertendo un ritorno di irritazione davanti a questa esibizione di scrupoli osservò che la polizia della contea era stata avvertita dall'inizio dell'arrivo di michaelis e che si sarebbe potuto ottenere un rapporto completo in poche ore un telegramma al sovraintendente così disse parlando piuttosto lentamente mentre la sua mente sembrava già soppesare le conseguenze un leggero corrugarsi della fronte era il segno esteriore ma fu interrotto da una domanda avete già mandato quel telegramma no signore rispose come sorpreso il vice commissario liberò le gambe di scatto e il movimento brusco stonò con il modo apparentemente casuale con cui il funzionario parve buttarla a un suggerimento pensate forse che michaelis abbia avuto qualcosa a che fare con poniamo la preparazione di quella bomba l'ispettore capo assunse un atteggiamento pensoso non dirai non c'è necessità di stabilire questo ora si accompagna a uomini che sono classificati come pericolosi è stato eletto membro del comitato rosso meno di un anno dopo la sua liberazione su licenza un genere di riconoscimento suppongo e l'ispettore capo rimase un po' con rabbia un po' con disprezzo con un uomo come quello la scrupolosità era sentimento mal riposto e perfino illegittimo la celebrità creata attorno a michaelis due anni prima al momento della sua liberazione da qualche giornalista a caccia di emozioni e di argomenti per edizioni speciali gli bruciava ancora era perfettamente legale arrestare quell'uomo al minimo sospetto ed era opportuno e legale in quel caso i suoi due superiori precedenti avrebbero immediatamente capito il problema mentre questo senza peraltro dire sì o no sedeva là come perso in un sogno tra l'altro oltre ad essere opportuno e legale l'arresto di michaelis risolveva una piccola difficoltà personale che in qualche modo preoccupava l'ispettore capo hit questa difficoltà portava conseguenze sulla sua reputazione sulla sua tranquillità e anche sull'efficiente compimento dei suoi doveri perché seppure michaelis senza alcun dubbio sapeva qualcosa circa l'attentato l'ispettore capo era abbastanza certo che non ne sapeva troppo ma non faceva differenza ne sapeva molto meno l'ispettore capo non era certo di certi altri individui che aveva lui in mente ma il cui arresto sembrava a lui inopportuno oltre ad essere molto più complicato a causa delle regole del gioco le regole del gioco invece non proteggevano altrettanto michaelis trattandosi di un ex carcerato sarebbe stato stupido non sfruttare le agevolazioni della legge e i giornalisti che lo avevano celebrato nei loro scritti con grande sfoggio di emozioni sarebbero stati pronti a distruggerlo nei loro scritti con un'indignazione altrettanto viscerale questa prospettiva contemplata con fiducia attraeva l'ispettore capo Kit come un trionfo personale e nel profondo del suo cuore innocente di cittadino comune con famiglia il disgusto quasi inconscio e tuttavia potente di essere costretto dagli eventi a trovarsi a contatto con la disperata ferocia del professore aveva il suo peso questo disgusto si era ulteriormente rafforzato dopo l'incontro casuale nel vicolo incontro che non si era lasciato dietro per l'ispettore capo Kit quel senso soddisfacente di superiorità che i componenti delle forze di polizia ricavano dall'aspetto intimo e fiducioso dei loro rapporti con le classi criminali grazie al quale la vanità del potere è lusingata e la volgare brama di dominio sui nostri simili è ricompensata con gli onori che merita l'ispettore Kit non vedeva nell'anarchico perfetto un proprio simile era un essere impossibile un cane arrabbiato da lasciar solo non che l'ispettore capo avesse paura di lui al contrario pensava di acchiapparlo un giorno o l'altro ma non era ancora il momento pensava di impadronirsene a suo tempo in modo corretto e definitivo secondo le regole del gioco quello presente non era il momento opportuno per tentare quel gesto non era il momento opportuno per molte ragioni personali e professionali e poiché questa era una convinzione assoluta per l'ispettore Kit era logico che gli apparisse giusto e corretto che questa faccenda venisse deviata dal suo sentiero oscuro e conveniente e portata chissà dove verso un tranquillo e legale binario morto chiamato Micaelis e ripeté come riconsiderando il suggerimento con coscienza la bomba no non direi esattamente potremmo non scoprirlo mai ma è chiaro che lui ha qualcosa a che fare con questa storia in qualche modo e questo possiamo scoprirlo senza troppa fatica il suo atteggiamento aveva quell'aria di indifferenza grave autoritaria ben nota e molto temuta un tempo dai più abili tra i ladri l'ispettore capo kit sebbene uomo non era un animale capace di sorridere ma internamente il suo stato d'animo era di soddisfazione di fronte all'atteggiamento di recettività passiva del vice commissario che mormorò a fior di labbra e credete davvero che l'indagine debba essere condotta in quella direzione sì signore ne siete proprio convinto sì signore questa è la direzione che dobbiamo prendere il vice commissario ritirò così di scatto la mano che sosteneva la testa reclinata che considerato il suo atteggiamento languido l'intera sua persona sembrò minacciare il collasso al contrario egli si sedette dritto estremamente vigile dietro la grande scrivania sulla quale aveva lasciato cadere il pugno con un colpo secco quel che voglio sapere è quel che siete andato rimuginando finora cosa sono andato rimuginando ripete l'ispettore capo molto lentamente sì prima di entrare in questa stanza mi capite l'ispettore capo si sentiva come se lo strato d'aria tra la pelle e i suoi vestiti fosse divenuto rovente era una sensazione incredibilmente spiacevole e senza precedenti naturalmente l'ispettore esagerò di proposito al massimo il tono deciso delle sue parole se c'è un motivo del quale non so nulla per non interferire con il prigioniero Michaelis sarà meglio allora che io non gli sguinzagli dietro la polizia della contea ci volle talmente tanto tempo per dire questa frase che l'attenzione costante del vice commissario parve comportare un sforzo di incredibile sopportazione la replica giunse immediata nessuna ragione che io sappia andiamo ispettore capo queste sottigliezze con me sono del tutto fuori luogo da parte vostra assolutamente fuori luogo ed è anche scorretto sapete non dovreste permettere che io sia qui a cercare di comporre da solo il mosaico delle congetture davvero sono sorpreso si fermò un attimo poi aggiunse suavemente non c'è bisogno che io vi dica che questa conversazione è del tutto privata parole simili erano ben lontane dal tranquillizzare l'ispettore capo l'indignazione dell'acrobata tradito era in lui più forte che mai nel suo orgoglio di servitore fidato egli si sentiva ferito dalla certezza che la fune non veniva scossa con lo scopo di far di rompere il collo bensì per un'esibizione di impudenza come se qualcuno avesse paura i vicecommissari vanno e vengono ma l'ispettore capo non è un effimero fenomeno d'ufficio lui non temeva di certo di rompersi il collo che lo spettacolo venisse sciupato era più che abbastanza per spiegare l'ondata di onesta indignazione che sentiva ardergli in petto e poiché il pensiero non conosce riguardi per nessuno il pensiero del capo ispettore prese una forma minacciosa e profetica ragazzo mio diceva se stesso tenendo gli occhi rotondi e abitualmente indagatori attaccati alla faccia del vicecommissario ragazzo mio tu non conosci il tuo posto e il tuo posto non conoscerà a lungo te ci scommetto e come se quel pensiero avesse provocato una risposta qualcosa di simile al fantasma di un amabile sorriso passò sulle labbra del vicecommissario i suoi modi erano disinvolti e professionali mentre insisteva a dare un altro scossone alla funetesa veniamo adesso a quel che avete scoperto sul posto ispettore capo disse uno sciocco e il suo posto fanno presto a separarsi la serie di pensieri profetici andava avanti nella testa dell'ispettore capo hit ma seguì immediata la riflessione che un alto funzionario anche quando è silurato e questa era l'immagine precisa trova sempre il tempo mentre vola oltre la porta di tirare un brutto calcio negli stinchi di un dipendente senza addolcire molto la natura basilisca del suo sguardo dichiarò impassibile stiamo arrivando a quella parte della mia indagine signore bene che cosa ne avete ricavato l'ispettore capo che aveva deciso di buttarsi dalla fune tocco terra con imbronciata disinvoltura ho portato via un indirizzo disse tirando fuori dalla tasca senza fretta un brandello di stoffa scura bruciacchiata questo appartiene al sopravvito che indossava quell'individuo che ci è fatto saltare in aria naturalmente il sopravvito poteva non essere il suo e poteva anche essere stato rubato ma guardando questo non sembra molto probabile l'ispettore capo avvicinandosi alla scrivania vi stese sopra con cura il brandello di stoffa blu lo aveva raccolto da quel mucchio repellente nell'obitorio perché accade spesso che si trovi il nome di un sarto sotto il colletto di rado serve a qualcosa tuttavia non si aspettava molto di trovare qualcosa di utile ma certamente non si aspettava di trovare e non sotto il colletto ma cucito con attenzione sul risvolto del bavero un pezzo di cotrone quadrato con un indirizzo scritto sopra con inchiostro indelebile l'ispettore capo tolse la mano che lisciava la stoffa me la sono portata via senza che nessuno ci facesse caso disse ho pensato che fosse meglio così su richiesta si potrà sempre produrla se se ne sarà bisogno il vice commissario sollevandosi un po' sulla sedia tirò la stoffa dalla sua parte del tavolo sedette guardando in silenzio solo il numero 32 e il nome di Brett Street erano scritti in inchiostro indelebile su un pezzo di stoffa non più largo di una normale cartina di sigaretta fu genuinamente sorpreso non riesco a capire perché avrebbe dovuto andare in giro così targato disse guardando in alto verso l'ispettore capo Heath è qualcosa di veramente straordinario una volta incontrato nella sala fumatore di un albergo un anziano signore che andava in giro con nome e indirizzo cucito su tutte le tasche in caso di un incidente o di un malore improvviso disse il vice commissario egli dichiarava di avere 84 anni ma sembrava più giovane della sua età mi disse che aveva paura di perdere improvvisamente la memoria come quella gente di cui legge qualche volta nei giornali una domanda del vice commissario che voleva sapere cosa fosse il numero 13 di Brett Street interruppe bruscamente questo ricordo l'ispettore capo Heath trascinato a terra con trucchi tutt'altro che corretti aveva scelto di seguire la via di una franchezza senza riserve seppure rimanesse nella ferma opinione che al dipartimento non avrebbe giovato sapere troppo tuttavia l'oculata custodia dell'informazione era al massimo che la sua lealtà gli consentiva di fare per il bene del servizio se il vice commissario voleva condurre a modo suo sbagliando questa faccenda niente naturalmente poteva impedirglielo ma quanto a lui egli non vedeva alcuna ragione per uno sfoggio di zelo rispose dunque laconicamente è un negozio signore il vice commissario gli occhi chinati verso il blandello di stoffa blu aspettava ulteriori informazioni e poiché non sembravano arrivare egli cercò di ottenerle con una serie di domande formulate con garbata pazienza fu così che udì per la prima volta il nome di Verloc giunse a farsi un'idea del genere di affari che trattava e il suo aspetto esteriore in una pausa del discorso il vice commissario alzò gli occhi e scoprì una certa animazione sul volto dell'ispettore capo si guardarono in silenzio naturalmente disse quest'ultimo il dipartimento non ha alcun dato registrato su quell'uomo nessuno dei miei predecessori sapeva qualcosa di quanto mi avete appena detto chiesa il vice commissario appoggiando i gomiti sul tavolo e sollevando le mani unite davanti al volto come se stesse pregando solo che gli occhi non avevano certo un'espressione pia no signore certamente no a quale scopo quel tipo d'uomo non poteva essere prodotto pubblicamente per nessun buon motivo era sufficiente per me sapere chi era e utilizzarlo in modo da poterne fare un uso pubblico e ritenete che questo tipo di conoscenza privata sia compatibile con la posizione ufficiale che occupate perfettamente signore penso che sia assolutamente corretto mi prenderò la libertà di dirvi signore che è questo a fare di me quello che sono e sono considerato un uomo che conosce il proprio mestiere è un mio affare riservato un mio amico personale nella polizia francese mi suggerì che l'uomo era una spia dell'ambasciata amicizia riservata informazione riservata e un uso riservato di essa questo è come la vedo io il vice commissario osservò tra sé e sé che lo stato d'animo del celebre ispettore capo aveva l'aria di riflettersi sulla linea della macella inferiore come se la viva consapevolezza della sua alta distinzione professionale si fosse fermata in quella sua parte anatomica quindi si limitò a liquidare a quel punto per il momento con un calmo vedo vedo e appoggiando la guanza alle sue mani giunte bene allora detto tra noi se preferite per quanto tempo siete stato in contatto con questa spia d'ambasciata la risposta riservata dell'ispettore capo a questa domanda tanto riservata che non venne mai formulata in termini udibili sarebbe stata molto tempo prima che voi vi sognaste di essere anche solo preso in considerazione per questo posto ma la versione diciamo pubblica della dichiarazione fu molto più precisa io lo vidi per la prima volta nella mia vita poco più di sette anni fa quando vennero qui in visita due altezze imperiali e il cancelliere imperiale ero incaricato di tutta l'organizzazione per proteggerli il barone Stott Vartenheim era allora ambasciatore era un vecchio signore molto ansioso una sera tre giorni prima del ricevimento di Guide Hall mi mandò a dire che voleva vedermi un momento ero al piano di sotto e le carrozze erano alla porta per portare le altezze imperiali e il cancelliere all'opera sali subito e trovai il barone che camminava su e giù per la sua camera da letto torcendosi le mani in uno stato pietoso d'ansia mi assicurò che aveva la più completa fiducia nella nostra polizia e nelle nostre capacità ma c'era lì un uomo che era appena arrivato da Parigi e delle cui informazioni ci si poteva fidare completamente voleva che ascoltassi quello che quest'uomo aveva da dire mi portò subito in uno spogliatoio attiguo vede un tipo piuttosto grosso con un pesante soprabito che sedeva su una sedia tutto solo tenendo in mano cappello e bastone il barone gli disse in francese parla amico mio non c'era molta luce in quella stanza parlai con lui per qualcosa forse come cinque minuti certo è che mi diede una notizia davvero imprevedibile poi il barone mi prese nervosamente da parte per raccomandarmi l'individuo e quando mi volsi scopersi che quel tizio si era già dileguato come un fantasma si era alzato e se n'era andato credo furtivamente per qualche scala sul retro non c'era tempo di correre dietro dato che dovevo correre dietro all'ambasciatore giù per lo scalone principale e preoccuparmi che il gruppo partisse sano e salvo per l'opera tuttavia quella stessa notte agii secondo l'informazione ricevuta che fosse perfettamente corretto o meno certo sembrava una voce abbastanza seria molto probabilmente ci salvò da un brutto guaio il giorno della visita imperiale alla city qualche tempo dopo un mese o due dopo la mia promozione a ispettore capo la mia attenzione fu attratta da un grosso uomo robusto che mi sembrava di avere già visto in qualche posto prima che usciva in fretta da un negozio di gioielleria nello strand lo seguì e siccome faceva il mio stesso cammino verso Sharing Cross vedendo uno dei nostri uomini al di là della strada gli feci un cenno e gli indicai l'uomo ordinandogli di controllarne i movimenti per un paio di giorni e di riferire poi a me in merito non più tardi del pomeriggio successivo il mio uomo si fece vivo per dirmi che quel tipo aveva sposato la figlia della sua padrona di casa all'ufficio del registro proprio quel giorno alle 11.30 del mattino e se n'era andato a Margate per una settimana il nostro incaricato aveva visto che caricava i bagagli su una carrozza c'erano delle vecchie targhette di Parigi su una delle borse non so perché non riuscivo a togliermi quell'uomo dalla testa e subito la prima volta che mi dovetti recare a Parigi per servizio parlai di lui a quel mio amico della polizia francese che mi disse da quel che mi dici penso che ti riferisci a un noto parassita ed emissario del comitato rosso rivoluzionario dice di essere inglese per nascita abbiamo l'idea che sia già da un bel po' di anni un agente segreto delle ambasciate straniere a Londra questo bastò a rischiararmi completamente la memoria era il tipo che avevo visto seduto su una seggiola nel bagno del barone Stott Wartenheim che si era dileguato quel giorno disse al mio amico che aveva ragione quell'uomo era un agente segreto ne ero certo in seguito il mio amico si prese la briga di indagarne per me i precedenti completi pensai che era meglio sapere tutto quel che c'era da sapere ma suppongo non vogliate sentire la sua storia ora signore il vice commissario scosse la testa che teneva ancora appoggiata alle mani la storia dei vostri rapporti con quell'utile personaggio è la sola cosa che importa in questo momento disse chiudendo lentamente gli occhi infossati e stanchi e riaprendoli poi subito con uno sguardo di gran lunga più vivace non c'è nulla di ufficiale in questi rapporti disse l'ispettore capo con asprezza andai una sera al suo negozio gli dissi chiero e gli ricordai del nostro primo incontro non batte ciglio mi disse che ora si era sposato e sistemato e tutto quello che voleva era di non essere ostacolato nel suo piccolo commercio mi presi la responsabilità di assicurargli e fin tanto che non avesse commesso nulla di apertamente contrario alla legge sarebbe stato lasciato in pace dalla polizia e questo voleva ben qualcosa per lui una sola parola infatti da parte nostra a quegli uffici della dogana sarebbe bastata a far sì che a Dover gli aprissero qualcuno dei pacchi che lui faceva arrivare da Parigi a Bruxelles con sicura confisca successiva e forse un arresto come risultato finale è un tipo di commercio molto precario mormorò il vice commissario perché mai ci si sarà messo l'ispettore capo inarcò con freddezza le sopracciglia sprezzanti di certo aveva qualche conoscenza amici sul continente tra gente che commercia con questo genere di mercanzia sarebbe proprio il tipo di persona adatto a lui è un fannullone anche lui come tutti gli altri che cosa ne ricavate in cambio della protezione l'ispettore capo non era incline a esaltare il valore dei servizi di Mr. Verlock non servirebbe molto a nessun altro all'infuori di me è necessario saperne parecchio prima di poter utilizzare un uomo come quello io riesco a capire il tipo di suggerimento che è in grado di dare e quando ho bisogno di una trazza di solito riesce a darmela l'ispettore capo si perse all'improvviso in uno stato d'animo di caute riflessioni e il vice commissario represso un sorriso gli attraversava la mente il pensiero che la reputazione dell'ispettore capo ci era probabilmente creata in gran parte per merito dell'agente segreto Verlock in quanto a essere utile in senso più generale tutti i nostri uomini della sezione crimini speciali di turni a Ciel in Clos e Vittoria hanno ordine di prendere attenta nota di chiunque vedano insieme a lui egli incontra spesso i nuovi arrivati e poi ne perde traccia sembra essere incaricato di questo tipo di compito quando voglio un indirizzo in fretta posso sempre chiederlo a lui naturalmente io so come gestire i nostri rapporti non ho avuto modo di parlare con lui più di tre volte negli ultimi due anni io gli lascio una riga scritta non firmata e lui mi risponde allo stesso modo al mio indirizzo privato di tanto in tanto il vicecommissario dava un segno lievissimo di assenso l'ispettore capo aggiunse che non credeva che mister Verlock godesse profonda stima da parte dei membri del consiglio rivoluzionario internazionale ma che in linea di massima si fidavano di lui su questo non ci potevano essere dubbi ogni volta che ho avuto ragione di pensare che c'era qualcosa nell'aria concluse ho sempre trovato che gli era in grado di dirmi qualcosa che valeva la pena di sapere il vicecommissario fece un'osservazione significativa questa volta ha mancato né peraltro in alcun modo io avevo la sensazione di qualcosa nell'aria aggiunse l'ispettore capo Heath non gli ho chiesto nulla così non mi ha potuto dire nulla non è uno dei nostri non è come se lo pagassimo no borbottò il vicecommissario è una spia pagata da uno stato straniero non ci si può fidare di lui io devo andare avanti con il mio lavoro a modo mio e se è necessario accetterai di collaborare anche con il diavolo e di soppesarne le conseguenze ci sono cose che non è da tutti sapere la vostra idea della riservatezza sembra consistere nel tenere all'oscuro il capo del vostro dipartimento questo vuol dire spingersi un po' troppo oltre non vi pare e lui vive sopra il negozio chi? Berlock? oh sì vive sopra il negozio la madre della moglie mi sembra vive con loro la casa è sorvegliata oh santo cielo non servirebbe sono sorvegliate alcune delle persone che vi si recano la mia opinione è che non sappia nulla di questa faccenda e come vi spiegate questo? il vicecommissario accennò al brandello di stoffa che stava posato sul tavolo non me lo spiego affatto signore è semplicemente incomprensibile non ha spiegazioni stando a quel che ne sappiamo l'ispettore capo fece quelle ammissioni con la franchezza di un uomo la cui reputazione è solida come una roccia in ogni caso non in questo momento ritengo che si scoprirà che l'uomo che ha avuto maggiormente a che fare con questa faccenda è Michaelis davvero? sì signore perché rispondo di tutti gli altri e che mi dite dell'altro uomo che sarebbe fuggito dal parco? dirai che a quest'ora è ben lontano fu l'opinione dell'ispettore capo il vice commissario lo guardò duramente e di colpo si alzò come se avesse deciso una certa linea d'azione in effetti proprio in quel momento stava accedendo a una tentazione affascinante l'ispettore capo si sentì congedare con l'ordine di incontrare il suo superiore la mattina dopo di buon'ora per ulteriori consultazioni sul caso lo ascoltò con un volto impenetrabile e uscì dalla stanza a passi misurati quali che fossero i piani del vice commissario non avevano nulla a che fare con il suo lavoro d'ufficio che gli avvelenava l'esistenza per l'isolamento che comportava e l'evidente mancanza di contatti con ogni realtà se così non fosse stato l'aria improvvisamente attiva e solerte del vice commissario non avrebbe trovato spiegazioni non appena fu lasciato solo cercò istintivamente il cappello e se lo mise in testa poi si sedette di nuovo per riconsiderare l'intera storia e poiché aveva già deciso non si fermò a lungo e prima che l'ispettore capo Kitt fosse andato molto lontano sulla via di casa anche egli abbandonò l'edificio capitolo settimo il vice commissario si avviò per una strada angusta quasi un fosso invaso d'acqua e fango poi superato un largo incrucio entrò in un edificio pubblico e cercò di parlare con il giovane segretario privato volontario e quindi non pagato di un gran personaggio il giovanotto bello e liscio in volto al quale la pettinatura simmetrica dava l'aria di un grosso scolaretto tutto lindo accolse la richiesta del vice commissario con uno sguardo perplesso e parlò con ansia trattenuta vorrà vedervi non ne sono sicuro se ne è venuto a piedi dal parlamento un'ora fa per parlare con il sottosegretario permanente e ora è pronto a tornare indietro di nuovo avrebbe potuto mandare a chiamare il sottosegretario ma credo preferisca fare un po' di esercizio è tutto il modo che ancora riesce a trovare il tempo di fare finché dura questa sessione io non me ne lamento anzi mi piacciono queste brevi passezzate si appoggia al mio braccio e non apre bocca ma ve lo dico io è molto stanco e francamente non nel migliore degli umori in questo momento è in relazione con quell'affare di Greenwich oh ce la su con tutti voi a questo proposito ma andrò a vedere se insistete andate da bravo gli disse il vice commissario il segretario volontario ammirava quest'ardire assumendo un'espressione innocente per l'occasione aprì la porta ed entrò con la sicurezza di un bimbo bello e privilegiato e subito riapparve con un cenno di assenso al vice commissario che passando attraverso la stessa porta lasciata aperta per lui si trovò in una grande sala a tu per tu con il grande personaggio imponente come mole e come statura e con un lungo volto pallido che a causa del doppio mento abbondante andava allargandosi alla base assumendo la forma di un uovo incorniciato da baffi grigiastri il gran personaggio dava l'impressione di dilatarsi a vista una disgrazia per i sarti che dovevano vestirlo bastava guardare le grinze che attraversavano nel senso della larghezza il sopravito abbottonato come se le cinture fossero tese al di là di ogni possibilità di resistenza il capo spunteva dritto dal collo robusto gli occhi con le borse gonfie guardavano dall'alto in basso con alte rigia ai due lati di un naso adunque aggressivo nobile e importante nella vasta circonferenza pallida del volto un cappello lucido di seta e un paio di guanti sgualciti pronti su una delle estremità del lungo tavolo sembravano enormi e dilatati a loro volta i piedi davanti al caminetto nei grossi e larghi stivali non si dilungò in espressione di saluto vorrei sapere se questo è l'inizio di un'altra campagna dinamitarda chiese subito con voce calma e profonda non vi perdete in dettagli non ho tempo la figura del vice commissario di fronte a quella presenza rozza e massizza aveva l'agilità fragile slanciata di una canna che si rivolge alla quercia e veramente la discendenza ininterrotta dei suoi avi superava come numero di secoli l'età della più vecchia quercia del paese nei limiti in cui si può essere sicuri di qualcosa vi posso assicurare che non lo è sì ma la vostra idea circa questo tipo di assicurazioni disse il grand'uomo con uno sprezzante gesto della mano verso la finestra che dava sulla grande arteria cittadina sembra consistere principalmente nel far fare la figura dello scemo al segretario di stato mi è stato detto con certezza in questa stanza non meno di un mese fa che nulla del genere sarebbe stato nemmeno possibile il vice commissario imperturbabile gettò un'occhiata in direzione della finestra mi permetterete di farvi notare Sir Ethelrid che fino a questo momento non ha avuto alcuna opportunità di darvi assicurazioni di nessun genere lo sguardo di alteria si concentrò sul vice commissario vero ammise con voce calma e profonda è Heath che ho mandato a chiamare voi siete ancora un novizio nella cella nuova e come vanno le cose laggiù credo di imparare qualcosa ogni giorno certo certo spero che vi troverete bene grazie Sir Ethelrid ho imparato qualcosa anche oggi e anche in quest'ultima ora più o meno c'è molto in questa faccenda che non fa pensare al solito attentato anarchico anche a guardarlo il più possibile da vicino ed è questo il motivo per cui sono qui il grand'uomo appoggiò il dorso delle sue grosse mani sui fianchi e spinse i gomiti in fuori a mo' di anfora molto bene andate avanti solo niente dettagli per cortesia risparmiatemi i dettagli non sarete importunato con dettagli Sir Ethelrid il vicecommissario cominciò calmo con tranquilla sicurezza mentre parlava alle spalle del grand'uomo le lancette sul quadrante dell'orologio un oggetto pesante dal ticchettio lugubre ed evanescente che rifulgeva di fregi massiczi nello stesso marmo scuro della mensola del caminetto percorsero lo spazio di sette minuti egli esponeva i fatti studiandosi di mantenersi fedele ad uno stile parentetico dove ogni piccolo elemento ossia ogni dettaglio si incastrava nel tutto con deliziosa facilità non ci fu accenno di interruzione non un mormorio non un movimento il grande personaggio avrebbe potuto essere la statua di uno dei suoi antenati principeschi spogliato dell'armatura da guerriero crociato e messo dentro una finanziera di cattivo taglio il vicecommissario sentì che gli sarebbe stata data la libertà di parlare anche per un'ora intera ma mantenne il controllo e alla fine del tempo indicato sopra si interruppe con una conclusione brusca che riallacciandosi all'affermazione di apertura sorprese favorevolmente Sir Ethelrid per l'evidente prontezza e la vivacità che dimostrava quel che si impone alla nostra attenzione al di sotto della superficie dei fatti fatti peraltro senza alcuna consistenza è insolito in questa forma precisa almeno e richiede un trattamento speciale il tono della risposta di Sir Ethelrid giunse dal profondo pieno di convinzione dirai proprio di sì con il rivolgimento di un ambasciatore di uno stato straniero oh l'ambasciatore protestò l'altro dritto e slanciato concedendosi un mezzo sorriso sarebbe stupido da parte mia insinuare qualcosa del genere ed è assolutamente inutile poiché se le mie premesse sono giuste che si tratti di un ambasciatore o di un usciere è semplice dettaglio Sir Ethelrid spalancò una bocca grande simile a una caverna dentro la quale il naso adunco sembrava ansioso di andare a curiosare ed a essa giunse un rumore soffocato e vibrante come di un organo lontano subito interrotto con sprezzante indignazione no questa gente è davvero impossibile e cosa pensano di fare importando i loro sistemi crimeo tartarici da queste parti un turco avrebbe più decenza dimenticate Sir Ethelrid che per essere sinceri non sappiamo nulla di certo non ancora no ma come definireste tutto questo in breve audacia impudente addirittura un genere di infantilismo tutto particolare non possiamo sopportare l'innocenza di questi bambini cattivi visse il grosso personaggio dilatato che dava l'impressione di dilatarsi ancora di più mentre lo si guardava dall'alto lo sguardo altero sembrò scendere a colpire rumorosamente il tappeto ai piedi del vice commissario bisognerà dargli una lezione come si deve dobbiamo essere messi in condizione di qual è la vostra idea generale espressa in breve non c'è bisogno di dilungarsi in dettagli no in linea di principio io stabilirei che l'esistenza di agenti segreti non dovrebbe essere tollerata essi servono infatti solo ad aumentare i pericoli reali del male per combattere il quale vengono utilizzati che la spia fabbrichi da sola le proprie informazioni è un semplice luogo comune ma nella sfera dell'azione politica e rivoluzionaria che in parte si regge anche sulla violenza la spia professionale ha ogni facilità di fabbricare i fatti medesimi e diffonderà il doppio male dell'antagonismo in una direzione e del panico legislazione affrettata odio dissennato nell'altra comunque questo è un mondo imperfetto la presenza dotata di voce profonda immobile davanti al caminetto con i grossi gomiti sporgenti in fuori si affrettò a dire siate lucido per favore sì Sir Ethelrid un mondo imperfetto ed ecco che appena mi sia rivelato il senso di questa faccenda ho pensato che andava necessariamente trattata con una speciale segretezza e mi sono azzardato a venire da voi ben fatto approvò il gran personaggio guardando con compiacenza verso il basso al di sopra dell'abbondante pappagorgia sono contento che ci sia qualcuno nella vostra bottega che pensa che ogni tanto ci si possa fidare del segretario di stato il vice commissario sorrise divertito stavo pensando effettivamente che sarebbe conveniente a questo stadio che Heath fosse rimpiazzato da cosa? Heath? un somaro eh? esclamò il grand'uomo con particolare animosità niente del genere vi prego Sir Ethelrid non dia questa interpretazione ingiusta alle mie parole e allora? troppo bravo? nessuna delle due cose almeno come regola la base di ogni mia ipotesi mi viene da lui la cosa che ho scoperto da solo è che Heath si sta servendo privatamente di quell'uomo e come dargli torto è un vecchio strumento della polizia egli mi ha detto effettivamente chiaro e tondo che deve avere strumenti con cui lavorare mi è parso tuttavia che questo strumento avrebbe dovuto essere consegnato a tutta la divisione crimini speciali invece di rimanere proprietà privata dell'ispettore capo Heath ho esteso questa concezione ai miei doveri dipartimentali giungendo alla conclusione della necessità della soppressione dell'agente segreto ma l'ispettore capo Heath è una vecchia colonna del dipartimento mi accuserebbe di sciuparne la moralità e di intaccarne l'efficienza definirebbe ciò senza mezzi termini come protezione estesa alla classe criminale dei rivoluzionari questo sarebbe significato che lui darebbe a tutto questo sì ma che intendete dire con ciò intendo dire prima di tutto che è troppo comodo dichiarare che ogni dato atto di violenza danneggiare la proprietà o distruggere la vita sia necessariamente opera di movimenti anarchici anche quando è qualcosa del tutto diverso vari generi di delinquenza autorizzata questo immagino che sia molto più frequente di quel che supponiamo inoltre è ovvio che l'esistenza di questa gente pagata da stati stranieri vanifica in una certa misura l'efficacia del nostro controllo simili spie possono permettersi di essere più spericolate del più spericolato dei cospiratori la loro opera è libera da qualsiasi forma di controllo non posseggono abbastanza fede quanta ne servirebbe per la negazione totale né quel tanto di legge implicito nella negazione di ogni legalità in terzo luogo l'esistenza di queste spie tra i gruppi rivoluzionari cui ti si rimprovera di dare ospitalità finisce per togliere ogni certezza avevate ricevuto una dichiarazione rassicurante dall'ispettore capo kit un po' di tempo fa non era di certo senza fondamento e tuttavia questo episodio si è verificato lo chiamo un episodio perché questa faccenda mi permetto di dire è episodica essa non fa parte di uno schema generale per violenta che possa essere le stesse peculiarità del caso che sorprendono e rendono perplesso l'ispettore capo kit ne definiscono ai miei occhi le caratteristiche sto evitando dettagli Sir Ethelrid dritto davanti al focolare il gran personaggio aveva ascoltato con attenzione profonda proprio così siate più conciso possibile il vicecommissario ribadì ancora con un gesto deciso e rispettoso che egli era ansioso di esserlo c'è una stupidità particolare e una debolezza nel modo in cui questa faccenda è condotta e mi dà eccellenti speranze di riuscire a vedere cosa c'è dietro e di trovare qualcosa di più di un ghiribizzo individuale di fanatismo perché si tratta di qualcosa di premeditato indubbiamente il vero esecutore sembrerebbe essere stato portato sul posto e poi abbandonato frettolosamente ai suoi congegni l'ipotesi è che costui sia stato importato dall'estero allo scopo di perpetrare questo attentato e inoltre si è forzato ad arrivare alla conclusione che non conosceva abbastanza inglese per chiedere informazioni sulla strada da percorrere a meno che non si voglia accettare la fantastica teoria che si sia trattato di un sordo muto mi domando ora ma questa è una perdita di tempo si è distrutto per un incidente evidentemente un incidente non straordinario ma rimane un piccolo fatto straordinario l'indirizzo sul pezzo di indumento scoperto tra l'altro assolutamente per caso è un piccolo fatto incredibile così incredibile che la spiegazione che lo risolverà ed è stata a toccare il fondo di questa storia invece di ordinare a hit di andare avanti con questo caso è mia intenzione cercare una spiegazione personalmente da solo voglio dire là dove può essere trovata e questo è in un certo posto e sulle labbra di un certo agente segreto un tempo spia affidabile e leale del defunto barone Stott Vartenheim ambasciatore della grande potenza alla corte di St. James il vicecommissario si fermò un attimo e aggiunse tipi come quelli sono una vera calamità per poter dirigere lo sguardo dall'alto verso il volto del suo interlocutore il personaggio che troneggiava davanti al caminetto aveva gradualmente inclinato la testa il più possibile all'indietro assumendo un aspetto di straordinaria alterigia perché non lasciare la cosa a Heath perché è un vecchio ingranaggio del dipartimento tante come lui ha una moralità tutta propria la mia linea d'inchiesta mi apparirebbe come un'abominevole perversione d'ufficio per lui il dovere puro e semplice è quello di addossare la colpa su tutti gli anarchici più in vista che riesce a trovare basandosi su alcune vaghe indicazioni che avrebbe raccolto nel corso della sua inchiesta sul luogo mentre io direbbe lui sono portato a rivendicare la loro innocenza cerco di essere quanto più possibile lucido nel presentarvi una materia piuttosto oscura senza entrare in dettagli si comporterebbe così davvero mormorò la testa orgogliosa di Sir Ethelrid dalla sua sdegnosa altezza ho paura di sì e con un'indignazione e disgusto del quale voi o Dio non abbiamo l'idea è un eccellente servitore non dobbiamo mettere troppo duramente alla prova la sua lealtà questo è sempre un errore e inoltre io voglio mano libera una mano più libera di quanto sarebbe forse consigliabile dare all'ispettore capo Heath non ho la minima intenzione di risparmiare questo Verloc Heath sarà suppongo estremamente sorpreso di trovarsi dinanzi bella e pronta la connessione di Verloc con questa storia quale essa sia spaventare quella spia non sarà molto difficile ma il nostro vero obiettivo è altrove ho bisogno della vostra autorità per dargli tutte quelle garanzie di sicurezza personale che riterrò opportuno dargli certo disse il personaggio davanti al caminetto scoprite tutto quello che potete scoprire e scopritelo a modo vostro devo mettermi al lavoro senza perdere tempo questa sera stessa disse il vice commissario Sir Ethelrid tirò fuori una mano da sotto le falde della Redningot e gettando indietro la testa lo guardò dritto in volto avremo una riunione fino a tardi questa sera venite al Parlamento con le vostre scoperte se ancora non siamo andati a casa avviserò Tull di stare pronto a farvi entrare vi condurrà nella mia stanza i molti parenti e le numerose conoscenze accarezzavano per il segretario privato di giovanili sembianze un destino severo ed esaltante nell'attesa la società che gli adornava della sua presenza nelle ore di svago aveva scelto di vezzeggiarlo con quel soprannome Tull e Sir Ethelrid udendo il nomignolo ogni giorno sulla bocca della moglie e delle ragazze soprattutto all'ora di colazione aveva conferito a questo nome senza sorridere dignità di adozione il vice commissario fu estremamente sorpreso e gratificato senza alcun dubbio porterò al palazzo del Parlamento le mie scoperte nel fortunato caso che voi abbiate il tempo di non ne avrò il tempo interruppe il gran personaggio ma vi vedrò lo stesso non ho tempo neanche ora e insomma volete andare personalmente? sì Sir Ethelrid credo che sia la cosa migliore il personaggio aveva gettato la testa tanto indietro che per mantenere il vice commissario sotto osservazione doveva quasi chiudere gli occhi bene e cosa vi proponete di fare? vi travestirete? non dirai un travestimento mi cambierò di abito naturalmente naturalmente ripete il grand'uomo con una certa alterigia distratta volse la grosta testa lentamente e da sopra la spalla dettò uno sguardo altero e obliquo al pesante orologio in marmo dal debole ticchettio furtivo le lanzette dorate alle sue spalle avevano colto l'occasione per sottrargli ancora altri venticinque minuti il vice commissario che non poteva vederle si nervosì alquanto in quella pausa ma il grand'uomo volse verso di lui un volto calmo e impassibile molto bene disse poi fece una pausa volutamente ignorando l'orologio ufficiale ma cosa è stato all'inizio che vi ha fatto muovere in questa direzione sono sempre stato dell'opinione cominciò il vice commissario ah sì opinioni naturalmente ma il motivo immediato di cosa volete che vi dica Sir Ethel Reed l'opposizione di un uomo nuovo a metodi vecchi un desiderio di sapere qualcosa di prima mano un po' di impazienza è sempre il mio lavoro ma la bardatura è diversa è un po' che mi sento punzecchiare un paio di punti sensibili spero che ce la farete laggiù il gran uomo parlò con gentilezza tendendogli una mano morbida al tatto ma grande e forte come la mano di un contadino idealizzato il vice commissario la strinse e si ritirò nella stanza attigua Tudl che aveva atteso appollaiato sul bordo di una scrivania gli si fece incontro frenando la sua natura gioviale allora soddisfacente chiese dandosi una certa area di importanza perfettamente vi siete guadagnato la mia gratitudine eterna rispose il vice commissario la cui faccia oblunga sembrava scolpita nel legno confrontata con il carattere tutto particolare della gravità dell'altro sempre sul punto di frangersi in gorgoglie e risatine va bene ma davvero non potete immaginare quanto gli si è irritato per gli attacchi al suo progetto di legge per la nazionalizzazione delle pescherie lo chiamano l'inizio della rivoluzione sociale certamente è una misura rivoluzionaria ma questa gente non ha decenza gli attacchi personali li leggo i giornali fece notare il vice commissario terribili vero e non avete idea che massa di lavoro lui debba affrontare ogni giorno e fa tutto da solo sembra che non si possa fidare di nessuno con queste pescherie e tuttavia ha dedicato una buona mezz'ora a esaminare il mio pesciolino intervenne il vice commissario pesciolino dite davvero e sono lieto ma è un peccato allora che lei non si sia tenuto a distanza la lotta lo finisce in modo incredibile l'uomo sta esaurendosi riesco ad accorgermene dal modo in cui si appoggia il mio braccio mentre camminiamo e mi domando correrà nessun rischio tirando per le strade Mullins ha sguinzagliato tutti i suoi uomini in questa direzione questo pomeriggio c'è un poliziotto attaccato a ogni lampione è una persona su due che incontriamo tra qua e il cortile del palazzo è ovviamente un detective finirà per dargli i suoi nervi dico io questi delinquenti stranieri non finiranno per tirare qualcosa anche su di lui non sarebbe una calamità per la nazione il paese non può fare a meno della sua opera senza pensare alla vostra persona è a voi che è appoggiato suggerì il vicecommissario giudiziosamente ve ne andreste insieme sarebbe un modo facile per un giovane di passare alla storia non sono in tanti i ministri britannici assassinati e non mi verrebbe considerato un incidente minore di certo ma seriamente ora ho paura che se volete entrare nella storia dovrete darvi da fare onestamente non c'è il minimo pericolo per nessuno dei due e non a causa del super lavoro il cordiale Tudl accolse volentieri l'invito a farsi una risatina le pescherie non mi uccideranno sono abituato a far le ore piccole dichiarò con leggerezza innocente ma pentendosene subito e come si trattasse di infilarsi un guanto fu pronto ad assumere un cipiglio da uomo di stato il suo poderoso intelletto sopporterà qualsiasi mole di lavoro ed è il suo stato nervoso che sono preoccupato la banda reazionaria con quel brutto violento di Cismen alla testa lo insulta ogni sera se lui insiste a promuovere una rivoluzione mormorò il vice commissario è giunta l'ora e lui è l'unico all'altezza del compito protestò il rivoluzionario Tudl infiammandosi sotto il caldo sguardo speculativo del vice commissario da qualche parte nel corridoio un campanello lontano suonava impellente e con vigilanza devota il giovane tese le orecchie a quel suono è pronto per andare ora esclamò in un sussurro afferrò il cappello e svanì nella stanza con un'andatura un po' meno elastica il vice commissario uscì da un'altra porta attraversò di nuovo la vasta arteria cittadina percorse una strada stretta e rientrò di corsa nella zona del suo ufficio mantenne quell'andatura celere fino alla sua stanza privata e prima ancora di essersi richiusa la porta alle sue spalle cercò con gli occhi la scrivania rimase immobile per un attimo fece alcuni passi contemplò il pavimento tutto intorno si sedette sulla sedia suonò un campanello ed attese è già andato via l'ispettore capo Heath sì signore se n'è andato circa un'ora fa annui col capo va bene così e mentre rimaneva seduto immobile con il cappello spinto all'indietro gli venne in mente che ci voleva proprio la dannata sfacciataggine di Heath per portarsi tranquillamente via l'unico elemento di prova materiale ma era un pensiero privo di animosità i vecchi e i preziosi servitori amano prendersi delle libertà il pezzo di soprabito con l'indirizzo cucito sopra non era certo cosa da lasciarsi in giro stracciando dalla mente ogni senso di sfiducia nei confronti dell'ispettore capo Heath scrisse e fece recapitare un biglietto per sua moglie incaricandola di fare le sue scuse alla grandama di Michaelis con la quale avevano un impegno per pranzare insieme quella sera in una specie di alcova circondata da tende attrezzata con un lavabo una fila di stampelle di legno e una mensola il vicecommissario indossò una giacchetta e un berretto tondo e piatto che metteva straordinariamente in evidenza il volto bruno e serio rientrò nella piena luce della sua stanza simile a un Don Quixote gelido e pensoso dagli occhi intensi e profondi e dai modi determinati di tenebroso entusiasta veloce si allontanò come un'ombra discreta dalla scena della fatica quotidiana scendere in strada fu come scendere in un acquario fangoso da cui fosse stata fatta defluire l'acqua lo avvolse un'umidità lugubre e tenebrosa i muri delle case erano bagnate il fango del piano stradale luccicava con un effetto di fosforescenza e quando il vicecommissario emerse sullo strand da una strada angusta accanto alla stazione di Chiring Cross il genio del luogo lo assimilò a sé avrebbe potuto essere uno dei tanti tipi strani del continente che verso sera possono vedersi aggirare furtivi dietro gli angoli oscuri si fermò proprio sull'orlo del marciapiede e attese gli occhi esercitati erano riusciti a distinguere nel movimento confuso di forme e di luci che affollavano la strada l'avvicinarsi lento di una carrozza non fece alcun richiamo ma quando il basso predellino che avanzava scivolando lungo il marciapiede giunse a portata dei suoi piedi saltò abilmente davanti alla grossa ruota in movimento e gridò attraverso il finestrino al conducente prima che questi che dal suo trespo lo guardava imbambolato dinanzi a sé si rendesse conto di essere stato abbordato da un passeggero non fu una lunga corsa finì con un segnale brusco in nessun posto particolare tra due lampioni davanti a una fabbrica di tessuti una lunga fila di negozi già chiusi per la notte dietro lenzuola di lamiera ondulata porgendo una moneta attraverso il finestrino il passeggero sgusciò fuori e scomparve lasciando nella mente del conducente qualcosa di simile al senso di un'apparizione di fantasmi misteriosi venuti da lontano ma al tatto la misura della moneta sembrava soddisfacente e l'uomo che non aveva un'educazione letteraria non rimase turbato dalla paura di trovarsela in tasca improvvisamente mutata in foglia secca abituato per mestiere a sfiorare dall'alto il mondo dei passeggeri contemplava le loro azioni con interesse limitato la brusca tirata di briglie che impresse al cavallo una virata verso destra parve il commento alla sua filosofia nel frattempo il vicecommissario stava già dando ordine ad un cameriere in un piccolo ristorante italiano dietro l'angolo una di quelle trappole per individui affamati lunghe e strette che lusingano con prospettive di specchi e tovaglie bianche senza aria ma con un'atmosfera tutta propria un'atmosfera di cucina truffaldina buona a beffare un'umanità abietta nella più urgente delle sue miserabili necessità in questa atmosfera equivoca il vicecommissario riflettendo sulla sua impresa sembrava perdere ancora un po' della sua identità provava un senso di solitudine di libertà perversa era abbastanza piacevole dopo tutto quando dopo aver pagato per il suo breve pasto si alzò aspettando che gli portassero il resto si vide riflesso nello specchio e rimase colpito dal suo aspetto estraneo contemplò la propria immagine con uno sguardo melanconico e perplesso poi come per un'ispirazione improvvisa rialzò il bavero della giacca insieme gli apparve accettabile e lo contemplò con un tocco finale rigirando verso l'alto le punte dei baffi neri si sentì soddisfatto del lieve cambiamento dell'aspetto della sua persona a seguito di queste piccole innovazioni così andrà bene pensò dovrò solo bagnarmi un po' schizzarmi un po' di fango si rese conto del cameriere vicino a lui e di un mucchietto di monete d'argento sul bordo del tavolo il cameriere guardava i soldi con la coda dell'occhio mentre con l'altro occhio seguiva di spalle una ragazza alta non giovanissima che andava verso un tavolo più lontano con un'aria di non vedere nessuno e di essere assolutamente inavvicinabile sembrava una cliente abituale uscendo il vicecommissario rifletteva tra sé e sé che i padroni del locale a forza di cucinare in modo truffaldino erano andati perdendo ogni caratteristica nazionale e personale e questo era strano dal momento che il ristorante italiano rappresentava una caratteristica istituzione britannica ma anche i clienti erano denazionalizzati come i piatti che gli venivano messi davanti sia pure con ogni caratteristica di anonima rispettabilità né del resto la loro stessa personalità portava impresso alcun segno di distinzione né personale e tantomeno sociale o di razza sembravano creati per il ristorante italiano a meno che il ristorante italiano non fosse stato per caso creato per loro ma quest'ultima ipotesi era impensabile al momento che non si sarebbero potuti collocare in nessun posto se non fosse tra quelle strutture personaggi enigmatici che non si incontravano altrove era impossibile farsi un'idea precisa su quali fossero le loro professioni durante il giorno e dove andassero a dormire la sera egli stesso era del resto completamente fuori posto sarebbe stato impossibile per chiunque indovinare la sua occupazione quanto all'andare a dormire anche nella sua mente vi erano dei dubbi non riguardo al domicilio ma piuttosto per quello che riguardava l'ora in cui sarebbe stato in grado di tornarsi una piacevole sensazione di indipendenza lo invase quando di la porta a vetri che si richiudeva alle spalle con un tonfo imperfetto sconcertante si inaltrò subito in un'immensa viscida palude dentro un sudiciume d'intonaco umido disseminata qua e là da lampioni e avviluppata oppressa penetrata strangolata soffocata dall'oscurità totale di una sera di pioggia londinese che è fatta di fuligine mista a gocce d'acqua brett street non era molto lontana era una strada stretta che si diramava da uno spazio triangolare aperto circondata da case scure e misteriose templi di commerci meschini privi a causa dell'ora notturna dei loro gestori solo il banchetto di un fruttivendolo all'angolo creava una chiazza violenta di luce e di colore oltre quel punto era tutto oscuro e le poche persone che passavano in quella direzione svanivano pochi metri più in là oltre mucchi vivaci di arance e di limoni non si udiva il rumore dei loro passi né si sarebbe mai più udito l'avventuroso capo del dipartimento crimini speciali guardava da una certa distanza con occhio interessato queste spartizioni si sentiva sereno come se stesse conducendo tutto solo un agguato nella giungla a mille miglia di distanza dalle scrivanie del dipartimento e dai calamai ufficiali la gioiosità e la facilità con cui il pensiero riesce a liberarsi prima di un compito di qualche importanza sembrano provare che questo nostro mondo non è dopo tutto un affare molto serio il vicecommissario oltretutto non era di sua natura portato alla spensieratezza la forma scura è in movimento del poliziotto di ronda contro la gloria luminosa delle arance e dei limoni ed entrò senza fretta a Brett Street il vicecommissario quasi fosse gli stesso un esponente della classe criminale indugiò non visto aspettando che la gente ritornasse indietro ma quest'ultimo sembrava definitivamente perso per la forza pubblica non ritornava mai doveva evidentemente essere uscito dall'altro capo di Brett Street il vicecommissario giunto a questa conclusione entrò a sua volta in Brett Street e si trovò di fronte a un grosso convoglio fermo davanti alle finestre a vetri scarsamente illuminate di un posto di ristoro per carrettieri l'uomo stava rifocillandosi all'interno e i cavalli i grossi musichini verso terra si nutrivono tranquilli dai sacchi che portavano appesi al collo più in là sul lato opposto della strada un'altra macchia sospetta di luce fioca usciva dalla vetrina della bottega di Verloc con i suoi giornali appesi piena di cataste non meglio identificate di scatole di cartoni e di libri vari il vice commissario si fermò ad osservare tutto ciò dall'altra parte della strada non ci potevano essere errori a lato della vetrina di fronte in gombra di cose di ogni genere la porta che rimaneva socchiusa lasciava uscire disegnata in terra una sottile striscia luminosa proveniente dal lume a gas all'interno dietro il vice commissario il convoglio e i cavalli si fondevano come un'unica massa e si apparivano come qualcosa di vivo un mostro nero dal dorso squadrato che bloccava per metà il passaggio tra scalpiti improvvisi di zoccoli ferrati scampanelli feroci e soffi e sbuffi grevi la luce abbagliante forzatamente allegra quasi di cattivo augurio di una prosperosa locanda illuminava l'altro estremo di brett street che dava su una grande strada questa barriera di luci sfolgoranti a contrasto con le ombre che si addensavano attorno all'umile dimora della felicità domestica di mister verloc sembravano richiudersi sull'oscurità della strada renderla più tetra più minacciosa più sinistra capitolo ottavo essendo riuscita ad infondere grazie a molte insistenze un qualche calore nel freddo interessamento di diversi fornitori di generi alimentari conoscenze di un tempo del suo defunto marito la madre di mrs verloc si era finalmente assicurata l'ammissione ad un certo ospizio di carità fondato da un ricco proprietario per le vedove bisognose dei commercianti in seguito e con determinazione la vedova aveva perseguito tale fine con tutta l'astuzia di un animo infelice era stato in quei giorni che sua figlia vinni non aveva potuto fare a meno di commentare con mr verloc come la madre avesse speso quasi mezza corona e cinque scelline al giorno in quell'ultima settimana in mezzi di trasporto ma l'osservazione era fatta senza malanimo vinni aveva molta considerazione per l'infermità materna era solo un poco sorpresa di fronte a questa improvvisa smania di farsi scorrazzare mr verloc che a modo suo era abbastanza magnifico aveva liquidato con un grugnito impaziente l'osservazione che veniva ad interrompere i suoi pensieri ed erano pensieri ricorrenti i suoi gravi e prolungati vertevano su un problema più importante di cinque scellini e al di là di ogni paragone più difficile ad affrontarsi in ogni suo aspetto con filosofia e con serenità ottenuto il suo scopo in astuzia segreta l'eroica vecchia signora si era confidata con la figliola trionfante nell'animo ma trepida nel cuore dentro di lei tremava poiché ammirava il carattere calmo e controllato di sua figlia vinni ma lo temeva anche ne temeva soprattutto il dolore capace di imporsi con la stranezza di silenzi paurosi ma l'anziana signora non permise ai timori del suo animo di madre di sottrarle il vantaggio della placidità ammirevole che conferivano al suo aspetto il mento triplo l'ampiezza fluente della sua forma antica e l'impotente condizione delle gambe il colpo che Mrs. Verloc ebbe a questa notizia fu così improvviso che contrariamente a quanto era solita fare quando le rivolgevano la parola interruppe le sue incombenze domestiche che consistevano in quel momento nello spolverare la mobilia nel salottino dietro il negozio volse la testa verso la madre perché mai avete dovuto fare una cosa simile esclamò attonita e scandalizzata davvero il colpo doveva essere stato duro per indurla ad allontanarsi dalla sua abituale accettazione distaccata senza domande dei fatti che era insieme la sua forza e la sua ancora di salvezza nella vita non stavate abbastanza comoda qui si era lasciata andare a queste domande ma subito dopo recuperava la propria coerenza di comportamento riprendendo a spolverare mentre l'anziana donna sedeva muta e spaventata in volto sotto la sciatta cuffia bianca non perfettamente pulita e la parrucca nera divenuta opaca quindi finì di spolverare la seggiola e passò il piumino lungo la spagliera di mogano del sofà imbottito di crine sul quale mister Verlock amava rilassarsi senza levarsi cappello e soprabito era intenta al suo lavoro ma non passò molto che si permise un'altra domanda come diavolo ci siete riuscita mamma poiché non riguardava l'aspetto intimo delle cose che era nei principi di mrs Verlock ignorare questa era una curiosità scusabile riguardava semplicemente i metodi l'anziana donna l'accolse con gioia poiché le offriva l'occasione di un argomento di cui poter parlare con tutta sincerità accontendò la figliola con una risposta piena di nomi e arricchita da commenti qua e là sui danni del tempo osservati nel mutarsi delle fisionomie i nomi erano soprattutto nomi di fornitori poveri amici del papà cara e si dilungò con particolare attitudine sulla gentilezza e la cortesia di un importante birraio baronetto membro del parlamento e presidente degli amministratori della carità ebbe nei confronti di queste parole piene di entusiasmo egli le aveva concesso infatti di incontrare dietro appuntamento il suo segretario privato un signore molto cortese tutto vestito di nero con una voce triste e gentile ma così magro e tranquillo sembrava un'ombra mia cara winnie dopo aver continuato a spolverare fino al racconto completo della storia uscì dal salottino verso la cucina se c'è cioè due scalini al solito modo senza il minimo commento versando qualche lacrima in segno di sollievo per la mansuetudine della figliuola in questa faccenda così triste la madre di mrs verloc passò ad impegnare la sua astuzia a proposito della mobilia che apparteneva a lei anche se qualche volta avrebbe voluto che così non fosse va bene l'eroismo ma vi sono circostanze in cui la disponibilità di qualche tavolo e seggiola pagliere del letto e nottone e così via può essere foriera di lontane e disastrose conseguenze lei stessa aveva bisogno di qualche pezzo la fondazione che dopo tante insistenze l'aveva accolta nel suo generoso seno non dava infatti altro che questa tavola nuda e mattoni ricoperti di carte dozzinali ai destinatari della sua sollecitudine la delicatezza che guidò la scelta dell'anziana signora verso gli oggetti di meno valore più che mai usati passò inosservata la filosofia di winnie infatti che consisteva nel non far caso all'aspetto intimo delle cose dava per scontato che la madre prendesse quello che le conveniva meglio quanto a mr verloc i suoi gravi pensieri quasi fossero una parete cinese lo isolavano completamente dai fenomeni di questo mondo di sforzi vane e di apparenze illusorie fatta la scelta la disponibilità del resto divenne un problema a suo modo complicato lasciava i mobili a brett street naturalmente ma aveva due figli winnie era sistemata grazie alla sua ragionevole unione con quell'eccellente marito mr verloc stevie era senza mezzi e particolare bisognava giudicare la sua posizione al di là di ogni diritto legale e rimanendo liberi da ogni tentazione di parzialità la proprietà della mobilia non avrebbe costituito una sicurezza in nessun senso era giusto che l'avesse povero ragazzo ma dargliela sarebbe stato come interferire con la sua posizione di dipendenza completa era una specie di diritto che la temeva di indebolire e inoltre la suscettibilità di mr verloc non avrebbe forse sopportato di essere obbligato a suo cognato per le sedie sulle quali sedeva nella sua lunga esperienza di signori pensionanti la madre di mrs verloc aveva derivato un concetto triste ma rassegnato dell'aspetto fantastico della natura umana cosa sarebbe accaduto se a mr verloc fosse passato per la testa di dire a stevi prenditi i tuoi maledetti pezzi di regno e vattene altrove una divisione d'altra parte per quanto fatta con attenzione avrebbe potuto dare motivo a winnie di offendersi no stevie doveva rimanere dipendente e senza mezzi e al momento di lasciare brett street aveva detto a sua figlia è inutile aspettare fino alla mia morte non ti pare tutto quello che lascio qui è completamente tuo ora cara winnie con in testa il cappello silenziosa dietro a sua madre continuava a sistemare il collo del soprabito della vecchia signora poi con un volto senza espressione prese borsa ed ombrello era venuto il momento di spendere tre scellini e sei pence per quello che poteva essere l'ultimo viaggio in carrozza nella vita di mrs verloc si fermarono fuori della porta del negozio il mezzo che li aspettava poteva essere la perfetta illustrazione del proverbio che la realtà può essere più crudele della caricatura se davvero esistesse un proverbio come questo arrancando dietro un cavallo infermo una vettura in piazza si trascinava su ruote traballanti e in cassetta c'era un vettulino deforme quest'ultima stranezza causò dell'imbarazzo notando un arnese di ferro ad uncino che usciva dalla manica sinistra del soprabito dell'uomo la madre di mrs verloc ha perso improvvisamente l'eroico coraggio di quei giorni davvero non era certa di potersi fidare che dici Winnie e rimase indietro le rimostranze appassionate del vetturino dalla grossa faccia sembravano uscire a forza da una gola strozzata sporgendosi dalla cassetta borbottò qualcosa con misteriosa indignazione che stava succedendo ora si poteva trattare così un pover uomo e quel volto largo e non lavato mandava rossi lampi d'ira verso il tratto fangoso della strada possibile che gli avessero dato la licenza chiedeva disperatamente se l'agente di polizia della zona lo tranquillizzò con un'occhiata amichevole poi rivolgendosi alle due donne senza dar loro troppa importanza disse sono vent'anni che guida una vettura di piazza non mi risulta che abbia mai avuto un incidente altro che incidente sbottò il vetturino con un sibilo disprezzo la testimonianza del poliziotto mise fine al problema il modesto assembramento di sette persone per lo più minorenni si disperse Winnie seguì sua madre nella vettura stevi si arrampicò a cassetta la bocca aperta e gli occhi stravolti erano l'immagine eloquente del suo stato d'animo di fronte a tanti cambiamenti lungo le strade anguste il progredire del viaggio si annunciava agli occupanti della vettura con la visione lenta e tremolante delle facce delle case vicine che lentamente si susseguivano l'una dopo l'altra mentre il gran scricchio lì e tintinio di vetri faceva pensare che questi ultimi fossero sul punto di crollare immediatamente dietro al convoglio e intanto il povero cavallo infermo con i finimenti appesi alla scheletrica spina dorsale che sbattevano molli attorno ai fianchi sembrava danzare con grazia sulle parti anteriori degli zoccoli con una pazienza infinita più tardi nello spazio più ampio di Whitehall ogni impressione di movimento divenne impercettibile lo scricchiolio e il tintinio dei vetri continuò indefinitivamente davanti al lungo palazzo del tesoro e intanto il tempo stesso sembrava essersi fermato finalmente Winnie parlò questo cavallo non vale molto teneva gli occhi lucidi fissi davanti a sé nel buio della vettura seduto in cassetta Stevi chiuse la bocca che teneva sempre aperta e gridò disperato no il vetturino tenendo alte le redini arrotolate attorno al suo gancio non ci fece caso forse non aveva nemmeno sentito Stevi ansimava non frustatelo l'uomo girò lentamente il volto furiginoso e avvinazzato un volto vario pinto e rassuto di bianco pelame gli occhi rossi e ci sposi lacrimavano le grosse labbra viola rimanevano serrate con il rovescio lercio del manico della frusta si grattò la barba ispida che gli spuntava sul mento enorme non dovete balpettò Stevi con violenza fa male non devo frustare protestò l'altro con un borbottio stupito e subito frustò non lo faceva perché avesse un animo crudele e un cuore malvagio ma perché doveva guadagnarsi la corsa per un po' le mura di santo Stefano con le sue torri e i suoi pinnacoli immobili e silenziose contemplarono la vettura che passava tintinnando e che intanto continuava a rotolare ma sul ponte ci fu un po' di agitazione Stevi stava per buttarsi giù di cassetta ci furono urla giù dalla strada la gente accorse il vetturino tirò le redini per bloccare la vettura e intanto imprecava sbalordito e rabbioso Winnie abbassò il finestrino e tirò fuori la testa pallida come uno spettro dal profondo della vettura sua madre intanto gridava disperatamente si è fatto male il ragazzo Stevi non si era fatto nulla non era nemmeno caduto ma l'eccitazione come sempre accadeva gli aveva tolto la capacità di esprimersi in modo intellegibile riuscì solo a balbettare verso il finestrino troppo forte troppo forte Winnie gli mise una mano sulla spalla Stevi sali in cassetta subito e non provare ancora a scendere no no cammino devo camminare tentando di spiegare il perché di questa esigenza il ragazzo si perdeva in un balbettio incoerente non c'era un'impossibilità fisica vera e propria che gli impedisse di attuare il suo capriccio Stevi sarebbe riuscito facilmente a tenere il passo con il cavallo manato e ballerino senza per questo rimanere senza fiato ma la sorella negò decisamente il consenso che idea chi ha mai sentito una cosa simile correre dietro una carrozza la madre spaventata impotente dall'interno del convoglio supplicava oh non lo lasciare andare Winnie si perderà non lo lasciate andare certamente no ci mancherebbe mister Verloc sarà dispiaciuto di sentire queste sciocchezze Stevi te lo dico io non ne sarà davvero contento l'idea del dispiacere dello sconforto di mister Verloc agendo in modo determinante sulla natura fondamentalmente docile di Stevi lo convince ad abbandonare ogni resistenza e si arrampicò in cassetta con un'espressione disperata del volto il vetturino girò su di lui la facciona erosa e truculenta non provarci più a fare uno scherzo del genere giovanotto e dopo essersi sfogato con qualche altra imprecazione rabbioso e sfinito continuò a guidare ruminando con aria solenne per la sua mentalità l'incidente rimaneva in qualche modo inspiegabile ma il cervello del vetturino sebbene avesse perso l'antica vivacità in tutti quegli anni intirizziti di esposizione secondaria alle intemperie non mancava di indipendenza e di buonsenso le spinse pertanto con serietà l'ipotesi che Stevi fosse un ragazzetto ubriaco all'interno della vettura la magia del silenzio durante il quale le due donne avevano sopportato l'una accanto all'altra lo sballottamento il rotolare e il tintinnio del viaggio era stata interrotta ormai dalla bravata di Stevi Winnie alzò la voce per farsi sentire avete fatto quel che volevate madre potete ringraziare solo voi stessa se non sarete felice in futuro e io non credo che lo sarete davvero non lo credo non vi trovavate abbastanza bene a casa nostra cosa mai penserà la gente di noi con voi che vi siete gettata in questo modo alla merce della pubblica carità mia cara gridava l'anziana signora con tutta la forza per sovrastare il rumore sei stata per me la migliore delle figlie quanto a Mr. Verlock ecco evolse i vecchi occhi lacrimosi al tetto della vettura poi girò la testa con la scusa di guardare fuori dal finestrino come per giudicare il percorso fatto lo spettacolo non era degno di particolare attenzione la vettura procedeva regolarmente accanto al marciapiede la notte precoce e infida la notte sinistra rumorosa e senza speranza la notte turbolenta del sud di Londra aveva sorpresa la povera donna nel suo ultimo tragitto in carrozza nel chiarore delle luci a gas delle vetrine delle botteghe le guance grassocce brillavano di un riflesso arancione sotto il cappello nero e malva la carnagione della madre di Miss Verlock si era ingiallita a causa dell'età e di una predisposizione naturale ai disturbi biliari resi più gravi dalle dure prove di un'esistenza difficile e piena di preoccupazioni prima come moglie e poi come vedova era una carnagione che sotto l'effetto del rossore prendeva una colorazione di arancio e questa donna davvero modesta ma resa forte dalle avversità della vita e giunta in più a un'età in cui non è più previsto arrossire era effettivamente arrossita davanti alla sua figliuola nell'intimità dell'interno della carrozza in un viaggio verso la casetta che le avrebbe assegnato l'ospizio una delle tante e per esiguità delle dimensioni e per la semplicità dell'arredo poteva ben dirsi progettata in buona fede come luogo di preparazione alle ancor più scomode condizioni della tomba la vecchia signora era costretta a nascondere alla propria figlia il rossore di rimorso e vergogna cosa avrebbe mai pensato la gente lei sapeva benissimo che cosa pensavano le persone che aveva in mente Winnie i vecchi amici del marito ed altri ancora il cui appoggio aveva sollecitato con un successo così rusinghiero non si era mai resa conto prima di che abile mendicante sapesse essere ma capiva molto bene quale fosse il significato che gli altri deducevano dalla sua supplica grazie a quella delicatezza restia che convive fianco a fianco con la brutalità aggressiva della natura maschile le indagini sulle circostanze che la spingevano a quel passo non erano state spinte molto lontano ella le aveva tenute sotto controllo con un evidente serrare delle labbra e l'espressione di una commozione decisa a rimanere eloquentemente silenziosa e quegli uomini perdevano improvvisamente ogni curiosità come di solito accade in questi casi si congratulò più di una volta con se stessa per non aver dovuto avere a che fare con donne che per natura più insensibili e avide di particolari sarebbero state ansiose di essere informate esattamente sul genere di condotta ingrata con cui la figlia e il genero l'avevano spinta a questo triste estremo solo davanti al segretario del grande birraio membro del parlamento e presidente della confraternita della carità che agendo il nome del suo principale si era sentito in dovere di indagare coscienziosamente sulle effettive circostanze di vita della postulante la donna era scoppiata rumorosamente in lacrime proprio come avrebbe pianto una donna gettata in un canto il signore magro e gentile dopo averla guardata per un po' con l'aria di chi non sa come cavarsela abbandonò l'argomento riparando dietro qualche pietosa espressione non doveva disperarsi lo statuto dell'opera della carità non specificava espressamente vedove senza figli questo non la escludeva assolutamente ma il giudizio del comitato doveva essere un giudizio informato si poteva capire benissimo la sua volontà di non rappresentare un peso eccetera eccetera al che con suo gran sconcerto la madre di Mrs. Verloc pianse con disperazione ancora più grande le lacrime di quella femmina di proporzioni generose con la bruna e polverosa parrucca in un antiquato vestito di seta rifinito con un merlettino bianco e civettuolo erano lacrime di disperazione vera a farla piangere erano il suo eroismo la sua mancanza di scrupoli e il grande amore che portava ad ambedue i suoi figli accade spesso che le ragazze vengano sacrificate per il bene dei maschi in questo caso era Winnie che stava sacrificando stava calunniandola per mascherare la verità naturalmente Winnie era indipendente e non aveva bisogno di preoccuparsi dell'opinione di persone che non avrebbe mai visto né che avrebbero visto lei mentre il povero Stevie non aveva nulla al mondo che potesse chiamare suo eccetto l'eroismo e la mancanza di scrupoli di sua madre il senso di sicurezza iniziale infatti conseguente alle nozze di Winnie era andato attenuandosi con il tempo che nulla è eterno nella vita e la madre di Mrs. Verlock nella solitudine della sua stanzetta sul retro aveva ripensato a tutto quanto le aveva insegnato l'esperienza cui il mondo da sempre è solito sottoporre una vedova ma ci aveva ripensato senza alcun senso di amarezza inutile che la rassegnazione accumulata in quegli anni era assurta in lei quasi a una forma di dignità rifletteva stoicamente che tutto si deteriora tutto si consuma in questo mondo che la strada della bontà doveva essere resa più agevole per i ben disposti che sua figlia Winnie era una sorella devotissima e una moglie davvero affidabile sulla devozione fraterna di Winnie il suo setticismo stoico vacillava e la escludeva questo sentimento dalla regola che vuole tutte le cose umane e anche alcune delle divine destinate a scadere non poteva impedirselo non farlo l'avrebbe spaventata troppo ma considerando le condizioni dello stato coniugale della figliuola rifiutava decisamente di lasciarsi illudere troppo freddamente e ragionevolmente ella riteneva che meno si chiedeva alla bontà di Mr. Verloc più a lungo ne sarebbero durati gli effetti quell'ottimo uomo amava certamente sua moglie ma senza alcun dubbio avrebbe preferito avere a proprio carico il minor numero possibile di componenti della famiglia compatibilmente con la buona volontà che gli imponevano i suoi sentimenti sarebbe stato meglio se l'intero effetto di questi ultimi si fosse concentrato sul povero Stevi e l'anziana eroica donna aveva preso la decisione di lasciare i suoi figli e il suo era stato un gesto d'amore nei loro confronti così come una mossa di politica sottile il valore di questa politica consisteva nel fatto a Mrs. Verloc non mancava una certa astuzia che i diritti morali di Stevi ne sarebbero usciti rafforzati il povero ragazzo un buon ragazzo utile anche se un po' strano non aveva una posizione abbastanza solida era stato preso su assieme a sua madre un po' come era stata presa la mobilia della casa del quartiere Belgravia con l'idea che fossero cose appartenenti a lei esclusivamente cosa sarebbe accaduto e la si chiedeva Mrs. Verloc a modo suo era piena di immaginazione quando lei fosse morta e quando si poneva questa domanda lo faceva con terrore era davvero terribile pensare che lei non avrebbe avuto modo di sapere quello che sarebbe accaduto al povero ragazzo ma passando nella proprietà a sua sorella andando via in questo modo dava a lui il vantaggio di una posizione di dipendenza diretta era questa la più sottile sanzione dell'eroismo e della mancanza di scrupoli della madre di Mrs. Verloc il suo gesto di abbandono era in realtà uno stratagemma per sistemare il figlio nella vita per sempre per un fine come questo vi era chi faceva sacrifici materiali lei si sacrificava in quel modo ed era l'unico modo oltretutto l'avrebbe fatto in tempo a vedere come funzionava la cosa in ogni caso avrebbe evitato l'orribile incertezza sul letto di morte ma era duro duro crudelmente duro la carrozza sferragliava tintinnava sobbalzava e quest'ultima cosa in modo davvero straordinario gli scossoni cancellavano con il loro impeto e la loro sproporzionata violenza ogni sensazione di movimento in avanti e l'effetto che ne derivava era di essere sballottati in un congegno simile a quegli strumenti medievali di tortura per la punizione dei crimini o in una di quelle invenzioni nuovissime per la cura di un fegato malandato era davvero sconvolgente e la voce a un tono altissimo della madre di missis verlock eccheggiò come un gemito di dolore sono sicura mia cara che verrai a trovarmi ogni volta che ne troverai il tempo non è vero certo rispose bruschamente winnie guardando fisso davanti a sé e intanto la carrozza passava sobbalzando davanti a una bottega fumosa e bisunta travampate di gas e odore di pesce fritto l'anziana donna alzò la voce in un altro gemito perché mia cara io devo vedere devo vedere quel povero ragazzo ogni domenica non gli dispiacerà di passare la giornata con la sua vecchia madre winnie senza troppa sensibilità urlò la risposta gli dispiacerà dirai proprio di no quel povero ragazzo sentirà la vostra mancanza in modo crudele vorrei che ci aveste pensato un poco a questo mamma non ci avevo pensato l'eroica donna ringhiottì un oggetto che le ballava in gola incomodo come una palla di biliardo che aveva tentato di saltarle fuori winnie sedette silenziosa per un po' con il volto imbronciato guardando fisso davanti a sé poi se ne uscì con un tono che non era il suo abituale mi aspetto di avere un bel da fare con lui all'inizio non avrà pace in ogni caso non lasciare che importuni tuo marito cara si misero così a discutere in termini di vita quotidiana i problemi della nuova situazione e intanto la carrozza sobbalzava su e giù la madre di Mrs. Verlock espresse qualche timore ci si poteva fidare che Stevi facesse tutta quella strada da solo winnie sosteneva che era molto meno distratto ora su questo erano tutte e due d'accordo era una cosa che non si poteva negare molto meno di prima quasi per niente parlavano a voce altissima nel frasbuono l'una verso l'altra con relativa serenità ma ecco che l'ansia materna venne di nuovo a galla c'erano due omnibus da prendere e un tratto di strada da percorrere a piedi era troppo difficile l'anziana signora si abbandonò al dolore e allo sconforto winnie guardava fisso davanti a sé non vi agitate così mamma lo dovrete vedere naturalmente no cara farò del mio meglio si asciugò le lacrime che le scorrevano sulla fronte ma tu non troverai sempre il tempo di venire con lui e se lui dovesse non ricordarsi e perdere la strada e qualcuno dovesse rivolgergli la parola aspramente il suo nome e il suo indirizzo possono suggirgli dalla memoria e rimarrà sperso per giorni e giorni la visione di un ospizio di carità per il povero stevi fosse anche solo durante le ricerche le spezzava il cuore era una donna orgogliosa questa anziana signora madre di mrs verloc lo sguardo di winnie era diventato duro intento meditabondo non ve lo potrò portare io ogni settimana ma non vi preoccupate mamma ci penserò io a fare in modo che non si perda per troppo tempo avvertirono uno scossone diverso dagli altri di fronte ai finestrini tintinnanti si andava snodando lo spettacolo di tante costruzioni squadrate di mattoni il cessare improvviso di ogni scossone ed il rumoroso sferragliare prese le due donne alla sprovvista cos'era successo? stettero immobili e spaventate in quel silenzio profondo finché venne aperta la porta e udirono una voce aspra che similava a fatica ci siete le facciate di tante case in fila ognuna con la sua finestra debolmente illuminata al pian terreno circondava la gran macchia nera di un appezzamento verde intervallato da arbusti piantati qua e là una recinzione separava questo spazio dall'alternarsi di luce e ombre della grande strada dove continuo rimbombava sordo il rumore del traffico davanti alla porta di una di queste piccole case una di quelle con la finestrella pian terreno spenta la carrozza si era finalmente fermata la madre di mrs ferlock fu la prima ad uscire a parte dietro con una chiave in mano winnie indugiò sul vialetto di pietra per pagare il vetturino stevie dopo aver aiutato a portare dentro una serie di fagotti usci fuori e rimase ad aspettare sotto la luce di un lampione a gas di proprietà della carità pubblica il vetturino guardò i pezzi di argento che sembravano minuscoli sulla sua grossa palma sudice essi simbolizzavano gli insignificanti risultati con i quali si premia il coraggio ambizioso e il sudore di umanità la cui giornata è così breve in questa valle di lacrime era stato pagato decentemente quattro pezzi da un ocellino immobile e silenzioso contemplò le monete quasi fossero loro i termini sorprendenti di un problema melanconico il trasferimento di quel tesoro in una tasca interna richiese un lungo frugare alla cieca tra le pieghe dei vestiti logoli l'uomo aveva una corporatura tozza e sgraziata stevi sottile con le spalle appena un po' rialzate e le mani sprofondate nelle tasche laterali del caldo soprabito aspettava imbronciato al bordo del viottolo il vetturino che aveva finito di compiere una serie attenta dei suoi gesti sembrava ora colpito da una qualche confusa reminiscenza ah eccoti qua giovanotto bruntolò lo riconoscerai se lo vedi un'altra volta non è vero? stevi guardava il cavallo i cui lombi posteriori apparivano enormemente sollevati in seguito all'alleggerimento del peso la coda piccola e rigida sembrava fosse stata infilata in quel posto per uno scherzo cattivo e dalla parte opposta il collo sottile piatto simile a un asse di legno coperta da una vecchia pelle equina ciondolava verso terra sotto il peso di un'enorme testa ossuta le orecchie pendevano ciascuna per proprio conto con negligenza e intanto nell'aria opprimente e immobile questa macabra figura di silenzio abitante nella terra emanava vapore da ogni costola lungo tutta la spina dorsale il vetturino colpì leggermente il petto di stevi con duncino di ferro che usciva dalla manica stracciata e bisunta guarda qua giovanotto ti staresti a farti sballottare da questa bestia anche fino alle due del mattino stevi guardò senza capire quei piccoli occhi feroci con le pupille cerchiate di rosso non è mica zoppo continuò l'altro brontolando energicamente non è ferito da nessuna parte eccolo qua che ne dici e la voce forzata e quasi spenta conferiva alle sue parole un carattere di appassionato mistero lo sguardo vuoto di stevi stava lentamente mutandosi in uno sguardo di paura guarda guarda fino alle tre e alle quattro del mattino al freddo e alla fame cercando di guadagnare qualche soldo ubriachi fradici dalle guance rubizze e gioviali spuntavano irsuti peli bianchi e come il sileno di virgilio che con il volto sporco del sugo delle bacche narrava degli dei dell'olimpo ai pastori innocenti della sicilia e gli parlava a stevi della vita di ogni giorno e di storie di uomini la cui sofferenza è grande e l'immortalità incerta sono un vetturino notturno sono brontolava con un'esasperazione quasi fiera devo prendermi la bestia che gli va di darmi al deposito ho moglie e quattro figli io a casa la natura quasi prodigiosa di quella dichiarazione di paternità sembrò por fine ad ogni discussione seguì il silenzio e intanto i fianchi del vecchio ronzino l'estriero di apocalittica infelicità fumavano sotto la luce del lampione caritatevole il vetturino emise ancora un grugnito e aggiunse col suo brontolio incomprensibile questo non è un mondo facile il volto di steve era già un po' che andava torcendosi e infine diede libero sfogo ai suoi sentimenti nella solita sua forma concisa cattivo cattivo lo sguardo rimaneva fisso sulle costole del cavallo ed era uno sguardo consapevole piano di tristezza come se avesse paura di guardarsi intorno e scoprire la malvagità del mondo la sua figura slanciata le labbra rose la carnagione pallida e chiara gli davano l'aspetto di un delicato adolescente nonostante la crescita soffice di la lucine dorata sulle guance faceva il broncio come fosse spaventato come un bimbo il vetturino basso e largo lo guardava con i piccoli occhi aggressivi che sembravano bruciare in un liquido limpido e corrosivo brutta vita per le bestie ma ancora più brutta per i poveri cristiani come me sibilò sottovoce in modo appena comprensibile poveretto poveretto balbettò stevi sprofondando sempre più le mani in tasca con simpatia convulsa non poteva dire nulla perché la sua tenerezza verso ogni forma di miseria e di dolore il desiderio di veder felice il cavallo e felice il vetturino aveva raggiunto quel punto dove scattava per lui l'impulso bizzarro di portare tutti a letto con sé e questo lui lo sapeva era impossibile perché steven non era matto si trattava per così dire di un desiderio simbolico e che era allo stesso tempo molto preciso perché nato dall'esperienza madre della saggezza così quando da bambino terrorizzato dolorante e ferito infelice dell'infelicità più nera la nera infelicità dell'anima si rifugiava in un angolo buio sua sorella Winnie era solita venire a prenderlo e portarlo a letto con lei come in un paradiso di pace e di consolazione stevi sebbene facile a dimenticare i fatti veri e propri come per esempio nome e indirizzo aveva tuttavia una memoria fedele per le sensazioni venire portato in un letto di compassione era il rimedio supremo e presentava l'unico svantaggio di poter essere difficilmente applicato su larga scala e guardando il vetturino stevi se ne rendeva chiaramente conto perché era ragionevole il vetturino continuava con calma i suoi preparativi come se stevi non fosse esistito fece come per arrampicarsi in cassetta ma all'ultimo momento per qualche misterioso motivo forse solo per la nausa che aveva della pratica del suo mestiere rinunciò all'idea si avvicinò invece all'immobile compagno delle sue fatiche e chinandosi a prendere le briglie gli sollevò la grossa testa stanca fino all'altezza della sua spalla come per inculcargli la forza di una grande impresa andiamo mormorò con aria di mistero zoppicando si avviò tirando la vettura sarà un'aria solenne in questa partenza la gaia scricchiolante del vialetto si lamentava sotto le ruote che giravano lentamente le membra scarnite del cavallo si muovevano con ascetica risolutezza dalla luce verso il buio di uno spazio aperto delimitato appena da tetti aguzzi e dalle finestre debolmente illuminate delle casette dell'ospizio di carità il lamento della ghiaia si spostò lentamente lungo tutta la lunghezza del vialetto il lento corteo riapparve tra i lampioni del cancello caritatevole emersi per un attimo sotto la luce l'uomo basso e tarchiato che si affrettava soppicante mantenendo redini in mano alta la testa del cavallo quest'ultimo che avanzava sudo e dignitoso rigido e infelice e infine lo scatolone basso e scuro che rotolava al seguito barcollando comicamente sulle quattro ruote come una papera di stagno girarono a sinistra c'era un'usteria in fondo alla strada a 50 metri dal cancello stevi rimasto solo accanto a uno dei lampioni dell'ospizio le mani sprofondate nelle tasche dei pantaloni si guardava intorno con occhi cupi e vuoti in fondo alle tasche le deboli mani incapaci si serravano disperatamente in un paio di pugni rabbiosi un'indignazione generosa gonfiava fino a farlo scoppiare quel petto fragile e torceva quegli occhi innocenti supremamente saggio nella consapevolezza della propria impotenza stevi non lo era altrettanto nel trattenere le proprie passioni la tenerezza del suo amore verso tutta l'umanità aveva due fasi indissolubilmente unite e connesse con le due facce di un'unica medaglia all'angoscia della compassione sorenata seguiva il dolore di una rabbia innocente senza pietà poiché questi due stati d'animo si rivelavano esternamente con gli stessi segnali di agitazione corporea sua sorella Winnie calmava questa eccitazione senza neanche immaginarne i due diversi aspetti missi sferlo che infatti non era solita sprecare porzioni di questa vita fugace nella ricerca di risposte fondamentali è questo un tipo di economia che possiede tutte le apparenze e qualcuno dei vantaggi della prudenza ovviamente può anche andar bene per qualcuno non sapere troppo e un atteggiamento come questo si sposa molto bene ad una forma di indolenza innata ma quella sera in cui si può giustamente affermare che la madre di missis Verlock separandosi a fin di bene dai suoi figli si era anche definitivamente separata dalla vita quindi Verlock non si fermò ad investigare la psicologia del fratello il povero ragazzo era eccitato naturalmente dopo aver tranquillizzato una volta ancora la vecchia signora sulla soglia assicurandole che avrebbe saputo come guardarsi dal rischio che Stevi si perdesse a lungo nei suoi pellegrinaggi di pietà filiale e la prese il braccio del fratello per andarsene Stevi era silenzioso non borbottava nemmeno ma con la particolarissima sensibilità sviluppata fin dalla lontana infanzia dell'amore fraterno e la sentiva che davvero il ragazzo era molto eccitato tenendosi stretta al braccio di lui quasi cercando un appoggio cercò qualche parola adatta all'occasione allora Stevi devi aiutarmi ad attraversare con attenzione e salire per primo sull'autobus da bravo fratello questo appello alla sua protezione virile fu accolto da Stevi con la solita docilità ne era lusingato alzò la testa e sporse il petto in fuori non essere nervosa Winnie non devi essere nervosa va tutto bene con l'autobus rispose con un balbettio brusco e farfugliante che partecipava insieme dei timori del bimbo e della decisione dell'uomo procedette senza paure con la donna appoggiata al suo braccio ma con il labbro inferiore abbandonato e tuttavia mentre avanzavano sul marciapiede dell'arteria piena di traffico dove la povertà estrema di tutto quanto rende migliore la vita scioccamente esposta sotto una folle dovizia di lampioni a gas la loro somiglianza reciproca era così pronunciata da colpire alcuni passanti che incrociavano davanti alle porte di un'osteria all'angolo dove la profusione di luce raggiungeva il colmo della malvagità una vettura a quattro ruote ferma accanto al marciapiede con nessuno al posto di guida sembrava fosse stata gettata nella fogna a causa di uno stato di irrimediabile degrado Mrs. Verloc riconobbe il convoglio aveva un aspetto così profondamente infelice con una tale perfezione di grottesco squallore e una tale stranezza di particolari macabri quasi una vettura della morte che Mrs. Verloc con la compassione facile di una donna per un cavallo quando non è quello che la porta esclamò vagamente povera bestia rimanendo improvvisamente indietro Stevi trappenne la sorella con uno scossone poveretto poveretto esclamò con sollecitudine ma poveretto anche il vetturino me l'ha detto lui rivedere quel destriero solo e malato fu troppo per lui nonostante venisse spinto rimaneva là ostinato cercando di esprimere in parole quella visione da poco svelata al suo animo compassionevole dell'infelicità umana ed equina strettamente associate tra di loro ma era molto difficile povera bestia povera gente era tutto quanto riusciva a ripetere ma l'espressione non sembrava abbastanza forte e il ragazzo concluse con un farfuglio furioso vergogna steven non aveva la padronanza sintattica del linguaggio e forse era questo il motivo per cui i suoi pensieri mancavano di chiarezza e di precisione ma sentiva con gran completezza e con una certa profondità quel piccolo mondo conteneva tutto il suo senso di orrore e indignazione di fronte a un genere di infelicità che si doveva nutrire sull'angoscia di un'altra come il povero vetturino che frustava al cavallo il nome per così dire dei poveri bimbi che aveva a casa e stevie sapeva cosa significasse essere battuti lo sapeva per esperienza era un mondo cattivo 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 non si poteva pretendere che Mrs. Verloc sua unica sorella e tutrice giungesse a tale profondità di introspezione c'è da dire anche che ella non aveva subito il fascino dell'eloquenza del vetturino non sapeva quanto quella parola vergogna venisse dal profondo del cuore e tranquillamente gli disse andiamo stevie non puoi farci nulla e stevie docile si rimise in cammino ma ora procedeva senza più la baldanza di prima disordinatamente borbottando parole a metà e anche parole che sarebbero state intere se non fossero state composte di metà che non si appartenevano era come se stesse cercando di mettere nel discorso tutte le parole che riusciva a ricordare e che si presentassero ai suoi sentimenti per ottenerne qualche tipo di idea corrispondente e in effetti alla fine riuscì nel suo scopo rimase un attimo indietro per pronunciare tutto in un fiato è un mondo cattivo per povera gente e non appena ebbe espresso questo concetto si rese conto di quanto gli fosse già familiare in tutte le sue conseguenze tale circostanza rafforzò immensamente la sua convinzione e aumentò anche la sua indignazione qualcuno sentiva dentro di sé doveva essere punito per questo e punito con grande severità non essendo egli uno scettico ma una creatura di sentimento era in qualche modo alla mercè delle sue giuste passioni bestiale aggiunse in modo sintetico era chiaro a questo punto per Mrs. Verlock che il ragazzo era quanto mai eccitato non può farci nulla nessuno disse lei andiamo avanti è così che ti occupi di me Stevi adeguò immediatamente il passo era orgoglioso di essere un buon fratello il suo senso morale che era molto esigente glielo imponeva tuttavia era addolorato dall'informazione ricevuta da sua sorella Winnie che era buona non ci poteva far niente a nessuno veniva avanti imbronciato ma all'improvviso si illuminò come il resto dell'umanità perplessa dal mistero dell'universo egli aveva dei momenti di fiducia consolante nei poteri organizzati di questa terra la polizia suggerì fiducioso la polizia non c'entra con queste cose osservò Mrs. Verloc in tono spicciativo affrettandosi per la sua strada il volto di Stevi si allungò ancora più stava pensando e più intensamente pensava più la macella inferiore pendeva l'anguida e fu con un'espressione vuota e disperata che rinunciò alla sua impresa intellettuale non con queste cose Borbottor assegnato ma sorpreso non con queste cose si era formato dentro di sé un concetto ideale della polizia metropolitana come una istituzione benevola per la soppressione del male l'idea di comprensione benevola soprattutto era strettamente associata con la sua concezione del potere degli uomini in blu aveva sempre avuto una tenera simpatia per tutti gli agenti assieme a una fiducia innocente ed era addolorato irritato anche da un sospetto di doppiezza nei membri dell'organizzazione perché Stevi era sincero e candido come la luce del sole perché allora facevano finta diversamente da sua sorella che poneva la sua fiducia sui valori in superficie egli voleva andare a fondo delle cose portò dunque avanti la sua indagine con un'aria di sfida arrabbiata a cosa servono allora Win a cosa servono dimmelo Winnie non amava le discussioni ma temendo più di tutto un accesso di depressione profonda per la mancanza che Stevi avrebbe sentito di sua madre in questa prima fase non rifiutò completamente la discussione ben lungi da un atteggiamento ironico rispose tuttavia in una forma forse non del tutto stonata trattandosi della moglie di Mr. Verloc delegato del comitato rosso centrale amico personale di certi anarchici e seguace dell'idea di rivoluzione sociale non sai a cosa serve la polizia Stevi sono là per impedire a quelli che non hanno niente di portare via qualcosa a quelli che hanno evitò di usare il verbo rubare perché la parola rendeva sempre nervoso il fratello perché Stevi era onesto in modo delicatissimo certi principi erano stati stillati in lui con tanta cura a causa della sua stranezza che anche il solo nome di certe trasgressioni lo colmava di orrore era sempre stato facilmente impressionato dai discorsi e ora era turbato e scosso e tutta la sua intelligenza era allerta cosa chiese subito con ansia neanche se hanno fame non devono mai i due avevano smesso di camminare anche se sono sempre affamati disse Mrs. Verloc con la serenità di chi non è toccato dal problema della distribuzione della ricchezza ed esplorando contemporaneamente con lo sguardo la prospettiva stradale per cercare un autobus del colore giusto certamente no ma che bisogno c'è di parlare di queste cose tu non sei mai affamato zettò un'occhiata rapida al ragazzo più simile a un giovanotto al suo fianco lo vide gradevole amabile affezionato e solo un poco appena un poco diverso non lo poteva vedere in altro modo che lui era collegato con quanto poteva esserci del sale della passione nella sua vita insipida la passione dell'indignazione del coraggio della pietà e anche dell'abnegazione non aggiunse e non c'è alcuna probabilità che tu lo sia finché sarò in vita io ma avrebbe bene avuto il diritto di farlo dal momento che con questo fine in mente e l'aveva preso importanti decisioni nel passato mister Verlock era un ottimo marito era del resto l'impressione di Winnie in perfetta buona fede che nessuno avrebbe potuto fare a meno di prendere quel ragazzo in simpatia gridò ad un tratto presto stevie ferma quell'autobus verde e stevie trepido sentendosi importante offrendo un braccio alla sorella Winnie levò con immediato successo l'altro in alto verso l'autobus che si avvicinava un'ora più tardi mister Verlock alzò gli occhi dal giornale che stava leggendo o almeno guardando dietro il banco all'eco del suono della campana della porta guardò Winnie sua moglie che entrava e attraversava il negozio diretta al piano di sopra seguita da stevie suo cognato la vista di sua moglie era gradevole per mister Verlock era la sua idiosincrasia la figura del cognato rimase fuori dalla sua coscienza a causa di quello stato d'animo meditativo che già da un po' era solito frapporsi come un velo tra mister Verlock e il mondo dei sensi seguì fissamente sua moglie con lo sguardo senza una parola come fosse stata un fantasma la voce per uso domestico era di solito una voce bassa e tranquilla ma ora si udiva a malapena non si udì a cena dove fu chiamato dalla moglie nel solito modo breve Adolf si sedette a consumare il pasto senza convinzione con il cappello in testa calzato all'indietro non era l'amore per la vita all'aperto ma l'abitudine a frequentare caffè stranieri che era responsabile di una tale abitudine abitudine che conferiva alla fedeltà al focolare domestico di mister Verlock un carattere di transitorietà incerimoniosa due volte allo scampanio della campana fessa si alzò senza una parola scomparendo nel negozio e riapparendo silenziosamente durante queste assenze missis Verlock che stava all'improvviso diventando acutamente consapevole del posto vuoto alla sua destra sentiva più che mai disperatamente la mancanza di sua madre e guardava davanti a sé senza espressione mentre Stevi per la stessa ragione non smetteva di trafficare con i piedi come se il pavimento sotto il tavolo fosse diventato insopportabilmente bollente quando mister Verlock tornava per risedersi al suo posto silenzio fatto persona agli stesso il modo di fissare missis Verlock subiva un sottile cambiamento e Stevi smetteva di agitare i piedi in nome del grande e timoroso rispetto che aveva nei confronti del marito di sua sorella volgeva verso di lui occhiate di compassione rispettosa mister Verlock aveva dei dispiaceri sua sorella Winnie gli aveva inculcato l'idea nell'autobus che avrebbe trovato mister Verlock a casa in uno stato di tristezza e che non si doveva dunque importunarlo l'ira di suo padre l'irritabilità dei signori inquilini e la tendenza di mister Verlock a dolersi in modo immoderato erano state le principali sanzioni capaci di indurre Stevi al controllo di questi sentimenti tutti facili a provocarsi ma non facili a capire l'ultimo aveva avuto la maggior presa morale perché mister Verlock era buono sua madre e sua sorella avevano stabilito una volta per tutte questo dato etico su basi inamovibili ma avevano stabilito eretto consacrato dietro le spalle di mister Verlock per ragioni che non avevano nulla a che fare con una moralità astratta e mister Verlock non era consapevole bisognava rendergli giustizia dicendo come egli non avesse alcuna idea di apparire buono a Stevi eppure era così egli era anche l'unico uomo che meritasse tale qualifica nel concetto di Stevi perché i signori inquilini erano troppo di passaggio e troppo lontani per aver nulla di molto distinto che li riguardasse ai suoi occhi e si accettua forse degli stivali e per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari presi dal padre la desolazione della madre e della sorella avevano impedito loro di costruire una teoria della sua bontà davanti alla vittima sarebbe stato troppo crudele ed era anche possibile che Stevi non le avrebbe credute ma per quello che riguardava Mr. Verlock niente poteva frapporsi alla convinzione di Stevi Mr. Verlock era naturalmente e tuttavia misteriosamente buono e il dolore di un uomo buono è degno di rispetto Stevi lanciava occhiate di rispettosa compassione verso il cognato Mr. Verlock era dispiaciuto il fratello di Winnie non si era mai sentito prima in contatto così stretto con il mistero della bontà di quell'uomo era una tristezza evidente la sua e anche Stevi era triste era molto triste dello stesso tipo di tristezza ed essendo tutta la sua attenzione concentrata in questo stato d'animo tormentoso Stevi agitava i piedi sotto il tavolo egli era solito manifestare i suoi sentimenti attraverso l'agitazione delle membra Sei fermo con i piedi caro disse Mrs. Verlock con autorità e tenerezza poi rivolgendosi verso il marito con voce indifferente abilissima conquista di un tatto istintivo Esci questa sera la sola idea era nauseante per Mr. Verlock scosse di malumore la testa e se ne rimase lì seduto immobile con gli occhi rivolti in basso a guardare per un intero minuto il pezzo di formaggio sul piatto alla fine si alzò e uscì uscì decisamente accompagnato dallo scampanio della porta del negozio agiva in questo modo incoerente non già per il desiderio di rendersi spiacevole ma a causa di un'invincibile inquietudine non era di necessità non era di nessuna utilità al mondo uscire non poteva trovare nessun posto a Londra ciò di cui aveva bisogno ma uscì lo stesso guidò il suo corteo di pensieri lugubri per le vie buie per le vie illuminate dentro e fuori due bar pieni di vita in un tentativo poco convinto di risolvere la nottata poi di nuovo al suo focolare minacciato dove si sedette sfinito dietro il banco mentre i pensieri tornavano ad affollargli si incalzanti intorno come un'orda di segugineri affamati dopo aver chiuso la casa e aver spento il gas si riportò tutti al piano di sopra una scorta orribile per un uomo che sta andando a dormire la moglie lo aveva preceduto già da un po' una forma generosa che si delineava in modo vago sotto le coltri la testa sul cuscino e una mano sotto la guancia offriva al suo turbamento l'immagine di un sonno facile che denunciava il possesso di un animo sereno i grandi occhi guardavano spalancati scuri e inerti contro il biancore niveo delle lenzuola lei non si mosse la donna possedeva un animo sereno sentiva profondamente che le cose non sopportano di essere guardate troppo in profondità di questo istinto faceva la sua forza e la sua saggezza ma il silenzio di Mr. Verlock di quei giorni le era calato addosso pesantemente stava per dirla francamente urtandogli il sistema nervoso rimanendo stesa ed immobile disse tranquillamente prenderai freddo andando in giro con i soli calzini in questo modo Mr. Verlock non era una persona molto colta la sua gamma di frasi allusiva era limitata ma c'era una coincidenza strana in quella circostanza che lo faceva pensare ai topi che abbandonano la nave al suo destino quasi stava per dirlo era diventato sospettoso ed amaro era possibile che la vecchia avesse un naso così fino ma l'illogicità di un simile sospetto era evidente e Mr. Verlock tacque non completamente però borbottò in musonito forse è meglio così cominciò a spogliarsi Mr. Verlock rimaneva immobile perfettamente immobile gli occhi fissi in uno sguardo sognante e tranquillo quella sera ella non era veramente quella di sempre come ci usa dire e all'improvviso si trovò di fronte con evidenza al fatto che una semplice frase può contenere in sé molti e diversi significati e quasi tutti spiacevoli che voleva dire forse è meglio così e perché tuttavia non si permise di lasciarsi andare all'inutilità di speculazioni vaghe era ben ferma nella sua convinzione che le cose non sopportavano che le si guardasse troppo da vicino pratica e a modo suabile senza perdere tempo portò Stevi in cima ai suoi pensieri che in lei l'unicità dello scopo aveva la natura infallibile e la forza di un istinto cosa potrò mai fare per allegrare il ragazzo per i primi giorni davvero non lo so si tormenterà dalla mattina alla sera prima che si abitui al fatto che mamma non c'è è talmente un bravo ragazzo non potrei vivere senza di lui Mr. Verlock continuava a liberarsi dei vestiti con la concentrazione rivolta all'interno indifferente di un uomo che si spoglia nella solitudine di un immenso e disperato deserto perché altrettanto in ospitale si presentava agli occhi della fantasia di Mr. Verlock questa nostra bella terra eredità comune di tutti gli uomini e ogni cosa fuori e dentro era così silenziosa che il tichettio solitario dell'orologio sul ballatoio si insinuava nella stanza quasi a cercare compagnia Mr. Verlock infilandosi nel letto dalla sua parte rimase supino e silenzioso dietro la schiena di Mrs. Verlock le braccia robuste giacevano abbandonate fuori delle coltri simili ad armi buttate là come strumenti che non servissero più fu in quel momento che fu vicinissimo a confessare tutto a sua moglie il momento sembrava propizio guardandola di sottecchi ne vedeva le ampie spalle coperte di bianco il dietro della nuca con i capelli sistemati per la notte in trezze legate in fondo con fiocchi neri e non lo fece Mr. Verlock amava sua moglie come una moglie dovrebbe essere amata cioè come un marito con l'attenzione che si ha per le proprietà più care questa testa pettinata per la notte quelle larghe spalle rappresentavano la sacralità familiare la sacralità della pace domestica ella non si muoveva massiccia in forme come una statua abbandonata tra le rovine ripensò ai suoi occhi spalancati che fissavano la stanza vuota era misteriosa del mistero che è proprio degli esseri umani la gente segreto di chiara fama a l'autore dei dispacci allarmistici del defunto barone Stott Vartenheim non era uomo da interrompere tali misteri egli ne era facilmente intimidito ed era anche indolente di quell'indolenza che è spesso il segreto di un buon carattere rifiutava di accostarsi a quel mistero per amore per timidezza per indolenza gli sarebbe sempre stato tempo sufficiente per parecchi minuti sopportò il suo dolore in silenzio nella quiete sonnolenta della stanza poi si decise a disturbare questa calma con una dichiarazione netta vado sul continente domani sua moglie si era addormentata forse non avrebbe saputo dirlo in realtà Mrs. Verloc lo aveva sentito teneva gli occhi sempre ben aperti ed era rimasta immobile ferma nella sua convinzione istintiva che è meglio non andare molto a fondo delle cose tuttavia non c'era niente di molto insolito in questo viaggio di Mr. Verloc rinnovava la sua mercanzia a Parigi e a Bruxelles spesso andava là per fare personalmente i propri acquisti un piccolo gruppo scelto di amatori si andava formando intorno al negozio di Brett Street un legame segreto specialmente adatto per qualsiasi attività intrapresa da Mr. Verloc che per un mistico accordo tra temperamento e necessità era stato scelto dal destino per fare l'agente segreto tutta la vita aspettò un poco poi aggiunse starò fuori una settimana forse due fai venire Mrs. Neal durante il giorno Mrs. Neal era la donna delle pulizie di Brett Street vittima di un matrimonio con un falegname debosciato era perseguitata dalle necessità di molti bimbi piccoli con le braccia arrossate insaccata in un rozzo grembiulone fin sotto le ascelle esalava l'angoscia della povertà nel fiato che sapeva di rum e saponata nel rumore dello strofinio dei panni e nello sbatacchiare dei secchi di latta Mrs. Verloc con una precisa motivazione parlò invece con tono leggero e indifferente non c'è bisogno di avere quella donna tutto il giorno mi basterà benissimo Stevi attese che l'orologio solitario lasciasse cadere una quindicina di ticchetti nell'abisso dell'eternità e disse spengo la luce bruscamente Mrs. Verloc rispose spegni capitolo nono Mr. Verloc tornando dopo dieci giorni dal continente riportò a casa uno stato d'animo che le meraviglie dei viaggi all'estero non erano evidentemente riuscite a rinfrancare e un atteggiamento che le gioie del rientro non sembravano rallegrare neanche un poco entrò mentre la campanella vociava con un'espressione cupa e affranta la borsa in mano la testa bassa si avviò a passi decisi dietro il bancone e si lasciò cadere su una seggiola quasi fosse venuto a piedi da Dover era mattina presto Stevi che stava spolverando alcuni oggetti nella vetrina si volse verso di lui con timore e rispetto guardandolo con la bocca leggermente aperta tieni disse Mr. Verlock spingendo con un piede la borsa di cuoio sul pavimento e Stevi si precipitò a prenderla e a portarla via con devozione trionfante fu così veloce che anche Mr. Verlock ne rimase sorpreso al suono della campanella Mrs. Neal inginocchiata davanti alla griglia del focolare cui stava dando il nero di piombo aveva gettato un'occhiata attraverso la porta e alzatasi era andata insaccata nel grembiule e stravolta da quella fatica che non conosceva a soste ad avvisare Mrs. Verlock in cucina che c'era il signore che era tornato quindi si affacciò appena alla porta interna della bottega vorrai far colazione gli disse da dove era Mr. Verlock fece un gesto vago con la mano come se l'idea fosse assolutamente impossibile ma una volta attirato nel salottino non rifiutò il cibo che gli veniva posto dinanzi mangiò come se si fosse trovato in un posto pubblico il cappello spinto all'indietro sulla fronte i lembi del pesante soprabito che ciondolavano i due triangoli da ciascun lato della seggiola e all'estremo opposto della tavola coperta di tela serata marrone quindi sua moglie lo intratteneva con una tipica con una tipica conversazione coniugale adattata con arte sicura alle circostanze del suo ritorno come il discorso di Penelope al ritorno del suo Ulisse e Rabondo disse Sverlock però non aveva tessuto tele durante l'assenza del marito in compenso aveva fatto pulire a fondo tutte le stanze del piano di sopra aveva venduto qualche articolo di merce e aveva visto diverse volte mister Michaelis l'ultima volta le aveva detto che stava partendo per andare in una villetta di campagna da qualche parte sulla linea Londra Chatham-Bover era venuto anche Carl Junt una volta al braccio di quella odiosa sua vecchia governante era un vecchio disgustoso del compagno Sipon che lei aveva accolto bruscamente trincerata dietro il banco con volto senza espressione lo sguardo lontano non disse nulla e il riferimento al robusto anarchico corrispose durante il racconto a un attimo di pausa accompagnato da un leggerissimo rossore introducendo Penelope fu possibile nella sequela degli avvenimenti domestici il fratello Stevi raccontò come il ragazzo si fosse molto entristito in quegli ultimi giorni tutta colpa della mamma che ci ha lasciato in questo modo Mr. Verrock non disse né dannazione né al diavolo Stevi e Mrs. Verrock che non aveva accesso ai suoi pensieri segreti non fu in grado di apprezzare la generosità di questo sforzo questo non vuol dire che non lavori come il solito continuò lei si direbbe che pensi di non fare mai abbastanza per noi Mr. Verrock rivolse uno sguardo distratto e sonnolento a Stevi che sedeva al suo fianco delicato pallido con le labbra rosate leggermente aperte e l'espressione vacua non era certo uno sguardo critico non ne aveva l'intenzione e se Mr. Verrock pensò per un momento che il fratello di sua moglie aveva un'aria particolarmente inutile fu veramente solo per un attimo uno di quegli attimi veloci e insignificanti privi di quella forza e di quella costanza che sola riesce a rendere un pensiero capace di modificare gli eventi appoggiandosi alla spalliera della sedia Mr. Verrock si tolse il berretto ma non fece in tempo a tendere il braccio che Stevi era balzato in avanti per prenderlo e portarlo con reverenza in cucina e di nuovo Mr. Verrock fu sorpreso potresti fargli fare qualsiasi cosa a quel ragazzo disse Mrs. Verrock con la migliore espressione di calma decisa si butterebbe nel fuoco per voi lui si fermò attenta tendendo l'orecchio verso la porta della cucina Mrs. Neal era là che strofinava il pavimento all'arrivo di Stevi aveva come al solito attaccato a gemere e a lamentarsi si era accorta infatti che era facile indurre il ragazzo a consegnarle lo scellino che sua sorella Winnie gli regrava di tanto in tanto Carponi sul bagnato in zaccherata sudicia una specie di animale anfibio domestico che vive nelle pattumiere nell'acqua sporca cominciò con la solita storia bella vita per voi tenuto come un signorino a non far nulla e continuava con il pianto eterno della povertà pateticamente arricchito di bugie suffragata nei suoi racconti dall'orribile fiato di rum a buon mercato e saponata strofinava forte tirando su col naso e parlava a ruota libera era sincera ai due lati del naso magro e arrossato gli occhi cisposi annebbiati annegavano in un mare di lacrime perché la poveretta e su questo non c'erano dubbi sentiva effettivamente il bisogno di qualcosa di stimolante la mattina nel salottino mi si sferlo che intanto commentava ecco mrs neal che ricomincia con le sue storie strappacuore sui suoi bambini non è possibile che siano tutti così piccoli come dice qualcuno dovrebbe essere già grande abbastanza per badare a se stesso serve solo a far arrabbiare stevie queste parole trovarono conferma nel rumore di un pugno sul tavolo della cucina secondo la routine consueta della sua compassione stevie si era infuriato scoprendo di non avere neanche un ocellino in tasca nell'impossibilità di lenire subito le sofferenze dei piccoli di mrs neal pensava che qualcuno dovesse pagare per questo mrs verloc si alzò e andò in cucina per porre fine a quelle sciocchezze lo fece con gentilezza ma con fermezza era perfettamente al corrente del fatto che mrs neal appena riceveva il denaro correva a bere qualcosa di forte nella squallida e puzzolente osteria dietro l'angolo tappa inevitabile lungo la via dolorosa della vita della povera donna il commento di mrs verloc su questa faccenda rilevava una profondità non comune considerando che proveniva da persona poco portata a guardare sotto l'apparenza delle cose è naturale che deve fare la poveretta per tirarsi su se fossi al posto di mrs neal suppongo che mi comporterai allo stesso modo nel pomeriggio dello stesso giorno quando mr verloc riscuotendosi all'improvviso dall'ultimo di una lunga serie di sonnellini davanti al caminetto del salotto espresse la sua intenzione di uscire a fare una passeggiata quindi gli gridò dalla bottega vorrei che portasse con voi quel ragazzo adolf per la terza volta quel giorno mr verloc si stupì guardò sua moglie con l'aria di chi non capisce lei continuava a parlare in quel suo modo sereno il ragazzo quando non aveva nulla da fare si trascinava tristemente per la casa la metteva a disagio confessò e la rendeva anche nervosa è una cosa simile detta dalla calma Winnie poteva suonare come un'esagerazione ma Stevi si trascinava davvero in giro nel modo tipico di una bestiola domestica infelice saliva sul pianerottolo scuro per sedersi ai piedi dell'alto orologio a pendolo con le ginocchia rannicchiate contro il petto e la testa tra le mani trovarsi dinanzi quel volto con quei grandi occhi che brillavano nell'ombra la turbava pensare a lui che se ne stava lassù la metteva a disagio Mr. Verlock si adeguò subito alla sorprendente novità dell'idea si sentiva legato a sua moglie come ogni uomo dovrebbe esserlo ossia con generosità ma un'odizione importante gli si presentò spontanea e si affrettò a tradurla in parole magari rimarrà indietro e si perderà per la strada Mrs. Verlock scosse la testa con competenza non succederà non lo conoscete quel ragazzo vi adora davvero ma se doveste perderlo Mrs. Verlock si fermò per un momento ma solo per un momento andate tranquillo a fare la vostra passeggiata lui starà benissimo tornerà certamente qui sano e salvo in breve tempo un ottimismo questo che offria a Mr. Verlock l'occasione per stupirsi per la quarta volta nella giornata davvero pronto l'ho dubbioso ma forse suo cognato non era così idiota come sembrava sua moglie sapeva bene quel che faceva volse altrove gli occhi bovini dicendo cupo va bene fallo venire allora ricadde di nuovo subito dopo sotto gli artigli della più nera angoscia un'angoscia che forse preferisce sedere dietro a chi va a cavallo ma si adatta anche a stare alle calcagna di chi per mantenere un cavallo non ha i mezzi come Mr. Verlock per esempio quindi sulla porta della bottega non poteva vedere questa presenza fatale che accompagnava nelle sue passeggiate Mr. Verlock guardava le due figure che si avviavano lungo la strada squallida un'alta e robusta l'altra meno alta e slanciata con la nuca sottile e le spalle magre leggermente tirate su sotto le orecchie grandi e trasparenti la stoffa con cui erano tagliati i soprabiti era la stessa uguali i berretti neri e rotondi di foggia e ispirata da questa somiglianza dei loro indumenti Mrs. Verlock lasciò lavorare la fantasia potrebbero essere padre e figlio si disse pensò anche che Mr. Verlock era l'unico padre che Stevi avesse mai avuto dopo tutto era consapevole pure di come tutto ciò fosse stato completamente opera sua e serenamente si congratulò con se stessa per una certa decisione che aveva preso a suo tempo qualche anno prima era costato un certo sforzo e anche qualche lacrima e ancor più si congratulò con se stessa quando con il passare dei giorni parve che Mr. Verlock si fosse amabilmente adattato alla compagnia di Stevi ora quando era pronto per uscire per la sua passeggiata Mr. Verlock chiamava il ragazzo forte con l'aria bisognava metterlo con cui un uomo cerca la compagnia del proprio cane e tuttavia anche con qualcosa di diverso in casa capitava spesso di vedere Mr. Verlock fissare Stevi lungamente e con una certa curiosità anche il suo contegno era cambiato tacciturno come sempre ma meno apatico Mrs. Verlock lo trovava un po' nervoso a volte ma dopo tutto ciò poteva anche essere considerato un progresso quanto a Stevi non rimaneva più a entristire ai piedi dell'orologio a pendolo piuttosto lo si trovava a borbottare in tono minazzoso tutto solo negli angoli di casa e quando gli si chiedeva cos'è che stai dicendo Stevi semplicemente apriva la bocca e storceva gli occhi verso la sorella capitava di vederlo stringere i pugni senza motivo apparente e di scoprirlo che se la prendeva tutto solo con il muro e intanto il foglio di carta e il lapis per tracciare i circoli giacevano oziosi e inutili sul tavolo della cucina era un cambiamento ma non certo un progresso Mrs. Verloc che dava a tutte queste stranezze la definizione un po' generica di eccitazione cominciò a temere che Stevi ascoltasse più del dovuto le conversazioni di suo marito con gli amici durante le sue passezzate naturalmente Mr. Verloc incontrava e parlava con molte persone non poteva essere diversamente le sue uscite erano parte integrante dell'attività che svolgeva fuori casa attività sulle quali sua moglie sarà guardata bene dall'indagare Mr. Verloc sentiva che la questione era dedicata ma l'affrontava con la stessa calma impenetrabile che tanto impressionava e stupiva anche i clienti del negozio e teneva a distanza un po' perplessi gli altri visitatori no temeva veramente che ci fossero cose che a Stevi non faceva bene a ascoltare e lo disse al marito eccitavano il povero ragazzo perché egli non poteva far nulla per cambiarle nessuno poteva del resto stavano parlando nella bottega Mr. Verloc non fece commenti non fece repliche anche se vi era una replica ovvia ma egli si trattenne dal far osservare a sua moglie che l'idea di fare di Stevi il compagno delle sue passeggiate era stata di lei e di nessun altro in quel momento a un osservatore imparziale Mr. Verloc sarebbe apparso più che umano nella sua generosità prese da uno scaffale una scatoletta di cartone vedete un'occhiata per verificarne il contenuto e la posò con delicatezza sul banco solo allora ruppe il silenzio e suggerì che con ogni probabilità sarebbe stato di gran giovamento per Stevi essere mandato fuori città per un po' di tempo solo che temeva che sua moglie non avrebbe potuto fare a meno di lui non potrei fare a meno di lui ripete Mrs. Verloc lentamente non poter fare a meno di lui se si trattava del suo bene che idea certo che posso fare a meno di lui ma non c'è nessun posto dove mandarlo Mr. Verloc tirò fuori della carta marrone un gomitolo di spago e intanto borbottava che Michaelis viveva in una villetta in campagna Michaelis non avrebbe avuto obiezioni a dare una stanza a Stevi per dormire non c'erano estranei in visita da quelle parti niente discorsi Michaelis stava scrivendo un libro Mr. Verloc dichiarò il suo affetto per Michaelis perché Calriunt invece non aveva simpatia quel vecchio odioso di Ossipon non disse nulla quanto a Stevi non avrebbe potuto che essere molto contento Mr. Michaelis si era sempre mostrato molto buono e gentile con lui sembrava avere simpatia per il ragazzo beh il ragazzo era un bravo ragazzo anche voi ci siete molto affezionato in questi ultimi tempi aggiunse dopo una breve pausa con l'aria di inflessibile sicurezza che le era propria Mr. Verloc che stava legando una scatola di cartone per farne un pacco postale ruppe lo spago con uno scatto improvviso e farfugliò tra sé una sequela di imprecazioni poi alzando il tono fino al normale borbottio cupo di ogni giorno annunciò la sua volontà di portare lui stesso Stevi in campagna e di sistemarlo con Michaelis portò avanti il programma proprio il giorno successivo Stevi non fece obiezioni anzi sembrava ansioso di andare anche se sempre in quel suo modo un po' frastornato di tanto in tanto e soprattutto quando la sorella non lo guardava volgeva il volto cupo di Mr. Verloc uno sguardo innocente e interrogativo aveva un'espressione fiera ansiosa e concentrata simile a quella di un bimbo piccolo cui per la prima volta sia stata affidata una scatola di fiammiferi dandogli il permesso di accenderne uno ma Mrs. Verloc era soddisfatta della docilità del fratello e gli raccomandò di non sporcarsi troppo i vestiti in campagna al che Stevi rivolse alla sua custode protettrice e sorella uno sguardo che per la prima volta nella sua vita aveva perso la qualità della perfetta innocenza di un bimbo era uno sguardo sprezzante ed altero Mrs. Verloc sorrise santo cielo non c'è bisogno che ti offenda lo sai come ti riduci quando ne hai l'occasione Stevi Mrs. Verloc si era già avviata con loro per un tratto di strada così a seguito dell'eroico comportamento di sua madre e dell'assenza del fratello in villeggiatura Mrs. Verloc si trovò più spesso del solito sola e non soltanto nel negozio ma anche in casa Mr. Verloc doveva fare le sue passeggiate e il giorno dell'attentato di Lemitardo a Greenwich Park era rimasta sola più a lungo del solito Mr. Verloc infatti era uscito molto presto quella mattina e non era tornato che quasi a buio non gli dispiaceva di rimanere sola non desiderava uscire il tempo era pessimo e la bottega era certo più accogliente della strada seduta dietro il banco con un lavoro di cucito non alzò gli occhi dal lavoro quando Mr. Verloc rientrò accompagnato dal suono aggressivo della campanella aveva riconosciuto il passo di lui già sul selciato fuori dalla porta non sollevò gli occhi ma si limitò a chiedere con tono tranquillo a Mr. Verloc che in silenzio e con il cappello ben calzato sulla fronte si dirigeva verso la porta del salottino che giornata terribile per caso siete stato a vedere Stevi? no non ci sono stato rispose a voce bassa Mr. Verloc sbattendosi la porta a vetri alle spalle con più energie del solito per un po' mrs. Verloc non si mosse e rimase ferma con il lavoro abbandonato in grembo finché non si decise a riporlo sotto il banco e ad alzarsi per accendere le luci a gas fatto questo si diresse in cucina passando per il salotto Mr. Verloc avrebbe avuto certamente bisogno subito di una tazza di tè quindi era una donna sicura di sé e del suo fascino non si aspettava del suo marito nei rapporti quotidiani della loro vita matrimoniale piacevolezze cerimoniose o particolare cortesia di modi forme vane e antiquate in ogni caso forse mai veramente rispettate e trascurate oggigiorno anche nelle più alte sfere e che comunque erano estrane alle abitudini della sua classe ma lui era un buon partito e lei aveva un leale rispetto per i suoi diritti e si svarlo che stava dunque attraversando il salottino per accingersi alle sue faccende in cucina con la perfetta serenità di una donna sicura di sé ma un suono ripetuto leggero molto leggero e rapido colpì il suo udito la sua attenzione fu attratta dalla stranezza e dall'inspiegabilità di quel rumore ed ecco che appena ne comprese l'origine si fermò di colpo sorpresa e preoccupata strofinò il fiammifero sulla scatola che teneva in mano girò la chiavetta e accese uno dei due lumi a gas sul tavolo del salotto era un lume difettoso e subito partì con un fischio come di stupore per poi continuare con un suono simile a quello di un gattino che fa le fusa contento mister Verloc contrariamente alle sue abitudini si era elevato di dosso il soprabito dettandolo sul divano il cappello già tolto prima giaceva rovesciato sul bordo aveva trascinato una sedia davanti al caminetto infilato i piedi sotto la grata del parafuoco e con la testa tra le mani stava tutto curvo e proteso verso la griglia incandescente i suoi denti battevano con incontrollabile violenza facendo sì che tutta l'enorme schiena di lui tremasse allo stesso ritmo mrs Verloc si spaventò vi siete bagnato non molto riuscì a far fugliare mr Verloc con un brivido che gli veniva dal profondo con uno sforzo supremo riuscì a smettere di battere i denti dovrò aiutarvi a mettervi a letto disse lei sinceramente preoccupata non credo proprio replicò mr Verloc cupo tirando su col naso certo che in un modo o nell'altro era riuscito a prendersi un raffreddore terribile tra le sette del mattino e le cinque del pomeriggio mrs Verloc si fermò a guardare quella schiena curva dove siete stato oggi chiese in nessun posto il tono di voce era basso e soffocato a vederlo non si capiva se avesse problemi seri o un forte mal di testa nel silenzio inerte di quella stanza l'inadeguatezza e mancanza di sincerità della risposta divenne penosamente evidente tirò su col naso come scusandosi e aggiunse sono stato in banca mrs Verloc si fece attenta davvero chiese freddamente e per qual motivo mr Verloc borbottò chiaramente contro voglia con il naso sempre sulla grata per prelevare il denaro che volete dire tutto sì tutto mrs Verloc tese con cura la tovaglia che arrivava appena sul tavolo tira fuori dal cassetto due coltelli e due forchette e tutto a un tratto interruppe la metodica routine dei gesti per quale motivo l'avete fatto può darsi il caso che ne abbia bisogno presto fu la risposta un po' vaga e pronunciata con voce nasale da mr Verloc con il tono di voler por fine a quelle caute indiscrezioni non capisco cosa vogliate dire gli fece notare la moglie con un tono del tutto casuale ma rimanendo ferma immobile come una statua tra il tavolo e la credenza sapete che potete fidarvi di me mr Verloc si rivolgeva alla grata e la sua voce aveva un timbro rocco di risentimento mr Verloc si volse lentamente verso la credenza esclamando decisa oh sì che posso fidarmi di voi e riprese la routine dei gesti mise a tavola due piatti prese il pane e il burro andando tranquillamente avanti e indietro tra il tavolo e la credenza nella pace e nel silenzio della casa al momento di prendere la marmellata riflette in senso pratico avrà fame dopo essere stato fuori tutto il giorno e di nuovo tornò alla credenza per prendere il vitello freddo lo sistemò sotto il becco a gas che faceva le fusa e guardando con la coda dell'occhio il marito che immobile continuava ad abbrazzarsi al fuoco si diresse scese due scalini in cucina fu solo tornando con il coltello per l'arrosto e il forchettone in mano che parlò di nuovo se non mi fossi fidata non vi avrei sposato chi no sotto la mensola del caminetto mister Verlock la testa tra le mani sembrava essersi addormentato poi ne fece il tè e chiamò sotto voce Adolf mister Verlock si alzò di scatto e barcollò leggermente prima di sedersi a tavola sua moglie dopo aver esaminato il bordo affilato del coltello dell'arrosto lo pose sul piatto e richiamò l'attenzione di lui al vitello freddo ma l'uomo il mento sul petto rimase insensibile al suggerimento dovreste mangiare per il raffreddore disse mister Verlock categorica lui alzò lo sguardo e scosse la testa aveva gli occhi iniettati di sangue e la faccia rossa tormentandoli con le dita aveva ridotto i capelli in un disordine selvaggio ma anche il resto della sua persona aveva un aspetto sconveniente un aspetto che tradiva lo sconforto l'irritazione e l'abbattimento completo che segue a un'orgia scatenata ma mister Verlock non era un libertino la sua condotta era corretta e rispettabile e l'aspetto che aveva in quel momento avrebbe ben potuto essere interpretato come il risultato di un raffreddore febbrile beve tre tazze di tè ma si astenne completamente dal cibo se ne ritrasse con profonda avversione quando mister Verlock insistè perché si servisse avete i piedi bagnati è meglio che vi mettiate le pantofole certo non uscite più per stasera disse lei alla fine mister Verlock fece intendere con grugniti imbronciati e con gesti che non aveva i piedi bagnati e che in ogni caso non gliene importava ma quanto all'uscire di nuovo quella sera era cosa del tutto da vedere non era comunque a uscire di nuovo che mister Verlock stava pensando in quel momento i suoi pensieri comprendevano uno schema più vasto ed ecco che da affermazioni disparate incomplete venne fuori che mister Verlock stava niente meno che prendendo in considerazione l'opportunità di emigrare all'estero non era chiaro se avesse in mente la Francia o la California la completa inattendibilità improbabilità e inimmaginabilità di un simile evento privò di ogni effetto questa dichiarazione del resto vaga e con tutta tranquillità quasi il marito avesse minacciato la fine imminente del mondo Mrs. Verlock esclamò che idea ma mister Verlock andava avanti dicendo di essere stanco e stufo di tutto e inoltre lei lo interruppe avete un brutto raffreddore in effetti non ci voleva molto a vedere che mister Verlock non era nel suo solito stato d'animo né fisicamente né mentalmente un'incertezza dolente lo tenne per un po' silenzioso poi borbottò qualche banalità generica e disastrosa sul tema della necessità necessità ripete Winnie rimanendo seduta calma con le braccia conserte di fronte al marito mi piacerebbe sapere che vi costringe non siete uno schiavo nessuno è costretto a fare lo schiavo in questo paese e voi non dovete diventarlo si fermò e con un candore davvero insuperabile gli affari non vanno così male e continuò avete una casa comoda percorse con un'occhiata al salotto dall'angolo dove era sistemata la credenza fino al fuoco che scoppiettava allegro al di là della grata ben sistemata dietro il negozietto di merci ambigue dalla vetrina un po' misteriosa illuminata appena e la porta sospettosamente socchiusa sulla via stretta e buia era una casa di tutto rispetto completa di tutto ciò che è essenziale al decoro e alle comodità di ogni giorno e l'effetto profondo che sentiva vivo dentro di sé più che mai le faceva sentire la mancanza del fratello Stevi che in quel momento si godeva la sua villeggiatura umida lungo i vattoli boscosi del Kent sotto la supervisione di mister Michaelis gli mancava in modo doloroso con tutta la forza del suo appassionato senso di protezione questa era anche la casa del ragazzo il tetto la credenza e la grata accesa a questo pensiero Mrs. Verlock si alzò e andando all'altro estremo della tavola parlò con il cuore pieno non è che vi siete stancato di me Mr. Verlock non si mosse Winnie appoggiata alla schiena di lui si sporse da dietro e gli posò le labbra sulla fronte indugiò un poco in questo gesto non un sussurro giungeva dal mondo esterno suoni di passi sul celciato svanivano nell'oscurità discreta del negozio solo il lume a gas sopra la tavola continuava a fare le fuse imperterrito nel silenzio che incombeva nel salotto per tutta la durata di quel bacio lungo e inatteso Mr. Verlock si tenne con tutte e due le mani ai bordi della seggiola conservando un'immobilità ieratica ma quando infine il contatto si interruppe si levò e spingendo via la sedia attese in piedi davanti al caminetto ma ora non volgeva più le spalle alla stanza con i tratti del viso gonfi e con l'aria di un uomo quasi narcotizzato seguiva con gli occhi i movimenti della moglie Mrs. Verlock andava avanti e indietro tranquillamente sparecchiando la tavola la sua voce pacata andava commentando in tono ragionevole e domestico l'idea lanciata poco prima la proposta non reggeva ad un attento esame lei la disapprovava sotto ogni punto di vista in realtà sua unica vera preoccupazione era il bene di Stevi e gli appariva ai suoi occhi troppo particolare per essere trapiantato così improvvisamente all'estero e questo fu tutto ma al momento di parlare di un punto tanto vitale ella affrontava l'argomento con disperata vehemenza e intanto con movimenti bruschi si infilava un grembiule per lavare le tazze e quasi eccitata dal suono della propria voce non contraddetta giunse ad affermare in tono alquanto aspro se ve ne andate all'estero dovrete andarvene senza di me sapete bene che non lo farei disse Mr. Verloc cupo e il tono di voce basso che usava per la sua vita privata tremò questa volta in una vena di enigmatica emozione Mrs. Verloc era già pentita delle sue parole erano suonate più sgradevoli di quanto avrebbe voluto e oltretutto avevano la stoltezza delle cose inutili in realtà non aveva intenzione di dire quello che aveva detto era stata una frase suggerita dal demone di un'ispirazione perversa tuttavia ella conosceva un modo per rimediare volse la testa al di sopra della spalla e lanciò con i suoi grandi occhi a quell'uomo saldamente piantato davanti al focolare uno sguardo tra il malizioso e il crudele un'occhiata di cui la guinni della casa di Belgravia non sarebbe stata capace in parte perché era troppo onesta in parte perché era ingenua ma quell'uomo era suo marito ora né lei era più un'ingenua mantenne quello sguardo fisso su di lui per qualche secondo il volto serio e immobile come una maschera e intanto diceva scherzosa non potreste vi mancherai troppo mister Verlock si lanciò verso di lei proprio esclamò forte tendendo in avanti le brazza e facendo un passo verso di lei a chi lo avesse guardato in quel momento tuttavia qualcosa della sua espressione di violento e di ambiguo insieme avrebbe potuto far nascere il dubbio se stesse per strangolare sua moglie o per stringersela al petto ma l'attenzione di Mrs. Verlock fu distolta dal vociare del campanello di bottega la bottega Adolf andate si fermò e lentamente lasciò cadere le braccia andate ripete Mrs. Verlock io ho il grembiule Mr. Verlock obbedì rigido con gli occhi impietriti simile a un automa con la faccia dipinta di rosso e questa somiglianza a un'immagine meccanica giungeva fino al punto da conferirgli l'aria assurda di un automa consapevole del congegno che portava in petto chiuse la porta del salotto e Mrs. Verlock muovendosi a scatti portò il vassoio in cucina lavò le tazze e altre piccole cose poi si interruppe per ascoltare non sentiva il consuono sembrava che il cliente si fermasse a lungo in bottega ed era certamente un cliente perché se così non fosse stato Mr. Verlock lo avrebbe fatto accomodare dentro sciolse decisa il nastro del grembiule e lo gettò su una sedia e tornò lentamente in salotto in quell'istante preciso Mr. Verlock rientrava era entrato nella bottega rosso in viso e ne usciva ora bianco come un foglio di carta il volto aveva perso quell'aria di stupore febbrile e instupidito e in pochi minuti aveva acquistato un'espressione sconvolta e tormentata andò diretto al sofà e rimase a guardare il sopravvito quasi avesse paura di toccarlo che c'è chiese Mrs. Verlock con voce sommessa dalla porta socchiusa riusciva a vedere che il cliente non se n'era ancora andato penso che dovrò uscire questa sera disse Mr. Verlock non tentò nemmeno di raccogliere il sopravvito senza una parola Winnie si diresse verso la bottega e chiudando la porta dietro di sé si infilò dietro il banco non guardò in faccia il cliente finché non si fu comodamente sistemata sulla sedia nel frattempo aveva fatto in tempo a notare che era alto e magro e portava i baffi arricciati verso l'alto anzi se li stava arricciando proprio in quel momento dal davvero rialzato spuntava una lunga faccia ossuta era un po' insaccherato un po' bagnato un uomo bruno di capelli con gli zigomi ben delicati sotto le tempi appena incavate assolutamente sconosciuto e non era nemmeno un cliente mrs. verloc lo guardò tranquilla venne dal continente chiese dopo qualche secondo lo sconosciuto alto e magro senza guardare esattamente in volto mrs. verloc rispose solo con un debole sorriso di circostanza capite l'inglese non è vero oh sì capisco l'inglese non c'era accento straniero nel suo modo di parlare se non per il fatto che sembrava far fatica in quel suo lento esprimersi del resto mrs. verloc nelle sue molteplici passate esperienze era già arrivata alla conclusione che c'erano degli stranieri capaci di parlare un inglese migliore dei nativi guardando fissamente la porta del salotto disse ha intenzione di fermarsi in inghilterra lo straniero le rivolse un sorriso silenzioso la linea delle labbra era gradevole a guardarsi e gli occhi pensosi le sembrò che scuotesse un po' tristemente la testa mio marito penserà a trovarvi una buona sistemazione nel frattempo per pochi giorni non potreste far nulla di meglio che alloggiare con Mr. Giuliani si chiama Continental Hotel tranquillo silenzioso vi ci porterà mio marito una buona idea disse l'uomo bruno e magro e intanto il suo sguardo sembrava essersi improvvisamente indurito lei già conosceva Mr. Verlook prima non è vero forse in Francia avevo sentito parlare di lui ammise il visitatore con quell'inflessione lenta e faticosa che tuttavia aveva una certa asprezza nelle intenzioni ci fu una pausa poi lui parlò di nuovo e in modo di gran lunga meno elaborato per caso vostro marito è andato ad aspettarmi in strada in strada ripete Mrs. Verlook sorpresa non avrebbe potuto non c'è altra porta d'uscita per un momento la sedetta impassibile poi lasciò il suo posto per andare a sbirciare attraverso la porta a vetri un tratto l'aprì e scomparve nel salottino Mr. Verlook non aveva fatto nulla di più che mettersi il sopravvito ma perché poi rimanesse appoggiato sul tavolo puntandosi con ambedue le brazze come se gli girasse la testa o si sentisse male ella non riusciva a capire Adolf chiamò a voce alta e quando lui si fu levato conoscete quell'uomo chiese in fretta ne ho sentito parlare sussurrò Mr. Verlook con imbarazzo lanciando verso la porta un'occhiata selvaggia nei begli occhi di Mrs. Verlook privi di curiosità brillò un lampo di odio uno degli amici di Carl Hundt vecchio disgustoso no no protestò Mr. Verlook occupato a recuperare il cappello ma quando lo prese da sotto il sofà lo tenne in mano come se non sapesse cosa farne bene vi aspetta disse finalmente Mrs. Verlook dico Adolf non è per caso uno di quelli dell'ambasciata che vi hanno procurato guai ultimamente guai con gente dell'ambasciata ripete Mr. Verlook con uno scatto violento di sorpresa e di paura chi vi ha parlato della gente dell'ambasciata voi stesso io io vi avrei parlato dell'ambasciata Mr. Verlook appariva stravolto e spaventato al di là di ogni limite è un po' di tempo che parlate ogni tanto nel sonno Adolf cosa cosa ho detto cosa sapete non un granché sembravano per lo più cose prive di senso abbastanza per lasciarmi capire che qualcosa vi preoccupava Mr. Verlook si ficcò in testa il cappello un'ondata di rascarlatta gli copriva il volto cose prive di senso eh quelli dell'ambasciata li farei a pezzi tutti uno dopo l'altro ma che stiano in guardia posso sempre parlare era fuori di sé mentre misurava la stanza a grandi passi in su e in giù dal sofà al tavolo e viceversa con il sopravito aperto che spazzava gli spigoli dei mobili poi il rossore dell'ira scemo per lasciare al suo posto un volto imbiancato dalle narici tremanti Mrs. Verlook che sempre cercava di non perdere di vista gli aspetti pratici dell'esistenza attribui questi fenomeni al freddo allora disse liberatevi di quest'uomo chiunque esso sia prima che potete e tornate a casa da me avete bisogno di essere curato per un giorno o due Mr. Verlook si calmò e con la decisione dipinta sul viso pallido aveva già aperto la porta quando la moglie lo richiamò indietro con un sussurro Adolf Adolf lui si volse spaventato che ne avete fatto del denaro preso dalla banca chiese ce l'avete ancora in tasca non fareste meglio Mr. Verlook contemplò con aria inebetita la palma della mano tesa di sua moglie prima di battersi la fronte il denaro si si non capivo cosa voleste dire trasse dalla tasca del panciotto un borsellino nuovo di pelle di cinghiale disse Sverlook lo prese senza una parola e non si mosse finché non di spegnersi il suono della campanella che vociava dietro a Mr. Verlook e al suo visitatore solo allora sbirciò la somma tirando fuori le banconote dopo questa ispezione si guardò intorno perplessa con aria di sfiducia nel silenzio e nella solitudine della casa quel luogo dove ella viveva la sua esistenza di moglie e appariva altrettanto solitario e insicuro che se si fosse trovato in mezzo a una foresta non riusciva a pensare ad alcun nascondiglio tra la mobilia pesante e solida che non le apparisse fragile e particolarmente invitante per un eventuale scassinatore almeno secondo il concetto che aveva lei di questo personaggio concetto ideale di un essere dotato di facoltà sublimi e di miracoloso acume il cassetto non era neanche da prendere in considerazione era il primo posto in cui un ladro avrebbe pensato alla fine mister verlo che slacciò frettolosamente un paio di ganzi e fece scivolare il borsello sotto il corpetto del vestito avendo così provveduto al capitale del marito fu quasi contenta di udire il vocio della campanella che annunciava l'arrivo di qualcuno indossò lo sguardo deciso e un po' sfrontato e l'espressione impassibile riservata ai clienti di passaggio e si avviò dietro il banco un uomo fermo nel mezzo della bottega stava guardandosi intorno con uno sguardo rapido e distaccato gli occhi vagavano sulle pareti si attaccavano al soffitto e prendevano nota del pavimento tutto in un solo momento le punte di baffi lunghi e biondi ricadevano al di sotto della linea della macella sorrideva con il sorriso di una vecchia anche se lontana conoscenza e Mrs. Sherlock si ricordava di averlo già visto prima non era un cliente addolcì lo sguardo per i clienti a semplice indifferenza e lo affrontò dall'altra parte del banco e gli si avvicinò a sua volta con un atteggiamento moderatamente amichevole suo marito è in casa Mrs. Sherlock e la sua voce era squillante e disinvolta no è uscito mi dispiace sono venuto a trovarlo per avere da lui una piccola informazione privata questa era l'esatta verità l'ispettore capo kit era arrivato fino a casa anzi era arrivato fino al punto di mettersi in pantofole dal momento che praticamente era stato andava dicendosi licenziato da quel caso si era lasciato andare a qualche considerazione cinica e a un certo numero di riflessioni risentite ma aveva trovato l'occupazione così poco soddisfacente che si era deciso a trovare il sollievo fuori in strada niente gli impediva di fare una visita amichevole a Mrs. Verloc in modo del tutto non ufficiale nulla impediva che un privato cittadino in giro per motivi privati ricorresse ai percorsi abituali e questi percorsi passavano per la casa di Mr. Verloc e l'ispettore capo kit rispettò il carattere privato dei suoi movimenti in modo così completo da prendersi particolarmente cura di evitare tutti gli agenti di polizia di turno da soli e in pattuglia nei dintorni di Brett Street una simile precauzione era molto più necessaria per un uomo della sua posizione che non per un oscuro vicecommissario fu così che il privato cittadino Heath entrò nella strada manovrando in un modo che a proposito di un membro delle classi criminali sarebbe stato stigmatizzato come furtivo aveva in tasca il pezzo di stoffa raccolto a Greenwich non che avesse la minima intenzione di produrlo nella sua qualità di privato al contrario voleva sapere solo quello che Mr. Verlock era disposto a dire spontaneamente sperava che i discorsi di Mr. Verlock avrebbero potuto offrire motivo di incriminare Michaelis tutto sommato si trattava di una speranza coscienziosamente professionale ma non priva di un certo valore morale perché l'ispettore capo Heath era un servitore della giustizia scoprendo che Mr. Verlock non era in casa rimase deluso lo aspetterei per un po' se fossi sicuro che non starà via per molto disse Mrs. Verlock non prometteva nulla al riguardo l'informazione di cui ho bisogno è riservatissima ripete lei comprende quello che dico mi chiedo se lei potrebbe darmi un'idea su dove è andato mi si spero che scosse la testa non saprei si volse per sistemare delle scatole sullo scaffale dietro il banco l'ispettore capo Heath la guardò pensieroso per un po' suppongo sappiate chi sono mi si spero che gli gettò un'occhiata volgendogli si appena l'ispettore capo Heath era stupito della sua freddezza andiamo sapete bene che sono nella polizia disse brusco non sto a rompermi la testa su queste cose e Mrs. Verlock tornò a sistemare le scatole il mio nome è Heath ispettore capo Heath della squadra crimini speciali Mrs. Verlock sistemò abilmente al proprio posto una piccola scatola di cartone e girandosi lo affrontò gli occhi seri e le mani oziose abbandonate lungo i fianchi regnò silenzio per qualche secondo così vostro marito è uscito da un quarto d'ora e non ha detto quando sarebbe tornato non è uscito da solo e sfuggì imprudentemente un amico Mrs. Verlock si passò la mano sulla nuca per controllare la pettinatura era in perfetto ordine uno sconosciuto che era venuto qui vedo che tipo era questo sconosciuto vi dispiacerebbe ed escrivermelo a Mrs. Verlock non dispiaceva e quando l'ispettore capo Heath udì di un uomo magro alto e con un volto lungo e baffi arricciati verso l'alto diede segni di turbamento ed esclamò maledizione lo sapevo non ha perso tempo era profondamente disgustato nell'intimo di fronte alla condotta scorretta del suo capo ma non era portato a comportamenti cavallereschi perse ogni desiderio di aspettare il ritorno di Mr. Verlock perché fossero usciti non lo sapeva ma immaginava che probabilmente sarebbero tornati insieme il caso non era stato seguito regolarmente era stato manomesso pensò amaramente ho paura di non avere il tempo di aspettare vostro marito Mrs. Verlock accolse questa dichiarazione con indifferenza il suo distacco aveva colpito l'ispettore capo Hit sin dall'inizio ma in quell'istante stimolò la sua curiosità l'ispettore capo Hit rimase per un attimo sospeso soggetto all'impulso del momento come il più privato dei cittadini credo disse guardando la donna dritto in volto che potreste darmi un bel po' di informazioni se voleste su quanto sta accadendo forzando quegli occhi belli e indifferenti a guardarlo a loro volta ottenne che Mrs. Verlock mormorasse infine quanto sta accadendo che cosa sta accadendo ebbene la faccenda della quale sono venuto a parlare con vostro marito quel giorno Mrs. Verlock aveva dato un'occhiata come al solito al giornale del mattino ma non si era mossa di casa i ragazzi che vendevano i giornali non si spingevano mai in Black Street non era una strada adatta ai loro affari e l'eco dei loro richiami andando alla deriva tra i popolosi quartieri si spegneva tra le vecchie mure di mattoni rossi senza raggiungere la soglia del negozio suo marito non aveva portato il giornale della sera a casa in ogni caso lei non l'aveva visto Mrs. Verlock non sapeva nulla di nulla su qualsiasi faccenda e lo disse con una genuina nota di stupore nella voce tranquilla l'ispettore capo Heath per un momento non credette a tanta ignoranza brusco senza alcuna cortesia le spiattellò crudamente il fatto Mrs. Verlock distolse gli occhi la considero una cosa sciocca sillabò con lentezza poi dopo una pausa non siamo schiavi oppressi da queste parti l'ispettore capo Heath aspettò pronto ma non venne altro e suo marito non le ha parlato di nulla al suo ritorno a casa mi si sverlo che semplicemente volse la testa da destra a sinistra in segno di diniego un silenzio languido e ingannatore regnava nel negozio l'ispettore capo Heath si sentì provocato al di là di ogni sopportazione c'è un'altra piccola cosa della quale volevo parlare a suo marito è giunto in nostro possesso un un noi crediamo che sia un sopravvito rubato Mrs. Verlock con la mente particolarmente sensibile ai ladri quella sera si toccò istintivamente il corpetto del vestito non abbiamo perso alcun sopravvito disse con calma è strano continuò il privato cittadino Heath vedo che tenete una bella provvista di inchiostro indelebile a disposizione preso una boccetta e la guardò contro il lume a gas nel mezzo della bottega rosso non è vero? notò rimettendola a posto come dicevo è strano perché il sopravvito in questione ha un'etichetta cucita all'interno con l'indirizzo scritto in inchiostro indelebile Mrs. Verlock si sporse sul banco con un'esclamazione soffocata è di mio fratello? allora dov'è il suo fratello? posso vederlo? chiese l'ispettore capo bruscamente Mrs. Verlock si sporse ancora di più sul banco no non è qui ho scritto io l'etichetta dov'è il vostro fratello allora? è via abita con un un amico in campagna il sopravvito viene dalla campagna e come si chiama l'amico? Michaelis confessò Mrs. Verlock con un sussurro spaventato l'ispettore capo lasciò sfuggire un fischio sbatte le palpebre con forza proprio così esatto e vostro fratello ora? che aspetto ha? un tipo bruno e robusto eh? oh no e scremò Mrs. Verlock con fervore questo deve essere il ladro stevi era biondo e magro bene disse l'ispettore capo con tono di approvazione e mentre Mrs. Verlock in certa tra l'ansia e lo sbigottimento lo fissava lui cercò ancora qualche informazione perché portare l'indirizzo cucito in questo modo dentro il sopravvito e ricordo all'improvviso che i poveri resti maciullati che avevano ispezionato con ripugnanza estrema quella mattina erano quelli di un giovane nervoso distratto un po' strano e ricordo anche che la donna che le stava di fronte aveva allevato il ragazzo sin da quando era un bimbo facilmente eccitabile suggerì oh sì certo ma com'è successo che abbia perso il cappotto l'ispettore capo kit tirò fuori di tasca il foglio rosa di un giornale che aveva comprato meno di mezz'ora prima si interessava ai cavalli l'ispettore costretto dal suo mestiere a un costante atteggiamento sospettoso e diffidente nei confronti dei suoi concittadini l'ispettore capo kit dava sfogo all'istinto della crudelità innato nel cuore umano concedendo fede illimitata ai profeti sportivi di quella particolare pubblicazione della sera lasciò cadere l'edizione speciale sul banco si rimise la mano in tasca e tirando fuori il pezzo di stoffa che gli aveva presentato il destino tra il mucchio di stracce e i resti da mattatoio lo porse a mrs Verloch perché lo esaminasse penso che riconosciate questo lei lo prese meccanicamente con ambedue le mani gli occhi sembravano divenire più grandi man mano che guardava sì sussurrò appena poi levò la testa e vacillando quasi stesse per cadere si ritrasse tremando un poco perché mai è strappato così l'ispettore capo le strappò di mano la stoffa attraverso il banco lei rimaneva ferma immobile sulla sedia identificazione perfetta pensò l'ispettore ed ecco che in quel momento come in un lampo intravide l'intera spaventosa verità l'altro uomo era Verroc Mrs. Verroc disse mi colpisce il fatto che voi sapete di più su questa storia della bomba di quanto voi stessa vi rendiate conto Mrs. Verroc sedeva immobile sbalordita persa in uno sbigottimento infinito che relazione poteva esserci ed ella si irrigidì in tutta la persona al punto che allo strepito della campanella non riuscì a voltare la testa il suono fece invece girare di scatto sui tacchi l'investigatore privato hit Mr. Verroc aveva chiuso la porta e per un momento i due uomini si fronteggiarono Mr. Verroc senza guardare sua moglie avanzò verso l'ispettore capo che da parte sua si sentiva sollevato di vederlo tornare da solo lei qua mormonò Mr. Verroc con voce lugubre chi sta cercando nessuno disse il capo ispettore hit a voce bassa ma aspetta un momento gradirei una parola o due con lei Mr. Verroc ancora pallido aveva però assunto un'aria più decisa evitava tuttavia di posare gli occhi sulla moglie venga pure gli fece strada verso il salotto la porta era stata appena chiusa che Mrs. Verroc palzando su dalla sedia fece per riaprirla ma non lo fece e cadde invece in ginocchio con l'orecchio attaccato al buco della chiave i due uomini dovevano essersi fermati immediatamente al di là della porta e laudiva infatti molto chiaramente la voce dell'ispettore capo sebbene non potesse vederne il dito che puntava enfaticamente sul petto del marito lei e l'altro uomo Verroc due erano gli uomini che sono stati visti entrare nel parco e la voce di Mr. Verroc disse bene mi porti via allora che cosa glielo impedisce ne ha tutto il diritto oh no so anche troppo bene nelle mani di chi è messo la persona a cui penso dovrà vedersela con questa faccenda da solo ma non faccia errori sono io che l'ho scoperto poi lei non udì che mormorì l'ispettore hit stava probabilmente mostrando averlo che il pezzo di cappotto di stevi perché all'orecchio della sorella della tutrice della protettrice di stevi giunse solo la voce del marito un po' più alta non mi ero mai accorto che lei avesse avuto questa bella idea di nuovo per un po' mrs. Verroc non udì che mormorì ma il mistero che li avvolgeva era per la sua mente meno terrorizzante delle atroci implicazioni sottese alle parole formulate poi l'ispettore capo hit dall'altra parte della porta alzò la voce dovete essere diventato pazzo e la voce di mister Verroc che rispondeva con ira disperata sono stato pazzo per un mese e anche più ma non sono pazzo ora è tutto finito verrà tutto fuori e all'inferno tutto il resto seguì il silenzio poi il privato cittadino hit mormorò cosa verrà fuori tutto era di nuovo la voce di mister Verroc che poi si abbassò di nuovo e dopo un poco si alzò ancora mi conoscete da molti anni ormai e vi sono anche tornato utile voi sapete che sono un uomo tutto d'un pezzo sì tutto d'un pezzo questo appello a una vecchia consuetudine dovette risultare per l'ispettore capo particolarmente odioso la sua voce assunse un tono di ammonimento non contate troppo su quanto vi è stato promesso se fossi in voi mi leverai di mezzo non credo che vi correremo dietro si udì mister Verroc ridacchiare oh sì sperate che ci pensino gli altri a farmi fuori per voi non è forse vero no no non vi liberate di me ora sono stato leale a quella gente per troppo tempo e ora deve venire tutto fuori che venga fuori allora fecei con la voce indifferente del capo ispettore kit ma ditemi come avete fatto a dileguarvi stavo andando verso chesterfield walk mrs Verroc sentì la voce di suo marito che raccontava quando ho sentito lo scoppio e allora ho cominciato a correre c'era nebbia non ho visto anima viva fino alla fine di george street non credo proprio di aver incontrato nessuno fino ad allora è stato così facile la voce dell'ispettore capo kit era piena di meraviglia lo scoppio vi ha spaventato eh sì perché era arrivato troppo presto confessò la voce roca e cupa di mr Verroc mrs Verroc spinse l'orecchio contro il buco della serratura aveva le labbra violace e le mani di ghiaccio e il volto pallido dove gli occhi apparivano simili a due nere voragini e sembrava che andasse in fiamme dall'altra parte della porta le voci calarono fino a divenire bassissime riusciva di tanto in tanto a cogliere qualcosa dalla voce del marito o dai toni più chiari dell'ispettore capo o di quest'ultimo dire pensiamo che si è inciampato sulle radici di un albero seguì un borbottio oscuro ed incerto che durò per un po' poi l'ispettore capo come rispondendo a una domanda parlò con enfasi certo saltato in aria ridotto in pezzettini membra ghiaia vestiti ossa schizze tutto mischiato insieme vi dico che hanno dovuto prendere una vanga per recuperarlo tutto da terra mi si sverlo che si levò di colpo e tappandosi le orecchie prese disperatamente a girare su se stessa a correre avanti e indietro dal banco alle mensole attaccate al muro e poi ancora alla sedia i suoi occhi folli notarono il foglio lasciato dall'ispettore capo e andando a sbattere contro il banco se ne impadronì poi crollando sulla sedia finì per strappare in due pezzi mentre tentava di aprirlo quell'ottimista foglio rosa l'abbandonò in terra dall'altra parte della porta l'ispettore capo kit diceva intanto a mister verloc l'agente segreto così la vostra difesa consisterà praticamente in una confessione completa così sarà ho intenzione di raccontare tutto non sarete creduto come sperate e l'ispettore capo rimase pensieroso la piega che stava prendendo questa faccenda voleva dire la fine di molte cose piazza pulita di interi settori di informazioni che coltivate da chi di dovere avevano un valore notevole per l'individuo e la società era uno spiacevole uno spiacevole pasticcio avrebbe lasciato Michaelis intatto avrebbe portato alla luce la piccola industria casalinga del professore disorganizzato tutto il sistema di controllo causato una gran confusione sui giornali che peraltro gli apparivano in uno squarcio di luce improvvisa come invariabilmente scritti da stupidi per essere letti da imbecilli dentro di sé era d'accordo con la risposta all'ultima osservazione di Mr. Verlock forse no ma sconvolgerà molte cose sono stato un uomo tutto ad un pezzo e rimarrò tutto ad un pezzo fino in fondo se ve lo permetteranno disse cinicamente il rispettore capo vi metteranno sotto senza dubbio prima di adossarvi tutta la colpa e alla fine sarete probabilmente incastrato con una condanna che vi sorprenderà non mi fiderai troppo di quel signore che ha parlato con voi Mr. Verlock ascoltava cupo il mio consiglio è di levarvi di mezzo finché potete io non ho ordini nei vostri confronti ci sono alcuni di loro continuò l'ispettore capo Hitt ponendo un accento particolare sulla parola loro che credono voi siate già morto davvero Verlock esclamò sorpreso sebbene dal suo ritorno da Greenwich avesse passato la maggioranza del tempo seduto in una stanzetta di un oscuro locale pubblico difficilmente avrebbe potuto sperare in notizie così favorevoli questa è l'impressione che si è avuta di voi l'ispettore capo annui ancora sparite levatevi di mezzo per andare dove ringhiò mister Verlock alzò la testa e guardando pensoso la porta chiusa del salotto mormorò accorato vorrei solo che mi portaste via stasera me ne andrai senza far chiasso lo credo approvò sarcastico l'ispettore capo seguendo la direzione del suo sguardo la fronte di mister Verlock si coprì di un velo di sudore la voce roca si abbassò ancora cercando comprensione dinanti all'ispettore capo che l'ascoltava gelido il ragazzo era ritardato irresponsabile qualsiasi tribunale se ne sarebbe reso subito conto adatto solo ad essere accolto in un ospizio e questo era quanto poteva accadergli di peggio se l'ispettore capo la mano già sul pomello della porta sussurrò in faccia Verlock lui forse era ritardato ma voi dovete essere stato in pre dalla pazzia che cosa vi ha fatto perdere la testa fino a quel punto mister Verlock pensando a mister Vladimir non ebbe esitazioni sulla scelta dei termini un porco iperboreo sibilò con forza uno che voi chiamereste probabilmente un gentiluomo l'ispettore capo serio abbassò la testa dimostrando di aver capito e aprì la porta mrs Verlock dietro il banco seppure sentì non vide la sua pertenza seguita immediatamente dall'aggressivo vociare della campanella la donna sedeva al suo posto di lavoro dietro il banco sedeva rigida con la schiena retta i due pezzi sporchi di carta rosa e sporca piacevano per terra ai suoi piedi teneva le palme delle mani premute convulsamente sul volto le palme delle dita contratte sulla fronte quasi la pelle fosse stata una maschera che ella era pronta a strapparsi con violenza l'immobilità perfetta di quell'atteggiamento rendeva il senso di un turbamento rabbioso e disperato di una violenza potenziale di passioni tragiche assai più di quanto avrebbe potuto fare qualsiasi inutile esibizione di urla o lo spettacolo della sua povera testa impazzita che sbattesse contro le pareti l'ispettore capo Heath attraversando la bottega con il suo passo elastico e deciso le lanciò solo uno sguardo superficiale e quando la campanella fessa smise di agitarsi dal suo filo di acciaio ricurvo nulla più si mosse attorno a mrs Verlock come se il suo atteggiamento avesse il potere incatenante di un incantesimo persino le fiammelle a gas che come farfalline si posavano gli estremi del trespolo a t del lume sospeso bruciavano senza un tremito in quel negozio di merci misteriose arredato con scaffali da bottega dipinti marrone scuro che sembravano divorare ogni chiarore il cerchietto d'oro della fede alla mano sinistra di mrs Verlock brillava in modo sproporzionato esso sembrava insignito della gloria senza macchia di un esemplare che dai gioielli di qualche splendido tesoro fosse finito in un secchio della spazzatura capitolo decimo il vice commissario rapidamente trasportato su di una vettura dai dintorni di Soho in direzione di Westminster atterrò proprio nel mezzo di quell'impero dove il sole non tramonta mai alcuni agenti terchiati che non sembravano particolarmente emozionati dal compito di sorveglianza dell'augusto luogo lo salutarono mentre penetrava da uno dei portali meno importanti nell'atrio della residenza del Parlamento la residenza par excellence nell'idea di milioni di uomini gli venne incontro all'ultimo momento lo suolazzante rivoluzionario Tudl azimato e bel giovanotto ce l'ho il proprio stupore per l'arrivo anticipato del vice commissario che gli avevano detto di attendere intorno alla mezzanotte la sua comparsa così sollecita ne dedusse doveva essere il segno che le cose quali che fossero non erano andate per il loro verso con la solidarietà immediata che nei ragazzotti simpatici si accompagna spesso alla giovialità del carattere egli era pronto a dispiacersi per la gran presenza che chiamava il capo e anche per il vice commissario il cui volto gli appariva in quel momento più che mai scolpito nel legno con un effetto un po' sinistro e impressionantemente lungo che tipo singolare che faccia da straniero pensava tra sé e sé sorridendo da lontano con amichevole affabilità e non appena si incontrarono cominciò a parlare con l'idea cortese di seppellire il disagio del fallimento sotto una montagna di parole sembrava che il grande attacco minacciato per quella notte stesse per scoppiare un tizio seguace di quel brutto di cismen stava in quel momento propagandando tra la noia generale in un'aula semivuota del parlamento alcune statistiche vergognosamente truccate lui chudl sperava che aggiornassero la seduta di minuto in minuto ma forse quel poveraccio stava solo cercando di guadagnar tempo per permettere a quel crapulone di cismen di pranzare con comodo in ogni caso il capo non voleva persuadersi ad andare a casa vi vedrà subito credo è seduto tutto solo nella sua stanza che pensa a tutti i pesci del mare concluse todle con disinvoltura venga pure nonostante la gentilezza del suo carattere il giovane segretario privato non pagato era accessibile alle debolezze comuni dell'umanità non voleva ferire i sentimenti del vice commissario che aperiva ai suoi occhi come un uomo che in modo inconsueto rispetto alle proprie abitudini aveva fallito nel compito assegnatogli ma la sua curiosità era troppo forte per essere frenata da semplice compassione non riuscì a impedirsi mentre camminavano al fianco di buttarla con leggerezza girandosi appena in direzione del compagno e il suo pesciolino l'ho preso rispose il vice commissario con una concisione che non voleva in alcun modo essere scostante bene lei non ha idea come questi grandi uomini odino essere disillusi nelle piccole cose dopo questa profonda osservazione l'esperto Toodle sembrò riflettere in ogni modo non disse nulla per buoni due secondi poi sono contento ma dico è veramente una così piccola cosa come dite ma lei sa cosa si può fare con un pesciolino gli ribette pronto il vice commissario qualche volta può essere messo in una scatola di sardine cinquettò Toodle la cui erudizione sull'industria della pesca era fresca e a paragone della sua ignoranza in tutti gli altri campi immensa ci sono fabbriche di scatole di sardine sulla costa spagnola che il vice commissario interruppe l'apprendista burocrate sì sì ma qualche volta un pesciolino viene gettato via per prendere una balena una balena via le schermò Toodle col cuore in gola lei sta inseguendo una balena allora non esattamente quello che inseguo somiglia più a un pesce cane forse voi non avete idea di cosa sia un pesce cane sì che ce l'ho siamo sepolti fino al collo sotto manuali specializzati interi scaffali pieni con le targhette è una bestia pericolosa con un aspetto assassino odiosa da ogni punto di vista liscia in viso e con lunghi baffi perfettamente descritto approvò il vice commissario solo che il mio è completamente sbarbato voi lo avete visto è un pesce in gamba l'ho visto disse Toodle incredulo non riesco a capire dove potrei averlo visto all'explorer club dirai lasciò cadere calmo il vice commissario al nome di quel club estremamente esclusivo Toodle sembrò spaventarsi e tacque di colpo sciocchezze protestò in tono atterrito cosa intendete un socio onorario murmurò tra i denti il vice commissario santo cielo Toodle aveva un aspetto così sconvolto che il vice commissario sorrise debolmente questo deve rimanere strettamente tra noi disse è la cosa più bestiale che abbia mai sentito dichiarò debolmente Toodle come se lo stupore lo avesse derubato in un attimo di tutta la sua gioviale energia il vice commissario gli lanciò un'occhiata da cui era scomparso ogni accenno di sorriso Toodle mantenne un silenzio scandalizzato e solenne fino alla porta della stanza del gran duomo come se fosse offeso con il vice commissario per avergli presentato un fatto così disgustoso e sconvolgente aveva rivoluzionato la sua idea della selettività dell'explorer club e l'idea della sua purezza sociale Toodle era un rivoluzionario solo in pratica le sue convinzioni sociali e i suoi sentimenti personali gradiva tenerli da parte egli sperava di conservarli immutati attraverso gli anni che il destino gli avrebbe concesso di vivere su questa terra luogo quest'ultimo dove tutto considerato riteneva sarebbe stato piacevole vivere si fece da parte vada senza bussare disse schermi di seta verde sistemati bassi attorno a ogni fonte di luce sembravano immergere la stanza nella penombra di una foresta proprio quegli occhi sprezzanti infatti rappresentavano fisicamente il punto debole del gran duomo era un fatto accuratamente tenuto segreto ogni volta che gliene veniva offerta l'opportunità e gliele riposava con ogni cura il vice commissario entrando non vide all'inizio che una grossa mano pallida su cui poggiava una grossa testa e che nascondeva la parte superiore di una grossa faccia cerea una scatola di corrispondenza era aperta sulla scrivania vicino a pochi fogli rettangolari e a una manciata sparsa di penne d'oca non c'era assolutamente nient'altro sulla superficie levigata di quel piano eccetto una piccola statuetta di bronzo di un personaggio in toga che cupo immobile sembrava controllare misteriosamente ogni cosa il vice commissario invitato a prendere una sedia si accomodò e la luce opaca i punti salienti della sua persona la faccia lunga i capelli neri il suo atteggiamento dinoccolato lo facevano apparire più straniero che mai il grand'uomo non manifestò alcuna sorpresa nessuna ansia nessun sentimento di alcun genere l'atteggiamento grazie al quale gli occhi minazzati trovavano riposo era di meditazione profonda non lo mutò in alcun modo ma il tono della voce non aveva nulla del sogno bene che cosa avete già scoperto vi siete trovato di fronte a qualcosa di inaspettato dalla prima mossa suppongo non esattamente inaspettato Sir Ethelrid ciò che ho soprattutto toccato con mano è uno stato psicologico la gran presenza fece un leggero movimento siate chiaro per piacere sì Sir Ethelrid voi sapete senza dubbio che la maggioranza dei criminali una volta o l'altra sentono il bisogno irresistibile di confessare di sfogarsi completamente con qualcuno con chiunque e spesso lo fanno proprio con la polizia e in quel Verloc che Heath voleva così coprire ho trovato un individuo in quel particolare stato psicologico Gomo parlando figurativamente mi si è gettato fra le brazza è bastato che io gli sussurrassi chi ero e che aggiungessi so che siete arrivato al fondo di questa storia deve essergli sembrato miracoloso che già sapessimo tutto ma ha superato lo shock in fretta la straordinarietà della cosa non lo ha fatto pensare nemmeno per un momento non mi rimaneva altro che fargli due domande chi vi ha spinto a questo e chi è stato l'uomo che ha compiuto materialmente il misfatto alla prima domanda mi ha risposto con molta enfasi quanto alla seconda domanda mi è sembrato di capire che il tipo con la bomba fosse il suo cognato solo un ragazzo una creatura debole di mente una storia abbastanza curiosa forse troppo lunga perché ve la esponga ora che cosa insomma siete venuto a sapere chiese il grand'uomo prima di tutto ho appreso che l'ex carcerato Michaelis non c'entra nulla con questa faccenda sebbene il ragazzo avesse abitato con lui per un certo periodo in campagna e precisamente fino alle otto di questa mattina è più che probabile che Michaelis non sappia tuttora nulla di nulla siete sicuro di quanto dite chiese il grand'uomo assolutamente sicuro Sir Eutherford quel tale Verloc è andato là questa mattina e si è portato via il ragazzo con la scusa di portarlo a fare una passeggiata non era la prima volta che lo faceva Michaelis non poteva avere il minimo sospetto di qualcosa di inconsueto quanto al resto Sir Eutherford l'indignazione di questo Verloc non mi ha lasciato nulla di non chiaro assolutamente nulla era stato letteralmente spinto alla pazzia da uno straordinario sceneggiato che lei e io non avremmo certamente preso sul serio ma che evidentemente aveva ottenuto su di lui un effetto enorme il vice commissario passò a riferire brevemente al grand'uomo che sedeva immobile gli occhi a riposo sotto lo schermo della mano la descrizione che gli aveva fatto Mr. Verloc del carattere e del modo di comportarsi di Mr. Vladimir il vice commissario non sembrava voler rifiutare a quel racconto una certa credibilità ma il grande personaggio fece notare sembra tutto molto fantasioso da quest'impressione non è vero verrebbe da pensare che si tratti di uno scherzo feroce ma il nostro uomo era molto serio sembra inizialmente lo sapete era in diretto contatto con il vecchio Stott-Wartenheim e con il tempo era giunto a considerare le proprie prestazioni indispensabili un risveglio davvero duro immagino che abbia perso la testa era furioso e spaventato insieme parola mia ho l'impressione che considerasse questi dell'ambasciata assolutamente capaci non solo di abbandonarlo al suo destino ma persino di farlo fuori in qualche modo quanto tempo siete rimasto con lui lo interruppe la presenza da dietro lo schermo della grossa mano più o meno 40 minuti sa Rettelrid in un locale abbastanza equivoco il Continental Hotel il Continental Hotel confinati in una stanza che nel frattempo avevo prenotato per la notte l'ho trovato sotto l'effetto della reazione tipica che segue alla tensione del delitto l'uomo non può essere definito un criminale incallito è chiaro che non aveva messo in programma la morte di quel disgraziato ragazzo suo cognato era stato uno sciocchio per lui lo si vedeva chiaramente forse si tratta anche di un uomo molto sensibile magari voleva anche bene al ragazzo chissà probabilmente sperava che il ragazzo avrebbe fatto in tempo a levarsi di mezzo nel caso sarebbe stato quasi impossibile per chiunque scoprire qualcosa in ogni caso secondo la sua coscienza il ragazzo non rischiava nulla più dell'arresto il vice commissario interruppe le sue supposizioni per riflettere un attimo sebbene in questo caso come Verlock sarebbe riuscito a nascondere la parte avuta in questa faccenda non riesco proprio a capirlo continuò ignaro della devozione del povero Stevi per Mr. Verlock che era buono e della sua capacità davvero unica di rimanere muto come nella vecchia storia dei fuochi d'artificio sulle scale quando aveva per molti anni resistito a ogni preghiera opera di convincimento collera e a ogni altro sistema di indagine usato dalla sua amatissima sorella perché Stevi era leale no non riesco a immaginarlo è possibile che lui non si sia reso conto della situazione in nessun modo e sembrerà uno strano modo di vedere le cose ma quello stato di disperazione mi ha fatto pensare ad un uomo impulsivo che dopo aver commesso un suicidio o l'idea che avrebbe messo fine a tutti i suoi guai si sia tutta ad un tratto accorto di non aver risolto nulla il vice commissario offriva queste definizioni in tono apologetico ma nella verità esiste un tipo di lucidità che ben si presta a un linguaggio stravagante e il grande uomo non se ne risentì un leggero scuotersi di quel gran corpo quasi immerso nella penombra dei paralumi di seta verde di quella gran testa appoggiata sulla grande mano si accompagnò a un suono intermittente e soffocato e tuttavia autorevole il gran uomo aveva riso che cosa avete fatto di lui il vice commissario rispose prontamente dato che sembrava molto ansioso di tornare da sua moglie nella bottega l'ho lasciato andare Sir Ethel Reed avete fatto questo ma quel tizio scomparirà permettetemi non credo proprio dove potrebbe andare inoltre dovete pensare che costrui deve anche badare al pericolo che può venirgli dai suoi compagni lui al suo posto come potrebbe giustificare il fatto di abbandonare la sua posizione ma anche se non esistessero ostacoli alla sua libertà di agire non farebbe niente in ogni caso al momento non possiede abbastanza energia morale per prendere qualsiasi tipo di decisione mi permetta di farle notare che se lo avessi trattenuto ci saremmo trovati impegnati in una determinata linea di condotta e su questo avrei voluto prima avere il vostro parere il gran personaggio si levò pesantemente grande ombra imponente nella verde semioscurità della stanza vedrò l'avvocato di stato stasera e vi manderò a chiamare domani mattina se qualche altra cosa che desiderate dirmi ora anche il vice commissario si era levato in piedi magro e slanciato non credo Sir Ethelrid a meno che non vogliate che entri in dettagli no niente dettagli per piacere la grande ombra imponente sembra restringersi tutta come se dei dettagli avesse davvero una paura fisica poi si fece avanti di nuovo espansa enorme e poderosa porgendo la sua manona voi dite che quest'uomo ha moglie si Sir Ethelrid disse il vice commissario stringendo con deferenza la mano che gli veniva tesa una moglie genuina e un rapporto coniugale genuino e rispettabile mi ha detto che dopo la sua intervista all'ambasciata avrebbe rinunciato a tutto avrebbe provato a vendere il negozio e ad abbandonare il paese solo era sicuro che sua moglie non avrebbe voluto nemmeno sentir parlare di andare all'estero niente più di questo esempio potrebbe meglio illustrare la rispettabilità di un simile legame continuò con una nota di amarezza il vice commissario la cui moglie a sua volta aveva rifiutato anche solo l'idea di andarsene all'estero sì una moglie genuina e la vittima era un autentico coniato da un certo punto di vista siamo in presenza di un dramma domestico il vice commissario rise un poco ma i pensieri del grande uomo sembrava ormai che stessero vagando altrove forse ai problemi di politica interna del suo paese dove si giocava il suo valore di cavaliere senza macchia e senza paura contro il painem cisman il vice commissario si ritirò silenziosamente non notato quasi già dimenticato aveva anche lui i suoi stinti cavallereschi quella faccenda che in un modo o nell'altro disgustava l'ispettore capo Hit appariva a lui come il punto di partenza assegnatogli dal destino per una vera crociata gli stava a cuore di iniziare si avviò a casa camminando lentamente e intanto meditava sulla sua impresa e ripensava alla psicologia di Mr. Verloc in uno stato d'animo misto tra la ripugnanza e la soddisfazione arrivò a piedi fino a casa trovando la luce del salotto spenta andò al piano di sopra e impiegò un po' di tempo tra la stanza da letto e la toilette cambiandosi i vestiti e andando su e giù con l'aria di un sonnambulo meditabondo ma si scrollò di dosso quest'aria prima di uscire di nuovo per raggiungere la moglie alla casa della grandama protettrice di Michaelis sapeva che sarebbe stato ben accolto là entrato nel più piccolo dei due salotti scorse subito la moglie in un gruppetto di persone accanto al pianoforte un compositore abbastanza giovane e di grandi promesse stava dialogando dallo sgabello con due uomini robusti che visti di spalle sembravano in là con gli anni e tre giovani donne sottili che sempre viste di spalle avevano l'aria molto giovane dietro il separè la grandama si intratteneva con due persone soltanto un uomo e una donna che sedevano fianco a fianco sulle poltrone ai piedi del suo sofà tese la mano il vice commissario non sapevo di vederla qui stasera Annie mi ha detto si non avevo idea io stesso che il mio lavoro sarebbe finito così presto e aggiunse sottovoce sono lieto di dirvi che Michaelis è assolutamente estraneo a tutto questo la protettrice dell'ex carcerato ricevete l'assicurazione indignata come e voi eravate così stupidi da collegarlo a questo non stupidi interruppe il vice commissario contraddicendola rispettosamente abbastanza abili direi proprio abbastanza abili cadde il silenzio l'uomo ai piedi del divano aveva smesso di parlare con la signora e guardava avanti a sé con un debole sorriso non so se vi siete mai incontrati disse la grandama fu così che Mr. Vladimir e il vice commissario presentati l'uno all'altro presero rispettivamente atto della loro reciproca esistenza con formale e circospetta cortesia è riuscito a spaventarmi dichiarò improvvisamente la dama che sedeva di fianco a Mr. Vladimir indicando questo gentleman con un cenno leggero della testa ma il vice commissario che le conosceva bene non avete l'aria spaventata le fece notare dopo averla osservata coscienziosamente con il suo sguardo un po' stanco e sereno e intanto pensava che in quella casa prima o poi si incontravano tutti la fisionomia erosia di Mr. Vladimir era tutta un sorriso egli era spiritoso infatti ma gli occhi erano seri come gli occhi di un uomo di fede comunque ha provato a farlo corresse la dama forza dell'abitudine probabilmente disse il vice commissario mosso da un irresistibile impulso ha continuato a minazzare tutta la società con ogni tipo di orrori continuò la dama e la sua voce era pacata e armoniosa a proposito di quell'esplosione a Greenwich Park a sentir lui dovremmo tutti tremare per quel che potrà succedere se costoro non verranno distrutti in tutto il mondo non avevo idea che la cosa fosse così seria Mr. Vladimir facendo finta di non sentire rimaneva chino sul divano parlando amabilmente a voce bassa ma sentì il vice commissario che diceva non ho alcun dubbio che Mr. Vladimir abbia un'idea molto precisa sulla vera importanza di questa storia Mr. Vladimir non poteva fare a meno di chiedersi a cosa ammirasse quel maledetto ficcanaso di un poliziotto frutto di generazioni perseguitate dagli strumenti di un potere arbitrario egli per razza nazionalità e per natura diffidava della polizia era una debolezza congenita assolutamente indipendente dal suo giudizio dalla sua ragione dalla sua esperienza c'era nato ma quello stesso sentimento simile all'irrazionale orrore che alcune persone hanno dei gatti non gli impediva di provare anche un immenso disprezzo per la polizia inglese finì la frase indirizzata alla grandama e si volse leggermente sulla poltrone intendete dire che abbiamo di questa gente una grande esperienza sì davvero noi soffriamo non poco per la loro attività mentre voi ed esito un poco sorridendo perplesso mentre voi non sopportate la presenza di buon grado nel vostro ambiente concluse mostrando una fossetta su ognuna delle guance ben rasate poi aggiunse con più gravità e potrei anche spiegarvi il motivo di tutto questo quando mister vladimir smise di parlare il vice commissario distolse lo sguardo e la conversazione cadde quasi immediatamente dopo mister vladimir prese congedo e aveva appena girato le spalle al divano che anche il vice commissario si levò in piedi credevo che sareste rimasto per riportare a casa anni disse la dama protettrice di michaelis mi accorgo di avere un po' di lavoro da svolgere ancora stasera in relazione beh sì in un certo modo ma mi dica in cosa consiste effettivamente questo orrore mi rimane difficile dire cos'è ma potrebbe trattarsi tuttavia ad una chose célèbre disse il vice commissario lasciò in fretta il salotto che trova mister vladimir ancora all'ingresso e si avvolgeva con cura la gola in un gran fazzoletto di seta alle sue spalle un cameriere era in attesa con il soprabito un altro era pronto ad aprirgli la porta il vice commissario venne debitamente aiutato ad indossare il cappotto ed uscì immediatamente dopo aver sceso gli scalini davanti alla facciata si fermò come per riflettere sulla strada da prendere scorgendolo attraverso la porta rimasta aperta mister vladimir indugiò nella sala d'ingresso tirando fuori di tasca un sigaro e chiedendo ad accendere un anziano cameriere in livrea rispose all'appello con un'aria sollecita e composta ma il fiammifero si spense il valletto corse allora a chiudere la porta e mister vladimir accese il sigaro con tutta calma quando infine uscì dall'edificio vide con disgusto che quel maledetto poliziotto era ancora fermo sul marciapiede possibile che stia aspettando me pensò mister vladimir guardando in su e in giù alla ricerca di una carrozza non riusciva a scorgerne nessuna un paio di carrozze aspettavano vicino al marciapiede con i loro lampioni che illuminavano la zona intorno con una luce ferma i cavalli che stavano perfettamente immobili quasi intagliati nella pietra i vetturini che sedevano fermi a loro volta sotto i grossi berretti di pelliccia senza che nemmeno un tremito percorresse le cinghie delle loro fruste lunghissime mister vladimir si avviò a piedi e il maledetto poliziotto gli si affiancò non disse nulla al quarto passo all'unisono mister vladimir si sentì irritato e imbarazzato non si poteva andare avanti così tempo infame ringhiò aspro non c'è male replicò indifferente il vice commissario tacque per un poco abbiamo appreso un uomo che corrisponde al nome di verloc annunciò in modo del tutto casuale mister vladimir non ebbe l'aria di inciampare né ricadde all'indietro o mutò il ritmo del suo incedere in alcun modo ma non poté trattenersi dall'esclamare che il vice commissario non ripete l'osservazione di prima lei lo conosce aggiunse nello stesso tono mister vladimir si fermò e la sua voce assunse un tono gutturale in base a cosa potete affermare questo non sono io che lo dico lo dice mister verloc razza di cane bugiardo disse mister vladimir usando una fraseologia alquanto orientale ma in cuor suo era quasi senza fiato per la miracolosa efficienza della polizia inglese il mutamento della sua opinione a riguardo fu così improvviso che per un attimo si sentì mancare il terreno sotto i piedi getta via il sigaro e continuò a camminare ciò che ho particolarmente apprezzato in questo affare continuò il vice commissario parlando lentamente è che rappresenta un punto di partenza davvero eccellente per il compito che sentivo andava affrontato quello cioè di ripulire questo paese di tutte le spie politiche e della polizia straniera di quella razza di 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 cani a mio parere sono delle terribili calamità e rappresentano anche un fattore di pericolo ma non possiamo individuarli ad uno ad uno con facilità l'unico modo è rendere i loro servizi scomodi per i loro mandatari la cosa sta diventando indecente è anche pericoloso per noi qui mister Vladimir si fermò ancora per un attimo che intendete dire che il processo di questo overlock servirà a dimostrare al pubblico il pericolo e l'indecenza di simili personaggi nessuno presterà fede alle parole di un uomo come quello disse con disprezzo mister Vladimir la ricchezza e la precisione dei dettagli servirà a persuadere la gran massa del pubblico replicò il vice commissario con calma così questo è quanto avete seriamente intenzione di fare abbiamo l'uomo non abbiamo scelta non farete che incoraggiare lo spirito mendace di questi delinquenti rivoluzionari protestò mister Vladimir a che scopo volete creare uno scandalo per motivi morali o cosa la preoccupazione di mister Vladimir era evidente quanto al vice commissario essendosi accertato in questo modo che ci doveva essere del vero nelle parole di mister Verlock concluse con assoluta indifferenza c'è anche un aspetto pratico della cosa abbiamo abbastanza da fare per badare all'articolo genuino non si può certo dire che non siamo efficienti ma non abbiamo intenzione di essere infastiditi da finzioni non importa sotto quale pretesto il tono di mister Vladimir divenne sprezzante per parte mia non posso essere d'accordo è egoista i miei sentimenti per il mio paese non possono essere messi in dubbio ma ho sempre pensato che comunque era giusto essere buoni europei parlo dei governi come degli uomini sì disse semplicemente il vice commissario solo che voi guardate all'Europa dall'altra parte ma e continuò in tono accomodante i governi stranieri non possono lamentarsi dell'inefficienza della nostra polizia guardi questo attentato un caso particolarmente difficile da individuarsi proprio in quanto è una messa in scena fasulla in meno di 12 ore abbiamo stabilito l'identità di un uomo letteralmente saltato in aria e ridotto in briciole abbiamo trovato l'organizzatore dell'attentato e siamo riusciti a intravedere chi da dietro l'aveva incitato a questo e saremmo potuti andare oltre solo che ci siamo fermati ai limiti del nostro territorio così questo crimine esemplare è stato preparato all'estero disse mister vladivir ammettete che è stato preparato all'estero teoricamente solo teoricamente su territorio straniero all'estero solo nella finzione disse il vice commissario alludendo al carattere dell'ambasciate che si suppone siano parte integrante del paese al quale appartengono ma questo non è che un dettaglio vi ha parlato di questa faccenda perché è il vostro governo che brontola più di tutti contro la nostra polizia come vede non siamo così male ci tenevo particolarmente a parlarvi di questo successo sono sicuro di esserle molto grato similò tra i denti mister vladimir noi possiamo mettere le mani su qualsiasi anarchico qua continuò il vice commissario quasi stesse citando l'ispettore capo kit tutto quello che si vuole ora è di disfarsi dalla jean provocateur per rendere ogni cosa più sicura mister vladimir alzò la mano verso una carrozza che passava non vi fermate qui dunque osservò il vice commissario guardando verso l'edificio di nobili proporzioni e di aspetto ospitante con la luce che da una grande sala attraverso la porta di vetro si riversava sulla larga scalinata esterna il vice commissario stesso non si volse verso il nobile edificio era l'explorer club e intanto gli attraversava la mente il pensiero che in futuro mister vladimir membro onorario non sarebbe stato visto lì molto spesso guardò l'orologio erano solo le dieci e mezza era stata davvero una serata molto intensa capitolo 11 quando l'ispettore capo hit ebbe lasciato mister verloc si mise a camminare sui giù per il salotto di tanto in tanto attraverso l'uscio aperto lanciava un'occhiata a sua moglie sa tutto ormai diceva a se stesso con un senso di pietà per la pena di lei e una certa soddisfazione nei propri riguardi l'anima di mister verloc mancava forse di grandezza ma era tuttavia capace di sentimenti teneri l'idea di doverle dare lui stesso la notizia l'aveva messo in uno stato febbrile ora l'ispettore capo hit l'aveva liberato da quell'obbligo era una buona cosa per il momento gli rimaneva da far fronte al dolore di lei mister verloc non aveva mai pensato alla possibilità di dover far fronte al dolore causato da una morte troppo catastrofico per poter essere discusso ed eliminato con ragionamenti sofistici ed eloquenza persuasiva mister verloc non aveva mai avuto l'intenzione di far morire stevie in modo così precipitoso e violento anzi non aveva mai avuto l'intenzione di farlo morire stevie morto gli procurava un fastidio anche più grave di quando era vivo mister verloc si era augurato che l'impresa dovesse riuscire per il meglio basandosi non sull'intelligenza di stevie l'intelligenza talvolta gioca agli uomini dei brutti tiri ma sulla cieca docilità e la devozione cieca del ragazzo quantunque non molto profondo in fatto di psicologia mister verloc aveva sondato la profondità del fanatismo di stevie aveva osato accarezzare la speranza che stevie fosse capace di allontanarsi dalle mura dell'osservatorio secondo le istruzioni ricevute prendendo la via che gli era stata mostrata in precedenza più e più volte per andare a raggiungere il cognato il buono il saggio mister verloc fuori la cinta del parco un quarto d'ora avrebbe dovuto essere sufficiente anche a un pazzo vero e proprio per metter giù l'apparecchio e venirse ne via e il professore aveva garantito più di 15 minuti ma stevie aveva dovuto incespicare prima che fossero trascorsi cinque secondi dal momento in cui era rimasto solo e mister verloc si sentiva moralmente disfatto tutto aveva previsto eccettuato questo aveva previsto stevie distratto e smarrito ricercato ritrovato alla fine in qualche posto di polizia o in un ospizio di mendicità della provincia aveva previsto che si facesse arrestare e l'idea non gli faceva paura perché mister verloc aveva un'alta opinione della lealtà di stevie il quale durante parecchie passeggiate era stato addottrinato con molta cura circa la necessità del silenzio simile a un filosofo peripatetico mister verloc vagando per le vie di londra aveva modificato attraverso conversazioni piene di ragionamenti sottili il modo di vedere di stevie circa la polizia mai sapiente ebbe discepolo più attento e pieno d'ammirazione egli si dimostrava così apertamente sottomesso e adorante che mister verloc era arrivato al punto di provare qualcosa una specie di simpatia per quel ragazzo in ogni caso non aveva previsto che la loro parentela dovesse venire così rapidamente alla luce che a sua moglie fosse venuto in mente per precauzione di cucire l'indirizzo del ragazzo nell'interno del suo sopravito questa era l'ultima cosa che mister verloc avrebbe potuto supporre non si giunge a immaginare ogni cosa questo era dunque ciò che ella intendeva dire quando affermava che egli non avrebbe avuto da che preoccuparsi se mai stevie si fosse smarrito durante le loro passeggiate lo aveva rassicurato insistendo che il ragazzo sarebbe stato trovato in ogni modo ebbene era stato ritrovato o sì anche troppo già già borbottava ora mister verloc non senza curiosità e stupore che aveva inteso fare sua moglie con quella trovata risparmiare la noia di vigilare con ansia continua su stevie con ogni probabilità le sue intenzioni erano state buone soltanto avrebbe dovuto avvertirlo ad aver preso quella precauzione andò in bottega dietro il banco non voleva certo opprimere sua moglie con rimproveri amari non trovava amarezza mister verloc lo sviluppo inatteso degli eventi l'aveva convertito alla dottrina del fatalismo non c'era rimedio ormai disse io non pensavo che al ragazzo potesse accadere qualcosa di male al suono della voce di suo marito mrs verloc fu scossa da un brivido non si scoprì la faccia l'agente segreto di fiducia del fubarone stott vartenheim rimase un poco a guardarla con uno sguardo pesante persistente annebbiato il giornale pomeridiano mezzo stracciato le giaceva ai piedi non era certo da quello che l'aveva potuto apprendere molte cose mister verloc provò il bisogno di dire qualcosa a sua moglie è stato quel maledetto hit vero ti ha sconvolta è stato un brutto a spifferare in questa maniera la notizia a una donna io mi sono sentito male pensando al modo di fartelo sapere ore e ore sono stato seduto nella saletta di cesar scis pensando al modo migliore capirai non intendevo di certo far accadere qualcosa di male a quel ragazzo mister verloc l'agente segreto stava dicendo la verità era il suo affetto coniugale che aveva ricevuto il colpo forte dell'esplosione prematura aggiunse non mi sentivo certo molto allegro stando lì dentro seduto e pensando a te osservò che un altro sussulto leggero scuoteva il corpo della moglie e la sua sensibilità se ne sentì toccata il viso di lei restava ostinatamente chiuso fra le mani ed egli pensò che avrebbe fatto meglio a lasciarla sola per un poco spinto da questo impulso di delicatezza si ritirò di nuovo in salotto dove il becco a gas faceva le fusa come un gatto contento disse Sverloc la buona moglie previdente aveva lasciato sulla tavola l'arrosto freddo con la forchetta il coltello e mezza pagnotta per la cena di Mr. Verloc se ne accorgeva soltanto ora si tagliò dunque una fetta di pane una di carne e cominciò a mangiare il suo appetito non procedeva da durezza di cuore Mr. Verloc non aveva fatto colazione quel giorno essendo uscito di casa in gran fretta egli non era un carattere forte e perciò aveva trovato modo di decidersi solo in un momento di eccitazione nervosa che pareva l'avesse ferrato alla gola non gli era riuscito di inghiottire nulla di solido il villino minuscolo di Michaelis mancava di provvigioni come la cella di un prigioniero l'apostolo amnestiato viveva di un po' di latte e di qualche crosta di pane raffermo inoltre all'arrivo di Mr. Verloc egli dopo un pasto frugale era già salito al primo piano e tutto preso dal travaglio e dalla delizia della composizione letteraria non aveva nemmeno risposto quando l'altro gli aveva gridato dalla piccola gabbia delle scale son venuto a prendere questo ragazzino lo porto a casa per qualche giorno in verità Mr. Verloc non era rimasto in attesa di risposta senza indugio si era allontanato di là seguito da Stevi obbediente ora che tutto era stato compiuto ora che con inattesa rapidità il suo stesso destino gli era sfuggito dalle mani Mr. Verloc si sentiva fisicamente vuoto al massimo grado affettò la carne tagliò il pane divorò la sua cena stando in piedi vicino alla tavola e lanciando di tanto in tanto un'occhiata alla moglie la prolungata immobilità di lei gli disturbava il piacere di quel piccolo pasto di nuovo entrò in bottega e le si fece accosto quella sofferenza a viso coperto lo rendeva nervoso aspettava naturalmente che la sarebbe rimasta quanto mai sconvolta ma l'avrebbe voluta vedere riaversi nelle nuove congiunture che già il suo fatalismo aveva accettato sentiva il bisogno dell'assistenza di lei della sua fedeltà non c'è nulla da fare disse in un tono lugubre di compassione su via Winnie abbiamo da pensare al domani ti sarà necessaria tutta la tua presenza di spirito dopo che mi avranno portato via tacque a Mrs. Verloc il petto si sollevava e si abbassava in modo convulso ciò non era punto rassicurante per suo marito il quale rifletteva come la nuova situazione esicesse dai due individui maggiormente interessati calma risolutezza e altre qualità incompatibili col disordine mentale prodotto da un dolore pieno di passione Mr. Verloc aveva sentimenti umani egli era andato a casa preparato a permettere alla moglie dimostrazioni affettive senza limiti verso il fratello perduto soltanto ora non riusciva a capire né la natura né l'intera misura di quel sentimento in ciò poteva dirsi scusabile già che era impossibile per lui capire senza cessare di essere se stesso si sentiva allarmato e deluso e lo dimostrò con una certa rudezza nel modo di discorrere potresti guardare in faccia chi ti parla osservò dopo qualche minuto d'attesa come se dovesse aprirsi a fatica la strada attraverso le mani che le coprivano il viso la risposta di Winnie giunse soffocata lamentosa quasi non voglio guardarti mai più per tutta la vita eh cosa mister Verloc rimase semplicemente atterrito dal significato superficiale letterale di questa dichiarazione era evidentemente una frase irragionevole nient'altro che un grido d'angoscia eccessiva vi calò sopra il velo dell'indulgenza coniugale la mente di mister Verloc mancava di profondità sotto la falsa impressione che il valore degli individui consiste in ciò che essi sono in se stessi non poteva certo arrivare ad intendere il valore di stevi agli occhi di miss Verloc disse dentro di sé che aveva preso la cosa in un modo maledettamente duro tutta colpa di quel dannato di hit a che scopo sconvolgere così una donna ma per suo bene non bisognava permetterle di continuare a quel modo fino al punto di uscire completamente di sé e asù non puoi mica restare lì seduta in bottega disse affettando una severità nella quale si nascondeva realmente un certo dispetto giacché c'erano fazzende d'ordine pratico da regolare urgentemente se non volevano stare alzati tutta la notte ogni minuto c'è da vedersi arrivare qualcuno aggiunse e di nuovo aspettò ma senza risultato e durante la pausa lo colpì l'idea della irreparabilità della morte cambiò tono su su codesto non servirà a farlo ritornare disse con voce sommessa si sentiva pronto a prenderla fra le brazza e stringerla al petto là dove pietà e impazienza stavano ora fianco a fianco ma ad eccezione di un piccolo brivido la donna non fu apparentemente toccata dalla forza di quel terribile argomento ne rimase commosso invece lo stesso mister verloc nella sua semplicità si sentì spinto a moderare l'angoscia della moglie richiamandone l'attenzione sui propri diritti personali su via Winnie si ragionevole che mai sarebbe dunque accaduto se avessi perduto me si era vagamente aspettato di sentirla scoppiare in singhiozzi invece non si mosse pigandosi appena all'indietro rimase come paralizzata in un mutismo indecifrabile a mister verloc cominciò a battere più forte il cuore per l'esasperazione e per qualcosa di simile a un presentimento allarmante le mise una mano sulla spalla dicendo Winnie via non mi fare la sciocca ella non dette segno d'aver udito impossibile in ogni modo parlare con una donna di cui non si può vedere il viso mister verloc che le afferrò i polsi ma le mani sul viso parevano inchiodate a quel gesto violento tutto il corpo della donna si scosse e della quasi scivolò a terra spaventato nel sentirla così disperatamente inerte egli tentò di rimetterla a posto sulla sedia ma la donna improvvisamente si irrigidì in tutte le membra e strappandosi dalle sue mani fuggì di bottega attraversò il salotto corse a rifugiarsi in cucina fu un attimo e il marito fece appena in tempo a intravedere del viso e degli occhi di lei quanto bastava per essere sicuro che la non aveva guardato pareva quasi si trattasse di una lotta per impadronirsi di una sedia perché mister verloc istantaneamente prese il posto della moglie egli non si coprì la faccia con le mani ma un velo di tetri pensieri gli adombrò la fronte non avrebbe certo potuto evitare un periodo di prigione ma ora non desiderava neppure di evitarlo il carcere è un luogo al sicuro da vendette fuori legge come al sicuro la tomba con questo vantaggio che in carcere rimane sempre da sperare ciò che egli vedeva dunque davanti a sé era un periodo di segregazione e di liberazione al tempo stesso e poi la vita all'estero in un luogo o in un altro come già ne aveva contemplato la possibilità in caso di fallimento ebbene sì era un fallimento se non proprio il genere di fallimento che gli aveva previsto con più timore ci era mancato ben poco che non fosse un vero successo tanto che gli avrebbe potuto addirittura terrorizzare mister Vladimir e fargli morire sulle labbra il sorriso ironico e feroce con questa prova d'occulta potenza così almeno gli pareva in quel momento e il suo prestigio all'ambasciata sarebbe stato immenso se e sua moglie non avesse avuto la malaugurata idea di cucire l'indirizzo di Stevi all'interno del sopravito mister Verloc non era uno sciocco e ben presto si era reso conto come la sua influenza su Stevi avesse un carattere fuori dall'ordinario benché non fosse arrivato a capirne all'origine la dottrina della sua suprema saggezza e bontà che le due donne avevano inculcato al ragazzo ansioso del suo avvenire in tutte le eventualità previste mister Verloc aveva fatto assegnamento senza sbagliarsi nel giudizio sulla lealtà istintiva e la discrezione cieca di Stevi l'eventualità non prevista lo atterriva ora nei suoi sensi umani e nel suo affetto coniugale da tutti gli altri punti di vista poteva considerarsi anzi piuttosto vantaggiosa nulla può uguagliare e nulla può interrompere il silenzio della morte durante le ore che egli aveva trascorso spaventato e perplesso nella saletta di Cesar Cis non aveva potuto fare a meno di venire a questa conclusione perché la sua facoltà di giudizio non era annebbiata da alcuna sensibilità il violento disfacimento del ragazzo certo disturbava a pensarci ma in ogni modo gli assicurava il successo poiché naturalmente lo scopo delle minacce di Mr. Vladimir non era il clollo d'un muro bensì di produrre un effetto morale e l'effetto poteva dirsi ottenuto seppure con molta pena e fastidio a carico di Mr. Verloc tuttavia quando diversamente da tutto ciò che si poteva immaginare si era deciso a metter piede in Brett Street Mr. Verloc che si era dibattuto come un uomo fra gli incubi per salvare la propria posizione aveva ricevuto il colpo con lo spirito di un fatalista convinto se la posizione era perduta non si poteva veramente attribuirne la colpa a nessuno un fatterello insignificante era stato la causa di tutto come scivolare su una buccia ad aranza nel buio e spezzarsi una gamba Mr. Verloc tirò un lungo sospiro non provava risentimento verso la moglie pensava dovrebbe dar lei alla bottega finché mi terranno dentro e nel pensare anche quanto crudelmente e l'avrebbe avvertito nei primi tempi la mancanza di Stevi sentì di interessarsi grandemente allo stato fisico e morale di lei come avrebbe sopportato la solitudine assoluta solitudine in quella casa non poteva capitarle di cadere ammalata mentre lui era dentro che ne sarebbe stato allora della bottega la bottega rappresentava un capitale sebbene il fatalismo di Mr. Verloc accettasse la propria rovina come agente segreto non aveva intenzione di lasciarsi rovinare completamente in special modo bisogna riconoscerlo per un riguardo verso la moglie così taciturna rifugiata nella cucina dove lui non poteva vederla e la lo spaventava avesse avuto almeno sua madre vicino ma quella vecchia stupida uno sgomento arrabbiato si impossessò di Mr. Verloc doveva assolutamente parlare con la moglie poteva ben dirle che un uomo finisce per buttarsi alla disperazione in simili circostanze non andò immediatamente a darle questa notizia anzitutto vedeva chiaramente che per quella sera non era il caso di parlare d'affari si alzò per chiudere l'uscia di fuori e spendere il gas in bottega così fatto il deserto intorno al suo focolare Mr. Verloc entrò in salotto e gettò un'occhiata in cucina Mrs. Verloc si era seduta al posto dove generalmente si situava il povero Stevi la sera con carta e matita per il piacere di disegnare pagine e pagine abbaglianti di innumerevoli circoli che facevano pensare al caos e all'eternità teneva le braccia piegate sulla tavola e il capo appoggiato alle braccia per qualche minuto Mr. Verloc rimase a contemplare la sua schiena e le trezze rialzate sulla nuca poi di nuovo si allontanò dall'uscio di cucina una filosofica quasi sdegnosa mancanza di curiosità da parte di Mrs. Verloc che era alla base del loro accordo nella vita domestica rendeva estremamente difficile una presa di contatto ora che ne sorgeva la tragica necessità egli se ne rese conto in modo acuto cominciò cominciò a passeggiare intorno alla tavola del salotto con la sua solita aria d'animale in gabbia la curiosità è una forma di autorivelazione perciò una persona sistematicamente non curiosa rimane sempre misteriosa in parte per tutto il tempo che stette lì sulla soglia Mr. Verloc lanciò alla moglie occhiate piene di inquietudine non che avesse paura di lei egli si immaginava che quella donna l'amasse ma non l'aveva abituato a confidarsi e la confidenza che gli avrebbe dovuto farle ora era di carattere psicologico tutt'altro che superficiale col suo bisogno di praticità come avrebbe potuto dirle ciò che lui stesso sentiva solo vagamente cioè che vi sono cospirazioni fatali del destino e che una semplice idea a volte cresce nella mente fino ad acquistare un'esistenza esteriore un proprio potere indipendente e persino una voce suggestiva egli non poteva farle intendere senz'altro che un uomo può sentirsi ossessionato dall'incubo di una faccia grassa rasa spiritosa fino al punto che pur di liberarsene il peggiore espediente gli appare come la più pura espressione della saggezza col pensiero così rivolto al primo segretario di una grande ambasciata Mr. Verloc si fermò sulla soglia e guardando giù in cucina con un viso arrabbiato stringendo i pugni disse rivolto alla moglie tu non hai idea con che razza di bruto ho avuto a che fare tornò indietro per fare un'altra passeggiata intorno alla tavola quando si trovò di nuovo davanti alla porta di nuovo si fermò lanciando occhiate fiere dall'alto dei due scalini un brutto idiota beffardo pericoloso senza senso comune più di quanto ne abbia un dopo tutti questi anni un uomo come me io io che ho giocato la vita in questa partita tu non lo sapevi naturalmente a che avrebbe servito raccontarti che io per tutti questi sette anni da che ci siamo sposati ogni momento correvo il rischio ad avere un coltello nella schiena non sono il tipo da tormentare una donna che mi vuol bene non c'era motivo perché tu fossi a conoscenza di tutto fece un'altra volta il giro del salotto sbuffando un animale velenoso riprese a dire dalla soglia per ascinarmi così nella fossa a morir di fame per uno scherzo mi sono ben accorto che secondo lui questo maledetto affare doveva riuscire a un gran bello scherzo un uomo come me guarda un poco gente della più alta categoria che esiste al mondo deve ringraziare me fino ad oggi se cammina sulle proprie gambe questo è l'uomo che tu hai sposato bambina mia vide che la moglie si era raddrizzata sulla sedia e se braccia rimanevano tese irrigidite sulla tavola mister verlo che la guardò ansioso alle spalle come se avesse potuto leggervi l'effetto prodotto dalle sue parole non c'è stato complotto per assassino negli ultimi undici anni in cui io non abbia messo il dito rischiando la mia testa l'ho spedito a ventina di questi rivoluzionari con in tasca le loro bombe maledette per farli accalappiare alla frontiera il vecchio barone il vecchio barone sapeva quanto io valessi in questo paese ed ecco ora tutta un tratto salta fuori quel porco quel porco ignorante e prepotente scese i due scalini entrò in cucina prese di sulla tavola un bicchiere e tenendolo in mano si avvicinò all'acquaio senza guardare la moglie non sarebbe stato certo il vecchio barone ad avere l'idea pazza e malvagia di mandarmi a chiamare per le undici di mattina conosco due o tre persone in questa città che se mi avessero visto entrare da dentro non si sarebbero riguardate dall'accopparmi prima o poi tiro imbecille degno ad un assassino quello di esporre così senza ragione un uomo come me aprì la cannella dell'acquaio si riempì uno dietro l'altro tre bicchieri d'acqua e li tracannò per estinguere il fuoco dell'indignazione la condotta di mister Vladimir era per lui come un tizione ardente che metteva in fiamme tutta la sua economia interna non poteva passare sopra la slealtà di quella condotta quest'uomo che non voleva saperne dei duri compiti di banali che la società impone ai suoi membri più umili aveva esercitato la propria industria segreta con devozione instancabile c'era il mister Verloc un fondo d'onestà egli era stato onesto verso coloro che lo pagavano verso la causa della sicurezza sociale e verso i suoi affetti anche come apparve chiaro quando dopo aver chiuso il rubinetto dell'acquaio si girò e disse se non avessi pensato a te avrei preso per la gola quel brutto fanfarone e l'avrei scaraventato contro il caminetto con la testa in giù avrei voluto incenerire la faccia rosa liscia sbarbata di quel non si curò di terminare la frase come se non ci fossero dubbi sulla parola finale per la prima volta in vita sua ammetteva nelle proprie confidenze quella donna priva di curiosità era un avvenimento eccezionale e la forza e l'importanza dei sentimenti soggettivi che scaturivano via via dalla confessione cancellarono completamente dal cervello di mister Verlock il ricordo della malasorte di Stevi per un certo tempo egli dimenticò l'esistenza del ragazzo quella trepida esistenza fatta di timore e di indignazione e così pure la sua fine violenta perciò quando alzò gli occhi sulla moglie fu colpito dall'espressione di lei che non rispondeva alla sua aspettativa non uno sguardo feroce e nemmeno disattento ma la sua attenzione aveva un carattere particolare tutt'altro che soddisfacente tanto più che pareva concentrarsi su qualche punto al di là della persona di mister Verlock l'impressione fu così forte che gli si volse a guardare dietro le proprie spalle non c'era nulla di là solo l'intonaco bianco della parete l'ottimo marito di Winnie si rese conto che nulla era scritto su quella parete allora voltandosi di nuovo alla moglie ripetè con una certa enfasi l'avrei preso per la gola com'è vero che sono qui se non avessi pensato a te ti garantisco che gli avrai fatto sputar fuori metà dell'anima a quel brutto prima di lasciarlo andare e non credere che si sarebbe affrettato a chiamare la polizia ma che non ne avrebbe avuto il coraggio capisci la ragione vero? ammicò alla moglie con l'aria di chi la salunga no disse missi Verlock con una voce atona senza guardarlo nemmeno un attimo di che cosa stai discorrendo un immenso scoraggiamento prodotto dalla fatica si impadronì di lui aveva avuto una giornata molto piena i suoi nervi erano stati messi alla prova più dura dopo un mese di tormenti da impazzire terminato con l'inattesa catastrofe lo spirito agitato di mister Verlock aspirava al riposo la sua carriera da gente segreto si era conclusa in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere ora però sarebbe forse riuscito ad avere finalmente una notte non insonne ma guardando sua moglie gli venne fatto di dubitarne l'aveva presa troppo male non secondo il suo carattere no davvero egli pensò fece uno sforzo per parlare devi cercare di ritirarti su bambina mia disse con un tono pieno di comprensione quel che è fatto è fatto non ci possiamo nulla contro mi si sferro chebbe un lieve sussulto sebbene non un muscolo del suo viso senza colore si muovesse minimamente il marito che l'aveva guardata continuò con gravità vai a letto ciò che ti occorre è un buon pianto quest'opinione non aveva nulla che la convalidasse se non il consenso generale dell'umanità è universalmente risaputo che quasi non vi fosse nulla di più sostanziale dei vapori fluttuanti nell'aria ogni emozione femminile deve per forza risolversi in un torrente di lacrime è anche molto probabile che se Stevi fosse morto nel proprio letto sotto i suoi occhi gonfi di disperazione fra le sue braccia protettrici il dolore di Mrs. Verlock avrebbe trovato conforto in un'onda di pianto puro e amaro Mrs. Verlock come tutte le creature umane possedeva una riserva di inconscia rassegnazione sufficiente per affrontare le manifestazioni normali di ogni umano destino senza romperci si troppo la testa era consapevole che esso non sopporta ad essere scrutato troppo a fondo ma le penose circostanze della fine di Stevi che agli occhi di Mr. Verlock non rappresentavano altro che un episodio facente parte di un disastro assai più grande dissecavano per lei la fonte stessa delle lacrime come se le avessero bruciato gli occhi con un ferro incandescente al tempo stesso il cuore indurito era gelato in un blocco di ghiaccio ne infondeva nelle membra un brivido continuo e le pietrificava il volto in un'immobilità contemplativa rivolta all'intonaco bianco del muro sul quale non c'era nulla da leggere il temperamento di Mrs. Verlock una volta svuotato delle sue riserve di filosofia era violento e materno ed aveva ecigenze tali che la condannavano a vedersi roteare tutta una serie di pensieri nel cervello irrigidito pensieri piuttosto immaginati che espressi Mrs. Verlock era singolarmente una persona di poche parole in pubblico come in privato ora nel suo furore e nel suo avvinimento di donna tradita tutto il passato le turbinava davanti agli occhi attraverso visioni il cui contenuto riguardava essenzialmente la difficile esistenza di Stevi fin dalla prima infanzia la vita di lei era stata improntata da un unico proposito e da una nobile unità di ispirazione come la vita di quelle rare personalità che hanno lasciato la propria urma nei pensieri e nei sentimenti del genere umano ma le visioni di Mrs. Verlock erano prive di grandiosità e di splendore rivedeva se stessa nell'atto di coricare il fratellino al lume di una sola candela nella soffitta deserta di un locale pubblico così oscuro lassù e così scintillante di lampade e di cristallerie quasi un palazzo incantato a livello della strada quel falso splendore era il solo che brillasse nelle visioni di Mrs. Verlock rivedeva se stessa spazzolare i capelli del ragazzo e legargli i nastri del grembiulino e la stessa ancora in un grembiulino infantile ricordava una piccola creatura malamente spaurita che veniva a ricevere conforto da un'altra creatura quasi altrettanto piccola ma non così malamente spaurita e le percosse intercettate a volte con la sua stessa testa è una porta tenuta disperatamente chiusa ma non a lungo contro un uomo furibondo e un attizzatoio lanciato in aria ma non molto lontano che una volta era riuscito a far tacere quella particolare tempesta inabissandola nel silenzio sordo e lugubre che segue lo schianto del fulmine tutte quelle scene di violenza andavano e venivano accompagnate dal suono indistinto di vociferazioni profonde emesse da un uomo ferito nel suo orgoglio di padre un uomo che si dichiarava evidentemente maledetto dal destino al momento che una delle sue creature era un moccolone idiota e l'altra una perfida diavolessa questo era stato detto di lei molti anni prima a missus verlo che parve udire di nuovo quelle parole in un timbro spettrale poi l'ombra desolata della casa di belgravia scese su di lei e fu un ricordo schiacciante una visione sfibrante di innumerevoli vassoi per la colazione portati su e giù lungo le scale che non finivano mai di un interminabile mercanteggiare al centesimo di una continua miserabile fatica spazzare spolverare lucidare i pavimenti dal pian terreno alla soffitta mentre la madre invalida barcollante sulle gambe gonfie preparava i pasti in una cucina sporca e il povero stevi il genio inconscio che presiedeva senza saperlo a tutta la pena e il travaglio della sorella lustrava le scarpe degli ospiti nel gabinetto ma in questa visione si apriva uno spiraglio di luce un'ardente estate londinese dominata dalla figura di un giovane che indossava per la domenica gli abiti migliori con un cappello di paglia sui capelli neri e in bocca una pipa di legno affettuoso sempre allegro sarebbe stato un compagno affascinante per il viaggio lungo la luminosa corrente della vita soltanto la sua barca era troppo piccola c'era posto per una giovane compagna all'altro remo ma non abbastanza spazio per i passeggeri gli fu imposto di vogare al largo della casa di Begravia mentre Winnie volgeva da un'altra parte gli occhi pieni di lacrime egli non era un ospite della pensione l'ospite era Mr. Verlock l'uomo indolente che ritornava a notte tarda sonnacchioso e faceto la mattina fra le lenzuola ma con un lampo di esaltazione negli occhi dalle palpebre pesanti e mai con le tasche vuote il pigro fiume della sua vita non scintillava in alcun modo scorreva attraverso meandri scuri ma la sua barca era uno scafo spazioso e la sua taciturna magnanimità accettava come una cosa naturale la presenza dei passeggeri passò davanti agli occhi di Mrs. Verlock la visione di sette anni di sicurezza per Stevi ripagati lealmente da parte sua al marito di sicurezza crescente fino all'assoluta fiducia fino a un sentimento domestico denso e fermo come un placido stagno la cui superficie ben vigilata appena si increspava al passaggio occasionale del compagno Sipon all'anarchico robusto con gli occhi sfacciatamente provocanti il cui sguardo aveva una chiarezza di cattive intenzioni sufficiente per illuminare qualsiasi donna non assolutamente stupida pochi secondi erano trascorsi da quando l'ultima parola era stata pronunziata ad alta voce nella cucina e già Mrs. Verlock fissava nel vuoto una visione la visione di un fatto non anteriore a una quindicina di giorni prima con le pupille estremamente dilatate e la fissava nel vuoto l'immagine di suo marito e del povero Stevi che si allontanavano dalla bottega fianco a fianco lungo Brett Street era l'ultima scena di un'esistenza plasmata dal genio di lei un'esistenza estranea a ogni senso di grazia e di fascino priva di bellezza e quasi persino di decenza ammirabile però nella continuità del sentimento e nella tenacia del proposito da cui veniva alimentata c'era tale un rilievo plastico una precisione di linee in quest'ultima visione tale una fedeltà di particolari suggestivi che si astrappò a Mr. Verlock un mormorio fioco e angoscioso un mormorio d'incubo che nasceva dall'illusione suprema della sua vita e le morì sulle labbra sbiancate avrebbero potuto essere padre e figlio Mr. Verlock si fermò e alzò il viso scavato dal tormento ehi che cosa hai detto interrogò non ricevendo risposta riprese la sua passeggiata funebre a un tratto agitando in aria in atto di minaccia il pugno carnoso e massizzo esplose sicuro quelli dell'ambasciata una bella cricca prima che passi una settimana farò desiderare a qualcuno di loro di trovarsi a venti piedi sotto terra come che hai detto gettò un'occhiata di lato senza alzare la testa Mrs. Verlock guardava sempre l'intonaco della parete una parete bianca assolutamente bianca di un tal vuoto biancore da dar la voglia di correre a sbattervi contro la testa Mrs. Verlock rimase immobile al suo posto immobile come rimarrebbero nello stupore e nella disperazione tutti coloro che popolano una faccia del globo terrestre se a un tratto in un cielo d'estate sparisse il sole per opera di una perfida divinità in cui gli uomini avevano avuto fede l'ambasciata riprese Mr. Verlock dopo una smorfia preliminare che gli mise a nudo i denti con espressione vorace vorrei essere libero di entrare lì dentro per mezz'ora con un randello seguiterei a picchiare finché non ci fosse più un osso da rompere in tutta la masnada ma sta tranquilla insegnerò loro ugualmente che cosa significa provarsi a buttare via un uomo come me buttarlo a marcire per le strade ho una lingua in bocca io il mondo intero saprà che cosa ho fatto per loro non ho paura me ne infischio tutto verrà alla luce tutta quella maledetta robaccia stiano in guardia in questi termini Mr. Verlock dichiarava la sua sete di vendetta vendetta ben appropriata in armonia con l'ispirazione caratteristica del suo genio aveva anche il vantaggio di rientrare nei limiti del suo potere e di adattarsi agevolmente alle sue capacità pratiche le quali per tutta la vita erano consistite nello svelare i procedimenti segreti e illeciti dei suoi compagni anarchici e diplomatici erano tutt'uno per lui istintivamente Mr. Verlock non provava rispetto per nessuno il suo disprezzo era ugualmente distribuito in tutto il suo campo d'azione ma in quanto membro del proletariato rivoluzionario e tale egli era senza dubbio nutriva un sentimento tutt'altro che amichevole verso i più alti gradi sociali nulla al mondo potrà fermarmi ora aggiunse e tacque guardando fisso la moglie la quale guardava fisso il bianco della parete si prolungava il silenzio nella cucina e Mr. Verlock si sentì deluso egli aveva sperato che la moglie disesse qualcosa ma le labbra di lei composte nella forma usuale serbavano un'immobilità di statua come pure il resto della faccia sì Mr. Verlock era deluso doveva pure riconoscere d'altra parte che l'occasione non era tale da invitarlo a parlare sua moglie era una donna di poche parole e per ragioni inestricabili dalle fondamenta stesse della sua psicologia egli era portata ad accordare la propria fiducia ad ogni donna che gli si fosse concessa si fidava quindi di sua moglie il loro accordo era perfetto ma non ben precisato era un tacito accordo congeniale all'assenza di curiosità da parte di Mrs. Verlock e alle abitudini mentali di Mr. Verlock fatte di indolenza e di segretezza tutte e due infatti si trattenevano dal cercare il fondo dei fenomeni e delle loro cause questo riservo esprimeva in certo modo la loro fiducia reciproca il tempo stesso introduceva un che di vago e indefinito nella loro intimità nei rapporti coniugali non c'è sistema che possa dirsi perfetto Mr. Verlock presumeva che la moglie potesse capirlo mi avrebbe fatto piacere tuttavia sentirla esprimere ciò che pensava in quel momento sarebbe stato un conforto ma c'erano parecchie ragioni perché questo conforto gli venisse negato un ostacolo di carattere fisico prima di tutto Mrs. Verlock non aveva abbastanza forza per comandare alla propria voce e la non vedeva alternativa possibile fra l'urlo e il silenzio e istintivamente sceglieva il silenzio Winnie Verlock era per natura un tipo taciturno ora il pensiero atroce che le occupava la mente la paralizzava aveva le guance sbiancate le labbra color cenere e la sua immobilità era impressionante senza mai rivolgere lo sguardo verso il marito pensava quest'uomo ha portato via il ragazzo per assassinarlo ha portato via di casa il ragazzo per assassinarlo me l'ha portato via per assassinarlo tutto il suo essere era pervaso da questo pensiero ossessionante e senza via d'uscita se lo sentiva nelle vene nelle ossa alla radice dei capelli e l'assumeva mentalmente l'atteggiamento biblico della persona in lutto il viso coperto e le vesti stracciate un suono di gemiti e lamenti le riempiva la testa batteva i denti con violenza e gli occhi senza lacrime le bruciavano di disperato furore poiché non era una creatura pronta a sottomettersi la protezione che l'aveva accordata al fratello era nata da un sentimento di indignazione selvaggia aveva dovuto amarlo d'amore battagliero aveva combattuto per lui contro se stessa persino ora la sua perdita conteneva l'amarezza della disfatta insieme all'ostrazio della passione tradita non si trattava dello schianto che produce ordinariamente la morte tanto più che non era stata la morte a portarle via a stevi mister verloc gliel'aveva portata via l'aveva visto lei lei l'aveva osservato e senza alzare un dito mentre si portava via il ragazzo l'aveva lasciato andare come come una pazza come una pazza senza occhi e dopo aver assassinato il ragazzo suo marito era tornato a casa da lei era tornato a casa semplicemente come qualsiasi altro marito ritorna dalla propria moglie a denti stretti e la mormorò rivolta al muro e io che credevo tu avessi preso un raffreddore mister verloc udì quelle parole e attribui loro il senso che gli pareva più appropriato non avevo nulla disse con aria annoiata ero sconvolto per cagion tua missis verloc volgendo lentamente il capo trasferì lo sguardo dal muro alla persona del marito mister verloc teneva le punte delle dita fra le labbra e il capo basso niente da fare borbottò lasciando ricadere la mano bisogna che tu cerchi di ritirarti su ti sarà necessaria tutta la tua presenza di spirito sei tu che ci hai portato in casa la polizia non importa non dirò nulla in proposito dichiarò con magnanimità non potevi sapere non potevo ansimò missis verloc fu come se avesse parlato un cadavere mister verloc non volle lasciar cadere il filo del discorso io non ti biasimo li metterò a posto io una volta sotto chiave non sarà più tanto pericoloso per me discorgere tu capisci vuoi calcolare che rimarremo separati circa due anni continuò con un tono d'afflizione sincera sarà meno duro per te che per me tu avrai qualcosa da fare mentre io vedi Winnie ciò che tu devi fare è di mandarmi avanti questo commercio per due anni te ne intendi abbastanza per riuscirci hai il capo sulle spalle tu ti manderò a dire qual è il momento buono per darsi da turno e cercare di vendere ogni cosa dovrai essere straordinariamente prudente i compagni non cesseranno un momento di tenerti gli occhi addosso dovrai manovrare con quanta più abilitati è possibile e serbarti segreta come una tomba nessuno deve arrivare a sapere che cosa ha intenzione di fare non ho voglia di buscarmi un colpo alla testa o una pugnalata nella schiena appena messo fuori così parlò mister Verlock applicando la mente con senso di previdenza e ingenuità ai problemi del futuro la sua voce era cupa perché egli si era fatto ora un'idea chiara della situazione tutto ciò che gli avrebbe desiderato non accadesse era invece accaduto il futuro era divenuto precario forse per un momento il suo giudizio si era lasciato annebbiare dalla paura che l'insensatezza truculente di mister Vladimir aveva suscitato in lui un individuo che abbia più o meno passato la quarantina è scusabile se la prospettiva di perdere l'impiego lo sconvolge seriamente specie quando si tratti di un agente segreto della polizia politica che riposa tranquillo sulla coscienza del proprio valore e sulla stima dei personaggi d'alto grado sì mister Verlock era scusabile ora tutto finito in un crollo egli si sentiva abbastanza freddo in proposito ma certo non portato all'allegria un agente segreto che getta ai quattro venti la propria segretezza per desiderio di vendetta e fa sfoggio delle proprie imprese davanti al pubblico diventa il segno contro cui si appuntano sentimenti di indignazione disperata e sanguinaria senza troppo esagerare il pericolo mister Verlock cercò di prospettarlo con chiarezza alla moglie e ripete ancora una volta che gli non avrebbe voluto permettere ai rivoluzionari di farla finita con lui la guardò dritto negli occhi le pupille dilatate della donna accolsero quello sguardo nelle loro insondabili profondità ti voglio troppo bene per questo disse con una risatina nervosa un lieve rossore colorò il viso irrigidito e spettrale di Mrs. Verlock svanite le visioni del passato ella non solo aveva udito ma aveva anche ben capito il senso di quella frase e la frase stonava talmente con le sue condizioni mentali da provocarle un effetto di leggera soffocazione le condizioni mentali di Mrs. Verlock avevano il merito della semplicità ma certamente non erano sane un'idea fissa la dominava ogni rilievo e insenatura del suo cervello erano permeati di questo pensiero che l'uomo col quale ella aveva vissuto senza disgusto per sette anni aveva portato quel povero ragazzo lontano da lei apposte per ucciderlo l'uomo che rappresentava ormai per lei un'abitudine fisica e morale l'uomo al quale ella aveva accordato la sua fiducia si era portato via il ragazzo per ucciderlo nella forma nella sostanza negli effetti effetti universali che alteravano persino l'aspetto delle cose inanimate era quello un pensiero davanti al quale ti si poteva sedere immobili e contemplarlo stupiti per sempre per sempre Mrs. Verlock sedeva immobile e attraverso il velo di quel pensiero non attraverso la cucina vedeva la figura di Mr. Verlock andare e venire una figura familiare col cappello e il sopravito che pareva calpestarle il cervello coi suoi stivali probabilmente stava anche discorrendo ma il pensiero di Mrs. Verlock copriva quasi completamente la sua voce di quando in quando tuttavia la voce si faceva sentire emergevano a momenti parole connesse tra loro contenevano per lo più un senso di speranza ogni volta che questo accadeva le pupille dilatate di Mrs. Verlock perdevano la loro fissità distante e seguivano i movimenti del marito con espressione di tetro tormento e con attenzione impenetrabile di tutto ciò che riguardava la sua professione segreta Mr. Verlock era informato abbastanza da potersi augurare un buon successo per i suoi piani e progetti egli credeva realmente che alla fine dei conti sarebbe stato facile per lui sfuggire al coltello dei rivoluzionari furibondi troppo spesso aveva esagerato la violenza del loro furore e la lunghezza del loro braccio a scopo professionale per farsi ancora in un modo o in un altro illusioni in proposito infatti perché l'esagerazione non appaia insensata bisogna cominciare con un giudizio esatto sapeva anche come facilmente si dimentichi la virtù come facilmente si dimentichi l'infamia in due anni due lunghi anni la prima volta che egli parlava davvero in confidenza alla moglie le sue parole erano ispirate da un ottimismo convinto pensava inoltre che fosse buona politica far mostra di sicurezza quanto più ne poteva accogliere in sé ciò avrebbe infuso coraggio nella povera donna una volta uscito di carcere ciò che in armonia con tutto il suo tenore di vita avrebbe dovuto naturalmente rimanere un segreto loro due sarebbero scomparsi insieme senza metter tempo in mezzo quanto poi alla necessità di nascondere le loro tracce egli raccomandava alla moglie di fidarsi di lui sapeva lui che cosa si sarebbe dovuto fare in modo che nemmeno il diavolo in persona agitò la mano aveva l'aria di vantarsi ma voleva soltanto farle coraggio l'intenzione era buona mister Verlock però aveva la mala sorte di non trovare corrispondenza nella persona a cui rivolgeva il discorso pur lasciando cadere la maggior parte delle parole l'orecchio di Mrs. Verlock colse quel tono sicuro di sé infatti che cos'erano ormai per lei le parole che cosa potevano farle di bene o di male le parole di fronte a un'idea fissa il suo sguardo sinistro seguiva i gesti di quell'uomo il quale stava ora asserendo la propria impunità l'uomo che aveva portato via il povero stevi dalla sua casa in un luogo qualunque per ucciderlo Mrs. Verlock non riusciva a ricordare esattamente dove ma il cuore cominciò a batterle in modo sensibilissimo con la voce carezzevole dell'intimità coniugale il marito stava ora esprimendo la ferma convinzione che i loro due avevano ancora davanti a sé un discreto numero d'anni di vita tranquilla non entrò nella questione dei mezzi una vita tranquilla avrebbe dovuto essere e per così dire rifugiata nell'ombra nascosta tra la gente come la violetta si nasconde tra l'erba e modesta come l'esistenza della medesima per definirla usò queste parole giacera in basso per un po' di tempo e lontano dall'Inghilterra naturalmente non apparve ben chiaro se gli pensasse alla Spagna o al Sud America in un luogo o nell'altro ma in ogni modo all'estero l'ultima parola raccolta dall'orecchio di Mrs. Verlock produsse un'impressione ben definita quell'uomo parlava di andare all'estero l'impressione rimase completamente sconnessa e tale è la forza delle abitudini mentali che all'istante Mrs. Verlock chiese automaticamente a se stessa che ne sarà di Stevi fu una specie di amnesia immediatamente seguita dalla consapevolezza che non era più il caso di preoccuparsi a quel proposito non sarebbe stato il caso mai più il povero ragazzo era stato portato via e ucciso il povero ragazzo era morto la scossa che seguì all'amnesia fu come uno stimolante per l'intelligenza di Mrs. Verlock cominciò a intravedere certe conseguenze che avrebbero sorpreso suo marito non c'era più necessità per lei di star lì in quella cucina in quella casa con quell'uomo giacché il povero ragazzo se n'era andato per sempre nessuna necessità di nessuna specie dietro questo pensiero Mrs. Verlock si alzò come spinta da una molla ma che cosa avrebbe potuto tenerla ancora attaccata al mondo questo non poteva vederlo da nessuna parte e una tale incapacità la immobilizzò di nuovo Mr. Verlock la vigilava con maritale sollecitudine mi sembra che ora tu cominci a riprendere il tuo aspetto normale disse ma senza convinzione qualcosa di singolare nell'oscurità di quegli occhi disturbava il suo ottimismo in quel preciso istante Mrs. Verlock cominciò a considerare se stessa come sciolta da tutti i legami terrestri riprendeva la sua libertà il suo contratto con l'esistenza in quanto rappresentato da quel uomo che stava lì in piedi davanti a lei scadeva ormai era libera se Mr. Verlock avesse potuto in qualche maniera immaginare un simile punto di vista mi sarebbe rimasto estremamente scandalizzato negli affari del cuore Mr. Verlock era stato sempre di una generosità senza calcoli e tuttavia con la precisa idea di essere amato soltanto per se stesso a questo riguardo le sue nozioni etiche andavano d'accordo con la sua vanità e nulla avrebbe potuto alterarle e si verificasse nel caso del suo legame legittimo e virtuoso era una cosa che non avrebbe mai potuto mettere in dubbio gli anni erano passati su di lui ed egli si era fatto sempre più grasso e pesante nella persuasione che non gli mancavano le attrattive necessarie per farsi amare per se stesso quando vide Mrs. Verlock che stava per lasciare la cucina senza dire una parola rimase deluso dove te ne vai ora gridò in tono piuttosto brusco di sopra Mrs. Verlock già sulla soglia a quella voce si voltò un istinto di prudenza suscitato in lei dal timore un timore tremendo che quell'uomo potesse venirle vicino potesse toccarla la indusse a rispondergli con un lieve cenno del capo dall'alto dei due scalini e con un movimento appena percettibile delle labbra che l'ottimismo coniugale di Mr. Verlock scambiò per un pallido in certo sorriso così va bene la incoraggiò in tono e quanto burbero non hai bisogno altro che di riposo e di quiete vai vai fra non molto ti raggiungerò Mrs. Verlock la donna libera che in realtà non aveva idea di dove volesse andare obbedì al consiglio con rigida precisione Mr. Verlock rimase a guardarla e la scomparve su per le scale e il marito si sentì deluso qualcosa dentro di lui avrebbe voluto più tosto che la gli venisse incontro per gettargli si fra le braccia ma era generoso e indulgente Mr. Verlock quindi non era stata mai molto espansiva e sempre incline al silenzio neppure lui come regola generale si prodicava troppo in tenerezza e lunghi discorsi ma questa non si poteva considerare una sera come le altre era uno di quei momenti in cui un uomo ha bisogno di sentirsi rinvigorire da chiare dimostrazioni d'affetto e di comprensione sospirò e chiuse il rubinetto del gas in cucina l'affetto di Mr. Verlock verso la moglie era intenso e genuino gli venivano quasi le lacrime agli occhi mentre stava in piedi nel salotto a meditare sulla solitudine sospesa sul suo capo in tale stato d'animo egli sentì la mancanza di Stevi completamente fuori ormai da questo mondo difficile pensò con cupa tristezza alla sua fine se almeno quel benedetto figliuolo non si fosse suicidato in modo così stupido ma salì una sensazione di fame implacabile abbastanza nota ad avventuriali di fibra ben più dura della sua dopo lo sforzo di un'impresa audace il pezzo d'arrosto che era rimasto sulla tavola quasi un banchetto funebre per le esecue di Stevi si offriva largamente alla sua attenzione e Mr. Verlock ne riprese ancora ne riprese voracemente senza ritegno né pudore tagliandosi grosse fette col coltello di cucina ben affilato e trangugiandole senza pane mentre consumava questo piccolo pasto gli venne fatto ad osservare che non sentiva la moglie muoversi al piano di sopra per la camera come avrebbe dovuto il pensiero di trovarla probabilmente seduta sul letto al buio non solo gli tolse di punto in bianco l'appetito ma anche il desiderio di raggiungerla al più presto al piano di sopra posò il coltello e rimase in ascolto con attenzione piena di tormento sentì che si muoveva finalmente e ne fu consolato attraversava la stanza d'un tratto apriva la finestra seguirono minuti di calma durante i quali egli se la immaginò affacciata con la testa di fuori poi gli giunse all'orecchio il rumore dell'impannata che si riabbassava lentamente qualche passo ancora poi si accorse che si era seduta ogni risonanza della sua casa era familiare a mister Verlock animale integralmente domestico quando di nuovo udì sul suo capo il suono dei passi della moglie si rese conto proprio come se l'avesse vista che ella si era messa alle scarpe da passeggio a questo sintomo di cattivo augurio egli si strinse leggermente nelle spalle e allontanandosi dalla tavola andò a mettersi con la schiena il caminetto e rimase lì in piedi il capo inclinato da una parte a mordicchiarsi la punta delle dita con aria perplessa seguiva uno per uno i movimenti di lei attraverso i suoni ella andava qua e là per la camera furiosamente confermate improvvise ora davanti al cassettone ora davanti all'armadio un peso immenso di stanchezza messe raccolte in quel giorno d'emozioni e sorprese violente finì da battere le energie di mister Verloc non alzò gli occhi finché non si accorse che la moglie scendeva le scale proprio come aveva immaginato e la si era vestita per uscire mrs Verloc era libera ormai aveva spalancato la finestra della camera forse con l'intenzione di gridare assassino aiuto o forse per gettarsi di sotto da che non sapeva esattamente la stessa quale uso fare della sua libertà era come se la sua personalità fosse stata stracciata in due pezzi le operazioni mentali dell'una non si combinavano esattamente con quelle dell'altra la strada da un capo all'altro silenziosa e deserta la respingeva quasi prendendo le parti di quell'uomo così sicuro della propria impunità aveva paura di gridare per il caso che nessuno dovesse accorrere no certo non sarebbe accorso nessuno ma il suo istinto di autoconservazione ripugnava l'idea di precipitare nel fondo di quella specie di fossa stretta e oscura missis verloc aveva dunque rituso la finestra e si era vestita per uscire in strada da un'altra parte però era libera ormai si era vestita completamente da passeggio senza dimenticarsi neppure di annodare al cappello un velo nero che le scendeva sul viso quando gli apparve davanti nella luce del salotto mister verloc osservò la borsa da viaggio appesa al braccio sinistro fuggiva da sua madre naturalmente l'idea che le donne sono alla fine dei conti creature ben noiose gli si presentò dal cervello affaticato ma era troppo generoso mister verloc per accettare questo pensiero anche un solo momento crudelmente ferito nella sua vanità quell'uomo continuava tuttavia a comportarsi in modo magnanimo non permettendosi nemmeno la soddisfazione di un sorriso amaro o di un gesto sprezzante con una vera e propria grandezza d'animo egli settò appena un'occhiata all'orologio appeso al muro entro la cornice di legno e disse perfettamente calmo ma in un tono alquanto forzato le otto e venticinque quindi è assurdo andare laggiù così tardi non troveresti certo il modo d'essere di ritorno stanotte davanti alla sua mano tesa Mrs. Verloc si era fermata su due piedi e gli aggiunse con gravità tua madre sarà andata a letto prima che tu arrivi da lei le notizie di questo genere possono sempre aspettare nulla era così lontano dalla mente di Mrs. Verloc come l'intenzione di andare da sua madre la sola idea le ripugnava e avvertendo dietro di sé la presenza di una sedia obbedì al suggerimento di quel semplice contatto e si sedette la sua intenzione era stata semplicemente quella ad andarsene via per sempre questo sentimento era preciso tuttavia assumeva una forma mentale non ben delineata in corrispondenza col suo punto d'origine e di partenza preferirei passeggiare per le strade notte e giorno fino alla morte pensò l'urto che l'aveva moralmente risentito era tale che nell'ordine fisico delle cose il più violento terremoto che la storia ricordi poteva renderne soltanto un'immagine debole e languida e la creatura sottoposta a una simile scossa si trovava ora alla mercè d'ogni soffio di vento d'ogni contatto casuale sedette col cappello in capo e la faccia velata aveva l'aria di una visitatrice che fosse venuta a trovare mister Verlock per trattenersi solo qualche momento la sua docilità istantanea gli dette un po' di coraggio al tempo stesso quell'obbedire taciturno e si sarebbe detto provvisorio lo provocò leggermente permettimi di farti osservare Winnie disse autorevole che il tuo posto è qui stasera l'annazione ma hai portato quella maledetta polizia su e giù per la casa non te ne faccio un rimprovero ma non si può negare che è stata opera tua faresti meglio a levarti il cappello che il diavolo se lo porti non posso lasciarti uscire bimba cara aggiunse con voce più dolce il cervello di Mrs. Verlock accolse questa dichiarazione con tenacia morbosa l'uomo che proprio davanti agli occhi le aveva portato via Stevi per andarlo ad assassinare in una località il cui nome in quel momento non era presente nella sua memoria ora le proibiva di andarsene naturalmente glielo proibiva ora che aveva assassinato Stevi non le avrebbe mai permesso di andarsene avrebbe voluto trattenerla ora che non c'era più motivo caratteristico ragionamento che aveva tuttavia la forza di una logica insana e le facoltà sconnesse di Mrs. Verlock cercarono una via ad uscita pratica avrebbe potuto svignarsela aprire la porta fuggire in strada ma lui le si sarebbe precipitato alle spalle l'avrebbe afferrata per la vita e trascinata di nuovo in bottega poteva graffiarlo morderlo tirar calci poteva trafiggerlo magari ma per trafiggerlo occorreva un coltello e Mrs. Verlock rimase seduta immobile col viso velato di nero in casa sua come un visitatore misterioso la cui maschera nasconde propositi impenetrabili la magnanimità di Mr. Verlock non era sovrumana il contegno della moglie finì per esasperarlo sei capace sì o no di dire qualcosa fai di tutto per indispettire un disgraziato oh sicuro conosco il tuo metodo di sordo muta non è la prima volta che te lo vedo mettere in opera in questo momento però ti avverto che non serve e per cominciare levati quel maledetto affare che ti sei messa sul viso non si arriva a capire se si parla a un fantoccio o a una donna viva e vera si fece avanti tese la mano e strappò via il velo smascherando una faccia rigida e indecifrabile contro la quale la sua esasperazione nervosa venne ad infrangersi come una bolla di vetro lanciata contro una roccia così va meglio disse per nascondere l'inquietudine del momento e di nuovo si ritrasse al suo vecchio posto di guardia presso il caminetto non gli passò nemmeno per la testa che la moglie intendesse rinunziare a lui provò una certa vergogna di se stesso perché le voleva bene ed era un'anima generosa che fare ora tutto quello che c'era da dire era stato detto uscì dunque in una protesta vehemente per dio tu sai che sono andato alla caccia di qualcuno per mare per terra ho corso il rischio di farmi scoprire per trovare un individuo capace di fare quel colpo maledetto come ti ripeto non c'è stato verso di scovare uno abbastanza pazzo o abbastanza affamato che cosa credi che io sia un assassino o che altro il ragazzo se n'è andato ma tu pensi forse che io avessi l'intenzione di farlo saltare in aria se n'è andato è fuori dai guai i nostri invece stanno per cominciare e te lo dico io proprio perché è lui che si è fatto saltare non ti rimprovero ma cerca di capire che è stata semplicemente una disgrazia come se fosse rimasto sotto un'auto attraversando la strada la sua generosità non era infinita ed era pure un essere umano mister Verloc non un mostro come lo credeva sua moglie tacque e ringhiò sollevando i baffi e mettendo in mostra una fila lucente di denti bianchi ciò che gli conferì l'espressione di una bestia sopra pensiero una bestia non troppo pericolosa lenta nei movimenti con una testa levigata e lucida e l'espressione più lugubre d'una foca una bestia dalla voce rauca quando poi si arriva a questo punto la colpa è tanto tua quanto mia proprio così puoi guardarmi bieco quanto ti pare so già fino a che punto puoi arrivare con codesto sistema che dio mi fulmini se avevo mai pensato di servirmi del ragazzo per quello scopo è stata tu che ti sei ostinata a spingerlo sulla mia strada e per l'appunto nel momento in cui ero mezzo impazzito per la preoccupazione di liberare me e voi tutti dall'imbarazzo che diavolo volevi fare si sarebbe detto che tu agissi con uno scopo io vado all'inferno se potevo supporre una cosa simile non si può dire quanta parte tu abbia avuto in quello che è successo tramando in sordina con quella tua dannata aria di non curanza con quella tua maniera di guardare sempre nel vuoto e di non dire assolutamente nulla la voce rauca si interruppe per un poco mrs Verloc non aprì bocca per rispondere e davanti a quel silenzio egli provò vergogna di ciò che aveva detto ma come spesso accade agli uomini pacifici nei piccoli litigi domestici quel senso di vergogna lo spinse a premere un altro tasto tu alle volte hai una maniera diabolica di tenere la bocca chiusa ad ogni costo disse senza alzare la voce basterebbe per far ammattire a certa gente hai la fortuna di aver trovato un uomo che non si lascia facilmente metter fuori dai gangheri come accadrebbe ad altri davanti a quel duo sgarbato con tegno la sordobuta io ti voglio bene ma non esagerare non è questo il momento ora dobbiamo riflettere su quel che ci resta da fare e io non posso permetterti di uscire stasera per correre da tua madre e raccontarle qualche storia insensata sul mio conto non voglio saperne vada bene di non prendere abbagli in proposito se vuoi credere ad ogni costo che io abbia ucciso il ragazzo ebbene allora ti dico che tu l'hai ucciso non meno di me mai parole così sincere sentite e chiaramente espresse ma è nulla di lontanamente simile era stato pronunciato in quella casa che si reggeva sui proventi di un'industria segreta integrati con la vendita di più o meno segrete mercanzie poveri espedienti escocitati da un'umanità mediocre per preservare una società imperfetta dai pericoli di una corruzione fisica e morale corruzione anch'essa a modo suo segreta sull'uno e l'altro piano quelle parole furono pronunciate perché mister Verloc si era sentito realmente offeso ma le reticenze e i pudori della sua vita domestica rifugiata in quella strada oscura dietro quella bottega dove non entrava mai il sole rimasero evidentemente al punto di prima mrs Verloc lo ascoltò sino in fondo con compostezza perfetta e quindi si levò in piedi così con la giacca al cappello pareva proprio un'estranea alla fine di una breve visita venne verso suo marito tendendogli la mano come per un addio silenzioso il velo penzolone al lato sinistro del viso dava ai suoi gesti rattenuti un'aria di disordine esteriore ma quando giunse davanti al caminetto mister Verloc non era più lì si era diretto verso il sofà senza nemmeno alzare gli occhi per studiare l'effetto del suo fervorino si sentiva stanco rassegnato in uno spirito veramente maritale ma si sentiva anche ferito nel punto più vulnerabile della sua tenerezza segreta se la continuava ancora con quella faccia di malumore con quel silenzio tremendo soffocante ebbene tanto peggio per lei egli era maestro in quel genere d'arte domestica mister Verloc si lasciò cadere sul sofà come al solito senza preoccuparsi della sorte del suo cappello il quale abituato a bastare a se stesso trovò un rifugio sicuro sotto la tavola era stanco fino all'ultima particella la sua forza nervosa si era totalmente esaurita fra lo stupore e l'agonia in quella giornata piena di insuccessi sorprendenti in quella giornata che giungeva alla fine di un mese tormentoso di continui progetti ed insonnia era stanco l'uomo non è fatto di pietra al diavolo ogni cosa mister Verloc prese il suo caratteristico atteggiamento di riposo con indosso gli abiti da passeggio un lembo del sopravito sbottonato gli strascicava sul pavimento mister Verloc si girò sulla schiena provava però il desiderio profondo ad un riposo più perfetto dormire qualche ora di delizioso oblio ma l'avrebbe avuto più tardi intanto si contentava di un riposo provvisorio e diceva fra sé vorrei proprio che la piantasse con quel dannato assurdo modo di fare mi esaspera doveva pur esserci qualcosa di imperfetto nel sentimento di riconquistata libertà latente in Mrs. Verloc invece ad avviarsi verso la porta si appoggiò di spalle alla mensola del caminetto come un viandante si riposa contro uno steccato c'era nel suo aspetto un che di selvaggio derivante sia dal velo nero che le sbatteva sulla gota come uno straccio sia dalla fissità del suo sguardo nero in cui la luce della stanza si concentrava e si perdeva senza lasciar traccia nemmeno una timida scintilla questa donna rimaneva ora indecisa quasi fosse rigorosamente consapevole del fatto che qualcosa si richiedeva ancora da parte sua per la formale chiusura della transazione mister Verloc adagiato sul divano si stringeva nelle spalle per sentirsi più comodo e dalla pienezza del cuore gli sgorgava l'espressione di un pio desiderio certo molto pio come tutto ciò che proveniva da quella sorgente vorrei che Dio mi facesse la grazia grugnì Rauco di non aver visto mai Greenwich Park e nulla che gli appartenga la sua voce velata riempì la piccola stanza del proprio volume mediocre che ben si confaceva alla modesta natura di quel desiderio le onde acustiche di appropriata lunghezza diffondendosi secondo l'esatta formula matematica si propagarono intorno agli oggetti inanimati della stanza e lambirono la testa di Mrs. Verloc come se fosse una testa di pietra gli occhi di lei per quanto la cosa potesse apparire incredibile parvero dilatarsi ancora di più espresso in modo chiaro per l'udito l'augurio che sgorgava dalla sovrabbondanza del cuore di Mr. Verloc venne a colmare una lacuna nella memoria di sua moglie Greenwich Park un parco il luogo dove il ragazzo era stato ucciso un parco rami infranti foglie strappate ghiaie lembi di carne fraterna e frantumi delle sue ossa tutto un miscuglio che sprizza in aria come un fuoco d'artificio ora ricordava ciò che aveva udito la memoria glielo rappresentava in modo pittoresco l'avevano dovuto raccogliere con la pala tutta tremante di irrefrenabili brividi e la vedeva l'oggetto stesso e il suo macabro contenuto raccolto a fatica dal terreno Mrs. Verloc chiuse gli occhi con un movimento disperato per calare sulla visione l'ombra notturna delle palpebre e ancora le rimase davanti dopo una pioggia di membra sfracellate la testa di Stevie troncata dal corpo galleggiante da sola nel vuoto che lentamente impallidiva e svaniva come l'ultima stella di uno spettacolo pirotecnico Mrs. Verloc aprì gli occhi il suo viso non era più quello di una statua chiunque avrebbe potuto notare un mutamento sottile nei lineamenti nello sguardo che le conferiva un'espressione nuova tutt'altro che rassicurante un'espressione che i competenti di rado possono cogliere nelle condizioni normali e tranquille richieste per un'analisi accurata ma il cui significato è comprensibile a prima vista ogni dubbio circa lo scioglimento del contratto era svanito nella sua mente le sue facoltà non erano più sconnesse e lavoravano ormai sotto il controllo della volontà Mr. Verloc tuttavia non si accorse di nulla egli riposava in quelle patetiche condizioni di ottimismo prodotto da un eccesso di fatica non voleva più saperne di seccatura neppure con la moglie con nessuno al mondo si era giustificato con argomenti irrefutabili e sapeva d'essere amato per se stesso il silenzio di lei doveva ora trovarsi in una fase che gli interpretava favorevolmente era il momento buono per fare la pace già troppo avevano taciuto ruppe il ghiaccio chiamandola con voce sommessa Winnie sì rispose obbediente Mrs. Verloc donna libera aveva ripreso ormai il dominio delle sue facoltà e degli organi vocali sentiva di aver conquistato un controllo perfetto quasi soprannaturale sopra ogni fibra del proprio corpo il proprio corpo sì completamente suo perché il contratto era scaduto ormai aveva lo sguardo lucido era diventata scaltra non senza un secondo fine mi aveva risposto così prontamente ella non voleva che quell'uomo mutasse posizione sul divano perché quella posizione era favorevole alle circostanze riuscì nell'intento l'uomo non si mosse ma dopo avergli risposto la donna rimase appoggiata alla mensola del caminetto nell'atteggiamento ozioso del viandante che si riposa non aveva fretta non c'erano rughe sulla sua fronte non vedendo la testa né la schiena di mister Verloc nascoste dall'alta spalliera del divano rimase con gli occhi fissi sui piedi di lui così rimase in misteriosa immobilità subitamente raccolta in se stessa fino al momento in cui si udì la voce di mister Verloc a proferire con accento d'autorità maritale vieni qui egli si spostò leggermente per farle posto a un'estremità del divano il tono singolare di quelle parole si sarebbe potuto giudicare brutale ma era invece intimamente noto a Mrs. Verloc come il tono della sollecitazione amorosa senza indugio e la mosse verso di lui quasi fosse ancora la sposa leale legata a quell'uomo da un contratto persistente con la mano destra sfiorò appena l'orlo della tavola e quando fu passata oltre il grosso coltello da cucina non si trovava più al suo posto accanto al piatto era sparito ma senza il minimo suono mister Verloc udì scricchiolare il legno del pavimento e ne fu soddisfatto rimase in attesa e la veniva come se l'anima randagia di Stevi in cerca di rifugio fosse volata direttamente in seno a colei che gli era stata sorella e custode e protettrice la somiglianza del suo viso con quello del fratello cresceva ad ogni passo fin nella piega del labbro inferiore fin nella lieve divergenza degli occhi ma Mr. Verloc non se ne accorse giaceva al supino guardando fisso in alto vedeva in parte il soffitto e in parte il muro e sul muro vide in parte l'ombra di un brazzo che si avvicinava di una mano che impugnava un grosso coltello l'ombra oscillava su e giù si avvicinava senza fretta senza fretta tanto da permettere a Mr. Verloc di riconoscere quel brazzo di riconoscere quell'arma senza fretta senza fretta tanto da permettergli di cogliere in pieno il significato di quel prodigio e di assaporare il gusto della morte che gli saliva alla gola certo sua moglie era stata colpita da pazzia furiosa da pazzia omicida quelle immagini si avvicinarono caute ad agio ad agio tanto da permettere all'effetto paralizzante della sua scoperta di svanire ancor prima che si formasse in lui l'energica risoluzione di uscire vittorioso di uscire salvo da un lugubre conflitto con quella creatura folle ed armata si avvicinarono abbastanza lentamente per lasciargli il tempo di elaborare un piano di difesa un balzo dietro la tavola e la donna abbattuta al suolo sotto i colpi di una pesante sedia di regno ma non abbastanza lentamente da dargli la possibilità di muovere un piede o una mano già ella gli aveva piantato il coltello nel cuore e il coltello non incontrò resistenza sulla sua strada talmente esatto è a volte l'azzardo nell'inferire quel colpo profondo al di sopra della spalliera del divano Mrs. Verloc aveva messo in opera tutta la capacità ereditata da una discendenza oscura e immemorabile la feroce elementare dell'uomo delle caverne la furia nervosa incontrollata dell'età dei bar room Mr. Verloc l'agente segreto girandosi leggermente sul fianco destro dietro la forte spinta di quel colpo spirò senza muover membro mugolando appena no no in forma di protesta Mrs. Verloc aveva lasciato cadere il coltello sul suo volto era impallidita la prodigiosa identità col fratello perduto riducendosi a una somiglianza di carattere ordinario tirò un respiro profondo il primo respiro libero dal momento in cui l'ispettore capo hit le aveva mostrato il brandello del soprabito di stevi con l'indirizzo scritto sopra si chinò in avanti puntando i gomiti sulla spalliera del divano prese quell'atteggiamento abbandonato non per osservare con curiosità o con rancore il corpo di Mr. Verloc ma perché il salotto dondolava e fluttuava intorno a lei come se fosse stato sul mare in tempesta era in preda una vertigine e calma tuttavia si sentiva ormai libera di una libertà perfetta che non le lasciava nulla da desiderare e assolutamente nulla da fare giacché il richiamo urgente di stevi alla sua dedizione taceva per sempre Mrs. Verloc il cui pensiero si svolgeva per mezzo di immagini non era più turbata da alcuna visione perché non pensava più nel modo più assoluto non si muoveva era una donna che godeva di una completa irresponsabilità e di un ozio senza fine quasi come un corpo morto non si muoveva non pensava altrettanto poteva dirsi della spoglia mortale del fu Mr. Verloc adagiata sul divano eccettuato il fatto che lei respirava i due potevano dirsi in perfetta armonia quell'armonia fatta di riservo prudente senza parole superflue senza troppi gesti che era stata alla base della loro rispettabile vita domestica veramente rispettabile era stata quella vita che aveva saputo nascondere con reticenza pudica i problemi che avrebbero potuto assorgere dalla pratica di una professione segreta e dal commercio di losche mercanzie sino alla fine il suo decoro era rimasto illeso da grida sconvenienti ed altre manifestazioni sincere e fuori posto ora dopo il colpo supremo questa rispettabilità si prolungava nell'immobilità e nel silenzio non vi fu ombra di movimento nel salotto finché Mrs. Verloc non alzò lentamente il capo e guardò l'orologio con aria interrogativa e diffidente si era accorta di un piccolo suono nella stanza un tichettio che cresceva e cresceva al suo orecchio mentre lei ricordava benissimo che l'orologio al muro era silenzioso il suo battito impercettibile che significava dunque quel sussurro improvviso e così forte le lancette segnavano dieci minuti alle nove a Mrs. Verloc non interessava per niente di sapere che ora fosse ma intanto il tichettio continuava giunse alla conclusione che non dovesse trattarsi dell'orologio e il suo sguardo rugubre si aggirò per la stanza lungo i muri esitò si fece vago mentre intanto ella sforzava l'udito per localizzare il suono tic 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 dopo essere rimasta un poco in ascolto si decise ad abbassare gli occhi sul corpo del marito questo atteggiamento di riposo era per lei così familiare che potei guardarlo senza imbarazzo senza sentirsi turbata da nessun fenomeno nuovo evidente nell'andamento della vita quotidiana suo marito faceva il solito pisolino aveva l'aria di trovarsi comodo il corpo di Mr. Verlock era in posizione tale che Mrs. Verlock la vedova non poteva osservarlo di fronte i suoi begli occhi assonnoliti seguendo la traccia indicata dal suono si fecero più attenti posandosi su un oggetto d'osso di forma piatta che sporgeva un poco dall'orlo del sofà era il manico del ben noto coltello da cucina nulla di strano nella sua apparenza fuorché la posizione ad angolo retto con la sottoveste di Mr. Verlock e il fatto che qualche cosa ne gocciolava a terra stille scure cadevano sul tappeto una dietro l'altra con un tic-tac sempre più rapido e furioso come il battito di un orologio impazzito al punto massimo di velocità si mutò in un suono ininterrotto come di un piccolo ruscello Mrs. Verlock seguì attenta a questo cambiamento con ombre d'ansietà che andavano e venivano sulla sua faccia un ruscelletto cupo rapido sottile sangue la circostanza non era stata prevista e Mrs. Verlock abbandonò la sua posa oziosa e irresponsabile gettò un grido fioco si tirò su le sottane e corse verso la porta come se il ruscelletto fosse il primo segnale di un diluvio devastatore nel fuggire si trovò davanti la tavola la respinse con tutte e due le mani come se fosse stata viva e con tale forza che quella scivolò a una certa distanza sulle sue quattro gambe producendo un rumore acuto e stridente mentre il largo piatto col resto della carne cadeva di peso al suolo e andava in briciole poi tutto tacque Mrs. Verlock si era fermata sulla soglia la tavola spostandosi aveva lasciato allo scoperto per terra in mezzo alla stanza un cappello rotondo che ora si dondolava leggermente sul cocuzzolo per il vento prodotto dalla fuga della donna 12 Winnie Verlock la vedova di Mr. Verlock la sorella del fu fedele Stevi fatto a pezzi in stato di innocenza e nella persuasione ad essere impegnato in un'impresa umanitaria non oltrepassò la porta del salotto in realtà si era spinta fino a quel punto per un semplice gocciolio di sangue ma si trattava solo di un movimento di repulsione istintiva sulla soglia si fermò la testa bassa ed occhi stralunati come se in quella fuga attraverso il piccolo salotto ella avesse corso per lunghi e lunghi anni la Winnie ferma sulla soglia non era più la stessa donna che si era appoggiata alla spalliera del divano con la testa in preda a una leggera vertigine ma per il resto libera di godere una calma profonda un senso d'ozio ed irresponsabilità la vertigine era svanita d'altra parte era svanita anche la calma Mrs. Verloc aveva paura non che avesse paura del marito adagiato sul divano anche se evitava di guardare in quella direzione non c'era nulla di spaventoso nell'aspetto di Mr. Verloc aveva l'aria di trovarsi comodo e poi era morto Mrs. Verloc non coltivava illusioni vane a proposito dei morti nulla li può ricondurre tra i vivi né l'amore né l'odio non possono farti nulla non sono più nulla il suo stato d'animo si colorava di una sfumatura di disprezzo austero verso quell'uomo che si era lasciato uccidere così agevolmente quell'uomo il padrone di casa il marito di una donna l'assassino del suo stevi ora non contava più nulla in nessun senso praticamente contava meno dei panni che lo rivestivano meno del suo sopravito dei suoi stivali meno di quel cappello che giaceva sul pavimento non era più nulla non valeva la pena di guardarlo non era più nemmeno l'assassino del povero stevi il solo assassino che le persone in cerca di mister verlo che avrebbero trovato in quella stanza era lei le tremavano talmente le mani che per due volte fallì nel tentativo di legarsi il velo non si sentiva più una creatura oziosa ed irresponsabile aveva paura per uccidere mister verloc era bastato un colpo quel colpo l'aveva liberata dalla lunga agonia di grida trattenute che parevano strozzarda di lacrime disseccate negli occhi che scottavano di furibonda indignazione tale da farla impazzire davanti alla parte atroce recitata da quell'uomo il quale ora era meno che nulla nel rapirle il suo ragazzo una forza oscura l'aveva spinta a inferire quel colpo il ruscelletto di sangue che dal manico del coltello sgocciolava sul pavimento l'aveva trasformato in un caso comune d'assassinio missis verloc che si era sempre astenuta dal guardare le cose troppo a fondo questa volta si sentiva costretta a cercare proprio il fondo della cosa ma non vi scorse visioni di incubo e di rimorso non ombra di rimprovero nessuna concezione ideale di nessuna specie vide soltanto un oggetto e quell'oggetto era la forca missis verloc ebbe paura della forca ne provò un terrore idealizzato non avendo mai posato gli occhi su quest'ultima testimonianza della giustizia umana fuorché nelle illustrazioni di un certo tipo di racconti le parve dapprima di scorgerla eretta contro uno sfondo nero e burrascoso adorno con festoni di catene ed ossa umane e tutto intorno una ghirlanda di uccelli che trafiggono a colpi di becco gli occhi dei morti il quadro era già orrido abbastanza ma missis verloc sebbene non molto informata in generale conosceva abbastanza le istituzioni del suo paese per sapere che la forca oggi non si innalza più romanticamente sulla riva di fiumi desolati o sui promontori battuti dal vento bensì nei cortili delle carceri vivi fra quattro alte mura come dentro una fossa assassino viene condotto all'alba per l'esecuzione capitale in una quiete orrenda e come sempre riferiscono i giornali alla presenza delle autorità lo sguardo fisso a terra le narici palpitanti per la vergogna e l'angoscia e la si raffigurava sola in mezzo a una folla di strani gentiluomini in cappello a cilindro che procedevano con tutta calma ai preparativi della sua impiccagione no questo mai mai e l'impiccagione poi come si svolgeva l'impossibilità di immaginare i particolari di quell'esecuzione silenziosa aggiungeva qualcosa di frenetico al suo terrore astratto i giornali non entrano mai in particolari eccetto uno e quell'uno come se vi fossero affezionati lo mettono sempre alla chiusura di un magro resoconto mrs sverlock ricordava bene in che consistesse se lo sentiva nella testa come una scottatura dolorosa quasi che le parole lasciato andare da quattro metri d'altezza le fossero state scalfite nel cervello con una punta rovente quelle parole le dettero anche un senso di malessere fisico la gola le si contraeva in modo convulso come per lo sforzo di resistere alla corda che strangola e l'impressione del lancio fu così intensa che la si afferrò la testa con tutte e due le mani come per impedire che gliela strappassero dalle spalle lasciato andare da quattro metri d'altezza no questo mai questo non l'avrebbe mai potuto affrontare nemmeno l'idea di una simile cosa era tollerabile non avevo la forza di pensarci e fu in conseguenza di ciò che Mrs. Verrock risolse ad andarsene immediatamente e di gettarsi nel fiume dalla spalletta di qualche ponte questa volta le riuscì di legarsi il velo qua ci avesse una maschera sul viso tutta in nero da capo ai piedi ad eccezione di qualche fiore nel cappello sollevò macchinalmente gli occhi all'orologio pensò che si fosse fermato non riusciva a credere che fossero passati soltanto due minuti da quando l'aveva guardato l'ultima volta impossibile certo era rimasto fermo tutto quel tempo effettivamente erano trascorsi solo tre minuti dal suo primo respiro libero e profondo dopo il colpo fino all'istante in cui aveva appreso la risoluzione di gettarsi nel tamigi ma non riusciva a crederci e pareva di aver sentito dire o di aver letto che gli orologi grandi e piccoli si fermano sempre nell'attimo in cui si compie l'assassinio per la rovina dell'assassino non se ne curò vado al ponte poi al di là ma si muoveva con lentezza a fatica si tracinò fuori di bottega fu costretta a reggersi alla maniglia prima di trovare la forza necessaria per aprire la porta la strada la spaventava la strada che conduceva al fiume o al patibolo si scagliò di là dalla soglia le braccia tese e la testa in avanti come una persona che cade dal parapetto di un ponte questo tuffo nell'aria aperta fu come pregustare il sapore dell'annegamento un'umidità sottile l'avvolse le penetrò nelle narici le aderia ai capelli non pioveva in quel momento ma ogni lampione aveva intorno un alone leggero di nebbia era partito il furgone con i suoi cavalli e nella strada buia la finestra dell'osteria dei carrettieri con le tende abbassate formava una chiazza torbida di luce sanguigna che brillava debolmente quasi al livello del marciapiede mentre Mrs. Ferlock si trascinava lenta in quella direzione rifletteva il fatto d'essere una donna senza amici era vero era talmente vero che presa da un desiderio improvviso di vedere qualche faccia non ignota non le venne in mente nessuno se non Mrs. Neill la donna mezzo servizio ella non aveva conoscenze personali nella società nessuno avrebbe sentito la sua mancanza non si creda d'altronde che la vedova Verlock avesse dimenticato sua madre no certo quindi era stata un'ottima figlia perché era stata una sorella devota sua madre aveva cercato sempre un appoggio in lei né consiglio né conforto ci si poteva aspettare da quella parte ora che Stevi era morto anche quel legame pareva spezzato non se la sentiva ad affrontare la vecchia con il racconto orrendo tanto più che abitava troppo lontano no la sua destinazione attuale era il fiume Mrs. Verlock cercò di dimenticare sua madre ogni passo le costava uno sforzo di volontà tale da sembrare ciascuno l'ultimo possibile si trascinò oltre la cazza di luce rossa la finestra dell'osteria vado al ponte e poi al di là ripeteva a se stessa con tenacia selvaggia mise una mano avanti appena in tempo per sostenersi a un lampione non riuscirò certo ad arrivarci prima che si levi il sole pensò il terrore della morte paralizzava i suoi sforzi per salvarsi dalla forca e sembrava di aver camminato per ore in quella strada vacillando ad ogni passo non ci arriverò mai pensò mi troveranno sballottata su e giù per le vie è troppo lontano si appoggiò ansimando sotto il velo nero lasciato andare da quattro metri d'altezza con un gesto violento parve respingere lontano da sé il lampione e si accorse che stava camminando ma un'altra ondata di sgomento la sommerse come un ampio mare strappandole il cuore dal petto e portandolo alla deriva non ci arriverò mai borborò fermandosi di colpo e continuando a vacillare leggermente nel punto dove sarà fermata mai e mentre si accorgeva dell'assoluta impossibilità di proseguire fino al ponte più vicino mrs Verloc pensò di fuggire all'estero e venne in mente a un tratto gli assassini scappano scappano all'estero spagna o california dei nomi nient'altro l'immenso mondo creato per la gloria dell'uomo non era per mrs Verloc che un immenso vuoto non sapeva in che direzione volgersi gli assassini hanno amici parenti compari ed hanno dell'esperienza lei non aveva nulla era la più solitaria fra quanti omicidi abbiano mai tirato il colpo mortale era sola a Londra e l'intera città la città delle meraviglie del fango col suo labirinto di strade e le sue luci folte era per lei sommersa in una notte desolata giaceva in fondo a un abisso di tenebre la quale nessuna donna avrebbe mai potuto sperare di riemergere senza un soccorso barcollò in avanti ripartì alla cieca con una paura tremenda di cadere dopo pochi passi però in modo del tutto inatteso provò una sensazione di sicurezza come se avesse trovato il sostegno che le occorreva alzò la testa e vide una faccia virile molto vicina alla sua che la scrutava attraverso il velo il compagno Sipon non aveva paura delle donne strane nessun sentimento di falsa discrezione avrebbe potuto impedirgli di entrare di punto in bianco in rapporti amichevoli con una donna apparentemente ebra e non poco le donne lo interessavano fu pronto dunque a sorreggere quest'una con le sue mani larghe e forti scrutandola con l'aria prosaica dell'intenditore finché non si sentì dire con voce spenta mistero Sipon allora per poco non la lasciò cadere a terra messi Sverlock esclamò lei qui non poteva credere che l'avesse bevuto eppure non si può mai sapere preferì non approfondire il problema ansioso di non scoraggiare il destino benevolo che gli aveva gettato così fra le braccia la vedova del compagno Verlock cercò di attirarla a sé e con suo grande stupore ella gli si abbandonò senza resistenza e persino si appoggiò un momento al suo braccio prima di tentare di svincolarsi il compagno Sipon non volle mostrarsi prepotente col destino gentile allentò la stretta con tutta naturalezza mi aveva riconosciuto e la balbettò standogli davanti relativamente ferma sulle gambe ma certo egli rispose senza un attimo di citazione ho avuto paura che lei stesse per cadere in questi ultimi tempi ho pensato spesso a lei troppo spesso per non riconoscerla dovunque e in qualsiasi momento ho pensato sempre a lei sempre da quando l'ho vista per la prima volta ma lei aveva l'aria di non udirlo veniva alla bottega domandò nervosa sì rispoglò Sipon mi son precipitato appena letto il giornale in realtà egli era rimasto ad aggirarsi furtivamente per ben due ore nelle vicinanze di Bradstreet senza trovare il coraggio di decidersi a quel passo audace l'anarchico vigoroso non poteva dirsi esattamente un audace conquistatore egli ricordava che Mrs. Verlock non aveva mai risposto le sue occhiate col minimo cenno di incoraggiamento pensava inoltre che la bottega potesse essere sorvegliata dalla polizia e il compagno Sipon non desiderava che la polizia si facesse un concetto esagerato delle sue simpatie rivoluzionarie nemmeno in questo momento sapeva con precisione che cosa fare in confronto con le sue speculazioni erotiche abituali questa era una grossa impresa un'impresa seria ignorava quanto avrebbe potuto ricavarne e fino a che punto avrebbe dovuto spingersi per venirne a capo ammesso che ci fosse realmente qualcosa da sperare tale perplessità frenandole in esaltazione ne moderò il tono in maniera che ben si adattava alle circostanze posso chiederle dov'era diretta interrogò con voce sommessa non me lo chieda e la gridò con violenza malrepressa rabbrividendo tutta alla sua forte vitalità ripugnava l'idea della morte dove andavo questo non importa ossipon riusse alla conclusione che mrs verloc doveva essere quanto mai eccitata ma niente affatto ebbra un minuto e la rimase silenziosa al suo fianco poi tutta un tratto fece qualcosa che gli non si sarebbe aspettato mai insinuò una mano sotto il brazzo nato di per sé stesso non poteva non impressionarlo e altrettanto il carattere apertamente deciso di quel gesto tuttavia l'affare era delicato e il compagno simon si comportò con delicatezza rimase soddisfatto di poter premere leggermente quella mano contro le sue costole robuste al tempo stesso si sentì spinto a proseguire e obbedì all'impulso al termine di Bradstreet si accorse di essere diretto a sinistra e di nuovo cedette nella bottega del fruttivendolo incantonata si era spento lo splendore glorioso d'aranze e limoni tutta Brad Place giaceva nel buio rotta appena qua e là dall'alone lebbioso dei pochi lampioni che ne definivano la forma triangolare e da un gruppo di tre vecchi a gas nel centro della piazza le forme oscure di un uomo ed una donna a brazzetto scivolavano lente lungo i muri si sarebbe detto due avanti randaggi nella notte desolata che cosa penserebbe se le dicessi che venivo a cercare proprio lei domandò Mrs. Verloc attaccandosi con forza al braccio ad Ossipon penserei che non avrebbe potuto trovare nessuno più pronto di me ad assisterla nella sua sventura e gli rispose con la coscienza di fare un tremendo passo avanti in realtà quella faccenda delicata procedeva così rapida ad ammozzargli quasi il respiro nella mia sventura ripete lentamente Mrs. Verloc appunto lei sa qual è la mia sventura e la bisbigliò con un tono stranamente intenso dieci minuti dopo aver visto il giornale del pomeriggio e gli spiegò con ardore ho incontrato un tale che forse lei ha visto capitare due o tre volte in bottega ed ho avuto con lui una conversazione che non mi ha lasciato più dubbi nella mente ho pensato allora di venire qui domandandomi se lei le ha voluto bene fin da quando l'ho vista la prima volta non posso esprimerle quanto gridò come se non gli riuscisse più di tenere a freno i suoi sentimenti il compagno Sipong era convinto e non ha torto che nessuna donna sarebbe stata capace di diffidare completamente ad una simile dichiarazione ma non sapeva come Mrs. Verloc fosse pronta ad accettarla con tutta la violenza selvaggia che l'istinto d'autoconservazione infonde nella stretta di colui che sta per annegare alla vedova di Mr. Verloc l'anarchico robusto apparve come un luminoso messaggero di vita camminavano lentamente al passo lo immaginavo e la mormorò con voce fioca mai letto negli occhi suggerì Sipong ormai sicuro di sé sì e la rispose in un soffio al suo orecchio inclinato un uomo innamorato come me non può nascondere il suo amore per una donna come te e gli proseguì cercando di allontanare dalla propria mente ogni considerazione di carattere materiale come per esempio il valore commerciale della bottega e la somma che Mr. Verloc poteva aver lasciato alla banca concentrò l'attenzione sul lato sentimentale dell'affare nel profondo del cuore si sentiva quasi irritato dalla facilità del successo Verloc era stato un buon diavolo e per quanto ne sapeva lui certamente un bravo marito altra parte il compagno Sipon non intendeva venire a contrasto con la propria fortuna per riguardo ad un morto soppresse decisamente i propri sensi d'umanità verso il compagno Verloc e continuò non potevo non potevo nasconderlo ero troppo pieno di te dirai quasi che tu non potevi fare a meno di vedermelo riflesso negli occhi io però non potevo indovinare sei stata sempre così distante che altro ti aspettavi mi si svello che esplose era una donna rispettabile si interruppe poi aggiunse quasi parlando a se stessa con un tono sinistro risentito finché lui non mi ha ridotto quella che sono Ossipon lasciò cadere la frase e riprese il filo del suo discorso non mi era sembrato mai veramente degno di te incominciò gettando la lealtà ai quattroventi tu meritavi un destino migliore mi si sverro che l'interruppe amara un destino migliore mi ha ingannato per sette anni di seguito pareva che tu fossi così felice di vivere con lui Ossipon cercava di farsi perdonare la condotta tiepida del passato era questo che mi intimidiva avevi l'aria di amarlo e io ne ero sorpreso e geloso aggiunse amarlo esclamò mrs verloch in un bisbiglio sprezzante e furioso amarlo era una buona moglie per lui sono una donna onesta e tu credevi che io l'amassi tu lo credevi vedi Tom al suono di quel nome il compagno Ossipon provò un fremito d'orgoglio si chiamava Alessandro ma i più intimi fra i suoi conoscenti si erano trovati d'accordo ad appioppargli il nomignolo di Tom era un nomignolo amichevole proprio dei momenti d'espansione non aveva idea di dove lei avesse potuto udirlo ora però risultava evidente che non soltanto e l'aveva colto al volo ma anche ne aveva fatto tesoro nella memoria forse nel cuore vedi Tom io ero una ragazza giovane e non ne potevo più ero stanca avevo due persone da mantenere col mio lavoro ed era chiaro che non potevo fare più di quello che facevo due persone la mamma e il ragazzo il ragazzo era molto più mio che della mamma notti e notti sono rimasta seduta con lui in grembo al piano di sopra tutta sola quando anch'io era una bambina non avevo nemmeno otto anni e poi oh era mio te l'assicuro questo tu non puoi capirlo nessun uomo può capirlo che potevo fare c'era un giovane il ricordo del suo romanzo giovanile col figlio del macellaio sopravviveva tenace come l'immagine ad un ideale intravista nel cuore quel cuore ora tremante di paura all'idea del patibolo pieno di ribellione all'idea della morte era quello l'uomo che amavo allora continuò la vedova di mister verloc penso che anche lui deve avermelo visto riflesso negli occhi venticinque cellini la settimana e suo padre che minacciava di metterlo fuori a calci di casa e di bottega se fosse stato così pazzo da sposare una ragazza con una madre invalida e un fratello deficiente sulle braccia eppure non mi si levava d'attorno finché una sera trovai il coraggio di sbattergli la porta sul viso dovetti farlo amavo con tutto il cuore ma venticinque cellini la settimana c'era quell'altro un buon cliente della pensione una ragazza che cosa può fare andare a finire sul lastrico pareva gentile e in ogni modo voleva sposarmi che cosa potevo fare io con la mamma e con quel povero ragazzo capisci dissi di sì pareva buono di carattere tutt'altro che avaro il denaro non gli mancava e non diceva mai nulla sette anni per sette anni sono stata una buona moglie per lui il marito cortese buono generoso il e mi amava oh sì mi amava tanto che io certe volte avrei desiderato di potere anch'io sette anni sette anni una moglie per lui ma lo sai tu che cos'era quel vostro amico sai tu che cos'era un demonio la vehemenza sovrumana di quella confessione appena sussurrata stordì addirittura il compagno Sipon Winnie Werlock voltandosi da un tratto gli afferrò tutte e due le braccia affrontandolo volto a volto sotto una cortina di nebbia nel buio della solitudine di Black Place dove tutti gli echi della vita parevano perdersi come in un pozzo triangolare d'asfalto e di mattoni di case cieche e di pietra insensibili no non lo sapevo e gli dichiarò con una specie di fiacca balordaggine il cui lato comico non fu colto dalla donna invasata dal terrore del patibolo ma ora lo so e e capisco proseguì impappinandosi mentre il suo cervello cercava di indovinare quale mai specie di atrocità potesse aver praticato Verloc sotto le apparenze placide sonnolenti del suo stato coniugale doveva certo trattarsi di cose tremende capisco ripetè poi per un'ispirazione improvvisa soggiunse sventurata in tono d'alta commiserazione invece del familiare povera piccola che era per lui d'uso comune questa volta non si trattava di un caso comune qualcosa di anormale si stava svolgendo egli ne era conscio ne pertanto perdeva di vista la grandezza del premio sventurata coraggiosa creatura fu contento d'aver scovato quella variante ma non riuscì a trovarne altre già ma ora è morto fu quanto di meglio seppe dire in questa esclamazione guardinga ossipon infuse una somma considerevole di animosità mi si sverlo che gli si aggrappò al braccio presa da una specie di frenesia come hai fatto a indovinare che è morto morborò quasi fuori di sé tu tu hai indovinato ciò che io ho dovuto fare sì ho dovuto nel tono indefinibile delle sue parole c'era un senso di trionfo di sollievo di gratitudine tutta l'attenzione di ossipon ne fu attratta a svantaggio del semplice significato letterale moriva dalla voglia di sapere che cosa mai le fosse accaduto per ridurla in quello stato d'eccitazione selvaggia cominciò anche a domandarsi se le cause segrete di quell'affare di Greenwich Park non si dovessero nascondere in fondo alle infelici circostanze della vita coniugale di Mr. Verlock giunse al punto di sospettare che Mr. Verlock avesse scelto quel modo di suicidarsi veramente straordinario per Giove ecco come ci poteva spiegare l'assoluta inanità il carattere capriccioso dell'attentato le circostanze attuali non richiedevano manifestazioni anarchiche al contrario e Verlock ne era consapevole come qualunque altro anarchico nella sua posizione che magnifico scherzo se gli avesse semplicemente preso in giro l'Europa intera il mondo rivoluzionario la polizia la stampa e persino quel galletto del professore davvero pensavo Sipon sorpreso si sarebbe detto che fosse andata proprio così povero disgraziato e lo colpì l'idea che molto probabilmente nei rapporti fra quei due non il marito doveva essere stato il vero demonio Alessandro Sipon di soprannome il dottore era incline per natura a pensare bene degli uomini suoi amici con indulgenza guardò di straforo Mrs. Verlock appesa al suo braccio delle donne che gli erano amiche egli pensava in modo diverso tipicamente pratico il fatto che Mrs. Verlock avesse avuto un'esclamazione di meraviglia nel sentire che egli era il corrente della morte di Verlock senza essere perciò un indovino non lo disorientava poi troppo le donne spesso discorrono come stordite ma intanto provava un'altra curiosità chi l'aveva informata dai giornali ella non poteva aver appreso altro che il semplice fatto per se stesso poiché l'uomo ridotto in briciole a Greenwich Park non era stato identificato da qualsiasi punto di vista era inconcepibile che Verlock avesse lasciato intravedere alla moglie la propria intenzione qualunque essa fosse il problema sembrò straordinariamente interessante al compagno Sipon si fermò di botto avevano percorso i tre lati di Brett Place e di nuovo si trovavano quasi all'imbocco di Brett Street quando e come l'hai saputo e gli chiese in un tono che cercava di adattarsi al carattere delle rivelazioni che gli aveva fatto la donna stretta al suo fianco per poco ella rimase in preda ad un tremito violento poi rispose con voce vaga lontana l'ho saputo dalla polizia è venuto un ispettore l'ispettore capo Heath così ha detto di chiamarsi e mi ha mostrato soffocava oh Tom pensa che hanno dovuto raccoglierlo con una pala si inghozzi senza lacrime le scuotevano il petto istantaneamente Sipon ritrovò la favella la polizia intendi dire che la polizia è già venuta e quel tale ispettore capo Heath è venuto lui stesso in persona a dirtelo sì e la confessò con lo stesso tono di prima con lo stesso smarrimento è venuto lui proprio così è venuto lui io non ne sapevo nulla mi ha mostrato un brandello del sopravito e proprio a questo modo lo riconosce mi ha detto Heath Heath e che cosa ha fatto poi mi si sverlo che abbassò il capo nulla non ha fatto nulla se n'è andato la polizia era d'accordo con quell'uomo mormorò tragicamente poi ne è venuto un altro un altro un altro ispettore vuoi dire chiese Sipon in preda una grande eccitazione proprio nel tono di un bambino spaurito non lo so è venuto pareva un forestiero può darsi che fosse uno di quelli dell'ambasciata per poco al compagno Sipon non si piegarono le gambe sotto questo nuovo colpo l'ambasciata l'ambasciata ma ti rendi conto di ciò che stai dicendo quale ambasciata che diamine intendi dire parlando d'ambasciata quel luogo in Chesham Square quella gente che lui malediceva di continuo non so bene ma che importa e quel tipo che ha fatto che cosa ti ha detto non ricordo nulla non mi interessa non farmi domande supplicò con voce stanca va bene non ti domanderò nulla assentì Ossipon teneramente e davvero intendeva fare come diceva non perché lo commovesse il pathos di quella voce supplichevole ma perché si accorgeva gli stesso di perder terreno nelle profondità di quell'affare tenebroso la polizia l'ambasciata ma per timore ad avventurare l'intelletto in sentiari dove i suoi lumi naturali non sarebbero stati probabilmente sufficienti a guidarlo senza pericolo si raccolse a cazzar via dalla mente ogni supposizione congettura ipotesi aveva con sé quella donna che gli si era proprio gettata fra le braccia questo era il pensiero più importante ma dopo ciò che aveva udito nulla poteva stupirlo ormai e quando Mrs. Verloc come se si fosse destata improvvisamente da un sogno tranquillo e sicuro cominciò ad insistere con violenza selvaggia sulla necessità di fuggire immediatamente nel continente egli non proferì nessuna esclamazione di meraviglia semplicemente disse e con sincero l'impianto che non c'erano treni fino alla mattina rimase a guardare con aria pensierosa il suo viso coperto dal velo bruno nella luce del becco a gas avvolta in un velo di nebbia accanto a lui la forma oscura emergeva nella notte come una statua a metà sbozzata in un blocco di pietra nera impossibile arrivare a capire quanto ne sapesse quella donna fino a che punto che la fosse coinvolta con la polizia e le ambasciate ma se proprio ci teneva a fuggire non sarebbe stato lui a farle delle obiezioni egli stesso era ansioso di trovarsi lontano intuiva che quel commercio quella bottega così stranamente familiare gli ispettori di polizia e ai membri delle ambasciate straniere non era il posto per lui bisognava lasciar cadere quell'illusione ma c'era il resto dei risparmi il denaro bisogna che tu mi nasconda in qualche luogo fino a domattina e la disse con voce costernata il fatto è mia cara che non posso condurti nella casa dove abito ho una camera a mezzo con un amico egli stesso si sentiva in certo modo costernato appena giorno quei poliziotti maledetti sarebbero stati scatenati in tutte le stazioni senza dubbio e se avessero fatto tanto ad arrestarla lui per una ragione e per un'altra non l'avrebbe ritrovata più ma è necessario non ti importa nulla di me proprio nulla a che pensi disse queste parole con impeto le mani giunte poi scoraggiata le lasciò ricadere vi fu un silenzio mentre la nebbia calava sempre più bassa e l'oscurità regnava indisturbata su Brad Place non un'anima neppure l'anima vagabonda libera e amorosa ad un gatto passò vicino all'uomo e alla donna l'uno di fronte all'altro Ossipon finalmente parlò può darsi che ci sia la possibilità di trovare da qualche parte una camera al sicuro ma la verità è mia cara che io non ho denaro abbastanza per andare a cercarla solo pochi soldi noi altri rivoluzionari non siamo ricchi aveva quindici sceglini in tasca aggiunse e poi abbiamo davanti a noi anche il viaggio domattina per prima cosa ella non si mosse non emise un suono e il compagno Ossipon provò un leggero tuffo al cuore si sarebbe detto che ella non avesse nulla da suggerire ma d'improvviso portò la mano al petto come se avesse sentito un dolore acuto in quel punto il denaro l'ho io anzi mo ne ho io ne ho abbastanza oh Tom andiamocene di qui quanto hai quanto ne hai preso ed inquisì senza muovere un dito a quello scatto non mancava di prudenza il compagno Ossipon ho il denaro ti dico tutto il denaro che intendi dire tutto il denaro che avevi alla banca o che altro domandò incredulo ma pronto a non meravigliarsi di nulla sulla via della fortuna sì sì rispose lei nervosa tutto quello che era alla banca l'ho tutto qui come diamo l'hai fatto per poterlo prendere subito e gli chiese stupito me l'ha dato lui morborò Mrs. Verlock ed improvviso il suo fervore cadde e cominciò a tremare con fermezza il compagno Ossipon fece tacere lo stupore che sorgeva dentro di lui ebbene allora siamo salvi proferì lentamente e la si protese verso di lui e si abbandonò al suo petto era la benvenuta poiché aveva tutto il denaro il cappello e il velo le impedivano un'effusione troppo accentuata egli fu pronto a ricambiarla adeguatamente e nulla più la donna accolse le sue manifestazioni senza resistenza e senza abbandono passiva come se le fosse rimasta solo una parte di sensibilità l'abbraccio di lui era fiacco e non le fu difficile liberarsene tu mi salverai Tom esclamò a un tratto facendo un passo indietro ma senza lasciarlo andare l'otteneva per le due falde della giacca bagnata salvami nascondimi non permettere che mi prendano devi piuttosto uccidermi prima io da me non lo potrei non potrei non potrei neppure per evitare quella cosa che mi fa tanta paura era terribilmente bizzarra e gli pensò cominciava ad inspirargli una vaga inquietudine in tono burbero perché aveva altri pensieri importanti per la mente disse di che diavolo hai paura non hai ancora indovinato a che cosa mi sono condotta gridò la donna distratta dalle sue apprensioni tremende e così vivide mentre parole troppo forti le ronzavano nel cervello fissa in mente l'idea spaventosa della sua posizione ella non si era resa conto della propria incoerenza e pareva anzi d'essere stata chiarissima ma non si era resa conto di quanto poco l'orecchio altrui potesse aver colto delle sue frasi sconnesse completate solo nel suo pensiero era sembrato di confessarsi pianamente e ne aveva persino provato un sollievo ad ogni frase pronunciata dal compagno Sipon aveva attribuito un senso speciale senza immaginare che ciò che egli sapeva non corrispondeva per niente a quello che sapeva lei non hai ancora indovinato a che cosa mi sono condotta la voce le mancava non avrai molto da aspettare per capire cos'è che mi fa paura riprese con un morborio lugubre amaro ma io non voglio che questo accada non voglio non voglio devi uccidermi prima piuttosto promettimi che lo farai gli scosse le rovesce della giacca non deve accadere non deve brevemente egli le assicurò che da parte sua non era necessaria nessuna promessa ma stette ben attento a non contraddirla in termini precisi aveva avuto molto a che fare con donne sovreccitate e in genere preferiva regolarsi secondo l'esperienza anziché applicare la propria sagacia caso per caso la sua sagacia questa volta aveva molto da fare ma su un altro piano e così le parole della donna caddero nel vuoto rimase invece il pensiero della difettosa organizzazione degli orari ferroviari la natura insulare della Gran Bretagna si imponeva alla sua attenzione in una forma odiosa altrettanto esser messi ogni notte in catene sotto chiave pensò irritato e perplesso come se gli fosse toccato scalare un muro con la donna sulle spalle un tratto si picchiò la fronte a forza di lambiccarsi il cervello gli era venuta in mente la linea Southampton St. Malone il battello partiva a mezzanotte circa c'era un treno alle 10 e 30 si rallegrò e si sentì subito pronto ad agire da Waterloo tempo quanto ne vogliamo tutto bene in fin dei conti e ora che cosa succede non è questa la via da prendere protestò Mrs. Verloc tenendogli il braccio stretto come in una morsa cercava di trascinarlo nuovamente in Brett Street ho dimenticato di chiudere la porta della bottega quando sono uscita sussurrò in preda una citazione tremenda la bottega e tutto il suo contenuto non interessavano più il compagno Sipon e gli sapeva ormai come limitare i propri desideri stava per rispondere che importa lascia andare ma si trattenne detestava di mettersi a discutere per inezie affrettò considerevolmente il passo pensando che forse era rimasto del denaro nel cassetto ma la sua svogliatezza riusciva appena a tenere dietro all'impazienza febbrile di lei la bottega a prima vista pareva completamente buia luce era socchiuso Mrs. Verloc si appoggiò contro lo stipite ansimando non è venuto nessuno guarda è acceso è acceso in salotto Ossipon allungò il collo e scorse un filo di luce attraverso l'oscurità della bottega è vero disse l'avevo dimenticato la voce di Mrs. Verloc usciva esile e fioca di dietro il velo e mentre gli restava lì fermo ad aspettare che la donna entrasse per prima e la disse più forte vai dentro e spegni o divento pazza egli non fece direttamente alcuna obiezione alla proposta espressa in modo così strano chiese soltanto e tutto quel denaro dov'è lo io qui addosso vai Tom presto spegni entra e lo gridò afferrandolo di dietro per le spalle il compagno Sipon non era certo preparato a un'esibizione di forza fisica sicché dietro quella spinta inciampò e si trovò lanciato in mezzo alla bottega rimase sorpreso dalla forza della donna e scandalizzato dal suo modo di fare tuttavia non tornò indietro per farle una brutta parte proprio in mezzo alla strada cominciava a sentirsi sgradevolmente impressionato da un contegno così lunatico l'altra parte era quello il momento buono per rendersi amabile alla donna ora o mai più con aria disinvolta evitò di avvicinarsi al banco e tranquillo si diresse verso la porta a vetri del salotto la tenda era stata tirata un po' da parte sicché per un impulso ben naturale e gli guardò dentro proprio nell'istante in cui stava per girare la maniglia guardò così senza motivo senza intenzione senza curiosità di nessuna specie guardò semplicemente perché non poteva farne a meno guardò e vide mister verloch che riposava pacifico sul sofà un urlo gli salì dal profondo del petto ma non si fece udire gli morì sulle labbra lasciandogli una specie di gusto untuoso nauseante al tempo al tempo stesso la sua personalità morale fece un balzo frenetico all'indietro il suo corpo però rimasto così senza la guida dell'intelletto si tenne aggrappato alla maniglia della porta con la forza irrazionale dell'istinto il robusto anarchico non vacillò neppure rimase lì a guardare il viso contro i vetri gli occhi fuori dalla testa avrebbe dato chissà cosa per esserne fuori ma la ragione che ritornava poco a poco dentro di lui gli consigliò di non lasciare andare la maniglia era folle era in preda ad un incubo o si trattava forse di una trappola in cui l'avevano attirato con arte diabolica perché a quale scopo non riusciva a capire non c'era in lui senso di colpa aveva la coscienza perfettamente tranquilla per quanto riguardava la famiglia Verloc e l'idea che quei due avrebbero potuto assassinarlo per ragioni misteriose non tanto gli attraverso la mente quanto piuttosto la cavità dello stomaco e subito svanì lasciandovi un senso di debolezza e di nausea un vago malessere per un momento un lungo momento il compagno Sipon ebbe semplicemente voglia di vomitare ma rimase al suo posto senza batter palpebra mister Verloc giaceva frattanto completamente immobile fingendo di dormire per motivi suoi particolari mentre la sua donna quella selvaggia stava di guardia alla porta invisibile e silenziosa nella strada buia e deserta si trattava forse di una messa in scena terrificante preparata dalla polizia posta per lui la sua modestia non gli permetteva di crederci ma poi contemplando il cappello il vero significato di quella scena gli balenò alla mente appariva come una cosa forte e l'ordinario un oggetto funesto un simbolo così nero arrovesciato giaceva sul pavimento davanti al divano quasi fosse stato messo lì apposta per ricevere l'elemosina dalla gente che sarebbe venuta fra poco a vedere mister Verloc adagiato sul sofà nella pienezza della sua pace domestica lo sguardo dell'anarchico robusto errò lentamente dal cappello alla tavola che non era al suo solito posto con stupore si posò sul piatto rotto e ricevette una specie di scossa ottica nell'osservare un bagliore bianco sotto le palpebre non perfettamente chiusa dell'uomo disteso ora non gli pareva più realmente addormentato giaceva con la testa piegata e sembrava fissare con insistenza il lato sinistro del proprio petto e quando gli occhi del compagno Sipon si posarono sul manico del coltello egli voltò la faccia dall'altra parte ed ebbe un forte conato di vomito la porta della strada sbatté con violenza e lo schianto gli fece saltare addirittura l'anima in corpo in un accesso di panico quella casa con il suo proprietario ridotto ormai all'impotenza poteva essere ancora una trappola una trappola della peggior specie ormai il compagno Sipon non riusciva più a concepire con chiarezza che cosa gli stava accadendo girò rapidamente intorno al banco andò a picchiare con la coscia nello spigolo barcollò gridando per il dolore e mentre il campanello schiammazzava da rintontire si sentì le brazza inchiodate ai fianchi da una stretta convulsa le labbra di acce di una donna gli strisciavano proprio sull'orecchio formando a malapena le parole un poliziotto mi ha visto smise di lottare ella non l'avrebbe mai mollato dietro la sua schiena robusta le mani di lei si erano intrecciate le dita si erano annodate insieme in modo che nessuno avrebbe potuto dividerle e mentre i passi si avvicinavano i due cuore a cuore respiravano rapidamente col fiato grosso e faticoso come atteggiati a una lotta mortale mentre in realtà il loro atteggiamento era quello di un mortale terrore e il tempo non passava mai il vigile di ronda aveva di fatti intravisto Mrs. Verlock ma poiché proveniva da una zona illuminata all'altro estremo di Brett Street tutto ciò che aveva potuto distinguere era stato un movimento rapido fra le tenebre non avrebbe nemmeno potuto giurare che si trattasse di un movimento vero e proprio non aveva ragione ad affrettarsi giunto di fronte alla bottega osservò che era stata chiusa di buon'ora ma in questo non c'era nulla di straordinario i vigili di servizio da quelle parti avevano istruzioni speciali riguardo alla bottega di Mr. Verlock non bisognava immischiarsi in ciò che accadeva lì dintorno a meno che non si trattasse di disordine vero e proprio bisognava soltanto riferire quel che colpiva l'attenzione questa volta non ci sarebbe stato nulla da riferire tuttavia per un senso di dovere per la tranquillità della propria coscienza dietro un dubbio suscitato anche da quell'indefinibile movimento nel buio il vigile attraversò la strada e provò ad aprire la serratura la cui chiave ormai fuori uso per sempre riposava nella tasca del panciotto del fu Mr. Verlock resistette come di consueto mentre il poliziotto coscienzioso scuoteva la maniglia Ossipon sentì di nuovo le labbra fredde della donna scorrere sul suo viso arrampicandoglisi fino all'orecchio se entra se entra ammazzami ammazzami Tom il vigile passò oltre e nel passare per semplice formalità lasciò cadere il raggio della lanterna cieca nella vetrina della bottega per un istante ancora l'uomo e la donna nell'interno rimasero immobili ansanti stretti l'uno all'altra finalmente ella allentò le dita e le braccia le ricaddero ad agio lungo i fianchi Ossipon si appoggiò al banco il robusto anarchico non poteva più reggersi in piedi era una cosa mostruosa lo disgustava quasi al punto di togliergli la parola tuttavia gli riuscì di proferire ad altavoce una lamentosa protesta che dimostrava come egli si fosse finalmente reso conto della propria posizione due minuti di più e mi avresti fatto commettere qualche grossa corbelleria contro quel tipo che veniva a spiare qui dintorno con la sua maledetta lanterna cieca la vedova di mister Verlock ferma nel mezzo della bottega insiste di nuovo va in salotto e spegni il lume Tom mi farà mattire vagamente si accorse del suo gesto di rifiuto nulla al mondo avrebbe potuto indurre Ossipon ad entrare in quella stanza non che gli fosse superstizioso ma c'era troppo sangue sul pavimento una bestiale pozza di sangue tutto intorno al cappello gli parve ad essersi già avvicinato anche troppo al cadavere per la tranquillità del suo spirito e per la sicurezza della sua vita forse il contatore allora lì è lì guarda nell'angolo la figura vigorosa del compagno Ossipon bruscamente con aria tetra attraversò la bottega a gran passi e andò a rincantucciarsi nell'angolo obbediente ma la sua docilità era senza grazia brancicò maldestro nervoso e finalmente dietro la porta vetri la luce sparì accompagnata dal mugolio d'una bestemmia e da un sospiro femminile anelante isterico la notte l'inevitabile compenso terrestre alle fatiche degli uomini di buona volontà la notte era accaduta su mister Verloc il rivoluzionario a tutta prova uno della vecchia guardia l'umile custode della società l'inestimabile agente segreto A così indicato nei dispacci del barone Stott Vartenheim servitore dell'ordine della legge fedele predilisente degno d'ammirazione con una sola debolezza forse una debolezza amabile la convinzione idealista d'essere amato per se stesso Ossipon ritornò verso il banco cercandosi la strada a tastoni nell'atmosfera densa nera come l'inchiostro la voce di Mrs. Verloc che era rimasta ferma in piedi nel mezzo della bottega lo rincorse vibrando nell'oscurità con una protesta disperata non voglio che mi impicchino Tom non voglio si interruppe Ossipon da dietro il banco le lanciò un ammonimento non gridare così forte poi parve assorto in riflessioni profonde hai fatto questa cosa da te proprio da sola interrogò con voce cavernosa ma con un'apparenza calma sicura di sé che riempì il cuore di Mrs. Verloc di gratitudine e fiducia nella sua forza nella sua protezione sì mi svegliò invisibile non avrei mai creduto che potesse accadere una cosa simile e gli borbottò nessuno l'avrebbe creduto poi Mrs. Verloc l'odi muoversi d'attorno e subito dopo l'odi scattare la serratura dell'uscio del salotto il compagno Ossipon aveva messo sotto chiave il riposo di Mr. Verloc e non aveva fatto ciò per riverenza verso la natura esterna di quel riposo o per qualsiasi altra considerazione di carattere nebuloso e sentimentale ma per la precisa ragione che non si sentiva per nulla sicuro che non ci fosse qualcun altro nascosto da qualche parte in quella casa non si fidava della donna o per meglio dire era incapace per il momento di giudicare che cosa fosse da ritenersi vero possibile o semplicemente probabile in questo universo pieno di sorprese si sentiva atterrito al punto da non saper più a che cosa credere e a che cosa non credere a proposito di quella straordinaria faccenda che cominciava con gli ispettori di polizia e le ambasciate straniere per finire dio sa dove sul patibolo per qualcuno o atterriva il pensiero che egli non sarebbe stato in grado di provare come aveva passato il suo tempo dalle sette in poi perché era stato sempre ad aggirarsi furtivamente nelle vicinanze di Bradstreet era atterrito davanti a quella femmina selvaggia che l'aveva condotto lì dentro e che sarebbe riuscita probabilmente a farlo passare come complice perlomeno se non stava ben attento e anche lo atterriva la rapidità con cui egli sarà trovato coinvolto intrappolato in pericoli tanto gravi potevano essere trascorsi venti minuti da quando l'aveva incontrata non più umile supplichevole implorando pietà si alzò la voce di Mrs. Verlock Tom non permettere che mi impicchino portami via con te portami via da questo paese lavorerò per te sarò la tua schiava ti amerò non ho nessuno al mondo chi penserà a me se non ci pensi tu tacque un momento poi nell'abisso di solitudine che un esile filo di sangue gocciolante dal manico di un coltello le aveva creato dintorno fu ispirata da un'idea terribile per lei la giovinetta rispettabile della casa di Belgravia la moglie rispettabile e fedele di Mr. Verlock non ti chiedo di sposarmi mormorò in un soffio con accento timido vergognoso fece un passo avanti nel buio egli provava un terrore di quella donna non si sarebbe meravigliato se tutta un tratto ella avesse tirato fuori un altro coltello destinato al suo petto e lui certo non avrebbe opposto resistenza in quel momento non si sentiva forte abbastanza nemmeno per dirle di farsi indietro tavia le chiese in uno strano tono cavernoso dormiva? no gridò lei e continuò in fretta non dormiva oh no mi aveva detto proprio allora che nulla avrebbe potuto toccarlo e questo dopo avermi portato via il ragazzo proprio di sotto gli occhi per andare ad ucciderlo quel figliuolo così amoroso innocente che non faceva male a una mosca il mio proprio mio te l'assicuro stava lì sul divano a riposarsi comodo e tranquillo dopo aver ucciso il ragazzo il mio ragazzo voleva uscire di casa per sempre per non vederlo mai più e lui mi parla a questo modo vieni qui dopo avermi detto che l'avevo aiutato io ad ammazzare il ragazzo capisci Tom mi parla a questo modo vieni qui dopo avermi strappato il cuore dopo avermelo buttato a sfracellarsi nel fango insieme al mio ragazzo tacque poi trassognata ripete due volte sangue e fango sangue e fango fu una luce improvvisa per il compagno Sipon era dunque quel ragazzino mezzo scemo l'individuo perito nel parco il tiro giocato a tutta la gente nel mondo appariva più completo colossale al colmo dello stupore egli esclamò esprimendosi in termini scientifici il degenerato per dio vieni qui di nuovo la voce di Mrs. Verlock risuonò più alta di che cosa credeva lui che io fossi fatta me lo sai dire Tom vieni qui io in queste condizioni sono rimasta lì a guardare il coltello e poi ho pensato che se lui mi desiderava tanto ebbene potevo andare oh sì sono andata per l'ultima volta col coltello un terrore indicibile lo invase davanti a quella donna la sorella di un degenerato una degenerata è la stessa della categoria omicida o altrimenti della categoria mentoniera si sarebbe detto che il compagno Sipon provasse ora una paura scientifica che veniva a sommarsi coi timori di ogni altra specie era una sensazione complessa e indefinibile la quale appunto perché eccessiva gli conferiva una falsa apparenza di calma e di riflessione profonda nell'oscurità così si sarebbe creduto audendolo muoversi e parlare un parlare difficoltoso come se la volontà e il pensiero gli ci fossero a metà congelati e nessuno poteva vedere il suo viso macabro in realtà si sentiva più morto che vivo d'un tratto fece un salto di mezzo metro inaspettatamente mi si sverlo che aveva profanato il riservo pudico del suo focolare inviolato fino a quel momento con uno strillo acuto terribile aiuto salvami Tom non voglio che mi impicchino egli si precipitò verso di lei a tastoni le cercò la bocca vi pose sopra una mano per farla tacere il grido si spense ma nell'impeto violento l'aveva urtata e fatta cadere a terra la sentì ora che gli si avviticchiava alle gambe e il suo terrore raggiunse il punto culminante divenne una specie di intossicazione con visioni di incubo e tutte le caratteristiche del delirium tremens si sentì materialmente avvolto da serpi vide la donna che gli si attorcigliava il corpo come una serpe per non sciogliersene mai più ella non era mortale era e la stessa la morte la compagna della vita mese Sverlock come se quell'esplosione le avesse dato un po' di sollievo non aveva più voglia di gridare ora solo parlava a scatti stranita Tom non puoi rispingermi ormai mormorò rannicchiata sul pavimento non puoi buttarmi fuori finché non mi avrai schiacciato la testa sotto i calcagni non voglio lasciarti alzati disse Ossipon il suo viso era cocipallido ad apparire visibile nell'oscurità profonda della bottega mese Sverlock invece velata non aveva volto quasi nulla di lei si poteva discernere solo il tremolio di una piccola cosa bianca un fiore nel cappello indicava il punto dove ella si trovava i suoi movimenti il tremolio bianco nel buio si sollevò da terra mese Sverlock si era rialzata in piedi e Ossipon rimpianse di non aver fatto a tempo a fuggire nella strada capiva bene però che non sarebbe servito a nulla lei gli sarebbe corsa dietro l'avrebbe inseguito gridando forte finché non gli avesse messo alle calcagne a tutti i poliziotti che si trovavano a portata di voce e poi Dio solo sa che cosa avrebbe detto di lui era così spaventato che per un attimo gli attraversò la mente un'idea folle strangolarla nel buio ma servì solo a incutergli ancora più spavento e la lo teneva nelle sue mani vide se stesso vivere in preda al più vile terrore in qualche villaggio sconosciuto di Spagna o d'Italia finché una bella mattina avrebbero trovato morto anche lui con un coltello in cuore come mister Verlock tirò un respiro profondo e non osava muoversi e missis Verlock aspettava in silenzio ciò che più sarebbe piaciuto al suo salvatore di fare il mutismo meditabondo di lui le procurava un conforto a un tratto egli parlò con voce alta e chiara e quasi naturale a forza di riflettere era giunto a una soluzione usciamo se no perderemo il treno dove andremo Tom e la chiesa è timida missis Verlock non era più una donna libera a Parigi prima di tutto è la via migliore per noi esci per prima e guarda se la strada è libera e lo obbedì la sua voce risuonò fievole sommessa attraverso la porta prudentemente socchiusa tutto bene Ossipong uscì nonostante i suoi sforzi per fare adagio il campanello fesso cominciò a strepitare dietro luce di nuovo serrato nella bottega vuota quasi provasse in vano ad estare mister Verlock dal suo riposo per avvertirlo che la moglie se ne andava per sempre accompagnata dal suo amico riuscirono a trovare una vettura di piazza e una volta dentro il robusto anarchico si spiegò con chiarezza era ancora terribilmente pallido con due occhi che parevano affondati di un mezzo pollice nella faccia tesa si sarebbe detto ciò nonostante che avesse pensato a tutto con metodica precisione quando arriviamo cominciò in tono strano monotono tu devi entrare nella stazione per prima come se non ci conoscessimo neppure io prendo i biglietti e te ne faccio scivolare uno in mano di soppiatto nel momento in cui ti passo davanti tu vai poi nella sala d'aspetto per signore di prima classe e resti lì seduta fino a dieci minuti prima della partenza del treno poi esci io sarò fuori sali subito sulla piattaforma come se tu non mi conoscessi per niente possono esserci dintorno occhi che ci spiano gente che ne sa qualcosa da sola tu puoi passare per una donna qualsiasi che viaggia ma io sono conosciuto se ti vedono con me possono indovinare che tu sei Mrs. Verlock che se la svigna mi capisci cara aggiunse senza uno sforzo sì e la rispose mi sedeva di fronte nella vettura di piazza tutta irrigidita dall'orrore del patibolo dalla paura della morte sì Tom e aggiunse quasi mormorando a se stessa un ritornello funebre lasciato andare lasciato andare da quattro metri d'altezza ossipon senza guardarla con un viso simile a una maschera di gesso formata dai suoi tratti dopo una grave malattia disse a proposito bisognerebbe che tu mi dessi il denaro per i biglietti ora Mrs. Verlock aprì qualche gancio del busto mentre il suo sguardo rimaneva fisso nel vuoto davanti a sé di là dal parafango e gli porse il portafoglio nuovo di pelle di cinghiale e gli lo prese senza far parola e parva immerzerlo profondamente da qualche parte nel proprio petto poi si picchiò una mano sulla giacca dalla parte esterna tutto questo fu fatto senza che i due si scambiassero un solo sguardo erano come due persone preoccupate soltanto di scorgere in distanza il primo indizio della metagoniata la carrozza oscillando girò un angolo e sino altro verso il ponte solo allora ossipon aprì bocca di nuovo tu sai quanto denaro c'è in questo ingrediente domandò senza fretta come se si rivolgesse a qualche spiritello accovacciato fra le orecchie del cavallo no disse Mrs. Verlock me l'ha dato lui ma io non l'ho contato in quel momento non ci ho pensato neppure e poi mosse leggermente la testa era così espressivo quel piccolo movimento della mano che aveva inferto il colpo mortale nel cuore dell'uomo un'ora prima o neppure che ossipo non poter primere un brivido cercò allora di esagerare quella sensazione con un secondo fine e mugolò ho freddo mi sento tutto gelato Mrs. Verlock guardava dritto davanti a sé quasi per cogliere una prospettiva di scampo di tanto in tanto come una lugubre bandiera spiegata al vento lungo una strada le parole lasciato andare da quattro metri d'altezza sorgevano davanti al suo sguardo attraverso il velo nero e si vedeva luccicare il bianco dei grandi occhi come gli occhi di una donna mascherata l'atteggiamento rigido di ossipo aveva qualcosa di più positivo un curioso carattere ufficiale di nuovo si udì la sua voce improvvisa come se avesse premuto un bottone per mettere in moto la lingua ascolta sai dirmi se tuo se aveva un conto in banca intestato al suo nome oppure a nome di un altro mrs verloc volse verso di lui la faccia mascherata e il grande bagliore bianco degli occhi a nome di un altro interrogò pensosa cerca di parlare in termini esatti l'ammoniò sipo mentre la carrozza procedeva veloce è di somma importanza ora ti spiego la banca ha i numeri di questi biglietti se a lui sono stati pagati proprio al suo nome allora quando si saprà della sua della sua morte questi biglietti stessi potrebbero servire a farci rintrazzare giacché non abbiamo altro denaro tu costi non hai altro denaro che questo e la scosse il capo negativamente proprio nulla egli insistè qualche spicciolo allora è pericoloso bisognerebbe prendere precauzioni speciali per maneggiare questo denaro specialissime dovremmo forse rimetterci più della metà per cambiarlo in un luogo sicuro un certo luogo che so io a Parigi nell'altro caso voglio dire nel caso che il suo conto in banca e il pagamento che gli è stato fatto fossero intestati a un nome diverso diciamo Smith per esempio allora possiamo servircene senza pericoli capisci? la banca non ha modo di sapere che Mr. Verlo che poniamo Smith sono una persona sola vedi dunque com'è importante che tu non ti sbagli nel rispondermi credi almeno di poter risolvere il problema forse no che dici? e la rispose con calma sì ora ricordo non aveva messo il denaro alla banca in nome suo mi disse una volta aver fatto un deposito intestato al nome di Prozoff ne sei sicura? ne sono certa non credi proprio che la banca potesse essere a conoscenza del suo vero nome? ho qualcuno lì dentro? lei si strinse nelle spalle come potrai saperlo? la credi una cosa probabile Tom? no non mi sembra probabile però sarebbe stato più tranquillizzante sapere eccoci giunti scendi per prima e vai dentro direttamente cerca di muoverti con disinvoltura rimase indietro e pagò il vetturino con qualche moneta di proprio che aveva in tasca il programma che gli aveva preparato e previsto in ogni particolare si realizzò punto per punto quando Mrs. Verlock con in mano il biglietto per Semmelo fu entrata nella sala d'aspetto per signore il compagno Sipon se ne andò nel bar e in sette minuti tirò giù tre bicchieri di grog bollente per ammazzare il raffreddore spiegò alla ragazza del bar con un cenno amichevole della testa e una smorfia sorridente poi uscì e la sua faccia dopo quel gaio intermezzo era quella di un uomo che ha bevuto alla sorgente stessa della tristezza alzò gli occhi e guardò l'orologio era l'ora rimase in attesa Mrs. Verlock uscì puntuale il velo calato sul viso tutta nera nera proprio come una figura banale della morte con in capo qualche fiore pallido di poco prezzo passò presente un gruppetto di uomini che ridevano fra loro ma di un riso che una sola parola avrebbe potuto uccidere andava di passo indolente ma teneva dritta la schiena e dietro di lei il compagno Sipon guardava quella schiena con terrore prima di avere il coraggio di muoversi anche lui il treno si era già formato c'erano ben poche persone davanti alla fila degli sportelli aperti in quella stagione con un tempo abominevole quasi nessuno viaggiava di passo lento Mrs. Verlock avanzò lungo la linea degli scompartimenti vuoti finché si sentì sfiorare il gomito era Sipon alle sue spalle entra qui e la entrò lui rimase sulla piattaforma guardandosi intorno Mrs. Verlock si sforse un poco e in un sussurro che c'è Tom qualche pericolo un momento arriva una guardia ella lo vide avvicinarsi all'uomo in uniforme li vide discorrere insieme per qualche istante udì la guardia che diceva sì signore va bene toccandosi il berretto poi Sipon tornò verso di lei e disse gli ho raccomandato di non lasciare entrare nessuno nel nostro scompartimento ella era già seduta e si piegava in avanti verso di lui tu pensi a tutto mi condurrà in salvo Tom non è vero domandò con un sapore d'angoscia nella voce sollevando bruscamente il velo per guardare il suo salvatore aveva svelato il suo volto come un diamante e in quel volto due eridi guardavano davanti a sé grosse asciutte e dilatate opachi e roventi simili a due buchi neri nel bianco lustro degli occhi non c'è pericolo e gli disse fissando quelle iridi con una serietà quasi estatica che a Mrs. Verloc sfuggita appena alla visione del patibolo parve piena di forza e di tenerezza quella prova di devozione la commosse profondamente e la faccia adamantina perse la rigidità dovuta al terrore il compagno Sipon la guardava fisso come mai nessun amante ha guardato la propria amante Alessandro Sipon anarchico di soprannome il dottore autore di un opuscolo conveniente di medicina già conferenziere nei circoli operai sugli aspetti sociali dell'igiene era libero dalle pastoie della moralità convenzionale ma si sottometteva alle leggi della scienza era una personalità scientifica e guardava ora scientificamente quella donna la sorella di un degenerato e la stessa una degenerata della categoria omicida contemplandola egli invocava l'ombroso come un contadino italiano si raccomanda al suo santo favorito la contemplava scientificamente le guance il naso gli occhi i capelli tremendo fatale le labbra sbiagite di Mrs. Verloc sotto quello sguardo che rivelava un'attenzione così appassionata si schiusero leggermente attemando la tensione dei muscoli ed egli allora le scorse anche ai denti non rimaneva alcun dubbio un tipo della categoria omicida se il compagno Sipon non raccomandò all'ombroso la sua anima invasa dal terrore ciò fu solo perché in sede scientifica egli non poteva credere di portarsi dietro una di quelle cose che si chiamano anima possedeva però lo spirito scientifico e questo lo indusse a dichiarare sulla piattaforma di una stazione ferroviaria con brevi frasi nervose scattanti era un ragazzino straordinario quel tuo fratello interessantissimo soggetto di studio un tipo perfetto nel suo genere perfetto parlava scientificamente nel suo timore segreto e Mrs. Verloc udendo queste parole di elogio dedicate al caro morto si piegò di slancio in avanti mentre una scintilla tremolante le illuminava gli occhi cupi come un barlume di sole messaggero di pioggia e di tempesta oh sì era proprio come dici tu mi svegliò ad agio con un fremito nelle labbra tu prendevi tanto interesse a lui Tom e io t'amavo per questo è quasi incredibile la somiglianza fra voi due Ossipon proseguì dando una voce allo spavento nascosto dentro di lui e cercando di nascondere la sua impazienza nervosa e tormentosa in attesa che il treno partisse sì sì ti somigliava non era un discorso particolarmente commovente o che esprimesse simpatia e comprensione ma il fatto di insistere su quella somiglianza fu per se stesso sufficiente ad agire con efficacia sulle emozioni di lei con un fievolo e grido aprendo le brazze Mrs. Verloc finalmente scoppiò in lacrime Ossipon salì sul vagone richiusa lo sportello in fretta e dette un'occhiata fuori della stazione ancora otto minuti per i primi tre Mrs. Verloc si lasciò andare a un pianto violento e disperato senza pausa senza tregua poi si riebbe un poco e cominciò a singhiozzare ad agio mentre le lacrime cadevano abbondanti cercò allora di parlare al suo salvatore all'uomo che era per lei un messaggero di vita oh Tom come ho potuto temere la morte dopo che lui mi è stato portato via in modo così crudele come ho potuto come ho potuto essere talmente vile la gran voce deprecava il suo amore per la vita quella sua vita priva di fascino e di dolcezza priva quasi persino di dignità ma tutta ispirata da una fedeltà fanatica al proprio ideale fedele sino all'omicidio e come spesso accade nelle lamentazioni della povera umanità ricca di sofferenza povera di parole la verità il grido più genuino della verità si fece udire in forma trita e artificiosa raccolta da qualche parte tra le frasi proprie del sentimento fittizio come ho potuto provare un tale spavento della morte Tom ho tentato ma ho paura ho tentato di finirla ma non mi è riuscito è durezza di cuore il calice degli orrori non era pieno abbastanza forse per un cuore come il mio quando sei venuto tu allora si interruppe poi in un impeto di fiducia e di gratitudine voglio vivere tutta la mia vita per te Tom si inghozza forte mettiti nell'altro angolo dello scompartimento allontanati dalla piattaforma Ossipon la sollecitò Mrs. Verlock permise al suo salvatore di aiutarla a sistemarsi comodamente mentre egli teneva d'occhio l'avvicinarsi di un'altra crisi di pianto forse più violenta della prima teneva d'occhio i sintomi con un'aria in un certo modo dottorale come se contasse i minuti finalmente udì il fischio della guardia una contrazione involontaria del labbro superiore gli scoprì i denti rivelando apertamente in lui una risoluzione selvaggia mentre il treno cominciava a muoversi Mrs. Verlock non udì non si rese conto di nulla ed Ossipon il suo salvatore rimase immobile sentì che il treno accelerava la marcia con un gorgoglio pesante accompagnato dai forti singhiozzi della donna allora con due lunghi passi attraversò lo scompartimento aprì lo sportello con un gesto deciso e saltò di sotto saltò proprio all'altro estremo della piattaforma era talmente risoluto a tener duro nel suo proposito disperato che gli riuscì addirittura per una specie di miracolo realizzato quasi nel vuoto di richiudere con un gran colpo lo sportello del treno solo allora si accorse che stava ruzzolando gambe all'aria come un coniglio che si è buscato una schioppettata quando si alzò era tutto ammaccato con i nervi scossi bianco come un morto e tuttavia calmo e perfettamente preparato a sostenere l'incontro con la folla dei ferroviari emozionati che in un istante gli furono tutti intorno e gli spiegò con un tono gentile persuasivo che sua moglie era dovuta partire improvvisamente per la Bretagna per accorrere presso la madre moribonda era naturalmente tutta sconvolta e lui impressionato delle sue condizioni aveva cercato di rianimarla senza accorgersi alla prima che il treno si era già messo in moto alla domanda gridata in coro ma perché allora non è arrivato fino a Southampton signore obiettò l'inesperienza di una giovane cognata lasciata sola a casa con tre bimbi piccoli la quale si sarebbe allarmata non vedendolo ritornare tanto più che gli uffici telegrafici erano tutti chiusi aveva agito di primo impulso ma non credo che mi ci proverò un'altra volta concluse volgendo intorno un viso sorridente distribuì qualche spicciolo e senza nemmeno zoppicare si avviò all'uscita fuori della stazione il compagno Sipon rimpinzato di banconote sicure come mai era stato in vita sua rifiutò l'offerta di una carrozza no no posso camminare disse al vetturino con un sorrisetto amichevole poteva camminare camminò attraversò il ponte più oltre le torri dell'abbazia nella loro immobilità pesante videro passare nel raggio dei lampioni il cespuglio giallo dei suoi capelli victoria e le cancellate del parco e di nuovo il compagno Sipon si trovò su di un ponte il fiume sinistra meraviglia d'ombre immobili e di bagliori fluttuanti che più giù si confondevano nella tenebra silenziosa arrestò la sua attenzione rimase lungamente a guardare appoggiato al parapetto dall'orologio della torre partì un colpo sonoro proprio sulla sua testa alzò gli occhi al quadrante le dodici e mezzo di una notte selvaggia sul canale e di nuovo il compagno Sipon si mise in cammino la sua figura robusta fu vista quella notte nelle zone più distanti della città immensa del mostro gigantesco sonnecchiante sopra un tappeto di melma sotto un velo di nebbia gelida fu vista allontanarsi e perdersi lungo interminabili prospettive di case buie fiancheggianti vuote carreggiate lungo le quali scorrevano filari di lampade a gas attraversò piazze quadre rotonde ed ovali vicoli e vie monotone dal nome sconosciuto dove la polvere dell'umanità si ammucchia inerte ed esolata ai margini del fiume della vita camminò ancora ancora poi voltando improvvisamente in un giardinetto striscia di terra dove cresceva un'erba malatizza tirò fuori di tasca una chiave aprì la porta ad una piccola casa lurida ed entrò si buttò sul letto tutto vestito e rimase lì senza muoversi per un intero quarto d'ora poi di botto si levò a sedere tirò sui ginocchi si abbracciò le gambe il primo chiarore del giorno lo trovò ad occhi aperti nella stessa posizione quello stesso individuo che aveva potuto camminare così a lungo lontano senza meta senza un cenno di stanchezza poteva anche restarsene seduto immobile per ore senza muover membro senza batter palpebra ma quando più tardi i raggi del sole penetrarono nella stanza egli allentò la stretta delle mani e ricadde sul guanciale tenne gli occhi fissi al soffitto poi di improvviso li chiuse in piena luce solare il compagno Sipon dormiva 13 l'unico oggetto nella stanza su cui l'occhio poteva riposare senza sentirsi ferito dalla sgradevole meschinità delle forme e dalla povertà del materiale era l'enorme catenaccio di ferro che correva lungo gli sportelli dell'armadio a muro non essendo vendibile sul mercato ordinario a causa delle sue proporzioni imponenti era stato ceduto al professore per pochi spiccioli da un mercante marittimo nell'est di Londra la stanza era ampia pulita dignitosa e povera di quella povertà che fa pensare all'uomo privo di tutto fuorché di semplice pane niente alle pareti fuorché il rivestimento di carta verde arsenico chiazzata qua e ladi macchie nere indelebili e di altre simili sbiadite carte geografiche di continenti inabitati a una tavola di legno grezzo davanti alla finestra sedeva il compagno Sipon stretta la testa fra i pugni chiusi il professore con indosso l'unico suo completo a quadri di stoffa glossolana strascicava avanti e indietro sulle nude tavole dell'impiantito un paio di pantofole incredibilmente malconce tenendo le mani profondamente immerse nelle tasche della giacca sgualcite e sformate stava facendo all'ospite robusto il resoconto di una sua recente visita all'apostolo Michaelis l'anarchico perfetto si stava permettendo addirittura un contegno meno inflessibile del solito quel bel tipo non sapeva nulla della morte di Verloc naturale non guarda mai i giornali dice che danno troppa tristezza poco importa io sono entrato nel suo casotto e non ho visto un'anima ho dovuto gridare una mezza dozzina di volte prima che lui mi rispondesse ho pensato che fosse a letto e che dormisse come un ghiro niente affatto stava scrivendo il suo libro già da quattro ore seduto in una specie di gabbiuzza in mezzo a mucchi di carta scritta c'era lì sulla tavola accanto a lui una carota cruda mezza rosicchiata la sua prima colazione vive di carote crude e un po' di latte è la sua dieta attuale che aspetto ha ora domandò il compagno Sipon distrattamente angelico ho raccattato qualcuno dei fogli sparsi sul pavimento è incredibile la meschinità del suo modo di ragionare non ha logica non è capace di concatenare i pensieri ma questo è nulla ha diviso l'autobiografia in tre parti intitolate fede speranza carità sta elaborando ora l'idea di un mondo prospettato come un immenso simpatico ospedale circondato da giardini fioriti dove i forti dovranno dedicarsi a coccolare i deboli una pausa puoi concepire una tale assurdità Sipon deboli la fonte di tutto il male che esiste sulla terra continuò con la sua sicurezza feroce io invece gli ho detto sognavo un mondo simile a un macello dove ci si potesse impadronire dei deboli per sterminarli completamente mi intendi Ossipon la fonte di tutto il male i deboli i fiacchi i vili gli sciocchi i timidi di cuore gli uomini schiavi della mente sono questi i nostri padroni funesti hanno il potere nelle loro mani sono la moltitudine a loro appartiene il regno terrestre sterminarli sterminarli è l'unica via per il progresso l'unica segui il mio ragionamento Sipon deve sparire prima di tutto la grande moltitudine dei deboli poi tutti coloro che sono relativamente forti vedi prima il cieco poi il sordomuto poi lo storpio lo zoppo e così via ogni difetto ogni vizio ogni pregiudizio ogni convenzione deve trovare la propria condanna e che cosa rimane allora chiesò Sipon con voce soffocata rimango io se sono forte abbastanza asserì il professore dalla faccia giallastra dalle orecchie grandi sottili come membrane largamente sporgenti ai due lati del cranio fragile e mentre diceva così quelle orecchie si colorirono improvvisamente di una tinta rosso cupa non ho forse sofferto abbastanza sotto questa pressione dei deboli riprese con impeto poi picchiando le dita sul taschino della giacca eppure io sono la forza protestò ma il tempo il tempo datemi il tempo quella moltitudine troppo stupida anche per provare pietà o timore penso alle volte che abbiano tutto dalla loro parte tutto anche la morte la mia arma vieni a bere una birra con me al silenus disse il robusto sipon dopo un intervallo di silenzio pervaso dal rapido ciabattio del perfetto anarchico che passeggiava su e giù per la stanza in pantofole quest'ultimo accettò era d'umore gioviale quel giorno alla sua maniera batte una mano sulla spalla del compagno birra e sia beviamo e stiamo allegri perché siamo forti e domani morremo si dette da fare per infilarsi le scarpe senza smettere perciò di discorrere col suo stile breve e risoluto ossipon che ti capita hai un'area malinconica tanto che cerchi persino la mia compagnia ho sentito dire che ti si vede continuamente in quei locali dove la gente beve liquori e dietro il bicchierino racconta le cose più sciocche perché hai abbandonato la tua collezione di donne sono i deboli che nutriscono i forti vero batte un piede in terra e raccolse l'altro stivaletto pesante con la suola grossa non lucidato riaccomodato più volte sorrise a se stesso con un ghigno feroce dimmi ossipon uomo terribile sei mai uccisa per te una delle tue vittime oppure i tuoi trionfi sono sotto questo punto di vista incompleti perché solo il sangue è suggello della grandezza vera il sangue la morte basta guardare la storia va all'inferno disse ossipon senza nemmeno voltare il capo perché lascia codesta speranza al debole la cui teologia ha inventato l'inferno per il forte ossipon ciò che io provo verso di te è un disprezzo amichevole tu non saresti capace di ammazzare una mosca ma trottando verso l'orza sull'imperiare dell'omnibus il professore perse il suo buon umore la contemplazione delle moltitudini che si affollavano sull'astrico soffocò quel suo spirito così sicuro di sé sotto un carico di dubbi ed intimo malessere che in genere gli riusciva di scuotere solo dopo aver passato un po' di tempo isolato dal mondo nella stanza quel grande armadio a muro chiuso da un catenaccio enorme e così gli disse sopra la spalla il compagno sipon che sedeva dietro di lui e così michaelis sogna un mondo simile a un ospedale bello e piacevole proprio così un'immensa istituzione benefica per risanare il debole assentì il professore sardonico codesto sciocco ammiso sipon la debolezza non potrà mai guarire e dopo tutto può darsi che michaelis non abbia tutti i torti da quel punto di vista tra 200 anni i medici governeranno il mondo già ora regna la scienza nell'ombra forse ma regna e tutta quanta la scienza deve alla fine culminare nella capacità di dar salute agli uomini non ai deboli ai forti l'umanità vuol vivere vivere l'umanità dichiarò il professore con una scintilla nelle lenti dal cerchio metallico una scintilla che esprimeva la sua fiducia in se stesso l'umanità non sa quello che vuole ma tu lo sai grugnò sipon proprio ora gridavi che ti si dia tempo il tempo bene i medici ti regaleranno tutto il tempo che desideri se sarai buono tu ti professi un forte solo perché ti porti in tasca della roba quanto basta per spedirti all'eternità te e mettiamo un'altra ventina di persone ma l'eternità non è che un maledetto vuoto è il tempo che ti occorre tu se tu facessi tanto di incontrare un uomo che ti assicura dieci anni di tempo lo considereresti tuo padrone nessun dio nessun padrone questa è la mia divisa sentenzò il professore mentre si alzava per scendere dall'omnibus ossipon lo seguì aspetta a dirlo quando sarai disteso piatto sulla schiena e il tuo tempo sarà finito replicò saltando giù dal predellino dietro di lui il tuo misero meschino rognoso brincello di tempo continuò attraversando la strada e salendo con uno sgambetto sul marciapiede ossipon credo che tu sia un ciarlatano disse il professore mentre con aria da padrone apriva la porta del rinomato silenus quando poi si furono sistemati al tavolino egli sviluppò più ampiamente questa graziosa idea non sei nemmeno un dottore sei buffo però la tua concezione di un'umanità che per l'universo intero caccia fuori la lingua e inghiotte la sua brava pillola da un polo all'altro polo obbedendo al cenno di qualche solenne buffone è davvero degna di un profeta le profezie a che serve pensare a quel che sarà alzò il bicchiere alla distruzione di ciò che è disse calmo beve e ricadde in uno di quei suoi silenzi particolarmente ermetici il pensiero di un'umanità molteplice come la sabbia delle spiagge marine e altrettanto indistruttibile altrettanto difficile a maneggiare lo primeva il frastuono di bombe che esplodono si perde senza un eco in questa immensità composta di innumerevoli granelli passivi per esempio quell'affare di Verloc chi ci pensava più ormai quasi costretto improvvisamente da una forza misteriosa ossipa un caccio fuori di tasca un giornale ripiegato più volte il professore alzò il capo e il fruscio cos'è quel giornale c'è nulla Costi interrogò ossipon si riscosse come un sonnambulo spaurito nulla assolutamente nulla è di dieci giorni fa l'avevo dimenticato in tasca se non sbaglio ma non lo gettò via per quanto vecchio prima di rimetterlo in tasca dette un'occhiata di sfuggita alle ultime righe di un paragrafo dicevano quest'atto di follia o di disperazione sembra destinato a rimanere avvolto per sempre in un impenetrabile mistero tale suonava la conclusione di un articoletto di cronaca intitolato viaggiatrice che si uccide durante la traversata della manica erano familiari al compagno ossipon le bellezze di quel certo stile giornalistico avvolto per sempre in un impenetrabile mistero sapeva mente il paragrafo parola per parola quest'atto di follia o di disperazione il robusto anarchico lasciò cadere la testa sul petto e si abbandonò a una lunga fantasticheria questo fatto minacciava in lui le sorgenti stesse dell'esistenza non poteva più uscire per incontrarsi con le sue varie conquiste quelle che gli corteggiava sulle panchine del Kensington Gardens o quelle che trovava lungo la cancellata senza sentirsi preso dal timore di cominciare a parlar loro di un impenetrabile mistero era un timore scientifico il timore dell'insania che si nascondeva in agguato contro di lui fra quelle righe destinato a restare per sempre avvolto era un'ossessione una tortura ultimamente era mancato a parecchi di quegli appuntamenti caratterizzati per solito da un'illimitata fiducia nel linguaggio del sentimento e della tenerezza virile la tendenza alla fiducia propria di varie categorie di donne soddisfaceva i bisogni del suo amor proprio e gli metteva in mano un po' di denaro quella fiducia gli necessitava per vivere finora non gli era mai venuta meno ma se un giorno non avesse potuto più servirsene correva il rischio di ridurre alla fame il suo corpo e i suoi ideali quest'atto di follia o di disperazione sarebbe rimasto avvolto per sempre in un impenetrabile mistero senza dubbio per quanto riguardava l'umanità in generale ma che sarebbe accaduto se lui solo fra tutti gli uomini non fosse riuscito mai a liberarsi da quella maledetta conoscenza e la sua conoscenza del fatto era tanto esatta quanto mai avrebbe potuto esserlo quella del giornalista proprio alla soglia dell'impenetrabile mistero il compagno Sipon era bene informato egli sapeva tutto ciò che aveva veduto l'uomo di servizio alla passerella del vaporetto una signora in abito nero e velo nero si aggira a mezzanotte lungo la banchina deve prendere il battello signora l'uomo si informa incoraggiante da questa parte ma la donna ha l'aria di non sapere che cosa fare l'uomo l'aiuta a scendere a bordo sembra debole e stanca sapeva anche il compagno Sipon ciò che aveva visto la cameriera di bordo una signora in nero alla faccia bianca in piedi in mezzo alla cabina per signore vuota la cameriera le consiglia di stendersi lì per riposare si direbbe che la signora non abbia alcuna voglia di discorrere come se qualcosa di tremendo l'agitasse internamente poco dopo la cameriera viene a sapere che la signora non si trova più nella cabina va sul ponte a cercarla e il compagno Sipon sapeva che la brava donna aveva trovato l'infelice distesa sopra uno dei sedili di legno teneva gli occhi aperti ma non aveva risposto una parola a ciò che le veniva detto pareva molto malata la cameriera aveva allora cercato il primo cameriere di bordo e tutte e due stando lì in piedi accanto al banco di legno si erano consultati intorno a quella straordinaria tragica passeggera avevano parlato a bassa voce ma le loro parole erano audibili ed altronde la pareva ormai incapace di sentire avevano parlato di Saint Malot e del console che risiede laggiù e della possibilità di mettersi in comunicazione con la famiglia di lei in Inghilterra si erano poi allontanati per prepararle una cabina sotto coperta perché a giudicare dalla sua faccia ella sembrava addirittura moribonda ma il compagno Sipon sapeva che dietro quella bianca maschera della disperazione c'era un vigore vitale che combatteva contro la disperazione stessa e contro il terrore un amore della vita capace di sopravvivere allo spasimo di furore che tracina l'assassinio capace di resistere anche alla paura la cieca pazza paura del patibolo egli sapeva ma la cameriera e il capo cameriere non erano a conoscenza di nulla essi sapevano solo che ritornando sul ponte dopo nemmeno cinque minuti non avevano più trovato la signora sul banco di legno né lì né altrove se n'era andata erano le cinque di mattina e ancora non ci si era resi conto di nessuna disgrazia solo un'ora dopo uno degli uomini del battello aveva trovato un anello matrimoniale abbandonato sul sedile in un punto umido era rimasto incollato al legno e il suo luccichio aveva attirato l'attenzione di costui nell'interno era incisa la data 24 giugno 1879 destinato a restare per sempre avvolto in un impenetrabile mistero il compagno Sipon rialzò la testa che aveva attenuto Kina fino allora quella testa amata da tante umidi donne delle isole britanniche appollinea nella bellezza solare del suo cespuglio di capelli biondi frattanto il professore cominciava a sentirsi irrequieto si alzò rimani esclamò Sipon precipitosamente e dimmi un poco che sai tu a proposito della follia e della disperazione il professore si passò la punta della lingua sulle labbra aride sottili poi disse in tono dottorale cose tali non esistono si è perduta oramai ogni capacità di passione il mondo è mediocre flaccido senza forza e la follia e la disperazione sono una forza e la forza è un delitto davanti agli idioti ai deboli agli sciocchi che governano il pollaio tu sei un mediocre per lo che in cui caso la polizia ha trovato modo di soffocare così abilmente era un mediocre e la polizia l'ha assassinato era un mediocre tutti sono mediocri follia e disperazione datemele come leva e vi solleverò il mondo o Sipon il mio più cordiale disprezzo per te tu sei persino incapace di concepire ciò che il grasso borghese definisce un crimine non hai forza tu tacque con un sorrisetto sardonico dietro il bagliore feroce delle grosse lenti e permettimi di osservare che quella piccola eredità che a quanto si dice ti è toccata non ha per niente avvantaggiato la tua intelligenza stai lì seduto davanti alla birra come un fantoccio addio ti piacerebbe daverla disse Sipon alzandogli in faccia gli occhi con un ghigno ebete avere che cosa l'eredità tutta quanta l'incorruttibile professore si contentò di sorridere i suoi abiti erano tutt'altro che in buone condizioni le sue scarpe tutte sformate a forza di riparazioni pesanti come il piombo lasciavano entrare l'acqua ad ogni passo disse a proposito devo mandarti un conticino per certi prodotti chimici che ordinerò domani ne ho terribilmente bisogno capito vero o Sipon abbassò il capo lentamente era solo un impenetrabile mistero gli pareva che sospeso a mezz'aria davanti a lui il suo stesso cervello pulsasse col ritmo di un mistero impenetrabile non stava bene era chiaro quest'atto di follia o di disperazione la pianola vicino alla porta suonò dal principio alla fine un waltzer col suo timbro sfacciato poi precipitò nel silenzio d'un tratto come se fosse di cattivo umore il compagno Sipon di soprannome il dottore uscì dalla birreria del Silenus giunto alla porta esitò strezzando gli occhi come davanti a un sole non troppo splendido e il giornale in cui si riferiva il suicidio di una signora era nel suo taschino il cuore gli batteva contro quel giornale il suicidio di una signora quest'atto di follia o di disperazione si inoltrò nella strada senza guardare dove metteva i piedi si inoltrò nella direzione contraria a quella che doveva condurlo al luogo dell'appuntamento con un'altra signora una bambinaia vecchiotta che riponeva tutta la sua fiducia in quella testa pollinea profumata d'ambrosia fuggiva lontano da quel luogo non era più capace di trovarsi faccia a faccia con una donna e ciò voleva dire la sua rovina non gli riusciva più di pensare né di lavorare non poteva mangiare né dormire soltanto aveva cominciato a bere con gusto un gusto anticipato dal piacere della speranza era la rovina la sua carriera rivoluzionaria sostenuta dal sentimento e dalla fiducia di molte donne veniva minacciata da un mistero impenetrabile il mistero di un cervello umano che pulsava con un ritmo irregolare il ritmo del frasario giornalistico quest'atto di follia o di disperazione ora il cervello pendeva verso il rigagnolo della strada sembra destinato per sempre devo essere sinceramente malato borbottò fra sé con scientifico discernimento già la sua figura robusta con in tasca il denaro del servizio segreto di un'ambasciata ereditato da mister verloc avanzava lungo il rigagnolo come se si allenasse per un lavoro futuro inevitabile già le sue larghe spalle e la testa dalla chioma inanellata profumata d'ambrosia si piegavano come si piega sotto il gioco di cuoio l'uomo reclam che porta in giro un cartello per le strade come quell'altra notte più di una settimana prima il compagno sipon camminò senza sapere dove metteva i piedi e non provava fatica non sentiva nulla non vedeva nulla non sentiva alcun suono un impenetrabile mistero camminava senza conoscenza quest'atto di follia o di disperazione anche l'incorruttibile professore camminava evitando di guardare le odiose masse del genere umano il futuro non esisteva per lui disprezzava il futuro egli era una forza accarezzava nella sua mente immagini di rovina e di distruzione mentre avanzava fragile insignificante misore meschino terribile nella semplicità di un'idea la follia e la disperazione chiamate a rigenerare il mondo nessuno si curava di lui e gli passava in sospettato e micidiale come la peste nella strada piena di esseri umani di un'idea di un'idea di un'idea